L'editore al lettore L'autore di questi viaggi, il signor Lemuel Gulliver, è mio vecchio e intimo amico. Vi è anche fra noi qualche legame di parentela da parte di madre. Circa tre anni fa, il signor Gulliver, stanco del continuo viavai di curiosi che venivano ad importunarlo nella sua casa di Red Reef, acquistò un piccolo terreno e una comoda casetta vicino a Newark, nel Nottinghamshire, sua regione natale. E là vive molto appartato, ma tuttavia stimato dai suoi vicini. Sebbene il signor Gulliver sia nato nel Nottinghamshire, dove abitava suo padre, lo ho tuttavia udito dire che la sua famiglia è oriunda dell'Oxfordshire e, a conferma di ciò, ho notato nel cimitero di Banbury, in quella contea, varie tombe e monumenti dei Gulliver. Prima di lasciar Red Reef, egli rimise nelle mie mani i fogli che seguono, con la libertà di farne l'uso che credessi più opportuno. Per ben tre volte li ho esaminati con la massima cura. Lo stile è semplice e chiaro, e l'unica pecca che vi ho trovato è che l'autore, come sogliono i viaggiatori, concede un po' troppo ai particolari. Dall'insieme ispira un'aria di schietta verità, e in vero l'autore era così noto per il suo candore che tra i suoi vicini di Red Reef era divenuto quasi un proverbio per dar forza a qualche affermazione l'aggiungere che era vera come se l'avesse detta il signor Gulliver. Ligio ai consigli di parecchie degne persone a cui col permesso dell'autore ho mostrato queste carte. Mi arrischio ora a mandarle per il mondo, sperando che, se non altro, esse possano almeno offrire, per qualche tempo, ai giovani della nostra nobiltà, un passatempo un po' migliore dei soliti scarabocchi di politica e di partito. Questo volume sarebbe risultato perlomeno due volte più lungo se non avessi tagliato arditamente innumerevoli passaggi relativi ai venti e alle maree, ai mutamenti di rotta e di orientamento nelle varie traversate, nonché le minuziose descrizioni della condotta della nave nelle tempeste, tutte in gergo marinaro. Ho eliminato del pari le annotazioni delle latitudini e delle longitudini, cosa di cui ho qualche ragione per temere che il signor Gulliver non sia molto soddisfatto, ma ero deciso ad adeguare l'opera, per quanto possibile, alla normale capacità dei lettori. Comunque, se la mia ignoranza in questioni marinare mi ha fatto cadere in qualche errore, io solo ne sono responsabile, e se qualche viaggiatore ha la curiosità di esaminare l'opera per intero, quale è uscita dalle mani dell'autore, sarò lieto di favorirlo. Quanto agli ulteriori particolari relativi all'autore, il lettore ne sarà soddisfatto nelle prime pagine del presente volume. Richard Simpson Lettera del Capitano Gulliver a suo cugino Simpson, scritta nell'anno 1727. 2 aprile 1727 Spero che siete pronto a riconoscere pubblicamente, ogni qualvolta ne siate richiesto, di avermi spinto, con le vostre continue e ostinate insistenze, a lasciar pubblicare un resoconto dei miei viaggi, tirato giù alla buona e quasi scorretto, con l'intesa che si ingaggiasse qualche giovin signore di una delle due università per metterlo in sesto e correggerne lo stile, come fece per mio consiglio mio cugino Dampier nel suo libro intitolato Viaggio intorno al mondo. Ma non ricordo di avervi dato facoltà di consentire che qualche cosa ne fosse tolta, e tanto meno che qualche cosa vi fosse inserita. Di conseguenza, per quel che riguarda questo secondo punto, io respingo qui ogni aggiunta del genere, e in particolare un paragrafo relativo a Sua Maestà alla defunta Regina Anna di Pia e gloriosa memoria, sebbene io l'abbia venerata e stimata più di ogni altro essere umano. Ma voi, o il vostro interpolatore, avreste dovuto considerare che era ugualmente lungi dalle mie intenzioni e dalla decenza ad esser l'elogio di un qualunque animale della nostra fattura davanti al mio padrone Hoinom, senza contare che l'episodio era del tutto falso, perché per quanto sappia, avendo dimorato in Inghilterra durante una parte del regno di Sua Maestà, essa governò per mezzo di un primo ministro, anzi, di due, che si succedettero. Il primo dei quali fu il lord di Godolphin e il secondo il lord di Oxford, cosicché mi avete fatto dire la cosa che non era. Parimenti, nel mio resoconto sull'Accademia dei Progettisti e in vari passi del mio discorso al mio padrone Hoinom, voi avete tralasciato alcune circostanze di fatto o lo avete confuse o mutate in modo che io stesso stento a riconoscere la mia opera. Quando io, tempo addietro, vi accennai a qualche cosa di ciò in una mia lettera, vi contentaste di rispondermi che avevate paura di recare offesa, che i potenti vigilano attentamente la stampa sempre pronti non solo ad afferrare, ma anche a punire tutto ciò che somiglia ad un innuendo, mi sembra che lo chiamate così. Ma di grazia, quello che io ho detto tanti anni fa, a circa 5.000 leghe di distanza, in una nazione straniera, come si potrebbe applicare a qualcuno di quegli Yahoo che, a quanto si dice, governano attualmente le masse? Specialmente in un tempo in cui pensavo assai poco alla sventura di vivere sotto di loro e poco la temevo. Non ho forse tutte le ragioni di lamentarmi quando vedo questi veri e propri Yahoo andare in carrozza attraenati da Hoinom come se questi fossero bruti e quelle creature ragionevoli? Davvero, una delle principali ragioni che mi hanno indotto ad isolarmi in questo ritiro è stato il desiderio di sottrarmi ad una vista così mostruosa e vituperevole. Questo ho creduto necessario dirvi per quel che riguarda voi e la fiducia che in voi avevo riposto. In secondo luogo, devo deplorare l'enorme sciocchezza da me stesso compiuta nel lasciarmi indurre dalle insistenze e dai falsi ragionamenti vostri e di qualche altro del tutto contrario alla mia opinione a permettere che i miei viaggi fossero pubblicati. Vi prego di portarvi a mente quante volte vi ho invitato a considerare, quando voi insistevate sul motivo del pubblico bene, che gli Yahoo sono una specie di animali assolutamente incapaci di emendarsi mediante precetti ed esempi e così è stato confermato. Perché? Invece di veder porre un punto fermo a tutti gli abusi e a tutte le corruzioni, almeno su questo nostro isolotto, come a buona ragione mi aspettavo, ecco che dopo circa sei mesi di ammaestramento non posso constatare che il mio libro abbia prodotto un solo effetto consono alle mie intenzioni. Avrei voluto che mi faceste sapere per lettera quando fossero stati aboliti i partiti e le fazioni, quando i giudici fossero divenuti dotti e integri, gli avvocati onesti e modesti, con qualche leggera sfumatura di senso comune, e quando fossero stati fatti nel prato di Smithfield tanti bei falò di piramidi di libri legali, quando mutata da capo a fondo l'educazione della giovane nobiltà, messi al bando i medici, le femmine degli Yahoo divenute ricche di vertù, onore, sincerità e buonsenso, estirpati e spazzati via le corti e i ricevimenti mattutini dei ministri, riconosciuti lo spirito, il merito e la dottrina, e infine tutti coloro che disonorano la stampa in versi e in prosa condannati a non mangiare altro che la loro cartaccia e a saziare con il loro inchiostro la loro sete. Su queste e su mille altre riforme io fermamente contavo fondandomi sul vostro incoraggiamento, e davvero si potevano facilmente dedurre dai precetti profusi nel mio libro, e bisogna riconoscere che alcuni mesi sarebbero stati più che sufficienti per correggere ogni vizio e follia a cui gli Yahoo sono soggetti, se queste nature fossero state capaci della minima disposizione alla virtù o alla saggezza. E tuttavia, siete stato così lontano dal rispondere alla mia aspettativa in qualche lettera, che al contrario caricate ogni settimana il nostro corriere di libelli e interpretazioni e riflessioni e memorie e continuazioni nelle quali mi vedo accusato di censurare grandi uomini di stato, di avvilire l'umana natura, perché hanno ancora l'impudenza di chiamarla così, di insultare il gentil sesso. Trovo anche che gli scrittori di questi centoni non vanno nemmeno d'accordo fra loro, perché alcuni non mi concedono di essere l'autore dei miei viaggi, altri mi fanno autore di libri con cui non ho nulla a che fare. Egualmente vedo che il vostro stampatore è stato così trascurato da confondere i tempi e sbagliare le date dei miei vari viaggi e ritorni, non assegnando loro nell'anno giusto, né il giusto mese, né il giorno del mese. E son venuto a sapere che il mio manoscritto originale è andato totalmente distrutto dal giorno della pubblicazione del mio libro. A me non è restata copia. Comunque, vi ho mandato alcune correzioni che voi potrete inserire semmai vi sarà una seconda edizione. Tuttavia, non posso limitarmi ad esse, ma lascerò la cosa ai miei giudiziosi e candidi lettori perché la giustino come meglio credono. Sento che alcuni dei nostri yahoo di mare trovano errori nel mio linguaggio marinaro giudicandole in proprio e in molte parti e non più in uso. Non posso evitarlo. Nei miei primi viaggi, quando ero giovane, fu istruito dai marinai più vecchi e imparai a parlare come loro. Ma in seguito, mi sono accorto che gli yahoo di mare, come quelli di terra, tendono ad introdurre innovazioni nel loro modo di esprimersi, le quali cambiano di anno in anno in tal modo che, ad ogni ritorno nel mio paese, ricordo che trovavo così alterato il vecchio daletto da poter a stento capire il nuovo. E ho osservato che, quando qualche yahoo viene per curiosità da Londra a visitarmi in casa mia, nessuno di noi due riesce ad esprimere i propri concetti in modo intelligibile all'altro. Se le censure degli yahoo potessero in qualche modo toccarmi, avrei serio motivo di lagnarmi che taluni di loro siano così impudenti da ritenere il mio libro di viaggi una pura invenzione. Parto del mio cervello. E sono arrivati al punto di insinuare che gli oinom e gli yahoo non esistono più degli abitanti di utopia. In vero devo confessare che quanto agli abitanti di Lilliput, Brobdingnag, perché così avrebbe dovuto essere scritta la parola e non erroneamente Brobdingnag, e la puta, non ho ancora udito di alcuno yahoo tanto presuntuoso da mettere in dubbio la loro esistenza o i fatti che ho riferito al loro riguardo. Che la verità balza immediatamente agli occhi e convince ogni lettore. E c'è forse minor verosimiglianza nella mia relazione sugli oinom o sugli yahoo, mentre quanto a questi ultimi è evidente che ve ne sono molte migliaia anche in questa città, diversi dai loro fratelli bruti di oinomlandia solo perché usano una specie di borbottio e non vanno in giro nudi? Io ho scritto per il loro emendamento e non per la loro approvazione. Le lodi unanime dell'intera razza avrebbero per me assai minor peso del nitrito di quei due oinom degenerati che ho nella stalla, perché da loro, degenerati come sono, posso trarre esempi per migliorarmi in qualche virtù senza macchiarmi di alcun vizio. Presumono forse, questi miserabili animali, che io sia così degenerato da difendere la mia serenità? Yahoo come sono è tuttavia ben risaputo per tutta oinomlandia che, grazie agli ammaestramenti e all'esempio del mio illustre padrone, sono riuscito nel giro di due anni, sebbene lo confesso con la massima difficoltà, a sveller da me l'infernale abitudine di mentire, truffare, ingannare e fare equivoci così profondamente radicata nell'anima di tutta la mia specie e in particolare degli europei. Avrei altri motivi per lamentarmi in questa spiacevole occasione, ma non voglio annoiare oltre me e voi. Devo sinceramente confessare che dopo il mio ultimo ritorno alcune tendenze corrotte della mia natura di Yahoo sono riaffiorate in me, conversando con alcuni della vostra specie, in particolare della mia famiglia, per inevitabile necessità. Altrimenti non avrei mai concepito un progetto assurdo come quello di riformare la razza Yahoo in questo reame, ma mi sono ormai sbarazzato per sempre di tali propositi da visionario. Parte prima Viaggio a Lilliput Capitolo primo L'autore dà alcune notizie su di sé e la sua famiglia. Primi motivi che lo indussero a viaggiare. Fa naufragio e si salva a nuoto. Giunge a salvamento sulla spiaggia di Lilliput e fatto prigioniero e portato nell'interno della regione. Mio padre aveva una piccola proprietà nel Nottinghamshire. Io ero il terzo dei suoi cinque figli. Mi mandò, quattordicenne, al Collegio Emanuel di Cambridge e là io rimasi tre anni applicandomi assiduamente agli studi. Ma le spese del mio mantenimento, sebbene godessi di un trattamento ben magro, erano troppo gravose per la sua modesta fortuna. E io fui costretto a fare il mio noviziato dal signor James Bates, eminente chirurgo di Londra, col quale rimasi quattro anni. Di tanto in tanto mio padre mi inviava a qualche sommetta ed io me ne servivo per studiare navigazione e le altre scienze matematiche necessarie a chi vuole mettersi in mare. Pensando che prima o poi sarebbe stato quello il mio destino. Lasciato il signor Bates tornai da mio padre e lì, con l'aiuto suo, di mio zio John e di qualche altro parente, misi insieme quaranta sterline con la promessa di altre trenta sterline l'anno per poter vivere a Leida. In questa città studiai medicina due anni e sette mesi, persuaso che quell'arte mi sarebbe stata utile nei lunghi viaggi. Subito dopo il mio ritorno da Leida, per raccomandazione del mio buon maestro il signor Bates, fui assunto come chirurgo sulla rondine, comandata dal capitano Abraham Pannell. Con lui rimasi tre anni e mezzo e andai uno o due volte nel Levante e in vari altri luoghi. Tornato in patria, decisi di stabilirmi a Londra e il signor Bates, mio maestro, mi incoraggiò a prendere questo partito e mi raccomandò ad alcuni dei suoi malati. Presi in affitto un appartamentino nel quartiere di Old Jury e poiché mi consigliavano di mutare stato, sposai la signorina Mary Barton, seconda figlia del signor Edmund Barton, calzettaio di Newgate Street, la quale mi portò in dote 400 sterline. Ma il mio buon maestro Bates morì due anni dopo. Io avevo pochi amici e i miei affari cominciarono ad andare male. La coscienza mi impediva di imitare gli indegni sistemi di troppi miei confratelli. Risolsi così, dopo essermi consultato con mia moglie e con qualche amico, di rimettermi in mare. Fui successivamente chirurgo su due vascelli e per sei anni feci molti viaggi nelle Indie orientali e occidentali, aumentando un po' il mio peculio. Trascorrevo le mie ore d'ozio leggendo i migliori autori antichi e moderni, poiché portavo sempre con me un buon numero di volumi. E quando scendevo a terra non trascuravo di osservare i costumi e le tendenze dei vari popoli e di studiarne e la lingua. Cosa che facevo senza difficoltà grazie alla mia memoria eccellente. L'ultimo di questi viaggi non fu molto fortunato. Io mi stancai del mare e decisi di restare a casa con mia moglie e la mia famiglia. Lasciai all jury per Fetter Lane e di qui andai più tardi a Whopping nella speranza di farmi una clientela tra i marinai. Ma non mi andò bene. Dopo aver aspettato per tre anni che le cose prendessero una miglior piega accettai una vantaggiosa offerta del capitano William Pritchard comandante dell'antilope che stava per salpare per i mari del sud. Facemmo vela da Bristol il 4 maggio del 1699 e il viaggio fu dapprima assai felice. Sarebbe davvero inutile annoiare il lettore con i particolari delle nostre avventure in questi mari. Basterà informarlo che passando nelle Indie orientali fummo spinti da una violenta tempesta a nord-ovest della terra di Van Diemen. Ci trovavamo allora a 30 gradi e due minuti di latitudine sud. 12 dei nostri uomini erano morti per eccesso di fatica e cattivo nutrimento. Gli altri erano assolutamente esausti. Il 5 novembre inizio dell'estate in quei paesi il cielo era così fosco di nebbie che i marinai scorsero una roccia solo quando non distava da noi più di una mezza gomena e così impetuoso era il vento che vi fummo spinti direttamente contro e subito la nave andò in pezzi. Sei dell'equipaggio fra i quali mi trovavo riusciti a mettere in mare una scialuppa trovarono il modo di sbarazzarsi della nave e dello scoglio. Remammo a occhio e croce per circa tre leghe finché già stremati dalla fatica fin da quando eravamo sul vascello non potemmo continuare oltre. Ci abbandonammo dunque alla mercè delle onde e circa una mezz'ora dopo la scialuppa fu rovesciata da un improvviso colpo di vento proveniente dal nord. Non posso dire quel che avvenne dei miei compagni di scialuppa e nemmeno di quelli che si salvarono sullo scoglio o che rimasero nella nave ma penso che siano tutti periti. Per conto mio nuotai a caso e fui spinto verso terra dal vento e dalla marea. spesso lasciavo cadere le gambe senza però toccare fondo ma quando già mi sentivo perduto e incapace di lottare ancora mi accorsi di toccare. Frattanto la tempesta si era molto placata. La pendenza del fondo era così leggera che camminai circa un miglio prima di raggiungere la spiaggia. Pensai che dovevano essere circa le otto di sera. Mi inoltrai allora per circa un mezzo miglio ma non scorsi traccia di abitazioni né di abitanti. per lo meno ero così estenuato che non me ne accorsi. Stanco morto com'ero e per di più in una giornata calda e con in corpo circa mezza pinta di acquavite che avevo bevuto nell'abbandonare la nave senti una gran voglia di dormire. Mi sdraiai sull'erba finissima e soffice e caddi nel più profondo sonno che mi ricordassi di aver mai gustato in vita mia. A conti fatti dovette durare un nove ore perché quando mi svegliai era giorno. cercai di alzarmi ma non riuscì a far gesto. Mi ero coricato sul dorso e mi accorsi di aver le braccia e le gambe solidamente legate a terra dai due lati. Anche i capelli che avevo lunghi e folti erano assicurati al suolo in egual modo. Sentii anche vari sottili legami che mi passavano sopra il corpo dalle ascelle alle cosce. Potevo solo guardare in alto ma il sole cominciava a farsi caldo e mi offendeva gli occhi col suo splendore. Udivo intorno a me un confuso vocio ma nella postazione in cui giacevo non potevo vedere che il cielo. Poco dopo sentii qualche cosa di vivo che si muoveva sulla mia gamba sinistra e camminandomi piano sul petto mi arrivava quasi al mento. Allora volgendo gli occhi in giù più che potevo scorsi una creatura umana alta nemmeno sei pollici con in mano un arco e una freccia e una faretra sulle spalle. Nello stesso tempo sentii che almeno una quarantina della stessa specie a quanto supponevo seguivano il primo. Stordito dallo stupore gettai un tal grido che tutti se la diedero a gambe atterriti e alcuni di loro come mi fu detto più tardi si accolparon mezzi nel balzare precipitosamente a terra giù dal mio corpo. Comunque tornaron presto e uno di loro che aveva osato farsi tanto avanti da poter dare un'occhiata d'insieme al mio volto alzò al cielo le mani e gli occhi in segno di ammirazione e gridò con una vocetta aspra ma chiara Hekina Degul gli altri ripeteron più volte le stesse parole ma allora non potevo capire quel che significassero. Per tutto questo tempo come il lettore può immaginare io me ne stavo in una posizione molto scomoda finalmente nei miei sforzi per liberarmi riuscì a spezzare le cordicelle e a svellere le caviglie che mi tenevano ancorato a terra il braccio sinistro avevo infatti potuto vedere alzandolo fino al volto che il sistema aveva mantenuto per legarmi a quel modo e in egual tempo con una scossa violenta che mi causò un vivo dolore allentai un po' con gli spaghi che mi tendevano i capelli a sinistra potei così volgere la testa di un paio di pollici ma quegli esserini scapparono ancora via prima che potessi acchiapparli vi fu allora un gran baccano di voci stridule e quando si fu placato udì uno di loro gridar forte tolgo fonac in un attimo mi sentì scaricare sulla mano sinistra circa un centinaio di frecce che mi bucarono come tanti aghi tirarono poi un'altra scarica in aria come in Europa facciamo con le bombe e credo che una buona parte me ne ricadesse sul corpo sebbene non me ne accorgessi parte invece me ne sentì arrivare in faccia e mi riparai subito con la sinistra finita questa grandine di frecce io diedi un gemito di dolore e di angoscia e cercai ancora di liberarmi ma quelli scaricarono un'altra salva ancora più grande della prima e qualcuno cercò di ficcarmi la lancia nei fianchi per fortuna avevo una casacca di cuoio di bufalo che non potevano forare giudicai più prudente e starmene tranquillo e rimaner così fino a notte allora avendo già libero il braccio sinistro avrei potuto facilmente liberarmi e quanto agli abitanti avevo buone ragioni per credere di poter far fronte alle più grandi armate che mi si schierassero contro se erano tutti delle stesse dimensioni di quelli che avevo visto ma la fortuna aveva disposto altrimenti quando quel popolo si accorse che mi ero calmato smise di dardeggiarmi ma dal rumore che udivo mi accorsi che la folla aumentava sempre più e a circa quattro yardi da me in direzione del mio orecchio destro udì per più di un'ora un martellio come di gente che lavora quando volsi la testa per quanto me lo permettevano gli spaghi e i cavicchi vidi un palco alto circa un piede e mezzo da terra capace di contenere quattro di quegli abitanti e fornito di due o tre scale per montarvi di lì uno di loro che sembrava essere un altro personaggio mi rivolse una lunga allocuzione di cui non capì una sillaba dimenticavo di dire che quella personalità prima di iniziare la sua orazione aveva gridato tre volte Langro de Hulsan queste parole e le precedenti mi furono poi ripetute e spiegate subito una cinquantina circa di quei nativi si erano avvicinati e avevano tagliato gli spaghi che mi legavano al lato sinistro della testa dannomi così la libertà di volgermi verso destra e di osservare l'aspetto e i gesti di quello che doveva parlare mi parve di mezza età e un poco più alto degli altri tre che gli facevano scorta uno dei quali era un paggio alto poco più del mio dito medio che gli teneva lo strascico e gli altri due gli stavano a fianco come scorta egli sostenne compiutamente la sua parte di oratore ed io potei notare nel suo discorso vari passaggi densi di minaccia e altri in cui si alternavano la promessa la pietà e la benevolenza risposi in poche parole col tono più umile e sottomesso che potei alzando la sinistra e gli occhi al cielo come per chiamarlo a testimone e quasi sfinito dalla fame non avendo buttato giù un boccone fin da molte ore prima di abbandonare la nave sentì così urgenti su di me le richieste della natura da non poter fare a meno di mostrare la mia impazienza forse contro le strette regole della civiltà portando più volte le dita alla bocca per far capire che avevo bisogno di cibo lo hurgo così come appresi più tardi e si chiamano un gran signore mi capì benissimo scese dal palco e comandò che mi si appoggiasse dai fianchi parecchie scale sulle quali si arrampicarono circa un centinaio di quegli abitanti i quali si misero poi in cammino verso la mia bocca carichi di panieri pieni di cibo raccolto e mandato là per ordine del re non appena egli aveva avuto notizia del mio arrivo notai che vi era carne di vari animali ma non potei distinguerli al gusto verano spalle cosce lombi della forma di quelli di montone assai ben preparati ma più piccoli di un'ala di allodola li mangiavo due o tre per boccone con tre pani grandi circa come tre palle di moschetto mi servivano più in fretta che potevano con mille gesti di meraviglia e di sbigottimento per la mia mole e il mio appetito feci allora un altro segno per indicare che avevo sete essi arguirono da quel che avevo mangiato che non mi sarebbe certo bastata una piccola quantità di bevanda e ingegnosi come erano tirarono su molto abilmente una delle loro più grosse butti la fecero rotolare verso la mia mano e la scoperchiarono io la vuotai in una sorsata e potei farlo senza difficoltà perché non conteneva nemmeno mezza pinta aveva il gusto di un leggero vino di borgogna ma molto più delicato mi portarono una seconda botte che bevvi in egual modo facendo segno di darmene ancora ma non ne avevano più compiute che ebbi queste meraviglie essi gridarono di gioia e mi danzarono sul petto ripetendo parecchie volte come avevano fatto da principio Echina Degul mi indicarono a segni che potevo gettar giù le due botti ma prima avvertirono la folla che stava sotto di tirarsi da parte gridando a gran voce Borac Mivola e quando videro andare in aria i due recipienti vi fu un grido universale di Echina Degul confesso che fui tentato più di una volta mentre andavano e venivano sul mio corpo di afferrare 40 o 50 dei primi che mi fossero venuti a portata e scaraventarli a terra ma il ricordo di quel che avevo già sofferto e che probabilmente non era il peggio che potessero farmi e la parola data poiché consideravo come tale il mio comportamento sottomesso dissiparono presto questa fantasia inoltre mi sentivo ora legato dalle leggi dell'ospitalità ad un popolo che mi aveva trattato con tanta costosa monificenza comunque in cuor mio non mi saziavo di ammirare l'intrepidità di quei mortali in miniatura che si azzardavano a montare e passeggiare sul mio corpo sebbene avessi un braccio libero senza tremare alla vista di una così prodigiosa creatura quale io dovevo apparir loro dopo un poco quando si accorsero che non facevo altre richieste di cibo mi si fece innanzi un personaggio di alto ceto da parte di sua maestà imperiale sua eccellenza montata sulla parte inferiore della mia gamba destra venne avanti con un seguito di circa dodici persone fino a raggiungermi il volto e mostratemi le sue credenziali col regio sigillo che mi pose addirittura sotto gli occhi parlò per circa dieci minuti senza alcun segno di collera ma con una sorta di altera risolutezza ogni tanto accennava dinanzi a sé nella direzione come seppi dopo in cui era situata la capitale a circa mezzo miglio sua maestà in concilio aveva decretato che io fossi trasportato colà io risposi poche parole ma in vano e feci un segno con la mano libera mettendola sull'altra ma al di sopra della testa di sua eccellenza nel timore di colpire lui o il suo seguito e portandomela poi sulla testa e sul corpo per fargli intendere che desideravo essere messo in libertà parve che mi capisse abbastanza bene perché scosse la testa in aria di viniego e mi avvertì a gesti che dovevo essere portato via come prigioniero comunque continuò a far cenni perché mi rassicurassi che avrei avuto cibi e bevande a sufficienza e un ottimo trattamento di nuovo mi prese il desiderio di cercare di rompere i miei legami ma sentendomi ancora il bruciore delle loro frecce sulla faccia e sulle mani tutte coperte di vesciche e recanti ancora conficcati parecchi di quei dardi e notando in egual tempo che il numero dei miei nemici aumentava sempre più mostrai di essere rassegnato a lasciarli fare di me quel che volevano allora lo urgo e il suo seguito si ritirarono in bel modo e molto soddisfatti subito dopo udì un'acclamazione unanime in cui tornavano spesso le parole peplum selan e mi sentì sul fianco sinistro una gran quantità di gente che allentava le corde tanto che potei voltarmi a destra espandere in grande abbondanza le mie acque con sollievo mio ed enorme sbigottimento di quel popolo che indovinando dai miei gesti quel che stavo per fare si aprì immediatamente a destra e a sinistra per evitare il torrente che scaturiva con tanto strepito e violenza dalla mia persona già da prima mi avevano spalmato la faccia e le mani con una specie di un guento di odore assai gradevole che in pochi minuti guarì le punture delle loro frecce questo particolare unito al ristoro che avevo avuto dal cibo molto nutriente e dalla bevanda fornitimi mi disposero al sonno e come mi fu detto più tardi dormì circa otto ore né c'è da meravigliarsene perché e per ordine dell'imperatore i medici avevano messo nel vino una pozione soporifera a quanto pare appena ero stato scorto addormentato sulla spiaggia dove avevo messo piede l'imperatore ne aveva avuto immediato avviso per mezzo di una staffetta e aveva stabilito in consiglio che venissi legato nel modo che ho riferito cosa che fu fatta la notte stessa mentre dormivo che mi fossero inviati cibi e bevande in abbondanza e che si preparasse una macchina per trasportarmi nella capitale questa decisione apparirà forse ardita e pericolosa e sono certo che nessun principe europeo l'avrebbe seguita in simile occasione ma a parer mio era molto prudente e generosa perché se quel popolo avesse tentato di uccidermi nel sonno con le sue lance e le sue frecce mi sarei senza dubbio svegliato al primo sentirmi punger la pelle e con le forze raddoppiate dall'ira sarei stato capace di spezzare le cordicelle che mi legavano allora impotenti come erano a resistermi non avrebbero potuto aspettarsi mercè quel popolo eccelle nelle matematiche e ha raggiunto nella meccanica una singolare perfezione con la protezione e l'incoraggiamento dell'imperatore celebre patrono del sapere questo principe dispone di parecchie macchine su ruote per il trasporto di alberi e di altri grandi pesi spesso fa costruire le sue più grandi navi da guerra alcune delle quali sono lunghe nove piedi nelle foreste stesse in cui cresce il legname e le fa poi trasportare su questi meccanismi per tre o quattrocento yard fino al mare cinquecento carpentieri e ingegneri furono immediatamente messi all'opera per allestire il più gran congegno che avessero era una costruzione di legno alta a tre pollici da terra lunga circa sette piedi e larga quattro che correva su ventidue ruote il rumore che avevo udito proveniva appunto dall'avvicinarsi di questo meccanismo che a quanto pare era stato portato a termine in quattro ore dopo il mio arrivo fu disposto parallelamente al mio corpo disteso ma la principale difficoltà consisteva nel sollevarmi e pormi nel veicolo a questo scopo furono piantati ottanta pali alti ognuno un piede e solidissime corde della grossezza di spago da imballaggio furono assicurate con ganci alle numerose fasciature che gli operai mi avevano passato attorno al collo alle braccia al corpo e alle gambe novecento tra gli uomini più forti furono impiegati a tirar queste corde per mezzo di carrucole fissate ai pali e così in meno di tre ore fui sollevato scaraventato nella macchina e solidamente assicurato ad essa tutto questo mi fu raccontato perché mentre si compiva l'intera operazione io dormivo profondamente in virtù di quella medicina soporifera messa nel vino che avevo bevuto mille e cinquecento fra i più grossi cavalli dell'imperatore alti ognuno circa quattro pollici e mezzo mi trainarono verso la metropoli che come ho detto distava mezzo miglio eravamo in cammino da circa quattro ore quando fui svegliato da un incidente assai ridicolo il traino si era fermato un momento per aggiustare qualche cosa che era andata fuori posto e due o tre giovanotti ebbero la curiosità di vedere che aspetto avessi quando dormivo si arrampicarono dunque sulla macchina e mentre sgattaiolavano cautamente verso il mio volto uno di loro un ufficiale delle guardie mi infilò la punta guzza della sua picca nel profondo della narice sinistra nel sentirmi solleticare il naso così come da una festuca feci un violento starnuto quelli filarono via zitti zitti e solo tre settimane dopo conobbi la ragione del mio improvviso risveglio continuammo a procedere ininterrottamente per tutto quel giorno e a notte ci fermammo con 500 guardie ad ognuno dei miei fianchi metà con torce e metà con arco e frecce pronte a tirarmi addosso se davo segno di inquietudine il giorno dopo all'alba riprendemmi il cammino e verso mezzogiorno arrivammo a circa 200 yard dalle porte della città l'imperatore con tutta la sua corte ci venne incontro ma i suoi alti ufficiali non vollero in alcun modo consentire che sua maestà mettesse in pericolo la sua persona dando la scalata al mio corpo nel luogo in cui il traino si era fermato vera un antico tempio considerato il più grande di tutto il reame il quale macchiato alcuni anni prima da uno scellerato omicidio era stato considerato come profano dallo zello religioso di quel popolo spogliato dei suoi ornamenti e dei suoi arredi e destinato poi ad usi diversi si decise che io dovessi alloggiare in questo edificio il grande portale volto a settentrione era alto circa a quattro piedi e largo almeno due così che potevo facilmente entrarvi i carponi ai due lati della porta vi erano due finestrelle alte nemmeno sei pollici da terra da quella di sinistra i fabbri reali fecero passare novantun catene simili a quelle che in Europa si usano per gli orologi da signora e quasi della stessa grossezza e me le legarono alla caviglia a sinistra con trentasei lucchetti di fronte a questo tempio sull'altro lato del grande stradale circa venti piedi più in là c'era una torretta alta almeno cinque piedi lì sopra salì l'imperatore con molti fra i principali signori della sua corte per potermi vedere come mi fu detto poi senza essere veduti da me si calcolò che circa centomila abitanti erano usciti dalla città per lo stesso scopo e credo che a dispetto delle mie guardie non furono meno di diecimila quelli che in più riprese si arrampicarono sul mio corpo con le scale ma uscì subito un proclama per impedir questo sotto pena di morte quando i fabbri giudicarono impossibile per me spezzare le catene tagliarono tutte le cordicelle che mi legavano e allora mi alzai ma con un senso di profonda tristezza quale non avevo mai provato in vita mia non potei esprimere il clamore e lo sbigottimento del popolo nel vedermi alzare e camminare le catene che mi imprigionavano la gamba sinistra erano lunghe circa a sei piedi e non solo mi permettevano di camminare su e giù in un semicerchio ma fissate come erano a circa quattro pollici dalla porta mi permettevano di entrarvi carponi e di stendermi per quanto ero lungo nel tempio capitolo secondo l'imperatore di Lilliput con numeroso seguito di gentiluomini viene a visitare l'autore nella sua prigione descrizione della persona e degli abiti di sua maestà alcuni dotti sono incaricati di insegnare all'autore la loro lingua egli ottiene il favore generale con l'amitezza del suo carattere si fa un'ispezione nelle sue tasche e gli sono portate via la spada e le pistone quando mi trovai in piedi mi guardai in giro e devo confessare di non aver mai contemplato una più gradevole scena il paese tutto intorno mi parve un susseguirsi di giardini e i campi cintati generalmente di 40 piedi quadrati mi sembravano aiuole fiorite questi campi si alternavano con boschi di una mezza pertica i cui più alti alberi a quel che potevo giudicare sembravano di sette piedi scorsi alla mia sinistra la città simile ad uno scenario di teatro già da alcune ore ero fieramente incalzato da alcune esigenze naturali né c'è da meravigliarsene perché da quasi due giorni non davo loro soddisfazione e tra l'impellenza e la vergogna mi sentivo nel massimo imbarazzo il migliore spediente che seppi escogitare fu di strisciarne la mia casa cosa che feci senz'altro e chiusa la porta dietro di me mi inoltrai per quanto me lo permetteva la lunghezza della mia catena e mi sgravai così di quell'incomodo fardello ma quella fu l'unica volta che mi macchiai di un atto così poco irreprensibile e spero che il candido lettore vorrà tenermene per scusato dopo aver maturamente e imparzialmente considerato il mio caso e la situazione disperata in cui mi trovavo in seguito fu mia costante abitudine sbrigar questa faccenda all'aria aperta appena alzato allontanandomi di tutta la lunghezza della mia catena e ci si prese ogni mattina la dovuta cura di far portare via con una carriola prima che venissero i visitatori le materie che avrebbero potuto offenderli due servi erano adibiti a questo ufficio non mi sarei trattenuto a lungo su di un particolare che a prima vista potrà apparire di poco momento se non l'avessi creduto necessario per salvare di fronte al mondo la mia reputazione in fatto di pulizia sulla quale mi dicono alcuni maligni si sono compiaciuti di esprimere dubbi in questa e in altre occasioni terminata questa avventura uscì dalla mia casa per respirare una boccata d'aria pura l'imperatore era già sceso dalla torre e veniva cavalcando verso di me cosa che per poco non gli costò cara perché l'animale per quanto perfettamente addestrato alla vista inconsueta di una montagna che gli si muoveva davanti si impennò ad un tratto ma quel principe eccellente cavallerizzo si tenne in sella finché accorsero gli scudieri a tenergli la briglia dandogli il tempo di smontare messo piede a terra sua maestà mi considerò tutti in giro con grande ammirazione tenendosi però prudentemente fuori della portata della mia catena poi ordinò ai suoi cuochi e ai suoi catinieri già pronti di darmi cibi e vini subito essi spinsero in avanti tutto ciò su certi veicoli a ruote e me li misero vicino io presi questi veicoli e non tardai a vuotarli venti erano pieni di alimenti solidi e dieci di bevande ognuno dei primi mi forniva due o tre eccellenti bocconi versa in uno di quei carri il contenuto di dieci bottigliette di coccio e lo bevì in un sorso e così feci col resto l'imperatore e i giovani principi del sangue dei due sessi accompagnati da molte dame sedevano a qualche distanza nelle loro vetture ma dopo l'incidente capitato al cavallo dell'imperatore si alzarono e si avviarono verso la sua persona che adesso descriverò l'imperatore supera di quasi quanto è lunga una mia unghia ogni altro personaggio della sua corte cosa che basta da sola adempir di riverenza chi lo vede i tratti del suo volto sono virili ed energici labbro austriaco e naso aquilino a olivastro il colorito il portamento eretto corpo e membra ben proporzionati grazie a nei movimenti e maestà nel contegno aveva allora passato il primo fiorir della giovinezza essendo ormai sui vent'anni e nove mesi ne aveva regnati circa sette in gran prosperità e vincitore in ogni guerra per meglio vederlo mi ero coricato su di un fianco in modo da mettere il volto allo stesso livello del suo ed egli era solo a tre yardi da me comunque in seguito l'ho tenuto più volte tra le mie mani e quindi non posso ingannarmi nella descrizione il suo vestito era singolarmente semplice di una foggia tra asiatica ed europea in testa portavano il metto di oro lucente adorno di gioielli e sormontato da una piuma teneva in mano la spada sguainata per difendersi semmai avessi spezzato le catene la lama era lunga circa a tre pollici l'elsa e la guaina erano d'oro ornate di diamanti aveva la voce acuta ma chiara e distinta e io potevo dirlo facilmente anche quando stavo in piedi le dame e i cortigiani erano vestiti tutti con il massimo sfarzo così che il luogo in cui erano raccolti sembrava un bel gonnellino steso a terra e ricamato a figure d'oro e d'argento sua maestà imperiale mi rivolse più volte la parola ed io sempre risposi ma nessuno di noi pote capire una sillaba molti sacerdoti e uomini di legge a quanto supposi dai vestiti li presenti furono inviati a parlarmi ed io parlai loro in tutte le lingue di cui avevo una minima infarinatura quali l'alto e basso olandese il latino il francese lo spagnolo l'italiano e la lingua franca ma in vano circa due ore dopo la corte si ritirò e io fui lasciato sotto buona guardia per prevenire l'indiscrezione e probabilmente la malizia del popolino smanioso di farmi ressa intorno quanto più vicino potesse e osasse alcuni di quella marmaglia infatti ebbero l'impudenza di tirarmi addosso le loro frecce mentre me ne stavo seduto a terra davanti alla porta di casa mia e poco mancò che non mi cavassero l'occhio sinistro il colonnello ordinò che sei dei caporioni fossero acciuffati e gli parve che la punizione più adeguata fosse quella di darmeli nelle mani solidamente legati cosa che subito alcuni soldati misero in esecuzione spingendo verso di me quei disgraziati con la punta delle picche io li presi su tutti con la destra ne ficcai cinque nella tasca della giacca e quanto al sesto feci mostra di volermelo mangiar vivo quel povero diavolo strillava come un pazzo e il colonnello e i suoi ufficiali erano in gran pena specialmente quando mi videro cavar fuori il temperino ma presto tolsi loro ogni timore perché guardandolo bonariamente mi affrettai a tagliare le cordicelle che lo legavano e lo misi delicatamente a terra lasciandolo scappare via usai agli altri uguale trattamento cavandomeli di tasca uno per uno e notai che soldati e popolo erano stati vivamente colpiti da questo mio atto di clemenza citato poi a corte in modo molto favorevole per me verso notte entrai con qualche difficoltà nella mia casa dove dormi sulla nuda terra e così avvenne per un paio di settimane in attesa del letto che l'imperatore aveva ordinato di prepararmi 600 materassi delle loro comuni dimensioni furono portati con carri e messi in opera in casa mia 150 cuciti insieme formarono la larghezza e la lunghezza e ne furono messi quattro strati che tuttavia mi proteggevano assai poco dalla durezza di un pavimento di pietra liscia nelle stesse proporzioni mi provvidero di lenzuola coperte e piumini piuttosto passabili per uno come me che era stato provato da tante traversie la notizia del mio arrivo si diffuse per tutto il reame e richiamò uno straordinario numero di gente ricca oziosa e curiosa che veniva a vedermi i villaggi rimasero spopolati e gravi danni ne sarebbero probabilmente derivati all'agricoltura e all'economia domestica se sua maestà imperiale non avesse provveduto con varie ditti e proclami di stato a combattere tale inconveniente stabilì che quelli che mi avevano già veduto tornassero alle loro case e non si azzardassero ad avvicinarsi di meno di 50 yard dalla mia dimora senza un permesso di corte in conseguenza di ciò i segretari di stato fecero considerevoli guadagni frattanto l'imperatore teneva frequenti concili per deliberare che partito si dovesse prendere nei miei riguardi seppi più tardi da un amico fidato un personaggio importante e considerato addentro nei segreti di stato più di ogni altro che la corte si trovava per causa mia nel più grande imbarazzo si temeva che io riuscissi a liberarmi e che il mio nutrimento non solo divenisse troppo costoso ma provocasse una carestia a tratti decidevano di lasciarmi morire di fame o di colpirmi la faccia e le mani con frecce avvelenate che mi avrebbero spacciato in poco tempo ma poi consideravan che il puzzo di una così immensa carcassa avrebbe potuto causare una pestilenza nelle metropoli e probabilmente nell'intero reame nel bel mezzo di queste discussioni vari ufficiali dell'armata vennero alla porta della sala del Gran Consiglio e due di loro fatti entrare fecero una relazione sulla mia condotta nei riguardi dei sei criminali summenzionati e questo fece una così favorevole impressione nel cuore di Sua Maestà e dell'intera adunanza che fu inviata a una commissione imperiale per obbligare tutti i villaggi nel giro di 900 yard dalla capitale da consegnare ogni mattino sei buoi 40 montoni e altre vettovaglie per il mio nutrimento unitamente ad una congrua quantità di pane vino e altri liquori Sua Maestà faceva assegnamento sul suo tesoro privato per il pagamento di tutto ciò perché questo principe vive soprattutto del suo patrimonio ricorrendo assai di rado e solo in casi gravissimi al sussidio dei suoi sudditi i quali sono tenuti a sostenerlo in guerra a proprie spese fu anche fondato un corpo di domestici addetti alla mia persona con un salario per il loro mantenimento e ai due lati della mia porta furono costruite per loro comodissime tende parimenti fu dato ordine che 300 sarti mi facessero un abito completo alla moda del paese che sei tra i più chiari professori di Sua Maestà avessero l'incarico di insegnarmi la lingua del paese e infine che i cavalli dell'imperatore e quelli della nobiltà e delle truppe di guardia fossero frequentemente esercitati dinanzi a me perché si abituassero alla mia vista tutti questi ordini furono debitamente eseguiti e in circa tre settimane feci grandi progressi nella conoscenza della lingua durante questo tempo l'imperatore mi onorò spesso delle sue visite e si compiacque di assistere alle lezioni dei miei maestri già cominciavamo a far conversazione alla meglio e le prime parole che imparai furono per esprimere il mio desiderio che si degnasse di mettermi in libertà grazie a che imploravo ogni giorno da lui in ginocchio la sua risposta per quanto potei capire fu che bisognava attendere che non poteva decidere su questo senza essersi consultato con il suo consiglio e che anzitutto io dovevo l'humus kelmin pezzo desmarlo ti imposo vale a dire giurare pace con lui e il suo reame comunque sarei stato trattato con tutti i possibili riguardi e mi consigliò di cattivarmi con la pazienza e la buona condotta la sua stima e quella dei suoi sudditi mi pregò anche di non avermene a male se doveva dar ordine a certi suoi funzionari di perquisirmi perché probabilmente portavo indosso armi che potevano essere molto pericolose se rispondevano alla prodigiosa mole della mia persona risposi che sua maestà sarebbe stata soddisfatta perché ero pronto a spogliarmi e a vuotare le mie tasche davanti a lui espressi tutto ciò parte a parole e parte a cenni egli mi fece sapere che conformemente alle leggi del suo regno io dovevo essere perquisito da due suoi funzionari che questo lo sapeva bene non si sarebbe potuto fare senza il mio consenso e il mio aiuto che avevo una così buona opinione della mia generosità e del mio senso di giustizia che avrebbe affidato alle mie mani le loro persone che qualunque cosa essi mi togliessero mi sarebbe stata restituita quando io avessi lasciato il paese o ne sarei stato rimborsato secondo il valore da me stabilito io presi su i due funzionari e li misi dapprima nelle tasche della mia giacca poi in tutte le altre tasche che avevo eccettuati due taschini e un'altra tasca segreta che non mi curai di far perquisire contenendo alcune piccolezze utili solo a me in uno dei taschini vero un orologio d'argento nell'altro una borsa con un poco d'oro quei signori portati con sé penna inchiostro e carta stesero un esatto inventario di tutto ciò che videro e quando ebbero finito mi pregarono di rimetterli a terra per poterlo consegnare all'imperatore più tardi tradossi in inglese questo inventario ed ecco qui parola per parola in primis nella tasca destra della giacca del grande uomo montagna traduco così le parole Quimbus Flestrin dopo la più rigorosa perquisizione abbiamo trovato solo un gran pezzo di tela ordinaria abbastanza largo per far da tappeto alla gran sala di vostra maestà nella tasca sinistra abbiamo visto un'enorme cassa d'argento con coperchio dello stesso metallo che non riuscimmo ad aprire ad onta di tutti i nostri sforzi esprimemmo il nostro desiderio che fosse aperta e uno di noi entratovi si trovò fino a mezza gamba in una specie di polvere di cui alcuni granelli ci volarono in faccia facendoci starnutire entrambi parecchie volte nella tasca destra del panciotto abbiamo trovato una straordinaria massa di materiali bianchi e sottili piegati gli uni sugli altri della grossezza di circa tre uomini legati con una grossa corda e segnati con figure nere congetturiamo umilmente che si tratti di una scrittura di cui ogni lettera è grande almeno quanto la metà del nostro palmo nella sinistra vero una specie di macchina dal cui dorso si protendevano venti lunghe sbarre simili alle palizzate davanti alla corte di vostra maestà supponiamo che l'uomo montagna con essa si pettini poiché non sempre l'abbiamo importunato con domande vista la grande difficoltà di farci intendere nella grande tasca sul lato destro del suo coprimezzo traduco così la parola ranfulò con cui essi alludevano i miei calzoni abbiamo visto un pilastro di ferro vuoto lungo circa quanto un uomo fissato su di un robusto pezzo di legno più grosso del pilastro e su di un lato del pilastro verranno enormi pezzi di ferro che ne sporgevano tagliati in strane fogge non sappiamo a che cosa serva nella tasca sinistra un altro meccanismo dello stesso genere nel taschino a destra verranno parecchi pezzi rotondi e piatti di metallo rosso e bianco e di diverso volume alcuni pezzi bianchi che ci sono sembrati di argento erano così grossi e pesanti che il mio collega ed io abbiamo potuto sollevarli a fatica nel taschino sinistro verranno due pilastri neri di forma irregolare riuscì ma fatica a raggiungerne le estremità poiché stavamo in fondo alla sua tasca l'uno di essi era coperto e sembrava tutto d'un pezzo ma all'estremità superiore dell'altro appariva una sostanza bianca e rotonda grande quanto due delle nostre teste in ognuno di essi era chiuso un immane lama d'acciaio che dietro nostro ordine egli fu costretto a mostrarci temevamo infatti che potessero essere pericolosi meccanismi egli li tolse dai loro astucci e ci disse che nel suo paese era solito radersi la barba con uno di essi e con l'altro tagliarsi le pietanze rimanevano due tasche in cui non potevamo entrare da lui chiamate taschini erano due lunghe fessure tagliate nella parte superiore del suo coprimezzo ma tenute strettamente chiuse dalla pressione del ventre dal taschino destro pendeva una gran catena d'argento alla cui estremità era assicurata una meravigliosa sorta di meccanismo lo invitammo a tirar fuori tutto ciò che era attaccato a quella catena era un globo per metà di argento e per metà di qualche metallo trasparente dalla parte trasparente vedemmo infatti strane figure disegnate tutti in giro ma quando credemmo di poterle toccare ci accorgemmo che quella sostanza di afana arrestava le nostre dita ci avvicinò la macchina all'orecchio e udimmo uno strepito incessante simile a quello di un mulino ad acqua supponiamo che si tratti di qualche animale sconosciuto o del dio da lui adorato e siamo piuttosto inclini a quest'ultima opinione perché ci ha assicurato seppur abbiamo interpretato giustamente il suo modo di esprimersi assai imperfetto che non fa mai niente senza consultarlo lo ha chiamato il suo oracolo e ha detto che segna il tempo di ogni azione della sua vita dal taschino sinistro ha tolto una rete grande quanto una rete da pesca ma che si apriva in modo da formare quasi una borsa e da poter servire appunto a questo uso vi troviamo dentro alcuni grossi blocchi di metallo giallo che se sono d'oro devono avere un immenso valore perquisite così le sue tasche e con ogni diligenza secondo gli ordini di vostra maestà notammo alla sua vita una cintura fatta con la pelle di qualche mostruoso animale e dalla quale a sinistra pendeva una spada della lunghezza di cinque uomini e a destra in una tasca o sacca divisa in due scomparti vi erano parecchi globi o palle di un metallo così pesante circa della grandezza di una nostra testa e che potevano essere sollevati solo da braccia particolarmente robuste l'altro conteneva un mucchio di certi grani neri ma di piccola mole e peso perché ne potemmo tenere fino a 50 nel palmo di una mano è questo un inventario esatto di ciò che abbiamo trovato sulla persona dell'uomo montagna il quale ci ha trattato con grande urbanità e con un dovuto rispetto per la commissione di vostra maestà firmato e sigillato nel quarto giorno dell'ottantanovesima luna del felice regno di vostra maestà Clefrin Flerock Marcy Flerock quando quest'inventario fu letto in presenza dell'imperatore questi mi ordinò peraltro in termini molto urbani di consegnargli una per una tutte queste cose da prima mi chiese la sciabola che gli consegnai col fodero e tutto frattanto avevo ordinato che 3000 uomini delle sue migliori truppe che allora mi accompagnavano mi circondassero a distanza con archi e frecce pronti a scaricarmeli addosso ma io non me ne accorsi perché avevo sugli occhi fissi su sua maestà mi pregò allora di sguainare la sciabola che sebbene un po' arrugginita dall'acqua marina era lucidissima in più parti io ubbidi e subito le truppe diedero un grido di terrore e di sorpresa perché i riflessi del sole ardente abbagliavano loro gli occhi mentre la brandivo nell'aria sua maestà spirito veramente magnanimo si spaventò meno di quanto mi aspettassi mi ordinò di rimetterla nel fodero e di gettarla a terra più delicatamente che potessi a circa sei piedi dall'estremità della mia catena per seconda cosa mi chiese uno di quei cavi pilastri di acciaio intendendo così le mie pistole ne presi una e per suo desiderio gliene spiegai l'uso meglio che potei poi caricata la sola polvere la quale grazie alla perfetta chiusura della mia sacca era stata preservata dall'umidità del mare inconveniente questo che ogni marinaio prudente evita con particolare cura avverti prima l'imperatore di non spaventarsi e quindi scaricai la pistola questa volta lo sbigottimento fu assai maggiore che non alla vista della mia sciabola caddero giù a centinaia come se fossero stati colpiti a morte perfino l'imperatore per quanto si tenesse dritto riuscì a riaversi solo dopo qualche istante consegnai entrambe le mie pistole così come avevo fatto per la sciabola e vi unì la sacca della polvere delle palle pregandolo di tenerla prima lontana dal fuoco perché si sarebbe infiammata alla minima scintilla facendo saltare in aria il suo imperiale palazzo parimenti consegnai il mio orologio che l'imperatore osservò con molta curiosità comandando poi a due delle sue guardie più alte di portarlo sulle spalle sospeso ad un bastone come in Inghilterra i carrettieri dei birrai portano un barile di birra era stupito del continuo strepito che faceva e del movimento della lancetta dei minuti che poteva facilmente seguire perché la loro vista è molto più acuta della nostra e domandò ai più dotti del suo seguito che cosa ne pensassero le loro opinioni come il lettore può ben immaginare senza che le ripeta furono varie e contrastanti d'altra parte non potei capirle bene consegnai poi le mie monete d'argento e di rame la borsa con nove grossi pezzi d'oro e alcuni più piccoli il coltello e il rasoio il pettine la tabacchiera d'argento il fazzoletto e il diario la sciabola le pistole e la sacca della polvere furono trasportate su carri nei magazzini di sua maestà il resto dei miei beni mi fu restituito come ho già detto avevo una tasca particolare sfuggita alla perquisizione in cui c'erano un paio di occhiali di cui talora la mia debole vista mi costringe a far uso un telescopio tascabile altre piccolezze che non avendo interesse per l'imperatore non mi credetti impegnato dalla mia parola a mostrare tanto più che temevo potessero andar persi o sciupati se me ne separavo capitolo terzo l'autore diverte in modo insolito l'imperatore e la sua nobiltà da ambo i sessi descrizione dei divertimenti della corte di Lilliput l'autore messo in libertà a determinate condizioni la mia mitezza e la mia buona condotta mi avevano cattivato talmente il favore dell'imperatore e della sua corte e perfino dell'armata e del popolo in generale che cominciai a nutri speranza di ottenere presto la libertà e non dimenticai nulla per coltivare questa favorevole disposizione a poco a poco gli abitanti presero familiarità con me a volte mi sdraiavo a terra e permettevo a cinque o sei di loro di ballare sulla mia mano infine i ragazzi e le ragazzine si arrischiavano a venirmi a giocare a nascondino tra i capelli avevo ora fatto grandi progressi nel capire nel parlare la loro lingua un giorno l'imperatore volle farmi assistere ad alcuni spettacoli del paese nei quali quel popolo supera tutti quelli che ho conosciuto per abilità e magnificenza nulla mi divertì come i danzatori sulla fune che si esibivano su di un filo sottile lungo circa due piedi e alto da terra a 12 pollici e il lettore voglia perdonarmi se mi dilungo un poco su questo soggetto tale esercizio è praticato solo da coloro che ambiscono ad alte cariche o ai massimi favori di corte fin dalla gioventù sono educati nell'arte e non sempre sono di nobile nascita o di educazione liberale quando un'importante carica è vacante sia per la morte di chi ne era rivestito sia per la sua caduta in disgrazia il che avviene spesso cinque o sei di questi candidati fanno petizione all'imperatore di poter far assistere sua maestà e la corte ad una danza sul filo e chi riesce a saltar più in alto senza cadere ottiene il posto assai spesso gli stessi primi ministri hanno l'ordine di mostrare la loro abilità e far persuaso così l'imperatore di non aver perduto le loro doti flimnap il tesoriere per universale riconoscimento è capace di far nell'aria una capriola balzando sul filo teso almeno un pollice più alto di ogni altro signore dell'intero impero l'ho visto io far più volte di seguito il salto mortale sopra un tagliere fissato alla fune che non è più grossa di un comune spago da pacchi in Inghilterra il mio amico reldresal primo segretario degli affari privati è a parer mio se non solo parziale il secondo dopo il tesoriere gli altri grandi ufficiali sono super giudie qual forza tali spettacoli sono spesso accompagnati da incidenti funesti di gran numero dei quali si serva ricordo ho visto io stesso due o tre candidati rompersi un braccio o una gamba ma il pericolo è molto più grande quando i ministri in persona ricevono l'ordine di far sfoggio della loro perizia perché sforzandosi di superarsi fra di loro e di trionfare dei loro sottoposti si mettono a tale cimento che non ven'è forse uno che non abbia fatto un capitombolo e parecchi ne hanno fatti due o tre mi fu assicurato che uno o due anni prima del mio arrivo Flimnap si sarebbe rotto inevitabilmente l'osso del collo se un cuscino del re rimasto per caso lì a terra non avesse attenuato l'impeto della caduta un altro esercizio viene ugualmente esibito solo in presenza dell'imperatore dell'imperatrice e del primo ministro in particolari occasioni l'imperatore pone sul tavolo tre sottili fili di seta lunghi sei pollici un azzurro uno rosso e il terzo verde sono questi i premi per coloro che l'imperatore vuol distinguere con una particolare espressione del suo favore la cerimonia avviene nella gran sala d'udienza di sua maestà dove i candidati devono sostenere una prova di destrezza assai diversa dalla prima e tale che nulla di neppur lontanamente simile io ho mai visto in alcun paese del vecchio o del nuovo mondo l'imperatore tiene tra le mani un bastone perfettamente orizzontale e i candidati facendosi avanti uno per uno ora vi saltan sopra ora vi striscian sotto avanti e indietro parecchie volte a seconda che il bastone sia sollevato o abbassato a volte l'imperatore tiene un'estremità del bastone affidando l'altra al primo ministro a volte lo tiene solo il primo ministro chi compie l'esercizio con maggior agilità e va più lungi nel saltare e nello strisciare è compensato con la seta azzurra la rossa è data al secondo e la verde al terzo essi la portano girandosela due volte attorno alla vita e si vedono pochi personaggi di questa corte che non siano adorni di tale cintura i cavalli dell'esercito e quelli delle scuderie reali condotti ogni giorno davanti a me non si addombravano più e mi venivano perfino tra i piedi senza impennarsi i cavalieri li facevano saltare al di sopra della mia mano posata a terra e uno dei capicaccia dell'imperatore montato su di un robusto destriero superò d'un balzo il mio piede con la scarpa e tutto un salto davvero prodigioso un giorno ebbi la fortuna di divertire l'imperatore in modo assai singolare lo pregai di farmi portare alcuni bastoni alti due piedi e della grossezza di una canna comune sua maestà diede subito ordine al capo dei suoi guardiaboschi di prendere provvedimenti in proposito e il mattino dopo mi vidi arrivare sei boscaioli con altrettanti carri trainati ognuno da otto cavalli presi nove di questi bastoni e li piantai solidamente nel suolo formando un quadrato di due piedi e mezzo altri quattro ne legai orizzontalmente ai quattro angoli alti circa a due piedi da terra poi legai il mio fazzoletto ai nove pali che stavano ritti e lo tirai bene da ogni lato finché non fu teso come la pelle di un tamburo i quattro bastoni orizzontali circa cinque pollici sul piano del fazzoletto formavano una specie di parapetto da ogni lato terminato il mio lavoro pregai l'imperatore di far venire un drappello dei suoi migliori cavalieri ventiquattro in tutto ad esercitarsi su quella spianata sua maestà aderì alla proposta ed io li presi su uno per uno a cavallo e armati come erano con gli ufficiali designati a dirigerli appena messi in ordine si divisero in due gruppi fecero finte scaramucce si scagliarono frecce spuntate brandirono le spade fuggirono e inseguirono attaccarono e si ritirarono insomma fecero mostra della più perfetta disciplina militare che abbia mai visto i bastoni orizzontali mettevano al sicuro cavalli e cavalieri dal capitombolare giù dal palcoscenico e l'imperatore si divertì tanto che per suo ordine lo spettacolo fu ripetuto parecchi giorni di seguito una volta anzi si compiacque di farsi tirar su per dar lui stesso i comandi e con gran difficoltà riuscì ad indurre perfino la stessa imperatrice a permetter che la tenessi nel suo palanchino a circa due yarde dal palcoscenico affinché potesse godersi pienamente la vista di tutto lo spettacolo per mia buona fortuna nessun grave incidente funestò a questi intrattenimenti solo una volta il focoso cavallo di un capitano scalpitando a tutta lena fece con lo zoccolo un buco nel mio fazzoletto e scivolatogli il piede andò a ruzzoloni con il suo cavaliere ma li rialzai subito entrambi e coperto il buco con una mano rimasi a terra con l'altra tutto lo squadrone così come l'avevo tirato su il cavallo caduto si storse la spalla sinistra il cavaliere non si fece nulla ed io rammendai il fazzoletto come meglio potei ma non mi fidai più della sua resistenza in simili rischiose imprese due o tre giorni prima che fossi messo in libertà mentre stavo appunto divertendo la corte in questo modo giunse una staffetta ad avvertire sua maestà che alcuni suoi sudditi trovandosi a cavalcare nelle vicinanze del luogo in cui ero stato catturato avevano scorto una gran cosa nera abbandonata a terra di foggia stranissima larga tutto in giro come la stanza da letto di sua maestà e nel mezzo alta come un uomo non si trattava di un essere vivente come dapprima avevano temuto perché se ne stava immobile sull'erba alcuni di loro ne avevano fatto più volte il giro ne avevano raggiunta la cima piatta ed eguale montando l'uno sulle spalle dell'altro e battendo col piede si erano accorti che l'interno era vuoto supponevano umilmente che si trattasse di un oggetto appartenente all'uomo montagna e col beneplacito di sua maestà si impegnavano a trasportare tutto con solo cinque cavalli capì subito di che cosa parlavano e mi rallegrai di cuore di ricever quella notizia a quanto pare al mio arrivo sulla spiaggia dopo il naufragio ero così stordito da non accorgermi nemmeno che appena messo piede a terra prima ancora di giungere al luogo in cui mi ero addormentato mi era saltato via il cappello che mi ero legato al capo con un laccio mentre remavo e mi era rimasto attaccato lì per tutto il tempo che era andato a nuoto penso che il laccio si sia spezzato per qualche accidente che non notai ed io ero rimasto così con la convinzione di aver perduto il cappello in mare supplicai sua maestà imperiale di dare ordini affinché mi venisse riportato quanto prima fosse possibile e gli spiegai a che cosa serviva e come era fatto il giorno seguente arrivarono i carrettieri con il cappello che a dire il vero non era in molte buone condizioni vi avevano fatto due buchi nella tesa a circa un pollice e mezzo dall'urlo e nei buchi avevano ficcato due uncini questi uncini erano stati poi legati con lunghe corde ai finimenti dei cavalli e così il mio cappello era stato trascinato per circa mezzo miglio inglese per fortuna il suolo in quel paese è così liscio e uguale che il danno fu meno grave di quanto non mi aspettassi due giorni dopo questa avventura l'imperatore ebbe la fantasia di divertirsi in un modo molto singolare comandò che la parte del suo esercito acquartierata nella metropoli e nei dintorni si tenesse pronta e mi pregò di mettermi nell'atteggiamento del colosso di rodi con le gambe aperte quanto più potessi poi ordinò al suo generale vecchio e sperimentato condottiero e mio grande prodettore di schierare le truppe in ordine chiuso e farle marciare sotto di me i fanti per ventiquattro di fronte i cavalieri per sedici con tamburi battenti vessiglie al vento e picche elevate erano in tutto tremila fanti e mille cavalieri sua maestà aveva dato ordine sotto pena di morte che ogni soldato marciando osservasse la più rigorosa decenza nei riguardi della mia persona il che non impedì tuttavia che qualcuno fra gli ufficiali più giovani alzasse gli occhi nel passare sotto di me e a dire il vero in quel tempo i miei calzoni erano così in cattivo stato che porsero qualche occasione di riso e di ammirazione avevo inviato tanti memoriali e petizioni per riavere la libertà che finalmente sua maestà cominciò a parlarne da prima nel suo gabinetto privato poi in piano consiglio nessuno vi fece opposizione eccetto Skyrash Bolgolam che senza alcuna provocazione da parte mia si compiaceva di essermi immortale nemico ma a suo dispetto la mia richiesta fu approvata da tutta la seduta e ratificata dall'imperatore questo ministro era Galbet cioè ammiraglio dell'impero godeva tutta la fiducia del suo signore ed era uomo assai versato negli affari ma aveva un carattere acre e bisbetico comunque lo persuasero infine a consentire ma riuscì in compenso ad ottenere che le clausole e le condizioni alle quali avrei ottenuto la libertà dopo aver fatto giuramento sarebbero state redatte da lui queste clausole mi furono portate da Skyrish Bolgolam in persona scortato da due sottosegretari e da vari personaggi importanti dopo avermele lette mi invitarono a giurare che le avrei osservate scrupolosamente da prima secondo l'uso del mio paese poi secondo il metodo prescritto dalle loro leggi che consisteva nel prendermi il piede destro nella mano sinistra e nel pormi il medio della destra sul cocuzzolo e il pollice sull'estremità dell'orecchio destro ma poiché il lettore può essere curioso di conoscere lo stile e il modo particolare di esprimersi di quel popolo nonché le condizioni a cui la libertà mi fu restituita ho tradotto parola per parola l'intero atto più letteralmente che mi fosse possibile e qui lo offro al pubblico Golbasto Momarem Evlame Gordillo Sheffin Mulli Ulligue potentissimo imperatore di Lilliput delizia e terrore dell'universo i cui domini si stendono per 5.000 blustrugo circa 12 miglia di conferenza fino agli estremi del globo monarca dei monarchi più alto dei figli degli uomini i cui piedi premono la terra fino al centro e la cui testa batte contro il sole il cui cenno fa tremarle ginocchia ai principi della terra dolce come la primavera dovizioso come l'estate fruttifero come l'autunno terribile come l'inverno sua maestà arci sublime propone all'uomo montagna recentemente giunto nei nostri celesti domini le seguenti clausole a cui egli con solenne giuramento si impegna di attenersi 1 l'uomo montagna non lascerà i nostri domini senza nostra licenza munita del nostro gran sigillo 2 egli non si prenderà la libertà di entrare nella nostra capitale senza nostro ordine esplicito in tal caso gli abitanti saranno avvertiti con due ore di preavviso di non uscire di casa 3 il detto uomo montagna limiterà le sue passeggiate alle nostre principali strade maestre e si guarderà dal camminare e dallo sdraiarsi in prati o campi di grano 4 quando camminerà per le suddette strade dovrà avere la più scrupolosa cura di non pestare alcuno dei nostri amati sudditi né i loro cavalli o veicoli e si guarderà dal prendere in mano qualsiasi nostro suddito senza il suo consenso 5 qualora un dispaccio richieda una straordinaria velocità l'uomo montagna sarà tenuto a portare in tasca il messaggero e il suo cavallo per un viaggio di sei giorni una volta ogni luna e a riportare se richiesto il detto messaggero sano e salvo alla nostra imperiale presenza 6 sarà nostro alleato contro i nostri nemici dell'isola di Blefuscu e farà il possibile per distruggere la loro flotta alla quale si prepara attualmente ad invaderci 7 il detto uomo montagna nelle sue ore d'ozio presterà aiuto e assistenza ai nostri operai nel sollevare certi grandi massi allo scopo di portare a termine le mura del parco principale e di altri nostri reali edifici 8 il detto uomo montagna consegnerà entro due mesi l'esatta misura della circonferenza dei nostri domini in base al calcolo dei suoi passi lungo la costa infine dopo aver fatto solenne giuramento di osservare tutte le clausole di qui sopra il detto uomo montagna avrà una provvigione giornaliera di cibo e di bevande bastevole a sostentare 1728 nostri sudditi con libero accesso alla nostra reale presenza e altri segni del nostro favore dato nel nostro palazzo di Belfaborac il dodicesimo giorno della novantonesima luna del nostro regno io giurai e sottoscrissi queste clausole con gran gioia e soddisfazione sebbene alcune non fossero onorevoli quanto avrei potuto desiderare e questo solo per la malizia del grandammiraglio Skyresh Bolgolam mi furono immediatamente sciolte le catene ed io mi trovai in piena libertà l'imperatore in persona mi fece l'onore di presenziare all'intera cerimonia mostrai la mia riconoscenza prostrandomi ai piedi di sua maestà ed egli mi ordinò di alzarmi e dopo molte graziose espressioni che non ripeterò per evitare l'accusa di vanità aggiunse di sperare che mi sarei dimostrato un servitore utile e meritevole di tutti i favori che già mi aveva accordato o potesse accordarmi nel futuro il lettore voglia degnarsi di notare che nell'ultima clausola relativa alla mia liberazione l'imperatore stipula di concedermi una quantità di cibo e di bevanda sufficiente per 1728 lillipuziani qualche tempo dopo domandai ad un amico di corte come fossero giunti a stabilire quel numero preciso ed egli mi rispose che i matematici di sua maestà avendo misurata l'altezza del mio corpo con l'aiuto di un quadrante e avendo trovato che superava il loro nella misura di 12 a 1 avevano concluso data anche la somiglianza del loro corpo col mio che il mio doveva contenere almeno 1728 dei loro e di conseguenza aveva bisogno di tanto cibo quanto era necessario per nutrire un egual numero di lillipuziani da ciò il lettore può farsi un'idea dell'ingegno di questo popolo e della prudente e meticolosa economia di un così potente principe capitolo quarto descrizione di Mildendo metropoli di Lilliput e del palazzo dell'imperatore conversazione tra l'autore e il primo segretario di stato circa gli affari dell'impero l'autore propone di aiutare l'imperatore in guerra per prima cosa dopo aver recuperato la libertà chiesi il permesso di visitare Mildendo la capitale l'imperatore me lo concedette facilmente ma con particolare ingiunzione di non recar danni agli abitanti e alle loro case un proclama rese noto al pubblico la mia intenzione di visitare la città il muro che la cingeva era alto due piedi e mezzo e largo almeno 11 pollici così che vi si poteva guardare attorno con sicurezza una carrozza a cavalli poderose torri a dieci piedi di distanza l'una dall'altra garantivano la difesa di fianco scavalcai la gran porta occidentale e camminando di lato con gran precauzione percorsi le due strade principali indossando il solo panciotto per paura di danneggiare i tetti e le grondaie con le falde della giacca camminavo con la maggior cautela per evitare di calpestare qualche vagabondo che indugiasse per via nonostante i severi ordini impartiti a tutti i cittadini di restare in casa e non uscire se non a proprio rischio e pericolo le finestre delle soffitte e i tetti erano così gremiti di spettatori che mi parve di non aver mai visto in tutti i miei viaggi un luogo più popolato la città è un quadrato esatto il cui lato lungo le mura è lungo 500 piedi le due strade principali che incrociandosi la dividono in quattro quartieri sono larghe 5 piedi i vicoli e i viali nei quali non potei entrare limitandomi a guardarli passando hanno una larghezza che va dai 12 ai 18 pollici la città può ospitare 500.000 anime le case hanno da 3 a 5 piani le botteghe e i mercati sono ben provvisti nel centro della città dove le due vie principali si incontrano sorge il palazzo dell'imperatore è cinto da un muro alto due piedi e distante venti dall'edificio ebbi da sua mesta il permesso di scavalcarlo ed essendovi tanto spazio tra il muro e il palazzo potei esaminare quest'ultimo da ogni lato a tutto mio agio il cortile esterno è una piazza di 40 piedi che comprende altri due cortili nel più interno sorgono gli appartamenti reali che io tanto desideravo vedere ma la cosa era assai difficile perché le grandi porte che facevano comunicare un cortile con l'altro erano alte solo 18 pollici e larghe 7 e d'altra parte gli edifici del cortile esterno erano alti almeno 5 piedi così che mi era impossibile scavalcarli senza infinito danno del fabbricato sebbene le mura fossero solidamente costruite di pietra tagliata e spesse 4 pollici l'imperatore desiderava vivamente che io ammirassi lo sfarzo del suo palazzo ma io potei farlo solo dopo aver impiegato tre giorni a tagliare col mio coltello alcuni fra gli alberi più grossi del parco reale distante dalla città un centinaio di yardee con questi alberi mi feci due sgabelli alti circa a tre piedi e abbastanza solidi per sostenere il mio peso e dopo che la cittadinanza fu avvisata una seconda volta del mio passaggio attraversai di nuovo la capitale fino alla reggia con i miei due sgabelli in mano giunto al lato del cortile esterno salì su uno sgabello tenendo in mano l'altro che passai al di sopra del tetto e deposi con precauzione nello spazio tra il primo e il secondo cortile largo otto piedi potei così scavalcare facilmente il fabbricato passando da uno sgabello all'altro e mi tirai dietro il primo con un bastoncello ricurvo con questo artificio giunsi nel cortile interno e coricatomi su di un fianco avvicinai il volto alle finestre del piano nobile che spalancate per l'occasione lasciavano vedere i più splendidi saloni che si possano immaginare vidi là l'imperatrice e i giovani principi nei loro rispettivi appartamenti e circondati dal loro seguito sua maestà imperiale si compiacque di rivolgermi il più grazioso sorriso e mi porse dalla finestra la mano da baciare ma non voglio anticipare al lettore ulteriori descrizioni di questo genere perché le riservo per un'opera più vasta già quasi pronta per le stampe contenente la descrizione di questo impero dalla sua fondazione attraverso una lunga serie di principi con particolare riferimento alle loro guerre politica leggi cultura e religione nonché alle piante agli animali ai particolari usi e costumi e ad altri argomenti molto curiosi e distruttivi qui mi voglio solo limitare a riferir fatti o vicende accaduti al pubblico o a me stesso durante il mio soggiorno di circa nove mesi in quell'impero un mattino circa due settimane dopo aver ottenuto la libertà reldresal primo segretario come lo chiamano degli affari privati venne a casa mia seguito da un solo domestico diede ordine che la sua carrozza lo attendesse a qualche distanza e mi pregò di concedergli un'ora di udienza io mi affrettai a consentire non solo per riguardo alla sua carica e ai suoi meriti personali ma ancor più per i buoni uffici che mi aveva prestato nel periodo delle mie sollecitazioni a corte ero disposto a stendermi sul pavimento perché potesse più facilmente giungere al mio orecchio ma egli preferì che lo tenessi in mano durante la nostra conversazione cominciò col rallegrarsi per la mia recuperata libertà dicendo che si lusingava di avervi un po' contribuito e aggiunse che comunque fosse non l'avrei forse ottenuta così facilmente se non fosse stato per le attuali condizioni in cui la corte versava perché disse per quanto florido possa apparire ad uno straniero il nostro stato siamo travagliati da due gravi malanni una violenta fazione all'interno e il pericolo di un'invasione da parte di un potentissimo nemico esterno quanto alla prima dovete sapere che da più di 70 lune due partiti sono in lotta in questo impero quello dei Tramexan e quello degli Slamexan nomi che derivano rispettivamente dai tacchi alti o bassi delle calzature che li contraddistinguono si sostiene infatti che i tacchi alti siano più conformi alla nostra antica costituzione ma comunque sia sua maestà ha deciso di valersi solo dei tacchi bassi nell'amministrazione statale e in tutti gli uffici in privilegio della corona come voi non potrete far meno di notare come pure noterete il fatto significativo che i tacchi di sua maestà imperiale sono di almeno un Drur più bassi di tutti quelli che si vedono a corte il Drur corrisponde circa ad un quattordicesimo di pollice l'antagonismo tra questi due partiti giunge a tal segno che mai essi mangiano bevono parlano insieme calcoliamo che i Tramexan o tacchi alti ci siano superiori nel numero ma il potere è tutto dalla nostra parte purtroppo sembra che sua altezza imperiale l'erede della corona abbia una certa simpatia per i tacchi alti perlomeno si può facilmente notare che porta un tacco più alto dell'altro cosa che gli rende l'andatura un po' zoppicante orbene nel bel mezzo di queste inquietudini interne siamo minacciati da un'invasione da parte dell'isola di Blefuscu l'altro grande impero dell'universo vasto e potente quasi come quello di sua maestà perché quanto a ciò che vi abbiamo dito affermare che vi sono cioè nel mondo altri stati arreami abitati da creature umane grandi come voi i nostri filosofi hanno molti dubbi e sono piuttosto propensi a credere che siate caduto dalla luna o da qualche stella perché una cosa è certa che un centinaio di mortali della vostra mole distruggerebbero in breve tutti i frutti e il bestiame dei domini di sua maestà senza contare che le nostre cronache di 6.000 lune non fanno mai menzione di altre regioni che non siano i due grandi imperi di Lilliput e di Blefuscu queste due grandi potenze come stavo per dirvi sono impegnate in una guerra senza quartiere da ben 36 lune la cosa è cominciata così tutti sanno che il più antico sistema di romperle uova prima di mangiarle è quello di aprire il guscio dall'estremità più grossa ma accadde al nonno della sua attuale maestà quando era ancora fanciullo di tagliarsi un dito nel rompere secondo l'antico uso un uovo servitogli a colazione e l'imperatore suo padre pubblicò senz'altro un editto con il quale comandava tutti i propri sudditi sotto minaccia di gravi pene di romperle uova solo dall'estremità più affilata il popolo si risentì talmente di questa legge che a quanto narrano le nostre storie ben sei ribellioni scoppiarono per tal motivo durante le quali un imperatore perse la vita e un altro la corona queste discordie civili erano continuamente fomentate dai monarchi di Blefuscu e ogni volta che si riusciva a soffocarle gli esoli trovavano immancabilmente rifugio in quell'impero si calcola che non meno di undicimila persone in epoche diverse accettaron la morte piuttosto che sottomettersi a romperle uova dalla parte più piccola parecchie centinaia di grossi volumi sono stati pubblicati su tale controversia ma i libri dei parte grossiani sono stati da lungo tempo proibiti e l'intero partito è interdetto dai pubblici uffici nel corso di questi torbidi gli imperatori di Blefuscu protestarono spesso per mezzo dei loro ambasciatori accusandoci di creare uno scisma religioso inonta ad un fondamentale insegnamento del nostro gran profeta Lustrog quale appare nel 54esimo capitolo del Blundekral che sarebbe il loro corano si tratta evidentemente di un'interpretazione forzata del testo il quale suona così tutti i veri credenti rompano le uova dall'estremità conveniente e quale poi sia l'estremità conveniente secondo il mio umile parere sembra lasciato al giudizio della coscienza di ognuno o almeno a quello della magistratura suprema gli esuli parte grossiani dunque trovarono un tal credito alla corte dell'imperatore di Blefuscu e tanto appoggio e incoraggiamento da parte dei loro confratelli rimasti in patria che per 36 lune una sanguinosa guerra infierì tra i due imperi con vario successo in questo tempo noi abbiamo perduto 40 navi di linea e un numero molto maggiore di vascelli più piccoli nonché 30.000 soldati e marinai tra i migliori che avessimo le perdite del nemico sono calcolate alquanto superiori alle nostre comunque sia esso ha ora armato una numerosa flotta e si prepara appunto a fare una spedizione contro di noi sua maestà imperiale riponendo nel vostro valore e nella vostra forza la massima fiducia mi ha comandato di esporvi questo stato di cose io pregai il segretario di voler presentare all'imperatore il mio umile omaggio e di fargli sapere che nella mia qualità di straniero non credevo mi si addicesse ingerirmi nelle lotte di partito ma che ero pronto anche a rischio della vita a difendere la sua persona e il suo stato contro qualunque invasore capitolo quinto l'autore previene un'invasione per mezzo di uno straordinario stratagemma gli è conferito un alto titolo onorifico arrivano da parte dell'imperatore di blefusco ambasciatori a chiederla pace un incendio scoppia per caso negli appartamenti dell'imperatrice l'autore serve di strumento per salvare il resto del palazzo l'impero di blefusco è un'isola situata a nord est di lilliput da cui è separato solo da un canale largo 800 yard non l'avevo ancora visto e avuta notizia della progettata invasione evitai di mostrarmi su quel lato della costa per tema di essere avvistato da qualche nave del nemico il quale non sapeva nulla di me essendo stata rigorosamente proibita durante la guerra sotto pena di morte ogni comunicazione fra i due imperi e posto un embargo per ordine del nostro imperatore su tutte le navi comunicai all'imperatore un progetto che avevo formulato per catturare l'intera flotta nemica la quale come assicuravano i nostri esploratori era ancora nel porto pronta a far vela al primo spirale del vento favorevole consultai i più esperti navigatori sulla profondità del canale da loro più volte scandagliato ed essi mi dissero che nel mezzo durante l'alta marea era profondo 70 glungluf vale a dire circa 6 piedi di misura europea e 50 glungluf al più in ogni altro punto mi incamminai verso la costa a nord-est di fronte a Blefusco e sdraiatomi dietro una collinetta tirai fuori il mio piccolo cannocchiale e osservai la flotta nemica all'ancora forte di circa 50 grandi navi da battaglia e di un gran numero di navi da trasporto tornai allora a casa e ordinai ne avevo avuto speciale autorizzazione di portarmi una grande quantità delle più forti gomene che avessero e di sbarre di ferro le gomene erano grosse su per giù come spaghi e le sbarre della lunghezza e dimensione di un ferro da calza triplicai la fune per renderla più forte e per la stessa ragione attorcigliai insieme a 3 a 3 le sbarre di ferro piegandone le estremità a uncino fissati così 50 uncini ad altrettante gomene tornai alla costa di nord est e toltimi l'abito le scarpe e le calze entrai in mare con la sola giacca di cuoio circa mezz'ora prima dell'alta marea andai a guado più celermente che potei e giunto nel mezzo nuotai per una trentina di iarde finché toccai fondo in meno di mezz'ora arrivai alla flotta al vedermi i nemici furono così atterriti che balzaron giù dalle loro navi guadagnando a nuoto la costa dove si erano radunate non meno di 30.000 persone allora presi il mio cordame e fissato l'uncino all'occhio di cubia di ogni nave annodai insieme tutte le corde all'altra estremità durante questa operazione il nemico mi scaricò addosso qualche migliaio di frecce parecchie delle quali mi rimasero infisse nelle mani e nel volto cosa che oltre al tremendo bruciore diede non poca noia al mio lavoro temevo soprattutto per gli occhi e li avrei senza dubbio perduti se non avessi subito pensato ad un espediente avevo con me tra altre cosette di uso comune un paio di occhiali in quella tasca segreta che come ho già detto era sfuggita all'imperiale perquisizione li tirai fuori e me li assicurai al naso più stabilmente che potei così armato prosegui in pavi del mio lavoro a dispetto delle frecce del nemico che battevano in gran numero contro i vetri degli occhiali ma senza altro effetto che di spostarli appena avevo frattanto fissato tutti gli uncini e afferrato il nodo delle corde cominciai a tirare ma nemmeno una delle navi tutte saldamente assicurate all'ancora si mosse mi restava dunque da compiere la parte più rischiosa dell'impresa abbandonai allora la corda e lasciando gli uncini infissi nelle navi tagliai risolutamente col mio coltello le funi delle ancore buscandomi circa 200 scariche nella faccia e nelle mani poi ripresi le corde legate insieme che facevano capo agli uncini e con tutta facilità mi tirai dietro 50 delle più grosse navi da battaglia nemiche i blefuskudiani che non avevano la minima idea di quello che volevo fare da prima rimasero sbigottiti mi avevano visto tagliare le funi delle ancore e credevano che volessi solo lasciare andare le navi alla deriva o farle cozzare l'una contro l'altra ma quando si accorsero che l'intera flotta se ne andava via in bell'ordine e videro me che me la tiravo dietro mandarono un tal grido di ambascia e di disperazione che è quasi impossibile descriverlo d'immaginarlo uscito di pericolo mi fermai un poco per liberarmi mani e faccia dai dardi che vi si erano conficcati e un gerlet con quello stesso unguento che mi era stato dato al mio arrivo come ho già narrato poi mi tolsi gli occhiali e dopo aver aspettato per circa un'ora che la marea fosse un po' calata passai a guado il mezzo del canale col mio convoglio e arrivai sano e salvo nel regalporto di Lilliput l'imperatore e tutta la sua corte stavano sulla spiaggia aspettando l'esito di questa grande avventura videro le navi che venivano avanti formando una vasta mezzaluna ma non potevano scorgere me che ero nell'acqua fino al petto e quando poi fui giunto in mezzo al canale più che mai crebbe la loro apprensione perché io era sott'acqua fino al collo l'imperatore non dubitò più che fossi annegato e che la flotta nemica avanzasse con intenzioni ostili ma fu presto liberato dei suoi timori perché il canale diveniva meno profondo ad ogni passo che facevo io fu in breve a portata di voce e allora levando in aria le estremità delle funi a cui era legata la flotta gridai forte viva l'imperatore di Lilliput potente fra i potenti appena toccai terra quel gran principe mi elargì ogni possibile lode creandomi Nardak sul posto che è il più alto titolo onorifico dell'impero sua maestà mi pregò poi di cogliere qualche altra occasione per portare nei suoi porti tutto il rimanente della flotta nemica così insaziabile è l'ambizione dei principi che gli sembrava pensare niente meno che a ridurre a sua provincia l'intero impero di Blefuscu facendolo governare da un vicere a sterminare gli esuli parte grossiani e a costringere tutta la popolazione a romper le uova dall'estremità più affilata sarebbe rimasto così l'unico monarca di tutto il mondo ma io cercai di distoglierlo da questo progetto con argomenti tratti a profusione dalla politica non meno che dalla giustizia e dichiarai esplicitamente che non mi sarei reso strumento per ridurre in schiavitù un popolo libero e valoroso quando la questione fu discussa in consiglio i ministri più saggi furono della mia opinione questa mia aperta e coraggiosa affermazione si trovò in tal contrasto con le mire politiche di sua maestà imperiale che mai egli me la perdonò e molto artatamente ne fece allusione in consiglio dove mi fu detto che alcuni dei più saggi si mostrarono con loro silenzio almeno così parve a me favorevoli ma altri segretamente miei nemici non poterono trattenere certe espressioni che indirettamente si riferivano a me da questo momento tra sua maestà e una cabala di ministri a me ostile cominciò un intrigo che scoppiò in meno di due mesi e per poco non fu causa della mia completa rovina di così poco peso diventavano i massimi servigi resi ai principi quando nell'altro piatto della bilancia si mette un rifiuto a soddisfare le loro passioni circa tre settimane dopo questa trionfale impresa una solenne ambasceria giunse da Blefuscu con umili offerte di pace e questa fu subito conclusa a condizioni molto vantaggiose per il nostro imperatore non ti adierò il lettore numerandogliele erano sei ambasciatori con un seguito di circa cinquecento persone e il loro ingresso avvenne con magnificenza degna della grandezza del loro signore e dell'importanza del loro mandato concluse le trattative nel corso delle quali io avevo prestato loro più volte i miei buoni uffici grazie al credito di cui ora godevo o almeno sembravo godere a corte le loro eccellenze privatamente informate di quanto io mi fossi mostrato loro difensore mi fecero una visita di cerimonia cominciarono col colmarmi di complimenti sul mio valore e la mia generosità mi invitarono in nome dell'imperatore loro signore a visitare quegli stati e mi pregarono di mostrar loro qualche saggio della mia forza prodigiosa di cui avevano sentito tante meraviglie mi affrettai a soddisfarli ma non annoierò il lettore con i particolari dopo aver intrattenuto un po' le loro eccellenze con compiacimento e stupore infiniti da parte loro li pregai di voler farmi l'onore di presentare i miei umili omaggi all'imperatore loro signore la fama delle cui virtù aveva riempito di ammirazione l'intero universo e alla cui regal persona era mia intenzione inchinarmi prima di tornare nel mio paese infatti la prima volta che nuovamente ebbi l'onore di vedere il nostro imperatore gli chiesi genericamente licenza di visitare il monarca Blefuscudiano ed egli si degnò di accomodarmela con una freddezza che potei scorgere chiaramente non seppi darmene ragione finché qualcuno mi sussurrò che Flimnap e Balgolam avevano presentati i miei rapporti con gli ambasciatori come indizi di una slealtà davvero ben lungi dall'essere nel mio cuore fu questa la prima volta in cui cominciai a farmi qualche vaga idea delle corti e dei ministri dimenticavo di dire che quegli ambasciatori mi avevano parlato per mezzo di un interprete perché gli idiomi dei due imperi differiscono l'uno dall'altro quanto due diverse lingue europee e ognuna delle due nazioni va fiera dell'antichità bellezza ed efficacia della propria lingua apertamente disprezzando quella del vicino tuttavia il nostro imperatore forte della superiorità ottenuta con la cattura della loro flotta li aveva costretti a presentare le credenziali e a tenere i loro discorsi in lingua lillipuziana il bello è che per i continui rapporti di traffici e commerci fra i due paesi per l'accoglienza costantemente e reciprocamente concessa agli esuli e per l'abitudine invalsa nei due imperi di mandarne l'altro i giovani della nobiltà e delle classi ricche perché compiano la propria educazione conoscendo il mondo e acquistando esperienza di uomini e di costumi ben pochi sono i rappresentanti delle classi alte i commercianti gli uomini di mare e dimoranti sulla costa che non sappiano parlare nelle due lingue me ne accorsi qualche settimana dopo quando andai a presentare i miei omaggi all'imperatore di blefusco visita questa che quando mi trovai nelle disgrazie tiratemi addosso dalla malignità dei miei nemici si rivelò per me gran ventura come riferirò a suo luogo il lettore ricorderà che quando firmai le convenzioni in base alle quali recuperavo la libertà alcune di esse mi piacquero assai poco perché troppo servili e solo un'estrema necessità mi aveva costretto ad accettarle adesso che ero un nardac e appartenevo così alla più alta classe dell'impero tali uffici erano considerati al di sotto della mia dignità e l'imperatore per rendergli giustizia non vi accennò nemmeno una volta eppure non passò molto che ebbi l'occasione di rendere a sua maestà almeno così credetti allora il più segnalato dei servigi fui chiamato in piena notte dalle grida di molte centinaia di persone che facevano ressa alla mia porta e bruscamente svegliato provai un senso di terrore udivo la parola burglum continuamente ripetuta parecchi cortigiani fattisi largo tra la folla mi pregarono di venire subito alla reggia dove gli appartamenti di sua maestà l'imperatrice erano in fiamme in seguito all'imprudenza di una damigella d'onore che si era addormentata leggendo un romanzo mi tirai su in un attimo e poiché si era già dato ordine di sgombrare le strade dinanzi a me feci in modo di arrivare al palazzo senza calpestare nessuno favorito inoltre da una notte lunare trovai le scale appoggiate alle mura e secchi in abbondanza ma l'acqua era piuttosto distante i secchi erano poco più grandi di un ditale quella povera gente me li porgeva più in fretta che poteva ma poco giovavano contro la fiamma gagliarda avrei potuto facilmente soffocarla con la mia giacca ma nella furia l'avevo disgraziatamente dimenticata e mi trovavo col solo panciotto di cuoio la situazione sembrava disperata e miseranda e quella magnifica reggia sarebbe inevitabilmente precipitata in fiamme se una presenza di spirito in me insolita non mi avesse fatto balenare ad un tratto un'idea la sera prima avevo bevuto abbondantemente un eccellente vino chiamato Glimingrim i blefuscudiani lo chiamano Flunek ma il nostro è considerato migliore che ha virtù intensamente diuretiche e per colmo di fortuna non me ne era alleggerito nemmeno di una goccia il caldo che mi veniva dalla vicinanza delle fiamme e dalla fatica che faceva a cercare di spegnerle facilitò al vino il suo effetto ed io versai così abbondantemente le mie acque convogliandole tanto bene nei punti più opportuni che in tre minuti il fuoco era totalmente estinto e salvato dalla distruzione il resto di quella nobile mole la cui costruzione aveva richiesto il lavoro di tanti secoli era ormai giorno e io tornai alla mia casa senza attendere di congratularmi con l'imperatore perché sebbene gli avessi reso un eminente servigio non avevo idea di come sua maestà avrebbe giudicato il modo da me seguito per renderglielo il fatto è che le fondamentali leggi del reame considerano delitto capitale per chiunque a qualsiasi grado e condizione appartenga lo spander acqua entro la cerchia della reggia mi rassicurò un poco un messaggio di sua maestà con il quale mi assicurava che avrebbe dato ordine al ministro della giustizia di condonare ufficialmente il mio fallo pubblico condono che tuttavia non riuscì mai ad ottenere mi fu fatto invece privatamente sapere che l'imperatrice sconvolta dalla più profonda nausea per ciò che avevo fatto si era trasferita nella più remota ala del palazzo dopo aver irrevocabilmente stabilito che mai più quegli appartamenti sarebbero stati restaurati per suo uso ne si era potuta trattenere in presenza dei suoi più intimi confidenti dal giurarmi di eterna vendetta capitolo sesto qualche cosa sugli abitanti di Lilliput loro cultura legge e costumi modo con cui è educata la gioventù tenor di vita dell'autore in quel paese egli rivendica la reputazione di una grande dama sebbene abbia intenzione di affidare la descrizione di quest'impero ad un trattato particolare desidero nel frattempo soddisfare la curiosità del lettore con qualche nozione generale l'altezza media degli abitanti è un po' inferiore ai 6 pollici e quella di tutti gli altri animali delle piante degli alberi è perfettamente proporzionata alla loro per esempio i grossi cavalli e buoi oscillano tra i 4 e i 5 pollici e le pecore tra un po' più o un po' meno di un pollice e mezzo le oche hanno circa la grandezza di un passero e così si scende di grado in grado fino alle creature più minuscole al mio occhio invisibili ma la natura ha adattato gli occhi dei Lillipuziani e gli oggetti che devono vedere vedono con gran precisione ma non a grande distanza per dare un'idea dell'acutezza della loro vista relativamente ad oggetti vicini ricorderò di aver osservato con molto interesse un cuoco che sventrava una lodola più piccola di una mosca comune e una giovinetta che infilava in un ago invisibile un'invisibile seta i loro più alti alberi sono di circa sette piedi intendo alcuni di quelli del Gran Parco Reale le cui cime riusciva appena a stringere in pugno il resto della vegetazione è nelle stesse proporzioni ma lascio al lettore di immaginarselo dirò per ora solo poche cose della loro cultura che per molti secoli è fiorita laggiù in tutti i rami del sapere tutta particolare la loro scrittura perché non vanno da sinistra a destra come gli europei né da destra a sinistra come gli arabi e nemmeno da sopra in sotto come i cinesi né da sotto in sopra come i cascagiani ma obliquamente da un angolo del foglio all'altro come le signore in Inghilterra seppelliscono i loro morti con la testa in giù perché sono convinti che fra 11.000 lune tutti dovranno nuovamente risorgere e che in quel periodo la terra che immaginano piatta si rovescerà sottosopra così alla resurrezione si troveranno dritti in piedi i loro dotti non si riconoscono l'assordità di questa dottrina ma la pratica continua tuttavia per compiacere il volgo alcune leggi e usanze di questo impero sono singolarissime e se non si trovassero in diretto contrasto con quelle del mio amato paese sarei tentato di dire qualche cosetta in loro favore ci sarebbe solo da desiderare che fossero ugualmente ben rispettate riferirò per prima la legge relativa alle delazioni tutti i delitti contro lo stato sono puniti con la massima severità ma se l'accusato prova chiaramente in giudizio la propria innocenza l'accusatore è immediatamente messo a morte ignominiosa e con i suoi beni e possedimenti l'innocente è compensato al quadruplo del tempo che gli si è fatto perdere del pericolo che ha corso della durezza della prigionia e delle spese fatte per difendersi se il patrimonio dell'accusatore non basta a questo interviene generosamente la corona l'imperatore conferisce inoltre all'innocente un pubblico segno del suo favore e l'innocenza di lui viene proclamata per tutta la città considerano la frode delitto più grave del furto e di rado la puniscono altrimenti che con la morte affermano infatti che con l'attenzione e la vigilanza e un po' di senso comune è facile salvare dai ladri la propria roba ma l'onestà non ha difesa contro una raffinata scaltrezza e poiché è necessario che vi siano continui rapporti di compra e vendita e di affari su credito il commerciante onesto ha sempre la peggio a vantaggio dei furfanti laddove la frode è permessa o è fomentata o non ha leggi che la puniscono ricordo che una volta intercedevo presso l'imperatore a favore di un briccone che aveva derubato il suo principale di una grossa somma rendendosi uccell di bosco dopo averla riscossa per mandato ed essendomi capitato di dire a sua maestà per attenuare la sua colpa che dopo tutto si trattava solo di un abuso di fiducia l'imperatore trovò mostruoso da parte mia che adducessi come difesa la maggior aggravante del reato a dire il vero trovai ben poco da rispondergli se non che ogni paese ha le sue usanze vieta frase che non mi impedì di provare la più schietta vergogna per quanto si sia abituati a chiamare ricompensa e castigo i due cardini su cui gira ogni governo non ho mai visto tuttavia mettere in pratica questa norma da alcuna nazione eccettuata quella di Lilliput chiunque possa addurre prove bastanti di aver scrupolosamente osservato le leggi del paese per 73 lune acquista il diritto a determinati privilegi secondo il suo grado e condizione e ad una proporzionata somma di denaro prelevata da un apposito fondo gli ha inoltre conferito il titolo di Snilpal ossia legale che viene unito al suo nome ma non è trasmissibile quando io dissi che le nostre leggi si appoggiano solo sulla combinazione della pena senza mai far menzione ad una ricompensa ciò fu considerato da quel popolo come uno sbalorditivo errore politico appunto per questo l'immagine della giustizia nei loro tribunali è rappresentata con sei occhi due davanti altrettanti di dietro e uno ad ogni lato per significare circospezione nella destra tiene un sacchetto aperto e colmo d'oro con la sinistra impugna una spada inguainata a dimostrare che essa è più disposta alla ricompensa che alla pena nello scegliere i pubblici funzionari badano più alle doti morali che all'eccellenza delle abilità poiché infatti un governo è necessario all'uman genere essi considerano più che sufficiente per le varie cariche un'intelligenza media convinti come sono che la provvidenza non ha certo inteso fare dell'amministrazione della cosa pubblica un mistero comprensibile solo da pochi sublimi ingegni come raramente ne nascono tre in un secolo pensano invece che la schiettezza la giustizia la temperanza e le altre virtù di egual genere sono alla portata di ognuno e praticate con il sussidio dell'esperienza e della buona volontà rendono capace ogni cittadino di servire il proprio paese salvo i casi in cui siano necessari particolari studi ma a parer loro la mancanza di virtù morali è così lungi dal poter essere compensata da un'intelligenza superiore che i pubblici impieghi mai dovrebbero essere affidati a mani pericolose come quelle di un uomo di molto ingegno e di pochi scrupoli comunque gli errori commessi per ignoranza da un uomo onesto non avranno mai per il pubblico bene le fatali conseguenze dei raggiri di un uomo corrotto e particolarmente abile a manovrare moltiplicare e difendere la sua corruzione del pari la mancanza di fede nella provvidenza divina porta all'interdizione dai pubblici uffici perché se i sovrani si riconoscono rappresentanti della provvidenza nulla a parer dei lillipuziani è più assurdo per un principe di tenere a suo servizio uomini che rinneghino l'autorità in nome della quale egli agisce nel riportare queste leggi e quelle che seguiranno devo chiarire che intendo sempre riferirmi alle istituzioni originali e non già alle corruzioni scandalosissime in cui questo popolo è caduto nel fatale degenerare della natura umana per quel che riguarda ad esempio l'infame costume di arraffare le alte cariche con giochi di equilibrio o segni di favore e decorazioni saltando sopra o strisciando sotto i bastoncelli sappia il lettore che si tratta di usi introdotti per la prima volta dal nonno dell'imperatore ora regnante e giunti all'attuale abuso grazie al continuo prosperare dei partiti e delle fazioni l'ingratitudine è considerata da quel popolo delitto capitale così come si legge che è avvenuto in qualche altro paese ragionano infatti così chiunque dà un cattivo contraccambio al proprio benefattore deve essere naturale nemico del restante genere umano con il quale non ha obbligo alcuno e di conseguenza un uomo simile non è degno di stare in vita le loro idee circa i doveri dei genitori e dei figli sono quantomai diverse dalle nostre poiché infatti l'accompiamento del maschio con la femmina poggia sulla gran legge naturale intesa a propagare e continuare la specie i lillipuziani tengono come un dato di fatto che l'uomo e la donna si congiungono esattamente come gli altri animali per soddisfare la concupiscenza e che le loro tenerezze verso i figli procedono dalla stessa legge naturale non possono dunque ammettere che un fanciullo sia minimamente obbligato al padre suo per averlo generato o alla madre per averlo portato al mondo cosa che considerando le miserie della vita umana né è un beneficio in se stessa né è stata considerata tale dai genitori i quali nei loro amorosi incontri pensavano a ben altro per queste simili ragioni essi pensano che i genitori sono gli ultimi a cui convenga affidare l'educazione dei figli vi sono dunque in ogni città pubblici asili di infanzia dove tutti i padri e le madri eccettuati i contadini e gli agricoltori sono obbligati per legge ad inviare i loro figli dei due sessi per essere allevati ed educati non appena giunti all'età di 30 lune quando cioè si suppone che abbiano raggiunto un certo grado di docilità queste scuole sono di vario genere a seconda della diversità del grado sociale e del sesso professori di grande perizia preparano i fanciulli ad una condizione di vita conforme al ceto dei genitori e alle capacità e inclinazioni di loro stessi dirò qualche cosa prima degli asili maschili poi di quelli femminili gli istituti per maschi di nascita nobili o illustre sono provveduti di professori pieni di gravità e di dottrina i quali hanno vari aiutanti gli abiti e il vitto dei ragazzi sono semplici e schietti essi sono educati nei principi dell'onore della giustizia del coraggio della modestia della clemenza della religione dell'amor patrio sempre si dà loro qualche cosa da fare salvo i brevissimi intervalli dedicati al nutrimento e al sonno e due ore di ricreazione consistente in esercizi fisici fino a 4 anni sono vestiti dai domestici ma da quell'età devono vestirsi da soli per quanto sia alta la loro condizione le domestiche tutte di un'età corrispondente ai nostri 50 anni sono adibite solo alle più umili mansioni i giovinetti non hanno licenza di parlare con la servitù ma si prendono i loro sbagli a gruppi più o meno numerosi sotto la sorveglianza di un professore o di un suo aiutante si evitano così quelle precoci cattive impressioni di follia o di vizio da cui i nostri fanciulli non sono difesi ai genitori si permette di visitarli solo due volte l'anno e la visita non può protrarsi oltre un'ora essi possono baciare il fanciullo al primo vederlo e nel prender congedo ma un professore sempre presente in queste occasioni non permette che gli parlino all'orecchio o gli facciano moine o gli regalino giocattoli dolciumi e cose simili la retta che ogni famiglia deve pagare per l'educazione e il mantenimento del fanciullo se non è debitamente pagata viene riscossa da funzionari imperiali gli istituti per i figli dei borghesi commercianti bottegai e artigiani sono regolati proporzionalmente in egual modo solo che i ragazzi destinati ad un mestiere a 11 anni sono impiegati come apprendisti mentre gli appartenenti a famiglie più cospicue continuano la loro istruzione fino ai 15 che corrisponderebbero ai nostri 21 vero è che negli ultimi tre anni la reclusione diviene gradatamente meno rigorosa negli educandati femminili le nobili giovinette sono educate soppergiù come i maschi solo che sono vestite ogni mattina da serventi del loro stesso sesso sempre ben inteso in presenza di un professore o di un suo aiutante finché non si vestono da sole cioè all'età di 5 anni e se qualcuna di queste domestiche viene sorpresa a raccontar loro storielle paurose o sciocche o a far di quelle scemenze così comuni alle nostre cameriere la colpevole viene frustata per tre volte tutti in giro alla città imprigionata per un anno ed esiliata a vita nella più desolata parte del paese così le giovinette di laggiù si vergognano non meno dei maschi di essere codarde o sciocche e disprezzano tutti quei fronzoli che cedono dalla proprietà e dalla decenza non ho mai notato nella loro educazione alcuna differenza concessa al loro sesso se non che gli esercizi fisici sono per loro meno violenti vengono loro impartite alcune norme di vita domestica e meno esteso è il campo dei loro studi perché è massima lillipuziana che nelle classi elevate una moglie dovrebbe essere sempre una compagna piacevole e intelligente visto che non può restare sempre giovane quando le fanciulle hanno raggiunto i 12 anni che fra loro è l'età del matrizio tornano nella casa dei genitori o dei tutori dopo aver espresso la loro profonda gratitudine agli insegnanti e raramente senza lacrime da parte della fanciulla e delle sue compagne negli educandati per le fanciulle di inferiore condizione queste vengono educate in tutti i lavori adatti al loro sesso e ai loro vari gradi sociali quelle che devono divenire apprendiste sono rilasciate a 7 anni le altre a 11 le famiglie più umili che hanno i figli in questi asili sono obbligate a versare all'economo dell'istituto oltre alla retta annua il più possibile modesta una piccola parte dei loro guadagni mensili che serva di dote al fanciullo così tutti coloro che hanno figli devono limitarsi per legge nelle spese perché i lillipuziani pensano che nulla è più ingiusto di metter figli al mondo per soddisfare i propri appetiti e lasciar poi alla società il peso del loro mantenimento quanto alle persone di alto grado devono dar garanzia di intestare una data somma a ciascun figlio a seconda della loro condizione questi fondi sono sempre amministrati con perfetta economia e rigorosa giustizia gli agricoltori e i contadini si tengono i figli a casa intenti solo ad arare e coltivare la terra così che la loro educazione è poco grava sulla società quando sono vecchi o inabili al lavoro vengono accolti dagli ospizi perché l'accattonaggio è un mestiere ignoto in questo impero forse il curioso lettore si divertirà ad aver qualche notizia sul modo con cui regolai la mia vita privata durante i nove mesi e tredici giorni che soggiornai in quel paese ingegnoso per natura e costretto dalla necessità mi ero costruito da me un tavolo e una sedia abbastanza comodi servendomi dei più grossi alberi del parco reale duecento cucitrici furono impiegate a farmi camice e biancheria da letto e da tavola con le più resistenti e rozze tele che si poteron trovare e dovettero tuttavia cucirne insieme diversi strati perché le più spesse erano assai più sottili della tela d'olanda la loro tela è di solito larga a tre pollici e tre piedi di essa formano una pezza per prendermi le misure le cucitrici mi fecero sdraiare a terra una mi montò sul collo un'altra a metà gamba tenendo ognuno un'estremità di una robusta cordicella ben tesa una terza misurava la lunghezza della cordicella con un regolo lungo un pollice poi mi presero la circonferenza del pollice destro e non vollero altro perché in base al calcolo matematico che raddoppiando la circonferenza del pollice sia quella del polso e così di seguito fino al collo e alla vita e con l'aiuto della mia camicia vecchia che spiegai a terra dinanzi a loro perché ne prendessero il modello mi misero a posto perfettamente 300 sarti furono parimenti impiegati per farmi gli abiti ma essi seguirono un altro sistema per prendermi le misure mi fecero inginocchiare e alzarono una scala che da terra mi arrivava fino al collo uno di loro montò su questa scala e dal mio colletto lasciò cadere un filo a piombo fino a toccare il pavimento prendendo così la misura esatta della mia giacca la vita e le braccia me le misurai da me i miei abiti quando furono finiti lavoro che fu fatta a casa mia perché le loro più grandi case non avrebbero potuto contenerli ricordavano un po' le coperte che le signore inglesi fanno cucendo insieme tanti scacchi di stoffa variopinta solo che i miei scacchi erano tutti di un colore avevo al mio servizio 300 cuochi che abitavano con le loro famiglie in comode tende costruite intorno alla mia casa ognuno mi preparava due piatti io prendevi in mano 20 camerieri e li ponevo sulla tavola più di un centinaio rimaneva giù sul pavimento chi con piatti di carne e chi con barilli di vino e altre bevande che si tenevano legati sulle spalle e a mano a mano che ne avevo bisogno i servitori tiravano su tutto dall'alto in modo assai ingegnoso così come noi in Europa tiriamo su un secchio da un pozzo un piatto della loro carne era per me un boccone normale e un loro barile mi offriva una sorsata ragionevole il loro agnello è inferiore al nostro ma il bue è eccellente una volta mi capitò una costata così grossa che dovetti farne tre bocconi ma questo succede raramente i miei servitori furono stupiti di vedermela mangiare con le ossa e tutto come da noi si mangia una coscia di allodola mangiavo di solito in un solo boccone le oche e i tacchini quanto agli uccelletti li prendevo su a 20 o 30 per volta con la punta del coltello un giorno sua maestà imperiale informato del mio modo di vivere sollecitò il piacere come si compiacque di esprimersi di desinar con me lui la sua reale consorte e i giovani principi del sangue dei due sessi vennero di fatti e io li collocai sulla tavola nei loro seggi reali proprio di fronte a me circondati dalle loro guardie anche flimnap l'alto tesoriere li accompagnava con la bianca mazzetta del suo ufficio e non mi sfuggì che spesso mi sbirciava con un'aria un po' torva che io finsi di non notare mangiai anzi con maggior appetito del solito in onore della mia cara patria non meno che per colmar la corte di ammirazione ho personalmente buone ragioni per credere che questa visita di sua maestà porse a flimnap il destro di mettermi in pessima luce agli occhi del suo signore questo ministro mi era sempre stato segretamente ostile e sebbene in pubblico mi colmasse di complimenti molto inconsueti al suo carattere ombruso egli fece presente all'imperatore le cattive condizioni del tesoro gli dichiarò che era costretto a prendere denaro in prestito ad altissimo interesse che i buoni del tesoro erano caduti al 9% sotto alla pari che insomma io ero costato a sua maestà più di un milione e mezzo di sprughi la loro più grossa moneta d'oro non più grande di una pagliuzza e che tutto considerato conveniva all'imperatore coglier la prima buona occasione per sbarazzarsi di me a questo punto sento il dovere di rivendicare la reputazione di un'ottima dama che ebbe innocentemente a soffrire per causa mia saltò in testa al tesoriere di ingelosirsi di sua moglie prestando fede alla malizia di alcune malelingue le quali si fecero dovere di informarlo che sua grazia aveva contratto una violenta passione per la mia persona e per qualche tempo circolò a corte la scandalosa voce che si era venuta una volta a trovarmi da sola in casa mia dichiaro che questa è una menzogna infame è senz'altro fondamento che le innocenti espressioni di familiarità e di amicizia con cui sua grazia si degnò di trattarmi riconosco che ella venne spesso da me ma sempre pubblicamente e accompagnata nella sua carrozza da non meno di tre persone di solito sua sorella la giovane figlia e l'uno o l'altra delle sue amiche ma molte altre dame di corte facevano altrettanto e mi appello alla servitù che mi era intorno perché dicano se hanno mai visto una carrozza alla mia porta senza sapere chi ci fosse dentro in tali occasioni appena un domestico mi annunziava una visita solevo uscir subito sulla porta e dopo aver presentato i miei omaggi prendevi in mano con la massima attenzione la carrozza e due cavalli perché se erano quattro il cocchiere ne staccava sempre due e li ponevo sul tavolo a cui avevo fissato tutto in giro per evitare disgrazie e una cinta smontabile alta 5 pollici e spesso ho avuto sul mio tavolo in una sola volta quattro carrozze con relativi cavalli e piene di visitatori mentre io seduto sulla sedia abbassavo il volto verso di loro se parlavo con gli uni i cocchieri facevano fare agli altri un giro intorno al tavolo a passo moderato ho trascorso così parecchi pomeriggi in questi piacevoli conversari sfido il tesoriere e i suoi due informatori voglio anzi farne il nome e pensino loro a cavarsela come possono Crustril e Drunlo a provarmi che alcuno sia mai venuto a casa mia incognito eccettuato il segretario Reldresal invitato per espresso ordini di sua maestà imperiale come ho già detto non mi sarei indugiato così a lungo su questo particolare se la cosa non riguardasse così da vicino la reputazione di una grandama per non dir nulla della mia sebbene gli avessi allora l'onore di essere un Nardac titolo che il tesoriere non ha perché tutti sanno che egli è semplicemente un glum glum inferiore dunque a me di un grado così come in Inghilterra un marchese è inferiore a un duca d'altra parte riconosco che in grazia del suo posto aveva su di me la precedenza a corte queste false informazioni che io venne a conoscere più tardi per un puro caso che non merita riferire fecero sì che il tesoriere Flimnap per qualche tempo guardasse brusco sua moglie e ancor più brusco me e sebbene più tardi riconoscesse il suo errore e si riconciliasse con lei io persi per sempre la sua fiducia e mi accorsi che le mie cose andavano rapidamente a rotoli anche nei riguardi dell'imperatore dominato come purtroppo era da questo suo favorito capitolo settimo l'autore informato di un complotto per accusarlo di alto tradimento fugge a Blefusco come fu ricevuto laggiù prima di accingermi a raccontare la mia partenza da questo reame sarà opportuno informare il lettore di un intrigo privato che da due mesi si stava travando contro di me fino allora ero sempre rimasto lontano dagli ambienti di corte con i quali mal si accordava la mia modesta condizione l'avevo è vero udito parlare e letto abbastanza degli umori dei regnanti e dei loro ministri ma mai mi sarei aspettato di doverne conoscere le terribili conseguenze in una così remota contrada retta a quanto mi pareva da norme così diverse da quelle europee proprio quando mi stavo preparando a fare la mia visita di omaggio all'imperatore di Blefusco un altro personaggio di corte a cui avevo reso notevoli servigi in un periodo in cui era caduto come più non si poteva nella disgrazia di sua maestà imperiale venne da me in gran segreto di notte in portantina chiusa e senza palesare il suo nome al domestico chiese di essere ricevuto i portatori furono licenziati io mi misi nella tasca della giacca la portantina con dentro sua eccellenza e dato ordine ad un cameriere fedele di dire che mi sentivo poco bene ed ero andato a letto sbarrai l'uscio di casa misi la portantina sul tavolo come solevo e mi sedetti vicino terminati i convenevoli chiesi a sua grazia alla ragione dell'aria preoccupata e inquieta che notavo in volto ed egli mi pregò di ascoltarlo pazientemente su di un soggetto che riguardava molto da vicino il mio onore e la mia vita posso riportare qui esattamente il suo discorso perché ne presi nota non appena mi ebbe lasciato dovete sapere mi disse che varie commissioni sono state recentemente convocate nel massimo segreto per deliberare sulla vostra persona e solo da due giorni sua maestà è giunta ad una decisione definitiva vi siete certo accorto che Skyrash Bolgolam Galbet ossia grande ammiraglio è stato vostro nemico mortale fin quasi da quando arrivaste fra noi la causa prima di questo odio non la conosco ma certo esso è molto aumentato dopo la vostra grande vittoria su Blefuscu dalla quale il suo prestigio di ammiraglio rimase alquanto offuscato questo pari d'accordo con Flimnap il gran tesoriere di cui è nota l'ostilità contro di voi a causa di sua moglie con il generale Limtok con il gran ciambellano Lalkon e con Balmuff il gran giustiziere ha redatto vari capi di accusa contro di voi per alto tradimento e altri delitti capitali quest'esordio mi aveva reso così impaziente consapevole com'ero dei miei meriti e della mia innocenza che cercai di interrompere il mio interlocutore ma egli mi pregò di tacere e proseguì la gratitudine per i favori che mi avete reso mi ha spinto a procurarmi notizie sicure di tutta la trama e una copia dei capi d'accusa non ho esitato a mettere in gioco la testa per salvarvi capi d'accusa contro Quimbus Flestrin l'uomo montagna articolo 1 considerato che per uno statuto promulgato durante il regno di sua maestà imperiale Calin d'Effar Plune è sancito che chiunque spanda acqua entro la cinta del palazzo reale sia soggetto alle pene e ai castighi di alto tradimento e che tuttavia il sunnominato Quimbus Flestrin in aperta violazione di detta legge e sotto pretesto di estinguere un incendio scoppiato negli appartamenti della sua graziosa maestà all'imperiale consorte domò con malizia tradimento e fellonia il detto incendio divampato in detto appartamento scaricando le proprie acque trovandosi e stando entro la cinta di detto palazzo reale contro ciò che lo statuto ha previsto in tal caso eccetera contro il dovere eccetera articolo 2 considerato che il detto Quimbus Flestrin avendo trasportato la flotta imperiale di Blefuscu nel nostro porto reale è richiesto poi da sua maestà imperiale di impadronirsi di tutte le altre navi del detto impero di Blefuscu e di ridurre quest'ultima nostra provincia governata da un vicere da noi mandato e di distruggere inoltre e mettere a morte non solo tutti gli esuli parte grossiani ma in egual tempo tutta la popolazione di quell'impero che non abbiurasse immediatamente l'eresia parte grossiana pregò il detto Flestrin da quel perfido traditore che è di sua bene auspicata e serenissima maestà imperiale di essere dispensato dal rendere detto servigio prendendo a pretesto la sua riluttanza a violentare le coscienze e a distruggere la volontà e la vita di una popolazione innocente articolo 3 considerato che in occasione della venuta di certi ambasciatori della corte di Blefuscu per impetrar pace alla corte di sua maestà il detto Flestrin da perfido traditore prestò aiuto assistenza e conforto e divertimento ai detti ambasciatori sebbene li sapesse al servizio di un principe nemico dichiarato di sua maestà fino a poco tempo prima e in aperta guerra contro la detta maestà articolo 4 considerato che il detto Quimbus Flestrin contrariamente al dovere di ogni fedele suddito si prepara ora a visitare la corte e l'impero di Blefuscu dopo averne ricevuto licenza solo oralmente da sua maestà imperiale e valendosi di detta licenza si accinge perfidamente e proditoriamente a far detto viaggio e con essa a prestare aiuto assistenza e conforto all'imperatore di Blefuscu nemico fino a poc'anzi e in aperta guerra con la suddetta maestà imperiale vi è qualche altro articolo ma i più importanti sono quelli di cui vi ho letto un riassunto nelle varie discussioni svoltesi su quest'atto di accusa è doveroso riconoscere che sua maestà diede numerose prove della sua grande indulgenza ricordando spesso i servigi che gli avete reso e cercando di attenuare le vostre colpe il tesoriere e l'ammiraglio insistevano perché foste condannato alla morte più dolorosa e infame si sarebbe dovuto dar fuoco di notte alla vostra casa e il generale doveva star pronto con ventimila uomini armati di frecce avvelenate per farvele scaricare sulla faccia e sulle mani alcuni dei vostri domestici avrebbero avuto ordine segreto di spargere sulle vostre camicie e sulle vostre lenzuola un liquido velenoso che vi avrebbe spinto a dilaniarvi da voi stesso le carni morendo così fra i più atroci spasimi il generale aderì anche lui a questa proposta così che per molto tempo aveste una maggioranza contraria ma sua maestà deciso a salvarvi la vita se appena fosse possibile riuscì infine a tirar dalla sua il ciambellano dopodiché il re el dresal primo segretario degli affari privati che si è sempre dimostrato vostro sincero amico ebbe dall'imperatore l'ordine di esprimere il proprio parere cosa che egli fece giustificando pienamente la buona opinione che avete di lui egli ammise la gravità dei vostri delitti ma affermò che vi era pur sempre luogo per la clemenza virtù sopra ogni altra lodevole in un principe e per la quale sua maestà era così giustamente famoso disse che l'amicizia esistente fra voi e lui era così notoria che forse l'onorevole consesso avrebbe potuto accusarlo di parzialità ma che comunque in obbedienza all'ordine ricevuto avrebbe espresso liberamente il proprio sentire se dunque sua maestà in considerazione dei vostri servigi e seguendo la propria indole misericordiosa si fosse degnata di risparmiarvi la vita limitandosi solo a dar ordine di cavarvi entrambi gli occhi egli umilmente pensava che con questa espediente la giustizia sarebbe stata in qualche modo soddisfatta e il mondo intero avrebbe applaudito l'indulgenza dell'imperatore e ad un tempo la nobile e generosa condotta di coloro che hanno l'onore di essere i suoi consiglieri la perdita degli occhi nulla avrebbe tolto alla vostra forza fisica con la quale avreste potuto ancora rendervi utile a sua maestà la cecità anzi aumenta il coraggio nascondendoci i pericoli e di fatti il timore di averla vista offesa aveva costituito per voi il maggior impaccio nel portar via la flotta nemica vi sarebbe più che sufficiente poter vedere attraverso gli occhi dei ministri dato che i più potenti principi fanno esattamente altrettanto tale proposta fu accolta con la massima disapprovazione dall'intera seduta Bolgonam l'ammiraglio incapace di dominare il proprio carattere si alzò furente dicendo che non sapeva spiegarsi come mai il segretario osasse esprimere un parere inteso a salvare la vita di un traditore che i servigi da voi resi dovevano considerarsi per ogni vera ragione di stato le massime aggravanti dei vostri delitti che voi capace qual siete di spegnere un incendio spandendo acqua sugli appartamenti di sua maestà cosa che non poteva ricordare senza fremere potreste benissimo in altra occasione provocare un'inondazione con lo stesso mezzo e sommergere l'intera reggia e la stessa gagliardia che vi aveva permesso di portar via la flotta nemica avrebbe potuto servirvi al primo malumore a riportarla indietro che aveva buone ragioni per credervi in cuor vostro un parte grossiano e poiché il tradimento comincia nel cuore prima di manifestarsi in atti palesi egli vi accusava come traditore a questo titolo e insisteva di conseguenza perché foste messo a morte il tesoriere era della stessa opinione dimostrò in quali strettezze fossero cadute le rendite di sua maestà per il peso presto insostenibile del vostro mantenimento aggiunse che il suggerimento del segretario di cavarvi gli occhi non solo non sarebbe stato un rimedio a questo male ma probabilmente l'avrebbe aggravato come insegna l'uso comune di accecare certe specie di polli per farli mangiare di più e ingrassar più in fretta che sua sacra maestà e il consiglio vostri giudici erano in coscienza pienamente convinti della vostra fellonia e che ciò era più che sufficiente per condannarvi a morte senza bisogno delle prove formali richieste a stretto rigore dalla lettera della legge ma sua maestà imperiale fermamente decisa ad escludere la pena capitale si degnò graziosamente di dire che se il consiglio considerava pena troppo lieve la perdita degli occhi qualche altra se ne sarebbe potuta aggiungere in seguito e il segretario vostro amico dopo aver chiesto umilmente la parola una seconda volta per rispondere all'obiezione del tesoriere che il maggior gravame per sua maestà consisteva nel vostro mantenimento disse che sua eccellenza avendo l'esclusiva facoltà di disporre delle rendite imperiali poteva facilmente riparare a tale flagello diminuendo gradatamente il vostro piede di casa così che per mancanza di un vitto sufficiente avreste cominciato a divenire debole e fiacco a perder l'appetito fino a cadere in consunzione in pochi mesi e il fetore della vostra carcassa sarebbe stato tanto pericoloso quando voi foste dimagrito di più della metà senza contare che subito dopo la vostra morte 5 o 6 mila sudditi di sua maestà avrebbero potuto benissimo in due o tre giorni spolpar ben bene le vostre ossa portar via la carne a carrate e seppellirla in qualche luogo remoto per prevenir pestilenze lasciando lo scheletro come un monumento all'ammirazione della posterità così grazie alla profonda amicizia del segretario si venne ad un compromesso fu data severa ingiunzione di tener segreto il divisamento di lasciarvi morire di fame a poco a poco ma la sentenza di accecamento fu messa agli atti rimase dissenziente solo l'ammiraglio Bolgolam il quale è una creatura dell'imperatrice ed è stato continuamente spinto da sua maestà ad insistere per la pena di morte e se infatti vi ha giurato odio eterno per il modo infame e illegale con cui avete estinto l'incendio nei suoi appartamenti fra tre giorni il segretario vostro amico riceverà l'ordine di venire a casa vostra e di leggere in vostra presenza gli articoli di accusa mettendo in particolar rilievo la grande indulgenza e il singolar favore di sua maestà e del consiglio che vi hanno condannato solo alla pena della perdita degli occhi pena questa che sua maestà non dubita menomamente che vorrete sottoporvi con animo umile e grato 20 chirurghi di sua maestà saranno presenti per assicurarsi che l'operazione venga ben eseguita mediante la scarica di frecce a guzze nel globo dei vostri occhi mentre voi giacerete prono a terra lascio ora la vostra prudenza di prendere quelle misure che crederete opportune quanta me per evitare sospetti bisogna che me ne vada con la stessa segretezza con cui sono venuto così fece di fatti sua grazia ed io rimasi solo perplesso e accasciato da non pochi dubbi secondo un'usanza introdotta da questo principe e dai suoi ministri assai diversa come mi venne assicurato da quanto si praticava nei tempi antichi ogni volta che la corte aveva decretato un'esecuzione crudele per compiacere un rancore del monarca o la malvagità di un favorito l'imperatore teneva sempre un discorso al suo gran consiglio nel quale esaltava la propria indulgenza e mitezza qualità universalmente ammesse e riconosciute questo discorso veniva subito affisso in tutto il reame e nulla atterriva il popolo quanto quell'encomio dell'indulgenza di sua maestà perché si era notato che quanto più tali lodi erano larghe e insistenti tanto più inumana era la pena e più innocente il condannato quanto a me devo confessare che non essendo stato designato né dalla nascita né dall'educazione alla vita di corte mi sentivo così cattivo giudice in queste cose da non riuscire a vedere dove diavolo fossero l'indulgenza e il favore in tale sentenza e la consideravo forse a torto piuttosto rigorosa che lieve per qualche momento pensai di affrontare il processo perché sebbene non potessi negare i fatti allegati nei vari articoli speravo tuttavia che mi avrebbero concesso qualche attenuante ma avendo letto nel passato parecchi processi politici e osservato che si concludevano sempre come volevano i giudici non osavo abbandonarmi ad una decisione così pericolosa in una congiuntura così critica e contro così potenti nemici per un attimo mi senti fortemente incline alla resistenza perché fin tanto che ero in libertà tutta la forza di quell'impero non avrebbe potuto sottomettermi e io avrei potuto facilmente mandarla a metropoli in frantumi a colpi di pietra ma subito respinsi con orrore quest'idea ricordandomi il giuramento prestato all'imperatore i favori da lui ricevuti e l'alto titolo di Nardak che egli mi aveva conferito né io avevo così presto imparato la gratitudine propria dei cortigiani per potermi persuadere che i rigori presenti di sua maestà mi scioglievano dai passati impegni finalmente presi una decisione per la quale posso probabilmente incorrere in qualche biasimo e non a torto perché devo confessare che se ho conservato gli occhi e di conseguenza la libertà lo devo alla mia somma avventatezza e mancanza di esperienza se infatti avessi conosciuto allora la vera natura dei principi e dei ministri come l'ho poi conosciuta in molte altre corti e il loro modo di trattare criminali assai meno pericolosi di me mi sarei sottoposto con grande alacrità e prontezza ad un castigo così mite ma spinto dalla preoccupazione giovanile e avendo avuto licenza da sua maestà imperiale di portare i miei omaggi all'imperatore di Blefusco colsi questa occasione per inviare prima che i tre giorni ispirassero una lettera al mio amico segretario avvertendolo della mia decisione di partire quel mattino stesso per Blefusco secondo il permesso ottenuto così senza aspettare risposta mi avviai verso quella parte dell'isola in cui era ancorata la nostra flotta scelsi una grossa nave da battaglia legai un cavo alla prua e tirate sulle ancore mi spogliai mettendo nel vascello i miei vestiti e la coperta da letto che mi ero portata sotto braccio poi traendomelo dietro un po' a guado e un po' a nuoto arrivai al porto reale di Blefusco dove da lungo tempo ero atteso mi diedero due guide per condurmi alla capitale che porta lo stesso nome io le tenne in mano finché giunsi a circa 200 yard dalle porte della città e le pregai allora di annunzare il mio arrivo ad uno dei ministri e di avvertirlo che avrei atteso lì gli ordini di sua maestà circa un'ora dopo ebbi la risposta sua maestà seguita dalla famiglia reale e dagli altri ufficiali di corte mi veniva incontro per ricevermi mi feci avanti ancora per una cinquantina di yard l'imperatore e il suo seguito smontarono da cavallo l'imperatrice e le sue dame scesero dalle carrozze e io non notai in loro alcuno spavento né inquietudine mi prostrai a terra per baciar la mano a sua maestà e all'imperatrice dissi a sua maestà che ero venuto secondo la mia promessa e con il permesso dell'imperatore mio signore per aver l'onore di vedere un così potente monarca e di offrirgli servigi che erano il mio potere e compatibili con i miei doveri verso il mio principe non feci parola della disgrazia in cui ero caduto non avendone ricevuta comunicazione ufficiale e potendo considerarmi totalmente all'oscuro di tali disegni né potevo ragionevolmente pensare che l'imperatore avrebbe palesato la condanna segreta mentre ero fuori di portata della sua mano in questo tuttavia fu presto evidente che mi ero ingannato non annoierò il lettore coi minuti raguagli del mio ricevimento a corte che corrispose in tutto alla generosità di tanto principe né delle difficoltà di cui mi trovai privo come ero di una casa e di un letto e obbligato a dormire per terra avvolto nella mia coperta capitolo ottavo l'autore per un caso fortuito trova il modo di lasciarble fusco e dopo qualche difficoltà torna sano e salvo in patria tre giorni dopo il mio arrivo mentre passeggiavo per curiosità sulla costa nord orientale dell'isola scorsi in mare a circa mezza lega qualche cosa che somigliava ad un battello capovolto mi tolsi scarpe e calze e dopo essere andato a guado per due o trecento yard mi accorsi che quell'oggetto si avvicinava spinto dalla marea potei così facilmente riconoscere in esso una vera e propria scialuppa che probabilmente pensai era stata strappata dalla tempesta a qualche bastimento allora tornai immediatamente in città e pregai sua maestà imperiale di prestarmi venti dei più grossi vascelli che gli fossero rimasti dopo la perdita della flotta e tremila marinai al comando del suo vice ammiraglio questa flotta veleggiò in lungo giro mentre io me ne tornai per la più corta a quel punto della costa di dove avevo scorto da prima la scialuppa vidi che la marea l'aveva avvicinata ancora di più i marinai erano tutti provvisti di corde che avevo precedentemente intrecciate insieme per renderle sufficientemente forti quando le navi furono sul luogo io mi svestì e mi spinsi guadando fino ad un centinaio di yard dalla scialuppa dopodiché dovetti raggiungerla a nuoto i marinai mi gettarono una corda di cui legai un capo ad un foro nella parte anteriore della scialuppa e l'altro ad una nave da guerra ma tutte le mie fatiche servivano a poco perché non toccando fondo non potevo lavorare fui dunque costretto a tornare a nuoto spingendomi avanti con una mano la scialuppa più spesso che potevo e col favor della marea riusci ad avanzar tanto da poter sentire il fondo tenendo il mento fuori dell'acqua mi riposai due o tre minuti e poi diedi alla scialuppa un'altra spinta e così via finché l'acqua mi giunse non più su delle ascelle allora terminato il lavoro più faticoso presi gli altri cavi stivati in uno dei vascelli e li assicurai dapprima alla scialuppa poi a nove delle navi che mi scortavano il vento era favorevole i marinai tiravano al rimorchio e io spingevo arrivammo così ad una quarantina di yarde dalla spiaggia dove atteso il calar della marea potei avvicinarmi alla scialuppa all'asciutto e con l'aiuto di duemila uomini con funi e con geni riusci a rivoltarla sulla chiglia e a constatare così che era ben poco danneggiata non annoierò il lettore col racconto delle difficoltà che dovetti sopportare per portare la mia scialuppa con certi remi corti che mi costarono dieci giorni di lavoro nel real porto di Blefusco ivi un'enorme folla era accorsa al mio arrivo piena di meraviglia nel vedere un vascello così prodigioso dissi all'imperatore che la mia buona fortuna aveva spinto quell'imbarcazione sulla mia strada per portarmi in qualche luogo da cui sarei potuto tornare nella mia patria e pregai sua maestà di dare ordine di rimettere la scialuppa in stato da potermi servire e di concedermi insieme licenza di partire dopo varie amichevoli proteste egli si degnò di concedermela frattanto ero molto stupito di non vedere arrivare alla corte di Blefusco alcun corriere speciale mandato dal nostro imperatore a prendermi e notizie ma mi fu detto privatamente più tardi che sua maestà imperiale lontana mille miglia dall'immaginare che gli avessi avuto il menomo sentore del suo divisamento pensava che io me ne fossi semplicemente andato a Blefusco per mantenere la mia promessa in conformità alla licenza datami ben conosciuta da tutta la corte e che sarei tornato dopo pochi giorni al termine della mia visita ufficiale ma la mia lunga assenza finì con l'impensierirlo e dopo che egli si fu consultato con il tesoriere e il resto della cabala un altro personaggio fu spedito a Blefusco con una copia dei capi d'accusa contro di me quest'ambasciatore ebbe l'incarico di mettere in bel rilievo dinanzi al sovrano di Blefusco la somma benignità del suo signore nel contentarsi di non infliggermi altra pena che la perdita degli occhi e di far presente che io mi ero sottratto con la fuga alla giustizia e che se non tornavo entro due ore sarei stato privato del mio titolo di Nardak e dichiarato traditore l'ambasciatore aggiunse inoltre che per mantenere la pace e l'amicizia fra i due imperi il suo signore si aspettava che il suo fratello di Blefusco avrebbe provveduto a farmi rispedire a Lilliput legato mani e piedi per esservi punito quale traditore l'imperatore di Blefusco presi tre giorni per deliberare diede una risposta piena di complimenti e di scuse disse che quanto al rimandarmi legato suo fratello sapeva bene che era cosa impossibile che sebbene l'avessi privato della flotta mi rimaneva tuttavia molto obbligato per i buoni uffici da me interposti nelle trattative di pace che comunque entrambe le loro maestà si sarebbero presto liberate di me perché io avevo trovato sulla spiaggia un prodigioso battello che mi avrebbe portato oltre il mare ed egli aveva già dato ordine di allestirlo col mio aiuto e sotto la mia direzione sperava dunque che in poche settimane i due imperi si sarebbero liberati di un così insopportabile ingombro l'ambasciatore se ne tornò a Lilliput con questa risposta e il monarca di Blefusco mi riferì tutto ciò che era avvenuto offrendomi nello stesso tempo ma nella più stretta confidenza la sua graziosa protezione se volevo restare al suo servizio sebbene lo credessi sincero decisi tuttavia di non far mai più affidamento su principi o ministri se appena mi fosse stato possibile e con tutti i dovuti ringraziamenti per le sue favorevoli intenzioni lo pregai umilmente di volermi scusare gli dissi che poiché la mia buona o cattiva sorte aveva messo sul mio cammino quell'imbarcazione avevo deciso di affidarmi all'oceano piuttosto che essere occasione di discordia tra due così potenti monarchi e mi accorsi che l'imperatore ne fosse troppo dolente scoprì anzi per puro caso che era felicissimo della mia risoluzione e con lui la maggior parte dei suoi ministri questa scoperta mi indusse ad affrettare la partenza anche più di quanto non avessi stabilito e la corte a cui pareva mill'anni che me ne andassi fuori dai piedi contribuì con la massima solerzia a tal fine 500 operai furono impiegati a fabbricare due vele per il mio battello sotto la mia direzione trapuntando 13 strati della loro tela più robusta io ebbi un bel da fare a fabbricare gomene e cordami intrecciando insieme 10 20 e perfino 30 delle loro funi più grosse e resistenti una grossa pietra che riuscì a trovare in riva al mare dopo molte ricerche mi servì da ancora il sego di 300 vacche mi servì per ingrassare la scialuppa e per altri usi durai una fatica incredibile a tagliare alcuni dei più grossi tronchi per farmene remi e alberi lavoro questo in cui per dire il vero mi furono di grande aiuto i maestri carpentieri dell'arsenale di sua maestà i quali si incaricarono di piallarli quando io abbi fatto il lavoro grosso dopo circa un mese quando tutto fu pronto io mandai a chiedere gli ordini di sua maestà e il permesso di partire l'imperatore e la famiglia reale uscirono dal palazzo io mi gettai i carponi per baciargli la mano che molto graziosamente mi porse altrettanto fecero l'imperatrice e i giovani principi del sangue sua maestà mi regalò 50 borse contenenti ognuna 200 sprughi e un suo ritratto in grandezza naturale che mi misi subito in un guanto perché non si sciupasse troppe furono le cerimonie della partenza perché io annoio adesso il lettore raccontandogliele caricai nella scialuppa 100 buoi e 300 pecore macellati con pane e bevanda in proporzione e tanta carne cucinata quanta ne poteron preparare 400 cuochi presi con me 6 vacche e 2 tori vivi e altrettante pecore e montoni con l'intenzione di portarli al mio paese e propagare la razza per nutrirli a bordo mi fornì di un bel fascio di fieno e di un sacco di grano volentieri mi sarei preso anche una dozzina di nativi ma su questo punto l'imperatore non volle cedere a nessun costo e oltre a farmi perquisire diligentemente le tasche sua maestà mi fece impegnare sull'onore a non portar via alcuno dei suoi sudditi nemmeno se consentissero a seguirmi o lo desiderassero preparata così ogni cosa come meglio mi riuscì feci vela il 24 settembre del 1701 alle 6 del mattino e dopo aver percorso circa quattro leghe in direzione nord col vento che spirava da sud est verso le 6 del pomeriggio avvistai un isolotto a circa mezza lega verso nord ovest mi diressi a quella volta e gettai l'ancora sotto vento dell'isola che sembrava disabitata presi poi qualche ristoro e andai a coricarmi dormi bene e ad occhio e croce sei ore almeno perché il giorno sorse due ore dopo il mio risveglio era una notte serena feci colazione prima del levar del sole e tolta l'ancora col vento favorevole tenni la stessa rotta del giorno precedente facendomi guidare dalla mia bussola tascabile era mia intenzione di raggiungere se possibile una di quelle isole che avevo ragione di credere situate a nord est della terra di Van Diemen per quel giorno non scorsi nulla ma il successivo verso le 3 del pomeriggio quando secondo i miei calcoli avevo percorso 24 leghe da Blefuscu scorsi una vela diretta verso sud est la mia rotta andava dritta verso est feci i segnali ma non ebbe risposta mi accorsi tuttavia che mi avvantaggiavo su di essa perché il vento veniva meno drizzai tutte le vele di cui disponevo e dopo mezz'ora fui scorto dalla nave che issò la bandiera e sparò un colpo di cannone non è facile esprimere la gioia che provai a quest'inattesa speranza di rivedere ancora una volta la mia patria di Letta e i cari pegni che vi avevo lasciato la nave allentò le sue vele e io la raggiunsi fra le 5 e le 6 pomeridiane del 29 settembre il cuore mi balzò in petto nel vedere i colori inglesi mi misi in tasca le mucche e le pecore e salì a bordo col mio piccolo carico di provviste era una nave mercantile inglese che tornava dal Giappone per i mari del nord e del sud al comando del capitano John Biddle di Deptford ottima persona ed eccellente marinaio ci trovavamo a 30 gradi di latitudine sud l'equipaggio era di circa 50 uomini e tra questi incontrai un antico camerata un certo Peter Williams che diede al capitano ottime informazioni sul mio conto quest'ultimo mi trattò con grande cortesia e mi pregò di dirgli d'onde venissi e dove fossi diretto mi sbrigai in poche parole ma egli pensò che andassi farneticando e che i pericoli sopportati mi avessero fatto dar di volta il cervello allora cavai di tasca il mio bestiame e le pecore e questi con suo gran stupore lo convinsero che non raccontavo frottole poi gli mostrai l'oro regalatomi dall'imperatore di Blefusco il ritratto di sua maestà in grandezza naturale e qualche altra rarità del paese gli feci dono di due borse di 200 sprughi ognuna e gli promesi di fargli presente di una mucca e di una pecora pregne al nostro arrivo in Inghilterra non annoierò il lettore con i particolari di questo viaggio che in massima parte fu assai fortunato arrivammo ai Downs il 13 aprile del 1702 ebbi una sola disgrazia i topi di bordo mi portarono via una pecora ne trovai le ossa in un buco perfettamente spolpate il resto del mio armento riuscì a sbarcarlo sano e salvo e lo misi a pascolare nel prato di un gioco di bocce a Greenwich dove l'erba tenera lo invitò a mangiare di gusto contrariamente a quel che temevo non avrei certo potuto conservarlo in vita in un così lungo viaggio se il capitano non mi avesse concesso parte dei suoi migliori biscotti che ridotti in polvere e impastati con acqua costituirono il suo cibo quotidiano nel breve tempo che rimasi in Inghilterra guadagnai parecchio mostrandolo a varie persone di riguardo e ad altri e prima di iniziare il mio secondo viaggio lo vendetti per 600 sterline dopo il mio ultimo ritorno ho visto la razza notevolmente accresciuta specialmente quella delle pecore e spero che l'industria laniera ne avrà gran vantaggio grazie alla finezza dei loro velli rimasi solo due mesi con mia moglie e con la mia famiglia perché l'insaziabile desiderio di vedere nuove regioni non mi consentiva di indugiare più a lungo lasciai a mia moglie 1500 sterline e la sistemai in una bella casa a Red Reef portai con me quanto mi restava della mia sostanza parte in denaro e parte in merci sperando di aumentare i miei capitali il maggiore dei miei zii John mi aveva lasciato nelle vicinanze di Epping una tenuta che mi rendeva circa 30 sterline l'anno e avevo preso in affitto per lungo termine il toro nero in Fetter Lane che mi rendeva altrettanto non correvo così pericolo di abbandonare la famiglia alla carità della parrocchia mio figlio Johnny così chiamato dal nome di suo zio studiava latino ed era un ragazzo diligente mia figlia Betty che adesso ha fatto un buon matrimonio e a figli imparava allora a cucire presi congedo da mia moglie dal ragazzo e dalla piccola non senza lacrime da ambo le parti e mi imbarcai sull'avventura un veliero mercantile di 300 tonnellate diretto a Surat sotto il comando del capitano John Nicholas di Liverpool ma la relazione di questa avventura sarà riferita nella seconda parte dei miei viaggi parte seconda viaggio a Brobdingnag capitolo primo descrizione di una gran tempesta la maggior cialuppa è inviata a terra per rifornirsi di acqua l'autore si unisce all'equipaggio per visitare la regione abbandonato sulla costa è catturato da un indigeno e portato nella casa di un fattore come vi fu accolto e vari incidenti accorsigli descrizione degli abitanti condannato dalla natura e dalla sorte ad una vita attiva e senza soste due mesi appena dopo il mio ritorno lasciai dunque la patria e mi imbarcai nei Downs il 20 giugno del 1702 sull'avventura comandata dal capitano John Nicholas della Cornovaglia diretta a Surat giungemmo con vento favorevole al capo di Buona Speranza dove scendemmo a terra per rifornirci di acqua ma scoperto una falla sbarcammo le nostre mercanzie e svernammo Colà ammalatosi infatti il capitano di febbre intermittente non potemmo lasciare il capo prima della fine di marzo allora facemmo vela e il viaggio fu felice fino oltre lo stretto di Madagascar ma giunti a nord di quell'isola e a circa 5 gradi di latitudine sud i venti che in quei mari ispirano costantemente tra il nord e l'ovest dal principio di dicembre al principio di maggio il 19 aprile cominciarono a soffiare con molta maggior violenza e più dall'ovest del consueto continuando così per 20 giorni consecutivi fummo spinti in tal modo un po' a est delle Molucche e a circa 3 gradi a nord dell'equatore come notò il capitano quando fece il punto il 2 maggio giorno in cui i venti caddero ad un tratto facendo luogo ad una calma perfetta di cui mi rallegrai non poco ma il capitano assai esperto della navigazione in quei mari ci avvertì di prepararci ad una tempesta che scoppiò appunto il giorno dopo quando cominciò a soffiare un vento del sud chiamato Monsone Australe nella previsione che aumentasse di violenza ammainammo la vela di buon presso e ci preparammo ad imbrogliar quella di trinchetto ma divenuto il tempo sempre più borrascoso vadammo a rizzar bene i cannoni e imbrogliammo la mezzana la nave si trovava molto a largo sicché pensammo che era meglio andar secondo il vento che rimaner lì alla cappa issammo dunque la vela di trinchetto e alammo a poppa la scotta il timone era controvento e la nave si difendeva bravamente issammo la maestra ma fu squarciata ad un tratto ammainammo l'antenna raccogliemmo la vela sulla tolda ne tagliamo via i cordami le ghie e tutto il mare era grosso le onde si infrangevano in modo insolito e pericoloso noi badavamo adalar con forza sui frenelli della ruota di maneggio per aiutar l'uomo al timone non volevamo abbattere l'albero di gabbia e lo lasciammo stare poiché la nave filava benissimo sopravvento e noi capivamo che avrebbe tenuto meglio il mare con l'albero di gabbia su tanto più che eravamo a largo quando la tempesta fu finita issammo la vela di trinchetto e la maestra e rimettemmo la nave in rutta poi issammo la mezzana il gran velaccio e il velaccino la nostra rutta era est nord est il vento spirava da sud est tirammo a bordo le scotte dei coltellacci di tribordo e mollammo i bracci di sopravvento e i mantigli mettemmo in opera il braccio di sottovento e andammo avanti con le bolline tese e imbrogliate di sopravvento poi si alò la scotta di mezzana verso il vento e si fece gonfiare quasi fino a scoppiare durante questo uragano che fu seguito da un forte vento di ovest sud ovest fummo trasportati a mio calcolo per circa 500 leghe verso est così che il più vecchio marinaio a bordo non sapeva dire in che parte del mondo fossimo i viveri non ci mancavano la nave era solida e la ciurma in buona salute ma avevamo estrema penuria d'acqua giudicammo il miglior partito ottenere la stessa rotta che tornare verso il nord a rischio di essere portati verso i lidi nord-occidentali della Gran Tartaria nel mar glaciale il 16 giugno del 1703 un mozzo dall'alto dell'albero di gabbia scorse terra il 17 ci trovammo in piena vista di una grande isola o continente non sapevamo bene dal cui lato meridionale una breve lingua di terra sporgeva nel mare con un'insenatura non abbastanza profonda per accogliere una nave di più di 100 tonnellate demmo fondo all'ancora ad una lega da questa insenatura e il capitano mandò a terra una dozzina dei suoi uomini nella maggior scialuppa bene armati e con botti da riempir d'acqua se se ne trovava lo pregai di lasciarmi andare con loro per esplorare la regione e far possibilmente qualche scoperta scesi a terra non vedemmo né fiumi né sorgenti né alcun indizio d'abitanti gli uomini si misero dunque a vagar per la spiaggia in cerca di acqua dolce lungo il mare e io mi inoltrai per circa un miglio dal lato opposto dove osservai che il paese era tutto sterile e roccioso cominciai così a sentirmi stanco e non vedendo niente che potesse soddisfare la mia curiosità me ne tornai piano verso la baia quando proprio di fronte a me vidi i nostri uomini che si erano già ficcati nella scialuppa e remavano come disperati per raggiungere la nave stavo per gridar loro sebbene sarebbe servito a ben poco quando nello stesso istante scorsi un essere smisurato che li inseguiva nel mare svelto come più poteva con l'acqua che gli arrivava poco più su del ginocchio faceva passi prodigiosi ma i nostri marinai avevano circa mezza lega di vantaggio se di lui e poiché in quei paraggi il mare è tutto irto di scoglie a guzzi il mostro non riuscì a raggiungere l'imbarcazione tutto questo mi fu detto dopo perché al momento non ebbi il coraggio di star lì a vedere come andava a finire l'avventura me la diedi a gambe a più non posso per la stessa via che avevo percorso poco prima e mi nerpicai poi su per un collesco sceso da cui dominavo una parte del paese vi dì che era tutto coltivato ma per prima cosa mi sorprese la lunghezza dell'erba alta in quei campi che sembravano tenuti a fieno fino a circa 20 piedi andai a finire in uno stradone o almeno mi parve tale sebbene per gli abitanti fosse solo un sentiero attraverso un campo d'orzo e vi camminai per un pezzo senza riuscire a vedere quasi nulla dai due lati perché si era vicini alla mietitura e il grano era alto almeno 40 piedi mi ci volle un'ora per arrivare all'estremità di questo campo cinto da una siepe di almeno 120 piedi gli alberi erano così maestosi che non riuscì a calcolare la loro altezza un confine separava questo campo da quello attiguo quattro gradini portavano ad una grossa pietra che giunti in cima bisognava scavalcare era per me impossibile superare questo ostacolo perché ogni gradino era alto 6 piedi e la pietra del sommo più di 20 stavo tentando di trovare qualche vano nella siepe quando scorsi nel campo vicino uno degli abitanti che veniva verso lo sbarramento aveva le stesse dimensioni di quello che avevo visto in mare dar la caccia alla nostra scialuppa alto quanto un normale campanile si faceva dieci buone yard ad ogni passo a quanto potei calcolare io terrorizzato e sbigottito corsi a nascondermi nel grano e di lì lo vidi al sommo della gradinata mentre si volceva a guardare un campo vicino a mandritta e lo udì chiamare qualcuno con un vocione assai più potente di un megafono il fragore rimbombò tanto che sulle prime lo presi per un tuono allora sette mostri uguali a lui gli si avvicinarono con in mano dei falcetti grandi ognuno quanto sei falci costoro non erano così ben vestiti come il primo di cui sembravano servi o braccianti difatti dopo che egli ebbe detto qualche parola vennero a falciare il grano nel campo in cui ero io io mi tenevo quanto più potevo a largo da loro ma ero costretto a muovermi con la massima difficoltà perché gli steli del grano a volte non distavano più di un piede gli uni dagli altri così che a fatica riuscivo ad insinuarmi fra mezzo comunque mi ingegnai di andare avanti finché arrivai in un punto del campo dove il grano era stato abbattuto dalla pioggia e dal vento e lì mi fu impossibile muovere un sol passo perché le stoppie erano così aggrovigliate che non potevo sgusciarci dentro e le barbe delle spighe cadute erano così dure e aguzze che mi penetrava nelle carni attraverso i vestiti nello stesso tempo udì dietro di me i miei titori a non più di cento iarde mezzo morto di fatica e sopraffatto dall'angoscia e dalla disperazione mi lasciai andar giù tra due zolle e sperai fervidamente di finir lì i miei giorni compiansi la mia vedova desolata e i miei orfani figli deplorai la mia follia e la mia ostinazione di essermi voluto avventare in un secondo viaggio contro il parere di tutti gli amici e parenti e nel terribile orgasmo non potei far a meno di pensare a Lilliput i cui abitanti mi consideravano il massimo dei prodigi che mai fossero apparsi sul mondo dove ero stato capace di trascinarmi dietro a guinzaglio un'intera flotta imperiale e di compiere altre imprese che saranno eternamente ricordate nelle cronache di quell'impero e a cui la posterità presterà difficilmente fede per quanto confermate da milioni di uomini pensai alla mortificazione di dover apparire in quel paese come un minuzzolo non meno miserando di un Lillipuziano fra noi ma riflettei che questa era la minima delle mie sventure perché considerando che le umane creature come è stato notato sono tanto più crudeli e selvagge quanto maggiore è la loro mole che cos'altro poteva aspettarmi se non di divenire un bocconcino nelle fauci del primo di quegli immensi barbari che mi avesse acchiappato davvero hanno ragione i filosofi quando dicono che la grandezza e la piccolezza sono valori unicamente relativi la fortuna avrebbe potuto benissimo far trovare ai Lillipuziani qualche nazione i cui abitanti fossero in rapporto a loro piccoli quanto lo erano loro per me e chissà che anche questa gigantesca razza di mortali non possa essere battuta a sua volta in qualche lontana contrada non ancora scoperta pur sgomento e confuso com'ero non potei far a meno di continuare tali riflessioni quando vidi uno dei mietitori ad una decina di yard dal mucchio di terra su cui giacevo e pensai atterrito che se avesse fatto solo un altro passo mi avrebbe schiacciato sotto il suo piede o tagliato in due col suo falcetto perciò mentre stava proprio per muoversi mi misi ad urlare con tutte le forze che la paura poteva prestarmi il colosso si fermò di botto e dopo aver guardato per un po' in giù tutti in giro mi scorse finalmente steso a terra riflette un momento con la cautela propria di chi cerca di afferrare qualche animaletto pericoloso in modo da impedirgli di graffiare o mordere come avevo fatto io stesso qualche volta in Inghilterra prima di acchiappare una donnola e finalmente si azzardò a prendermi per il di dietro stringendomi la vita tra l'indice e il pollice e mi portò a tre yard dai suoi occhi per potermi vedere meglio io intuì quello che voleva fare e per buona fortuna ebbi abbastanza presenza di spirito da pensare che non dovevo assolutamente di battermi mentre mi teneva in aria a circa sessanta piedi dal suolo sebbene mi stringesse penosamente i fianchi per timore che gli scivolassi di tra le dita tutto quello che osai fare fu di alzare gli occhi al cielo e di congiungere le mani in atto supplice dicendo qualche parola con un tono umile e malinconico che si adattava a capello con la situazione in cui ero perché mi sentivo già da un momento all'altro sbattuto a terra come si fa con qualche animaletto schifoso per ammazzarlo ma la mia buona stella volle che la mia voce e i miei gesti gli andassero a genio ed egli cominciò a guardarmi con curiosità tutto meravigliato di sentirmi pronunziare parole articolate sebbene non potesse capirmi frattanto non potevo far a meno di emetter gemiti di versare lacrime e di accennarmi ai fianchi con la testa per fargli intendere come meglio potevo quanto mi straziasse la stretta delle sue dita sembrò afferrare il senso dei miei gesti perché alzata la falda della giacca mi depose lì con cautela e subito corse dal padrone un ricco fattore lo stesso che avevo visto per primo nel campo il fattore suppongo che fosse questo il senso del loro dialogo ascoltò tutto quello che il suo braccante seppe dirgli sul mio conto raccolse un fuscello grande quasi quanto un bastone da passeggio e con quello mi alzò le falde della giacca che a quanto pare prese per una specie di rivestimento datomi dalla natura mi soffiò poi da un lato i capelli per vedermi meglio in faccia e chiamò intorno a sei suoi contadini per chieder loro come seppi più tardi se avessero mai visto nei campi qualche serino simile a me infine mi depose garbatamente a terra sulle quattro gambe ma io mi alzai immediatamente e camminai in su e in giù per far capire loro che non avevo alcuna intenzione di svignarmela mi si sedettero tutti intorno per osservar meglio quel che facevo io mi tolsi il cappello e feci un grande inchino al fattore poi mi inginocchiai alzai al cielo gli occhi e le mani e dissi qualche parola quanto più forte potevo infine mi tolsi di tasca una borsa d'oro e umilmente gliela presentai egli la prese sul palmo della mano e si ravvicinò all'occhio per vedere che cos'era la voltò e rivoltò poi più volte con la punta di uno spillo che si tolse da una manica ma non seppe che farne gli feci allora cenno di metter la mano a terra poi presi la borsa l'aprì e gli versai nel palmo tutto l'oro che conteneva verano sei pezzi spagnoli ognuno del valore di quattro doppie oltre a venti o trenta monete più piccole lo vidi inumidire la punta del mignolo sulla lingua e prender su una delle monete più grosse e poi un'altra ma sembrava non capire affatto che cosa fossero mi fece segno di rimettere le monete nella borsa e la borsa in tasca cosa che dopo aver ripetuto varie volte l'offerta giudicai il meglio che mi restasse da fare frattanto il fattore si era convinto che dovevo essere una creatura ragionevole mi parlò più volte ma il suono della sua voce mi assordava come il fragore di un mulino d'acqua sebbene le sue parole fossero abbastanza articolate gli risposi a voce più alta che potevo in varie lingue ed egli spesso avvicinava l'orecchio a due yard da me ma tutto fu inutile perché non potevamo assolutamente capirci rimandò allora i suoi contadini al lavoro e cavato di tasca il fazzoletto lo posò ripiegato sulla mano sinistra abbassandola fino a terra distesa e con il palmo in su poi mi fece segno di salire cosa che potevo fare facilmente perché non aveva più di un piede di spessore pensai che fosse mio dovere obbedire e temendo di cadere mi misi lungo disteso sul fazzoletto per maggior sicurezza egli mi avviluppò fino al capo nei lembi che sporgevano e in questo modo mi portò a casa sua la per prima cosa chiamò sua moglie e mi fece vedere a lei ma quella diede uno strido e si ritrasse di scatto come fanno le signore inglesi alla vista di un rospo o di un ragno tuttavia quando ebbe visto per un po' come mi comportavo e come obbedivo bene ai cenni che il marito faceva subito si riconciliò Meko e a poco a poco divenne molto tenera con me era quasi mezzogiorno e un domestico portò il desinare che consisteva in un unico ma sostanzioso piatto di carne adatto alla semplice vita del capo di casa in un vassoio di circa 24 piedi di diametro i commensali erano il fattore sua moglie tre ragazzi e una vecchia nonna appena si furono seduti il fattore mi mise ad una certa distanza da lui sulla tavola alta da terra circa 30 piedi io mi sentivo venire le vertigini e mi tenevo più lontano che potessi dall'orlo temendo di andare di sotto la moglie tritò un pezzetto di carne e sbriciolò un po' di pane su un tagliere ponendolo poi davanti io le feci un grande inchino cavai fuori coltello e forchetta e cominciai a mangiare con loro gran divertimento la signora mandò la cameriera a prendere un bicchierino da rosolio che conteneva circa due galloni e lo impì di una certa bevanda io sollevai a gran fatica la coppa a due mani e bevi con gran rispetto alla salute della padrona di casa pronunciando a gran voce il mio brindisi in inglese i convitati ne risero così cordialmente che fui quasi assordato dal fracasso la bevanda aveva il gusto di un sidro leggero e non era appunto sgradevole poi il padrone mi fece cenno di avvicinarmi al suo piatto ma mentre camminavo sul piano della tavola con quel continuo sbalordimento che l'indulgente lettore può facilmente immaginare e scusare inciampai in una crosta di pane e caddi lungo disteso senza però farmi male mi rialzai subito e vedendo che quella brava gente era in grande ansietà afferrai il cappello che tenevo educatamente sotto braccio e agitandolo in alto lanciai tre e viva per far capire che non avevo riportato alcun danno nella caduta ripresi a camminare verso il mio padrone d'ora in avanti lo chiamerò così ed ecco che il figlio più piccolo che gli sedeva vicino un furfantello di circa dieci anni mi acciuffò per le gambe e mi tenne sospeso così in alto nell'aria che tremavo a verga a verga ma il padre mi strappò dalle sue mani e in egual tempo gli menò un tal ceffone sull'orecchio sinistro che in Europa avrebbe abbattuto uno squadrone di cavalleria poi ordinò che fosse mandato via da tavola ma io temendo che il ragazzo mi prendesse in uggia e ben ricordandomi quanto sono naturalmente crudeli i nostri ragazzi verso i passeri i conigli i gattini e i cuccioli mi inginocchiai e additando il fanciullo feci capire al mio padrone come meglio potei che lo pregavo di voler perdonare a suo figlio il padre consentì e il monello si rimise a tavola allora corsi da lui e gli baciai la mano il padre la prese e la guidò ad accarezzarmi gentilmente a metà desinare il gatto favorito della mia padrona le saltò in grembo io udì dietro di me un rumore come di una dozzina di tessitori di calze al lavoro e voltata la testa mi accorsi che era lui che faceva le fusa un bestione grosso tre volte più di un bue a quanto potei calcolare dalla sua testa e da una zampa mentre la sua padrona gli dava da mangiare e lo carezzava l'aspetto feroce di questo animale mi sconcertò sebbene mi trovassi all'estremità opposta della tavola a più di 50 piedi e la mia padrona lo tenesse fermo temendo che desse un balzo e mi afferrasse fra gli artigli ma per fortuna non vi fu pericolo perché il gatto non si curò affatto di me quando il mio padrone mi mise a tre yard da lui poiché mi era stato detto altra volta e io stessa avevo sperimentato nei miei viaggi che il fuggire o il mostrare paura davanti ad un animale feroce è il mezzo più sicuro per indurlo ad inseguirci o ad attaccarci in questa pericolosa congiuntura decisi di non mostrare alcuna ansietà camminai intrepidamente cinque o sei volte proprio sotto il muso del gatto e mi spinsi fino a mezza yard da lui che si trasse indietro come se avesse avuto più paura di me meno timore mi diedero i cani quando entrarono in tre o quattro nella stanza come avviene nelle fattorie uno di essi un mastino era grosso come quattro elefanti e un levriero era più alto del mastino ma meno tozzo il desinare era quasi finito quando entrò la balia con un bambino di un anno in braccio il quale mi adocchiò subito e con la consueta oratoria infantile si mise a strillare che si sarebbe potuto udire dal ponte di Londra a Chelsea voleva avermi come giocattolo la madre con eccessiva indulgenza mi prese su e mi avvicinò al marmocchio e questi senza far complimenti mi afferrò a mezza vita e si ficcò in bocca la mia testa ma là dentro cominciai a dar tali urla che il piccolo spaventato mi lasciò cadere e mi sarei inevitabilmente rotto l'osso del collo se la madre non avesse teso il grembiule sotto di me la balia per chetare il bimbo si servì di un sonaglio una specie di recipiente pieno di grosse pietre legato con una gomena alla cintura del fanciullo ma poiché tutto fu vano ella dovette ricorrere all'estremo rimedio attaccandoselo al petto devo confessare che nulla mi disgustò quanto la vista di quel seno mostruoso che non saprei a che cosa paragonare per dare al curioso lettore un'idea della sua mole forma e colore sporgeva di sei piedi e non ne aveva meno di sedici di circonferenza il capezzolo era circa la metà della mia testa e al pari della mammella era così screziato di macchie pustole e lentiggini che nulla si poteva vedere di più nauseabondo potevo infatti vederla da vicino perché lei si era seduta per poter allattare più comodamente e io stavo sulla tavola questo mi fece riflettere sulla bella carnagione delle nostre signore inglesi che ci appare così liscia solo perché essi hanno le nostre dimensioni e i loro difetti non si possono vedere se non con una lente di ingrandimento la quale ci rivela all'esperienza che le pelli più lisce e candide sono ruvide scabre e di brutto colore ricordo che quando era a Lilliput la carnagione di quel minuscolo popolo mi sembrava la più bella che si possa immaginare e parlando di questo con un dotto del paese mio intimo amico egli mi disse che il mio volto gli appariva molto più bello e liscio quando mi guardava da terra che non quando poteva contemplarlo da vicino se io lo prendevo in mano e me lo avvicinavo al viso mi confessò che le prime volte era quella una vista davvero ripugnante diceva di poter scorgere nella mia pelle grossi fori che i moncuni della mia barba erano dieci volte più grossi delle setole di un cinghiale e la mia carnagione risultava da una cozzaglia di colori quanto mai sgradevole e tuttavia mi si permetta di dire di non essere più brutto della maggior parte dei mortali del mio sesso e del mio paese e che tutti i miei viaggi mi hanno assai poco abbronzato d'altra parte parlando delle dame della corte di quell'imperatore mi soleva dire che una aveva le lentigini un'altra una bocca troppo larga una terza il naso troppo grosso tutti i difetti che io non sapevo scorgere riconosco che queste osservazioni sono abbastanza ovvie ma ho dovuto farle per evitare che il lettore immagini come veramente deformi quelle smisurate creature anzi per render loro giustizia devo dire che sono una bella razza e che in particolare i lineamenti del mio padrone sebbene fosse un semplice fattore quando lo guardavo dall'altezza di 60 piedi mi apparivano assai ben proporzionati finito il disinare il mio padrone uscì per raggiungere i suoi braccianti e a quanto potei capire dalla voce e dai gesti diede a sua moglie ordini precisi di badare a me ero stanchissimo e avevo un grande desiderio di dormire la padrona se ne accorse mi mise nel suo stesso letto e mi coprì con un fazzoletto pulito ma più ampio e ruvido della vela maestra di una nave da guerra dormi circa due ore e sognai di essere a casa con mia moglie e i miei figli maggiore fu dunque la mia pena quando svegliatomi mi trovai solo in una stanza enorme larga da due a trecento piedi e alta più di duecento e sdraiati in un letto largo venti iarde la mia padrona se n'era andata a badare alle sue faccende domestiche e mi aveva chiuso dentro il letto era alto otto iarde da terra alcune necessità corporali esigevano che scendessi ma io non osavo chiamare e d'altronde l'avrei fatto in vano con un vocino piccolo come il mio e con tutta la distanza che c'era fra la stanza in cui stavo e la cucina in cui la famiglia era raccolta in quel frangente due topi si arrampicarono su per le cortine e andarono annusando su e giù per il letto uno di loro mi venne quasi sotto la faccia sicché io sorsi in piedi e rabbrividendo e trassi il mio coltellaccio per difendermi quelle orribili bestie ebbero l'audacia di aggredirmi dai due fianchi e uno di loro mi abbrancò al colletto con una zampa anteriore ma ebi la fortuna di aprirgli il ventre prima che potesse farmi qualche danno il colpito mi si abbatté ai piedi e l'altro vedendo quel che era capitato al suo compagno scappò via non senza una buona ferita nella schiena che gli infersi mentre fuggiva e da cui il sangue grondava copioso dopo questa impresa passeggiai lentamente su e giù per il letto per riprender fiato e rianimarmi un po' quegli animali avevano le dimensioni di un grosso mastino ma erano infinitamente più agili e feroci cosicché se prima di addormentarmi mi fossi tolto il cinturone a cui era appesa la daga sarei certo stato fatto a pezzi e divorato misurai la coda del topo morto e trovai che era lungo due yard meno un pollice non ebbi lo stomaco di trascinar la carcassa giù dal letto vedendo che dava ancora qualche cenno di vita lo finì con una buona coltellata sul collo subito dopo entrò nella stanza la mia padrona e vedendomi tutto insanguinato corse a me e mi prese nelle mani io indicai sorridendo il topo ucciso e feci altri cenni per farle capire che non ero ferito cosa di cui fu molto lieta poi chiamò la fantesca perché prendesse il topo con un paio di molle e lo gettasse giù dalla finestra mi mise infine su di un tavolo dove le mostrai la mia daga grondante sangue e asciugatala con un lembo della giacca la riposi nel fodero frattanto ero incalzato da due cose che un altro non avrebbe potuto far per me e cercai dunque di far capire alla mia padrona che desideravo essere calato sul pavimento ottenuto questo il mio pudore non mi permise di esprimermi altrimenti che indicando la porta e facendo ripetuti inchini la buona donna con molta difficoltà capì infine a cosa volevo arrivare e ripreso mi in mano si avviò verso il giardino dove mi rimese giù io mi allontanai di circa 200 yard accennandole di non guardarmi né seguirmi mi nascosi fra due foglie di acetosa e lì mi alleggerì spero che il gentile lettore vorrà scusarmi se mi soffermo su questi e simili particolari che per quanto insignificanti possano apparire a spiriti bassi e volgari aiuteranno certo un filosofo ad allargar la cerchia delle sue idee e della sua fantasia e ad applicarle a beneficio del bene pubblico e privato unico scopo cui ho mirato nel presentare questa e le altre relazioni dei miei viaggi per il mondo ho cercato anzitutto di esporre la verità senza ostentare alcun ornamento di dottrina e di stile ma l'interno paronama di questo viaggio si è così impresso nel mio spirito e mi è rimasto così profondamente fissato nella memoria che nell'affidarlo alla carta non ho messo alcun particolare sostanziale tuttavia dopo una revisione rigorosa ho cancellato vari particolari di minor momento che erano nella prima stesura per tema di essere giudicato noioso e superficiale censure queste che vengono spesse rivolte ai viaggiatori e forse non senza ragione capitolo secondo descrizione della figlia del fattore l'autore è condotto in una città di mercato e poi alla capitale particolari del viaggio la mia padrona aveva una figlia di nove anni bambina assai precoce per la sua età abilissima nei lavori d'ago e insuperabile nel far vestitini alla sua bambola sua madre e lei si industriarono a preparare per me la culla della bambola prima che fosse notte la culla fu messa nel cassettino di uno stipo e il cassettino su di un assito sospeso in aria per paura dei topi fu questo il mio letto per tutto il tempo che rimasi con quella gente sebbene divenisse sempre più comodo via via che cominciava ad imparare la loro lingua e a poter far conoscere i miei desideri quella fanciulletta fu così svelta che dopo che mi fu spogliato una volta o due in sua presenza fu capace di vestirmi e svestirmi per quanto io cercassi di risparmiarle questo fastidio ogni volta che me lo permetteva mi fece parecchie camice qualche altro capo di biancheria con la tela più fine che le riuscì di procurarsi ma in realtà più ruvida della tela di sacco e mi lavò sempre i panni con le sue mani mi fece anche da maestra per insegnarmi la lingua quando io indicavo qualche cosa ella me ne diceva il nome nel loro idioma così che in pochi giorni fui in grado di chiedere tutto ciò che desideravo era davvero una buona bambina non più alta di 40 piedi perché piccolina per la sua età mi chiamava Grildrig nome accolto anche dalla famiglia e in seguito dall'intero reame la parola indica ciò che i latini chiamano nanunculus gli italiani o munce letino e gli inglesi mannequin devo soprattutto a lei se non lasciai la pelle in quel paese mai ci separammo per tutto il tempo che vi rimasi io la chiamavo la mia glom dal click cioè la mia balietta e mi macchierei dell'ingratitudine più nera se tralasciassi di ricordare onorevolmente tutte le cure e l'affetto che mi dimostrò e che con tutto il cuore vorrei ricambiare secondo il merito invece di essere innocente ma sciagurato strumento delle sue sventure come purtroppo ragione di temere per tutto il vicinato già si sapeva e si diceva che il mio padrone aveva trovato in un campo uno strano animale grande quanto uno splacnook ma formato in ogni parte esattamente come un essere umano del quale imitava anche ogni atto sembrava anche parlare un suo piccolo idioma e aveva già imparato parecchie parole del loro camminava dritto su due gambe era docile e cortese veniva quando era chiamato faceva tutto ciò che gli si ordinava aveva le più belle membra che si potessero immaginare e una carnagione più delicata di quella della figlia di un nobile a tre anni un altro fattore che abitava vicino ed era intimo amico del mio padrone venne a fargli visita appunto per sapere la verità di questa storia fu subito presentato e messo sopra un tavolo dove camminai secondo i comandi che mi davano snudai il mio coltellaccio lo rimisi nel fodero feci una riverenza all'ospite del mio padrone gli chiesi nel suo linguaggio come stava e gli diedi il benvenuto proprio come mi aveva insegnato la mia balietta quest'uomo che era vecchio e di vista corta inforcò gli occhiali per vedermi meglio e a questo spettacolo io non potei trattenermi dal rider di cuore perché i suoi occhi mi sembravano una luna piena che risplendesse in una camera con due finestre la gente di casa che capì il motivo della mia allegria si unì a me nella risata e quel vecchio fu tanto grullo da arrabbiarsi e fare il viso scuro aveva la reputazione di avaraccio e per mia disgrazia mostrò di meritarsela pienamente per il maledetto consiglio che diede al mio padrone di mostrarmi in pubblico come un fenomeno in un giorno di mercato nella città vicina questa distava una mezz'ora di trotto cioè circa 22 miglia dalla nostra casa io sospettai che si stava tramando qualche guaio quando vidi il mio padrone e il suo amico parlare a lungo sottovoce accennando ogni tanto a me e il timore mi fece immaginare di aver afferrato e capito qualche parola ma il mattino dopo glom dal click la mia balietta mi raccontò tutta la faccenda che era riuscita astutamente a cavar dalla madre la povera piccina mi stringeva al petto e versava lacrime di vergogna e di dolore temeva che mi capitasse qualche disgrazia da parte del rozzo volgo che avrebbe potuto strizzarmi fino a farmi rendere il fiato o rompermi un braccio o una gamba per volermi prendere in mano aveva anche notato quanto fossi modesto per natura quanto delicato in fatto di onore e immaginava quale obrobrio sarebbe stato per me il vedermi esposto come spettacolo alla più volgare canaglia solo per far quattrini aggiunse che il babbo e la mamma le avevano promesso che Gildrig sarebbe stato suo ma adesso vedeva che intendevano trattarla come l'anno precedente quando avevano finito di regalarle un agnellino e poi appena ingrassato l'avevano venduto al macellaio per parte mia devo dire sinceramente che ero meno preoccupato della mia piccola governante nutrivo una ferma speranza che non mi abbandono mai di recuperare un giorno la libertà e quanto all'ignominia di essere portato in giro come un fenomeno da baraccone mi consideravo del tutto estraneo al paese e pensavo che una simile disavventura non mi si sarebbe potuta imputare a colpa se mai tornavo in Inghilterra visto che lo stesso re della Gran Bretagna al mio posto avrebbe dovuto sottomettersi a quella stessa iattura il mio padrone seguendo il consiglio del suo amico il primo giorno di mercato mi portò in una scatola alla città vicina e prese seco la figlioletta la piccola mia governante mettendola dietro di sé sul cavallo seduta su di un cuscino la scatola era chiusa da ogni lato ma aveva una porticina da cui potevo entrare e uscire e alcuni fori fatti a succhiello per arieggiarla la fanciulla aveva avuto cura di mettervi dentro il materassino del letto della sua bambola perché mi ci sdraiassi ma tuttavia durante questo viaggio fui terribilmente scrollato e sconquassato sebbene non durasse più di mezz'ora il cavallo infatti si faceva circa cinquanta piedi ad ogni passo e trottando faceva tali balzi che lo scombussolio eguagliava il beccheggio di una nave in balia di una violenta tempesta ma era molto più frequente il viaggio fu un poco più lungo di quello da Londra St. Albans il mio padrone scese ad un albergo che soleva frequentare e dopo essersi consultato un po' con lo candiere e aver fatto i preparativi necessari assoldò il grultrud o banditore per avvertire tutta la città che uno strano essere si poteva vedere all'insegna dell'aquila verde grosso poco meno di uno splacnook un animale del paese fatto assai bene lungo circa sei piedi simile in ogni parte del corpo ad una creatura umana che sapeva dire parecchie parole e far mille divertenti buffonate fui messo sopra un tavolo nella più vasta sala dell'albergo un quadrato di circa trecento piedi la mia balietta stava seduta su di uno sgabellino vicino al tavolo per badare a me e indicarmi quel che dovevo fare il mio padrone per evitare la ressa ammise allo spettacolo solo trenta persone per volta io passeggiavo qua e là sul tavolo secondo gli ordini della fanciulla ella mi rivolgeva domande fin dove sapeva che la mia conoscenza della lingua poteva arrivare e io rispondevo quanto più forte potevo mi rivolgevo spesso al pubblico lo salutavo sequiosamente davo loro il benvenuto e dicevo altre frasi che mi avevano insegnato prendevo un ditale colmo di liquore datomi come bicchiere dalla mia gloom dal click e bevevo alla loro salute sguainavo la daga e la brandivo secondo le regole della scherma inglese la mia balietta mi dava un fuscellino e io lo maneggiavo come una picca avendo imparato da giovane anche quest'arte quel giorno fui presentato a 12 serie di spettatori e costretto a ripetere altrettante volte le stesse sciocchezze finché non mi sentì mezzo morto di stanchezza e di noia quelli che mi avevano visto riferivano di me tali meraviglie che la gente avrebbe sfondato le porte per entrare il mio padrone per suo interesse non permetteva che alcuno mi toccasse all'infuori della mia piccola governante e a scanso di guai erano state poste delle panche tutti intorno al tavolo a distanza tale da mettermi fuori portata di ogni mano tuttavia uno sciagurato studentello mi mirò alla testa con una nocciola e mi mancò per miracolo altrimenti era venuta con tal forza che mi avrebbe fatto schizzar fuori le cervella era grossa quanto una piccola zucca ma ebbi la soddisfazione di vedere quella canaglietta bastonata a dovere e buttata fuori della sala il mio padrone annunziò pubblicamente che mi avrebbe messo in mostra il prossimo giorno di mercato nel frattempo mi preparò un veicolo più adatto e fece bene perché il primo viaggio e l'aver dovuto dar spettacolo per otto ore consecutive mi avevano così stancato che potevo appena reggermi in piedi e dire una parola ci vollero tre giorni buoni perché recuperassi le forze e per non farmi avere requie nemmeno a casa tutti i signori delle vicinanze in un raggio di centomiglia udendo parlare di me vennero a vedermi nella dimora del mio padrone non furono meno di trenta uomini con le mogli e i figli perché il paese è molto popoloso e il mio padrone quando mi presentava a casa sua anche se si trattava di una sola famiglia pretendeva il prezzo di una sala piena così che per qualche tempo ogni giorno della settimana eccettuato il mercoledì che è il loro sabato io potei appena tirare il fiato sebbene non fossi portato in città il mio padrone vedendo quanto avrei potuto rendergli decise di portarmi nelle più importanti città della Reame provvistosi dunque di tutto il necessario per un lungo viaggio e sistemati i suoi affari domestici prese commiato dalla moglie e il 17 agosto del 1703 circa due mesi dopo il mio arrivo partimmo per la capitale situata quasi al centro di quell'impero e distante poco più o poco meno di 3000 miglia dalla nostra casa la glumdal klik la mia balietta cavalcava dietro suo padre essa mi teneva in grembo in una scatola che si era legata alla vita ne aveva rivestite le pareti con il panno più morbido che aveva potuto trovare dopo averlo ben imbottito vi aveva messo il lettino della sua bambola mi aveva provvisto di biancheria e di altre cose necessarie insomma aveva fatto tutto nel miglior modo non avemmo altra scorta che un ragazzo di casa che ci trottava dietro col bagaglio il mio padrone aveva divisato di mostrarmi in tutte le città che incontravamo per via e di spingersi fino a 50 o 100 miglia fuoristrada per raggiungere qualche villaggio o la casa di qualche personaggio importante dove poteva aspettarsi una clientela viaggiammo comodamente a tappe non superiori alle 140 o 160 miglia giornaliere perché la glumdal klik per riguardo verso di me diceva che il trotto del cavallo la stancava spesso pregata da me mi tirava fuori dalla scatola per farmi prendere aria e mostrarmi il panorama ma sempre mi teneva per certe dande che mi aveva fatto traversammo 5 o 6 fiumi parecchie volte più larghi e profondi del Nilo o del Gange senza trovare nemmeno un ruscelletto piccolo come il Tamigi al ponte di Londra 10 settimane durò il viaggio e io fui mostrato in 18 grandi città senza contare vari villaggi e case private il 26 ottobre arrivammo alla metropoli chiamata nella loro lingua l'Orbulgrud ossia l'orgoglio dell'universo il mio padrone prese alloggio nella via principale della città non lungi dal palazzo reale e distribuì i soliti manifesti contenenti un'esatta descrizione della mia persona e delle mie capacità prese in affitto una gran sala larga da 3 a 400 piedi si procurò una tavola di 60 piedi di diametro sulla quale dovevo recitar la mia parte e vi fece costruire intorno una palizzata a tre piedi dall'orlo e alta altrettanti per evitare che capitombolassi fui mostrato al pubblico dieci volte il giorno con gran meraviglia e soddisfazione generali potevo adesso parlare abbastanza bene la loro lingua e capivo perfettamente ogni parola che mi si diceva avevo imparato inoltre il loro alfabeto e potevo ingegnarmi a leggere e spiegare qua e là qualche frasetta perché la gloom dal click mi aveva fatto da maestra quando eravamo a casa e nelle ore di riposo durante il viaggio portava in tasca un libricino non molto più grosso di un cosiddetto atlante di Sansone era un comune trattato a uso delle giovinette che esponeva i principi della loro religione con questo ella mi insegnò le lettere e mi spiegò il significato delle parole capitolo terzo l'autore è chiamato a corte la regina lo compra dal fattore suo padrone lo presenta al re sue discussioni con gli alti sapienti di sua maestà viene concesso all'autore un appartamento a corte e gli gode gran favore da parte della regina difende l'onore della propria patria suo litigio col nano della regina le continue fatiche che dovevo sopportare ogni giorno produssero in poche settimane un notevole cambiamento nella mia salute più il mio padrone guadagnava a mie spese più insaziabile diventava avevo perso quasi del tutto l'appetito ed ero ridotto ormai a pelle e ossa il fattore se ne accorse e pensando che sarei molto presto divisò di trar da me il maggior profitto possibile mentre egli così meditava e prendeva fra sé queste decisioni uno slardral ossia un gentiluomo di camera fu mandato alla corte al mio padrone con l'ordine di portarmi immediatamente colà per far divertire la regina e le sue dame alcune di queste erano già venute a vedermi e avevano riferito strane cose sulla mia bellezza i miei modi e il mio buonsenso sua maestà e il suo seguito si divertirono moltissimo nel vedere come mi comportavo io mi inginocchiai e chiesi l'onore di baciare il suo imperial piede ma quella graziosa sovrana tese verso di me il suo dito mignolo dopo che io ero stato posto su di un tavolo che io cinsi con le due braccia portandone col massimo rispetto la punta alle labbra e la mi fece alcune domande generiche sulla mia patria e sui miei viaggi a cui risposi con tutta la chiarezza e la concisione di cui fui capace mi domandò se sarei stato contento di vivere a corte io mi inchinai fino al piano del tavolo e risposi umilmente di essere lo schiavo del mio padrone ma che se avessi potuto disporre di me stesso sarei stato orgoglioso di dedicare la mia vita al servizio di sua maestà allora domandò al mio padrone se lui voleva vendermi ad un prezzo vantaggioso e lui che non mi dava un mese di vita fu felice di sbarazzarsi di me e domandò mille pezzi d'oro che gli furono immediatamente pagati ogni pezzo aveva all'incirca la grossezza di 800 moidori portoghesi ma tenuto conto della proporzione di tutte le cose tra quel paese e la nostra Europa e dall'alto valore dell'oro laggiù la somma equivaleva a poco meno di mille guinee inglesi dissi allora alla regina che poiché ero adesso un'umile creatura e vassallo di sua maestà le chiedevo la grazia di assumere al suo servizio anche la gloom dal click che mi aveva sempre assistito con tanta amorevole cura e aveva saputo farlo così bene in modo che potesse continuare ad essere la mia governante maestra sua maestà accolse la mia petizione e ottenne facilmente il consenso del fattore felicissimo di vedere sua figlia a corte anche la povera piccola non seppe dissimular la sua gioia il mio ex padrone se ne andò dopo avermi detto addio assicurandomi che mi lasciava in un ottimo servizio io non risposi parola e mi limitai ad un lieve inchino la regina notò la mia freddezza e quando il fattore fu uscito dall'appartamento me ne domandò la ragione io mi presi la libertà di rispondere a sua maestà di non aver verso il mio padrone alcun obbligo se non quello di non aver fracassato la testa ad una povera creatura innocente trovata per caso nel suo campo e che questo obbligo era stato largamente compensato dal guadagno che egli aveva fatto presentandomi in pubblico a mezzoreame e dalla somma per cui mi aveva adesso venduto aggiunsi che la vita da me condotta per tutto quel tempo era stata così estenuante che avrebbe potuto ammazzare un animale dieci volte più robusto di me che la mia salute era stata gravemente compromessa dalla bestiale fatica di divertirla a canaglia ogni ora del giorno e che se il mio padrone non mi avesse creduto più di là che di qua forse sua maestà non mi avrebbe ottenuto così a buon prezzo ma sicuro ormai di non essere più maltrattato sotto la protezione di una così grande benigna imperatrice ornamento della natura prediletta del mondo delizia dei suoi sudditi fenice della creazione speravo che i sinistri presagi del mio ex padrone si sarebbero rivelati privi di fondamento che già sentivo rianimarsi in me gli spiriti per l'influsso della sua augustissima presenza fu questo in breve il mio discorso che io pronunziai con molte improprietà di lingua e non poca esitazione l'ultima parte tuttavia fu congegnata nello stile proprio di quel popolo di cui la glumdal click mi aveva insegnato qualche frase mentre mi portava a corte la regina perdonando con gran generosità i miei difetti di espressione fu molto meravigliata di trovare tanto spirito e tanto buonsenso in un animaletto come me mi prese fra le mani e mi portò dal re che in quel momento era ritirato nel suo studio sua maestà un monarca assai grave e pieno di austerità nell'aspetto non avendo bene osservato a prima vista come ero fatto domandò alla regina piuttosto freddamente da quando in qua le era venuta tanta tenerezza per uno splacnook perché a quanto pare carponi come ero nella mano destra della sovrana mi prese per questo animale ma la sua graziosa maestà quanto mai intelligente e spiritosa mi mise delicatamente in piedi sulla scrivania e mi comandò di dare a sua maestà qualche raguaglio sul mio conto cosa che feci in pochissime parole fu fatta entrare poi la glumdal click che aspettava alla porta dello studio e smaniava di rivedermi ed essa confermò tutto ciò che era avvenuto dal giorno del mio arrivo in casa di suo padre il re se benedotto quanto nessun altro nei suoi domini e assai versato nella filosofia e in particolare nelle matematiche quando mi ebbe osservato con attenzione ed ebbe visto che camminavo dritto su due gambe credette prima che cominciassi a parlare di vedere in me qualche congegno di orologeria arte che in quel paese è giunta alla massima perfezione fabbricato da un artefice ingegnoso ma quando udì la mia voce e si rese conto che quel che diceva era normale e sensato non poté nascondere il suo stupore non fu affatto persuaso del racconto che gli feci del mio arrivo nel suo regno e lo giudicò una storiella combinata tra la glum dal click e suo padre come se mi avessero fatto imparare a memoria una filastrocca per vendermi a miglior prezzo e per tale supposizione mi rivolse parecchie altre domande sempre ricevendo risposte ragionevoli e difettose solo per il mio accento straniero per l'imperfetta conoscenza della lingua e per qualche espressione campagnola che avevo imparato in casa del fattore e non conforme all'alto stile della corte sua maestà mandò a chiamare tre insigni dotti che quella settimana secondo l'usanza del paese erano di turno a corte questi signori dopo aver esaminato a lungo e scrupolosamente la mia persona espressero sul conto mio differenti opinioni tutti furono però d'accordo che non potevo essere venuto al mondo secondo le normali leggi di natura perché non formato in modo da poter difendere la mia esistenza sia mediante la velocità sia con la capacità di arrampicarmi sugli alberi o di scavar buche in terra dai denti che osservarono con grande attenzione notarono che era un animale carnivoro tuttavia considerando che la maggior parte dei quadrupedi mi erano superiori nella forza e che i topi di campo e simili animaletti mi superavano nella velocità non riuscivano a capire come diamine facessi a nutrirmi a meno che mici bassi di lumache e altri animaletti cosa che con molti e dotti argomenti dimostrarono per me impossibile uno di questi sapientoni suggerì l'idea che fossi un embrione o aborto che dir si voglia ma quest'ipotesi fu respinta dagli altri due i quali fecero osservare come le mie membra fossero perfette e compiute e come avessi già vissuto parecchi anni cosa questa chiaramente dimostrata dalla mia barba di cui poterono facilmente scorgere i peluzzi con una lente di ingrandimento non poterono ammettere che fossi un nano perché la mia piccolezza era al di là di ogni paragone lo stesso nano favorito della regina il più piccolo che si conoscesse in tutto il reame era alto quasi 30 piedi dopo molte discussioni conclusero unanimemente che io ero soltanto un replum skullcat letteralmente un lusus nature definizione che andrà molto a genio ai moderni filosofi europei i cui rappresentanti sdegnando l'unica scappatoia delle cause occulte con cui i seguaci di aristotele cercavano in vano di dissimulare la propria ignoranza hanno inventato questa meravigliosa soluzione di ogni difficoltà con indicibile vantaggio dell'uman sapere dopo questa conclusione decisiva chiesi il permesso di dir due parole mi rivolsi al re e assicurai sua maestà che venivo da un paese popolato da vari milioni di esseri dei due sessi e della mia statura dove animali alberi e cose erano tutti in proporzione e dove per conseguenza io potevo difendermi e procurarmi da vivere come ogni suddito di sua maestà faceva nel proprio paese e mi parve di aver risposto pienamente agli argomenti di quei signori ma essi risposero solo con un sorriso sprezzante dicendo che il fattore mi aveva insegnato molto bene la lezione il re che aveva molto maggior discernimento congedò i suoi dotti e mandò a chiamare il fattore che per fortuna non aveva ancora lasciato la città e dopo averlo interrogato a parte e messo poi a confronto con me e con la bimba sua maestà cominciò a pensare che quel che avevo raccontato poteva essere vero pregò alla regina di dar ordine che ci si prendesse gran cura di me e fu d'avviso che la gloom dal click dovesse continuare il suo compito di mia governante perché si era già accorto che ci volevamo reciprocamente un gran bene le fu assegnata una bella stanzetta a corte una specie di istitutrice ebbe l'incarico di provvedere alla sua educazione una cameriera di vestirla e due altre domestiche di provvedere ai minori servici ma la cura di me fu lasciata solo a lei la regina ordinò al suo ebanista particolare di costruire una scatola che mi servisse da camera da letto secondo il modello che la gloom dal click ed io avevamo approvato quest'uomo era un artigiano assai ingegnoso e seguendo le mie istruzioni in tre settimane mi portò a termine una camera di legno di sedici piedi di lato e dodici di altezza con finestre a saliscendi una porta e due stanzini proprio come una camera da letto londinese la tavola che faceva da soffitto si alzava e si abbassava girando su due perni così da poter collocare nell'interno un letto bello e pronto fabbricato dal tappeziere di sua maestà che la gloom dal click tirava fuori ogni giorno per metterlo all'aria rifaceva con le sue mani e a notte rimetteva dentro chiudendo poi a chiave il soffitto su di me un raffinato artigiano celebre per le piccole curiosità che sapeva fare mi fabbricò due sedie con spalliere e tutto di una sostanza simile al lavorio e due tavoli e uno stipo per riporvi le mie robe la stanza era imbottita da tutti i lati e così pure il pavimento e il soffitto per evitare disgrazie causate dalla trascuratezza di chi mi portava e per attutir le scosse quando andavo in vettura pregai che mi mettessero una serratura alla porta per impedire ai topi di entrare il fabbro dopo vari tentativi me la fece la più piccola che si fosse mai vista in quel paese ricordo infatti di averne osservata una più grande alla porta di un signore inglese mi ingegnai di tenermi io stesso la chiave in tasca per paura che la glum dal click la perdesse la regina poi ordinò le più fini sete che si potessero trovare per farmi i vestiti erano non molto più spessi di una coperta di lana inglese e al quanto grevi ma infine mi ci abituai gli abiti erano fatti alla foggia nazionale tra persiana e cinese ma non mancavano di gravità e di decoro la regina si appassionò tanto alla mia compagnia che non poteva pranzare senza di me mi fu messa una tavola sul piano stesso di quella di sua maestà proprio accanto al punto su cui ella posava il gomito sinistro e una sedia per sedermi la glumnal click se ne stava su di uno sgabello sotto di me per badare a tutto quel che mi occorreva avevo un intero servizio di piatti e vassoi d'argento con tutto il restante necessario che in confronto con quelli della regina non erano più grandi dei servizi da tavola per bambole che avevo visto in un emporio di londra la mia balietta se li teneva in tasca in una scatola d'argento e me li porgeva man mano che mi occorrevano lavandoli poi con le sue mani alla tavola della regina sedevano solo le due principesse del sangue la maggiore di sedici anni e la minore di tredici e un mese sua maestà solleva mettermi un pezzetto di carne su uno dei miei vassoi dal quale poi mi servivo da me e il suo divertimento era di vedermi mangiare in miniatura perché la regina che era davvero di stomaco debole si prendeva in un boccone quanto sarebbe bastato ad un pranzo di dodici fattori inglesi cosa che per molto tempo fu per me uno spettacolo disgustoso stritolava fra i denti ossa e tutto l'ala di una lodola grande nove volte quella di un tacchino e si metteva in bocca un bocconcino di pane grosso quanto due pagnotte da uno scellino beveva in una coppa d'oro assorsi di più di una botte i suoi coltelli erano lunghi due volte la lama di una falce incastrata per dritto nel manico cucchiai forchette e via di seguito erano tutti in proporzione ricordo che quando la gloom dal click mi portò per soddisfare la mia curiosità a vedere alcune tavole di corte dove dieci o dodici di questi enormi coltelli e forchette erano alzati contemporaneamente mi parve di non aver mai visto fino allora un così terribile spettacolo ogni mercoledì giorno che come ho già detto è il loro sabato il re la regina e i principi del sangue dei due sessi sollevano pranzare riuniti negli appartamenti di sua maestà di cui ero divenuto un gran favorito in queste occasioni la mia seggiolina e il tavolino erano collocati alla sua sinistra davanti ad una saliera questo sovrano cominciò a prendere di letto nel conversare con me informandosi di costumi religione leggi governi e cultura in Europa io gli davo i migliori ragguagli che potevo così chiara era la sua intelligenza e così esatto il suo giudizio che su tutto quello che dicevo egli poteva fare riflessioni e osservazioni giustissime ma devo confessare che una volta dopo che ebbi parlato un po' troppo del mio amato paese dei nostri commerci delle nostre guerre per mare e per terra dei nostri scismi religiosi e dei nostri partiti politici i pregiudizi propri della sua educazione prevalsero tanto che egli non poté trattenersi dal prendermi nella destra e carezzandomi delicatamente con la sinistra dopo un cordiale scoppio di risa mi domandò se fossi Whig o Tory si volse poi al suo primo ministro che stava ai suoi ordini dietro di lui con in mano la sua mazza bianca grossa quasi quanto l'albero maestro del real sovrano e osservò quanto spregevole cosa fosse l'umana grandezza visto che poteva essere scimmiottata anche da insetti piccoli come me e tuttavia aggiunse scommetterei che questi esserini hanno anche i loro titoli e le loro distinzioni onorifiche che si ingegnano a fabbricare piccoli nidi e tane che chiamano case e città che cercano di far figura con vesti ed equipaggi che amano guerreggiano litigano truffano e tradiscono e tiro avanti su questo tono mentre l'indignazione mi faceva mutare più volte colore a sentir trattare con tanto disprezzo la nostra nobile terra signora delle arti e delle armi flagello della Francia arbitra dell'Europa sede della virtù della pietà dell'onore della verità orgoglio e invidia dell'universo ma poiché la mia condizione non mi permetteva di rintuzzare l'oltraggio dopo matura riflessione cominciai a domandarmi se dovevo o no considerarmi offeso perché abituato come ero da parecchi mesi a veder quella gente a parlarci insieme e a trovar proporzionato alla sua mole tutto ciò su cui il mio occhio si posava l'orrore ha ispiratomi dapprima dal suo mostruoso aspetto si era tanto attenuato che se avessi visto un'accolta di pari d'Inghilterra con le loro dame in tutta la magnificenza di un abbigliamento da compleanno reale recitar la loro parte secondo la rigorosa etichetta di corte pavoneggiarsi e strisciar riverenze e cicalare sarei stato potentemente tentato a dire il vero di rider di loro quanto il re e i suoi dignitari risero di me né davvero potevo trattenermi dal rider di me stesso quando la regina mi prendeva in mano come soleva e mi metteva davanti ad uno specchio nel quale le nostre figure si riflettevano in tutta la grandezza nulla era più ridicolo del paragone tanto che cominciai a pensare di essere davvero infinitamente rimpicciolito nulla mi offendeva e mortificava più del nano della regina il quale avendo la più bassa statura che si fosse mai vista in quel paese penso che non fosse alto nemmeno 30 piedi si ringalluzzi in tal modo al vedere un essere tanto più piccolo di lui che prese a darsi certe aria altezzose da gradasso ogni volta che mi passava vicino nell'anticamera della regina mentre io in piedi su qualche tavolo parlavo con i signori o le dame di corte non tralasciavo mai di lanciarmi qualche frizzo sulla mia piccolezza e io potevo vendicarmi solo chiamandolo fratello sfidandolo alla lotta e rimbeccandolo come sogliono i paggi di corte un giorno a pranzo questo maligno botolo si irritò tanto di qualche mia parola ben aggiustata contro di lui che rizzatosi sulla sedia di sua maestà la regina mi agguantò a mezza vita mentre me ne stavo seduto senza nulla sospettare e mi lasciò piombare in una gran coppa d'argento piena di panna poi se la svignò a gambe levate io andai dentro fin sopra alle orecchie e se non fossi stato un buon nuotatore me la sarei cavata assai male perché in quel momento la gloom dal click era l'altro capo della sala e la regina fu così spaventata che le mancò la presenza di spirito di venirmi in aiuto ma la mia balietta accorse e mi tirò fuori quando mi ero già ingoiato due buone pinte di panna mi misero subito a letto ma non ebbe altro danno che la perdita di un abito irrimediabilmente rovinato il nano venne frustato di santa ragione e per giunta obbligato a bersi tutta la coppa di panna in cui mi aveva gettato nemmai più tornò nelle grazie della regina che poco dopo lo regalò ad una dama di alta condizione cosicché con mia grande soddisfazione non lo vidi più non potei davvero dire a quali estremi un monellaccio simile sarebbe stato trascinato dal suo rancore mi aveva già giocato un brutto tiro che aveva fatto ridere molto la regina pur indignandola al tempo stesso in tal modo che ella lo avrebbe immediatamente scacciato senza la mia generosa intercessione sua maestà aveva dinanzi a sé un osso buco e dopo averne fatto cadere il midollo aveva rimesso l'osso dritto sul piatto come prima il nano colto il destro mentre la gloom del click era andata un momento verso la credenza salì sullo sgabelletto su cui ella stava per accudire a me durante il desinare mi prese su a due mani e serratemi insieme le gambe mi ficcò nell'osso fin sopra la vita rimasi un bel pezzo lì facendo la più ridicola figura che si possa immaginare passò credo un minuto prima che si sapesse quel che mi era capitato perché la mia dignità mi impediva di chiamare aiuto per fortuna molto raramente vengono serviti ai sovrani i cibi caldi così non mi scottai le gambe e mi rovinai solo le calze e i calzoni per mia intercessione il nano non ebbe altro castigo che una buona frustatura spesso la regina mi burlava per la mia codardia e mi soleva domandare se i miei compatrioti erano pusillanimi come me la ragione era questa nella stagione estiva il reame è infestato dalle mosche e questi odiosi insetti grossi ognuno quanto una lodola di Dunstable non mi lasciavano un momento di pace quando sedevo a tavola ronzandomi e strepitandomi continuamente nelle orecchie a volte si posavano sulle mie vivande e vi lasciavano i loro schifosi escrementi o le uova perfettamente visibili a me ma non ai nativi del luogo i cui grandi occhi non erano acuti come i miei nello scorgere dei piccoli oggetti talora mi si posavano sul naso o sulla fronte pungendomi al vivo ed emanando un pessimo odore io potevo facilmente riconoscere quella sostanza vischiosa che a detta dei nostri naturalisti permette a quegli insetti di camminare a testa in giù lungo un soffitto avevo un bel da fare per difendermi da quei maledetti animali e non potevo trattenermi dal sobbalzare quando mi venivano sulla faccia il nano soleva nascondersene un bel po' in mano come fanno fra noi gli scolaretti e mettermele improvvisamente sotto il naso per spaventarmi e divertirla regina mia unica risorsa era di farle a pezzi col coltello cogliendole al volo e questa mia abilità era molto ammirata ricordo che una mattina dopo che la gloom dal click mi ebbe posto nella mia scatola sul davanzale di una finestra come soleva fare quando era bel tempo per farmi prendere aria ma non mi ero arrischiato a consentire che appendessero la scatola ad un chiodo fuori della finestra come facciamo in inghilterra con le gabbie degli uccelli tirai su una finestra e mi sedetti a tavola per far colazione con un pezzo di focaccia dolce subito una ventina di vespe richiamate dal profumo entrarono a volo nella stanza con un ronzio più assordante dello strepito di altrettante cornamuse alcune afferrarono la focaccia e se la portaron via in pezzi altre mi volarono intorno alla testa e al volto stordendomi con il fracasso e mettendomi addosso una paura folle dei loro pungiglioni ebbi tuttavia il coraggio di balzare in piedi e sguainarla d'aga inseguendole nell'aria quattro ne spacciai il resto volò via e io chiusi subito la finestra quegli insetti erano grossi come pernici io ne strappai pungiglioni lunghi un pollice e mezzo e aguzzi come aghi li conservai gelosamente e dopo averli fatti vedere con altre curiosità in varie parti d'Europa tornato in Inghilterra ne regalai tre al Gresham College e teni il quarto per me capitolo quarto descrizione del paese proposta di una correzione delle moderne carte geografiche il palazzo reale e varie notizie sulla capitale modo di viaggiare dell'autore descrizione del tempio principale voglio ora dare al lettore una breve descrizione di questo paese per quel tanto che lo percorsi cioè non più di 2000 miglia intorno all'Orbrulgrud la capitale perché la regina che seguivo sempre non si spingeva mai oltre quando accompagnava il re nei suoi viaggi e si fermava poi ad aspettare che sua maestà tornasse dal suo giro di ispezione alla frontiera l'intera estensione dei domini di questo sovrano raggiunge circa le 6.000 miglia in lunghezza e dalle 3 alle 5 in larghezza devo dunque concludere che i nostri geografi europei incorrono in un grave errore supponendo che tra il Giappone e la California non vi sia altro che mare ho sempre pensato che deve esserci un contrappeso di terra a bilanciare il vasto continente tartaro essi dovrebbero di conseguenza correggere le carte geografiche di navigazione unendo questo vasto territorio alle regioni nord-occidentali dell'America e sono pronto in questo a dar loro il mio aiuto il Reame è una penisola limitata a nord-est da una catena di montagne alte 30 miglia e assolutamente invalicabili a causa dei vulcani che si aprono sulle loro cime nemmeno i più sapienti sanno che razza di mortali abitino oltre queste montagne o addirittura se le regioni al di là siano abitate dagli altri tre lati è cinta dall'oceano nell'intero Reame non vi è nemmeno un porto e quelle parti della costa in cui sfociano i fiumi sono così piene di scogli aguzzi e il mare di solito così agitato che non c'è da arrischiarsi neppure col più piccolo battello cosicché questo popolo è tagliato fuori da ogni relazione con il resto del mondo ma i grandi fiumi sono pieni di navi e ricchi di pesce squisito assai di rado si pescano quelli del mare che sono delle stesse dimensioni dei nostri di Europa e quindi non mette conto di prenderli è dunque manifesto che la natura nella creazione di piante e animali di così straordinaria mole si è limitata a questo continente lascio ai filosofi lo stabilirne le ragioni capita tuttavia a volte che si impadroniscano di una balena gettata sugli scogli e la gente minuta è ghiotta di questo cibo di queste balene ne ho viste alcune così grosse che un solo uomo non riusciva a portarle sulle spalle e spesso sono portate in canestri all'orbo come curiosità ne ho vista una servita sulla tavola del re e considerata come una rarità ma mi parve che il sovrano non l'apprezzasse troppo forse perché disgustato dalla sua mole sebbene ne abbia vista una un po' più grossa in Groenlandia il paese è molto popolato contiene infatti 51 città circa un centinaio di piazze forti e un gran numero di villaggi per soddisfare il curioso lettore basterà che gli descriva l'orbo questa città è situata in due parti quasi uguali sulle due sponde del fiume che la traversa contiene più di 80.000 case e circa 600.000 abitanti misura in lunghezza tre glong lung circa 54 miglia inglesi e due e mezzo in larghezza come misura io stesso sulla mappa reale fatta per ordine del sovrano e che stesi a terra apposta per me lunga un centinaio di piedi ne percorsi più volte a piedi nudi il diametro e la circonferenza e facendo il calcolo secondo la scala potei misurarla con sufficiente esattezza il palazzo del re non è un edificio regolare ma una serie di fabbricati su un'area di circa 7 miglia le stanze principali sono generalmente alte 240 piedi e larghe e lunghe in proporzione un cocchio fu concesso alla glum dal click e a me nel quale la sua istitutrice la portava spessa a visitare la città o a far compere nei negozi ed io le accompagnavo sempre nella mia scatola sebbene la fanciulla pregata da me spesso mi traesse fuori e mi tenesse in mano per farmi vedere meglio le case e la gente mentre attraversavamo le vie calcolai che il nostro cocchio era largo quasi come Westminster Hall ma non così alto non posso però dirlo con esattezza un giorno l'istitutrice ordinò al cocchiere di fermarsi davanti a vari negozi e i mendicanti colsero l'occasione per far ressa ai due lati della vettura offrendomi il più orribile spettacolo che mai abbia visto occhio europeo vera una donna con un cancro alla mammella il seno le si era mostruosamente infiato ed era pieno di caverne in due o tre delle quali avrei potuto entrare facilmente carponi e nascondervi tutto il mio corpo un altro sciagurato aveva sul collo un tumore grosso come cinque balle di lana e un terzo trampolava su due gambe di legno lunghe circa venti piedi ma la vista più ributtante fu quella dei pidocchi che strisciavano sui loro cenci potevo vedere distintamente ad occhio nudo tutte le parti di questi schifosi insetti assai meglio di quelle di un pidocchio europeo attraverso un microscopio e i loro grugni a becco con cui andavano grufolando come porci erano i primi che potevo osservare e sarei stato curioso di sezionarne uno se avessi avuto gli strumenti adatti ma disgraziatamente li avevo lasciati nella nave sebbene lo spettacolo fosse così disgustoso da rovesciarmi lo stomaco oltre alla grande scatola in cui ero portato di solito la regina ordinò che se ne costruisse una più piccola di circa 10 piedi di lato e 10 di altezza per la maggior comodità nel viaggiare l'altra era un po' troppo grande per le ginocchia della gloom dal click e ingombrante per il cocchio fu fatta dallo stesso artefice ed io ne diressi la costruzione questo stanzino da viaggio era un quadrato esatto con una finestra nel mezzo di tre delle pareti ogni finestra aveva una grata di fil di ferro all'esterno ad evitare incidenti nei lunghi viaggi sulla quarta parete che non aveva finestre furono fissate due solide staffe nelle quali chi mi portava poteva infilare quando desideravo viaggiare a cavallo una cinghia di cuoio e affibbiarsela alla cintura questo compito era solitamente affidato a qualche domestico posato e di fiducia su cui potevo fare assegnamento quando seguivo il re e la regina nei loro viaggi o desideravo fare una passeggiata nei giardini o visitare qualche grandama o qualche ministro di stato semmai la glunda al click era indisposta perché cominciai presto ad essere conosciuto e stimato fra i più alti dignitari forse più per il favore di cui mi onoravano le loro maestà che per i miei meriti in viaggio quando ero stanco del cocchio un domestico a cavallo poneva la mia scatola su di un cuscino davanti a sé assicurandola con le cinghie e lì dalle mie tre finestre mi godevo l'intero panorama da tre lati in questo stanzino avevo un letto da campo e un'amaca appesa al soffitto due sedie e un tavolo ben avvitati al pavimento per non essere sballottati dalle scosse del cavallo o del cocchio e abituato com'ero ai viaggi per mare questi sobbalzi sebbene spesso assai violenti non mi scomodavano granché ogni volta che desideravo veder la città entravo nel mio stanzino da viaggio e la gloom dal click se lo teneva sulle ginocchia stando seduta in una portantina aperta secondo l'uso del paese portata da quattro uomini escortata da altri due nella livrea della regina il popolo che aveva sentito parlar tanto di me si affollava incuriosito intorno alla portantina e la fanciulla per compiacenza faceva fermare i portatori e mi prendeva in mano perché mi vedessero meglio morivo dalla voglia di visitare il tempio principale e in particolare il campanile che ne fa parte considerato il più alto del reame la mia balietta mi ci portò dunque un giorno ma devo dire che ne tornai deluso perché l'altezza non supera i 3000 piedi dal suolo alla più alta guglia cosa che considerando la differenza fra le dimensioni di quel popolo e le nostre non costituisce una gran meraviglia né se ben ricordo si adegua in proporzione al campanile di Salisbury ma per non togliere nulla ad una nazione a cui serverò grande riconoscenza per tutta la vita bisogna convenire che quel che manca in altezza a quel tempio famoso è largamente compensato dalla bellezza e dalla solidità le sue mura hanno infatti uno spessore di quasi 100 piedi tutte di pietra da taglio larghe ognuna circa 40 piedi e adorne da ogni lato di statue di dei e di imperatori scolpite nel marmo e grandi più del naturale in altrettante nicchie misurai un mignolo caduto da una di queste statue che giaceva inosservato tra certe macerie era lungo esattamente quattro piedi e un pollice la glum dal click lo avvolse nel suo fazzoletto se lo mise in tasca e se lo portò a casa per conservarlo con altre bagattelle di cui era gelosissima come tutti i bimbi della sua età le cucine reali sono davvero un'imponente fabbrica col soffitto avvolta alte circa 600 piedi l'immenso forno misura solo dieci passi meno della cupola di san pietro l'ho misurata di proposito al mio ritorno ma se dovessi descrivere le graticole le prodigiose pentole e marmitte i pezzi di carne che girava negli spiedi e tanti altri particolari forse non sarei creduto perlomeno qualche critico severo penserebbe che esageri un tantino come sempre si sospetta che facciano i viaggiatori per scansare questa cosa temo di essere caduto nell'estremo opposto e se questo libro dovesse un giorno essere tradotto nella lingua di Brobdingnag nome dell'intero reame e spedito colà il re e il suo popolo potrebbero lagnarsi a ragione di essere stati offesi da una descrizione che rimpicciolisce e snatura la loro grandezza di rado sua maestà ha più di 600 cavalli nelle sue stalle questi animali sono in genere alti da 54 a 60 piedi ma quando esce nei giorni solenni è scortato in gran pompa da una guardia di 500 cavalieri che io credetti il più splendido spettacolo che mai si potesse ammirare finché non vidi parte della sua armata schierata a battaglia ma troverò un'altra occasione per parlarne capitolo quinto varie avventure capitate all'autore esecuzione di un criminale l'autore dà prova della sua perizia nell'arte della navigazione sarei vissuta abbastanza felice in quel paese se la mia minuscola statura non mi avesse esposto a vari accidenti buffi e sconcertanti ne riferirò alcuni spesso la gloom dal click mi portava nella mia scatoletta nei giardini di corte e ogni tanto mi traeva fuori e mi prendeva in mano o mi posava a terra per farmi passeggiare ricordo che un giorno il nano prima di essere licenziato dalla regina ci seguì in quei giardini e quando la mia balietta mi ebbe messo giù trovandoci lui ed io a fianco a fianco vicino a certi meli nani vogli sfoggiare il mio spirito con una sciocca allusione alla qualità sua e a quella degli alberi che nella loro lingua come nella nostra si esprime con lo stesso nome allora quel maligno furfante colto il destro mentre io passavo sotto uno di quei meli me lo scosse sulla testa facendomi cadere tutto intorno una dozzina di pomi grossi ognuno quasi quanto un barile di bristol uno mi piombò sulla schiena nell'istante in cui per caso mi chinavo e mi spianò faccia a terra ma non mi feci altro male e il nano per mio stesso desiderio fu perdonato visto che ero stato io a provocarlo un altro giorno la glumdal click mi lasciò su di un soffice prato perché mi svagassi un po' allontanandosi poi con la sua istitutrice improvvisamente venne giù una grandinata così violenta che io stramazzai a terra ad un tratto e lì disteso mi sentì crudelmente colpito dai chicchi per tutto il corpo come se mi lapidassero con palle da tennis mi ingegnai di strisciare a quattro gambe con la faccia a terra fino a trovare riparo sotto una bordura di timo dove il vento non batteva ma ero così pesto dalla testa ai piedi che non potei uscire di camera mia prima di dieci giorni e non c'è da meravigliarsene perché la natura in quel paese si manifesta in tutto secondo le stesse proporzioni e laggiù un chicco di grandine è grosso quasi come 1800 dei nostri chicchi europei lo posso dire per esperienza avendo avuto la curiosità di pesarli e misurarli ma un incidente più pericoloso mi accadde in quello stesso giardino un giorno che la mia balietta lasciata a casa la scatola per evitar la noia di portarla e convinta di avermi messo in un luogo sicuro come spesso la pregavo di fare per restare solo con i miei pensieri andò in un'altra parte del giardino con la sua istitutrice e alcune dame di sua conoscenza mentre dunque era assente troppo lontana per udirmi un piccolo bracco bianco che apparteneva ad uno dei capi giardinieri capitato per caso nel giardino venne a gironzolare nel luogo in cui io ero il cane guidato dal fiuto filò dritto verso di me e presomi in bocca corse subito dal suo padrone dimenando la coda e posandomi tranquillamente ai suoi piedi per fortuna era stato così ben ammaestrato che mi tenne fra i denti senza farmi il minimo danno nemmeno uno strappa al vestito ma il povero giardiniere che mi conosceva bene e mi era molto affezionato sbigottì dalla paura mi prese delicatamente fra le mani e mi domandò come mi sentissi io ero così rintontito e senza fiato che non riuscì a spiccicar parola tornai in me dopo qualche minuto ed egli mi portò sano e salvo dalla mia balietta che frattanto era tornata nel luogo dove mi aveva lasciato ed era adesso fuori di sé non vedendomi comparire né rispondere ai suoi richiami la fanciulla rimproverò severamente il giardiniere per causa del suo cane ma la cosa fu messa a tacere e nulla se ne seppe a corte ella temeva infatti la collera della regina ed io per dire il vero pensavo che la mia reputazione non avrebbe avuto molto da guadagnare dal diffondersi di quella storia questo caso fece prendere alla gloom dal click la decisione di non lasciarmi mai più uscire senza starmi alle coste da molto tempo temevo una simile risoluzione e per questo le avevo nascosto certe piccole disavventure che mi erano capitate in questi momenti di libertà una volta ad esempio un cervo volante che svolazzava nel giardino si abbassò fino a me e se non avessi risolutamente sguainato la daga e cercato rifugio sotto una folta spalliera mi avrebbe certo portato via fra le zampe un'altra volta mentre camminavo sulla cima di un nido di talpa appena fatto caddi fino al collo nel buco scavando il quale l'animale aveva monticchiato tutti in giro la terra e dovetti inventare non so più quale bugia per giustificare i miei abiti imbrattati per poco non mi spezzai lo stinco destro contro il guscio di una chiocciola nella quale inciampai mentre passeggiavo soletto pensando alla povera Inghilterra non potrei dire se fossi più divertito o mortificato nell'osservare in quelle passeggiate solitarie che gli uccellini non sembravano affatto spaventati di me ma mi saltellavano intorno alla distanza di circa una iarda cercando vermi e altri cibi indifferenti e sicuri come se non ci fosse alcuno accanto a loro ricordo che un tordo ebbe l'impudenza di strapparmi di mano col becco un pezzo di focaccia che la gloom dal click mi aveva appena dato per colazione se cercavo di acchiappare qualcuno di questi uccelletti mi si rivoltavano fieramente cercando di beccarmi le dita che mi guardavo bene da lasciare a loro portata e poi se ne saltellavano via come se nulla fosse continuando a cercare vermi e lumache un giorno però presi una grossa mazza e a tutta forza la scaraventai così bene addosso ad un fanello che lo feci stramazzare poi afferratolo per il collo a due mani corsi trionfante dalla mia balietta l'uccello che era rimasto solo stordito tornato in sé cominciò a sbatterle ali e mi diede tali sberle sulla testa e per tutta la persona da una parte dall'altra che venti volte fui sul punto di lasciarlo andare ma corse in mio aiuto un domestico che gli torse il collo senz'altro e il giorno dopo mi fu servito a tavola per ordine della regina questo fanello per quanto posso ricordare era un po' più grosso di un cigno inglese le damigelle d'onore invitavano spesso la gloom dal click nelle loro stanze e la pregavano di portarmi seco per prendersi il gusto di vedermi e di toccarmi e spesso mi spogliavano da capo a piedi e mi mettevano lungo disteso sul loro seno la cosa mi disgustava assai perché a dire il vero la loro pelle emanava un pessimo odore non lo dico per diminuire il merito di quelle eccellenti dame per le quali nutro il massimo rispetto ma solo per notare che il mio olfatto in proporzione alla mia piccolezza era molto più acuto e che quelle signore illustri non infastidivano certo i loro amanti né reciprocamente se stesse col proprio odore più che non facciano fra noi in Inghilterra le persone di ugual condizione e dopo tutto il loro odore naturale era molto più sopportabile che non quando si profumavano allora venivo meno immediatamente non posso dimenticare che un mio intimo amico di Lilliput in una giornata calda in cui avevo camminato a lungo si prese la libertà di lamentarsi di un acre fluvio emanato dalla mia persona sebbene sotto quest'aspetto non possa essere colto in fallo più della maggior parte dei rappresentanti del mio sesso ma penso che il suo odorato fosse acuto rispetto a me quanto il mio rispetto a quella gente a questo proposito devo render giustizia alla regina mia signora e alla gloom dal click mia governante le cui persone manavano lo stesso soave odore di qualunque signora inglese quel che più mi metteva a disagio tra queste damigelle d'onore quando la mia balietta mi portava in visita da loro era il vederle trattarmi senza alcuna cerimonia come il più trascurabile degli esseri si spogliavano in mia presenza e si infilavano poi la camicia mentre io me ne stavo sulla loro toletta proprio davanti a quelle nudità che davvero erano per me uno spettacolo pochissimo allettante né mi ispiravano altra emozione che quella di un disgustato orrore la loro pelle vista da vicino era ruvida e scabra ma colata di vari colori connei qua e là larghi come taglieri da cui pendevano peli grossi come spaghi per non dir nulla del resto della loro persona né si facevano scrupolo di alleggerirsi davanti a me di quel che avevano bevuto due buone botti in un vaso che ne conteneva più di tre la più vezzosa di queste damigelle d'onore una piacente scherzosa fanciulla di sedici anni soleva mettermi a cavalcioni su uno dei suoi capezzoli e fare altri giochetti che il lettore mi scuserà se non riferisco minutamente fatto sta che io ne fui così seccato che pregai la gloom dal click di trovare qualche scusa per non farmi più vedere quella damigella un giorno un giovanotto nipote dell'istitutrice e della mia governante venne ad invitarli ad assistere ad un'esecuzione capitale e molto insistè perché accettassero si trattava di uno che aveva ucciso un intimo amico di quel signore la gloom dal click si lasciò indurre sebbene assai controvoglia perché aveva un cuore sensibile quanto a me sebbene abborrissi tal genere di spettacoli fui tuttavia tentato dalla curiosità ad assistere a qualche cosa che giudicavo fuori dell'ordinario il malfattore fu legato su una sedia su un palco appositamente costruito e il capo gli fu tagliato con un sol colpo mediante una spada lunga quasi 40 piedi dalle vene e dalle arterie sprizzò un getto di sangue così copioso e così alto nell'aria che finché durò superò il grande jet-du di Versailles la testa cadendo sul piano del palco fece un tal tonfo che sussultai tutto sebbene mi trovassi almeno a mezzo miglio inglese di distanza la regina che mi aveva spesso udito parlare dei miei viaggi per mare e cercava tutti i modi per distrarmi quando mi vedeva malinconico mi domandò se sapessi maneggiare una vela o un remo e se un po' d'esercizio di voca non mi avrebbe fatto bene alla salute risposi che ero praticissimo di vele e di remi perché sebbene la mia professione fosse quella di chirurgo o medico di bordo spesso la necessità mi aveva costretto a lavorare come semplice marinaio ma che non riuscivo però a capire come avrei potuto esercitare questa perizia nel loro paese dove la più leggera barchetta era grande quanto una delle nostre navi da guerra di prima classe senza contare che un battello tale da poter essere manovrato da me non avrebbe potuto tenersi a galla in nessuno dei loro fiumi sua maestà rispose che se avessi disegnato un battello il suo ebanista lo avrebbe costruito e che avrebbe pensato lei a trovarmi il luogo in cui far vela l'artigiano un tipo assai ingegnoso portò a termine in dieci giorni un battello da diporto con tutti i suoi attrezzi che avrebbe potuto contenere comodamente otto europei quando fu finito la regina fu così contenta che messo se lo ingrembo corse a farlo vedere al re il quale ordinò che si mettesse in una vasca piena d'acqua con me dentro per fare una prova ma lì per mancanza di spazio non potevo manovrare le mie due pagaie o remi corti la regina aveva però già pronta un'altra idea ordinò al falegname di fabbricare un gran truogolo di legno lungo 300 piedi largo 50 e profondo 8 e bene impeciato perché l'acqua non filtrasse fu collocato sul pavimento lungo il muro in una stanza esterna del palazzo c'era un rubinetto vicino al fondo per far uscire l'acqua quando diveniva necessario rinnovarla e due domestici potevano facilmente riempirlo in mezz'ora qui solevo remare per mio divertimento non meno che per quello della regina e delle sue dame che apprezzavano molto quello spettacolo di abilità e di destrezza talora alzavo la vela e allora non dovevo far altro che reggere il timone mentre le dame di corte mi facevano vento con i loro ventagli e quando erano stanche qualche paggio mi soffiava nelle vele a forza di polmoni ed io sfoggiavo tutta la mia perizia manovrando la barra a tribordo e a babordo come volevo finito il gioco la gloom dal click riportava il battello nella sua stanzetta e l'appendeva ad un chiodo ad asciugare una volta mentre così mi esercitavo mi capitò un incidente che per poco non mi costò la vita un paggio aveva già messo la barca nel truogolo quando l'istitutrice della gloom dal click con eccessivo zelo mi prese su per mettermi ci dentro il caso volle che le scivolassi di fra le dita e sarei inevitabilmente piombato sul pavimento da un'altezza di 40 piedi se per miracolo non fossi stato trattenuto da uno spillone che sporgeva dal busto di quella brava donna il capo dello spillone mi passò tra la camicia e la cintola dei calzoni e così rimasi sospeso per la vita finché la gloom dal click non corse in mio aiuto un'altra volta uno dei servi incaricati di rinnovare l'acqua nel truogolo ogni tre giorni fu così sbadato da lasciar fuggire una grossa rana senza vederla dalla sua secchia la rana se ne stette nascosta finché non fui messo nella barca ma allora vedendo lì un luogo in cui avrebbe potuto riposarsi vi si aggrappò facendola sbandar tanto da una parte che io dovetti far contrappeso dall'altra con tutto il mio corpo per impedire un capovolgimento quando poi la rana fu entrata fece un balzo lungo quanto metà della barca poi mi saltò sopra la testa in su e in giù invischiandomi la faccia e gli abiti del suo schifoso umore rossa così com'era mi sembrava il più orrido mostro che si possa immaginare tuttavia pregai la gloom dal click di lasciarmi solo a sbrigarmela con lei e le assestai tanti colpi di remo da costringerla infine a saltar fuori dall'imbarcazione ma il maggior pericolo che corsi in quelle reame mi venne da una scimmia che apparteneva ad uno degli addetti alle cucine la gloom dal click mi aveva chiuso a chiave e nella sua stanzetta prima di uscire per qualche faccenda o per visite faceva caldo e le finestre della camera erano rimaste aperte al pari delle finestre e della porta della scatola più grande in cui abitavo di solito perché più basta e comoda me ne stavo tranquillamente seduto al tavolino meditando fra me quando sentì qualche cosa che balzava dentro dalla finestra della stanza e andava saltellando qua e là alquanto impressionato mi azzardai a guardar fuori senza tuttavia muovermi dalla sedia e vidi quell'allegra bestiola che sgambettava e saltava su e giù finché si avvicinò alla mia scatola con un'aria molto curiosa e divertita venendo a spiare alla porta e ad ogni finestra io mi rincantucciai nell'angolo più remoto della mia stanza o scatola che dir si voglia ma la scimmia guardando dentro da ogni parte mi ispirò a un tal terrore che non ebbi la presenza di spirito di ficcarmi sotto il letto come avrei potuto facilmente fare dopo essere stato un po' lì a sbirgiare ghignare e gracchiare alla fine mi scorse e passato una zampa attraverso la porta come fa il gatto quando gioca col topo per quanto saltassi di qua e di là per schivarla riuscì ad afferrarmi per la falda della giacca spessa e resistente quanto mai perché era fatta con la seta del paese e mi trascinò fuori mi prese nella zampa destra e mi tenne come una balia il bambino che vuole allattare avevo già visto in Europa una di quelle bestiole far lo stesso con un gattino se tentavo di dibattermi mi dava tali strizzate che giudicai più prudente e sottomettermi ho buone ragioni per credere che mi prendesse per un piccolo della sua razza di fatti non faceva che carezzarmi delicatamente il viso con l'altra zampa mentre si dava a queste tenerezze fu interrotta da un rumore alla porta della stanza come se qualcuno stesse per aprirla allora balzò sulla finestra da cui era entrata e di lì per docce e grondaie camminando su tre zampe mentre mi teneva con la quarta si arrampicò su un tetto attiguo al nostro udì la glum dal click dare uno strido nel momento stesso in cui ero portato via la povera bimba pareva frenetica tutto quel quartiere della reggia fu in tumulto i domestici correvano a cercare scale centinaia di persone stavano a guardare la scimmia che seduta sull'orlo di un fabbricato mi teneva come un bambino con una delle zampe anteriori e con l'altra mi empiva a forza la bocca di cibi biascicati che si premeva fuori della sacca laterale di una delle sue ganasce e mi scolacciava se non volevo mangiare allora la canaglia da basso scoppiava dalle risa e non le si sarebbe potuto dar torto perché è certo che lo spettacolo doveva essere divertente per tutti eccetto che per me qualcuno si mise a tirar pietre sperando di far venire giù la scimmia ma si proibì loro severamente di continuare altrimenti con ogni probabilità mi avrebbero fatto schizzare fuori le cervella arrivarono le scale vi salirono in molti e la scimmia che se ne accorse e si vide circondata quasi da ogni parte non riuscendo a correre svelta su tre gambe mi lasciò cadere sulla cima di un comignolo e scappò via io me ne rimasi lì per un po' a 500 yard da terra aspettandomi da un momento all'altro di essere soffiato giù dal vento o travolto dalla vertigine e di andar capitombolando dal comignolo alle grondaie ma un bravo ragazzo uno dei galoppini della mia balietta si arrampicò su e ficcatomi in una tasca dei suoi calzoni mi riportò giù sano e salvo io ero quasi soffocato da tutte le porcherie che la scimmia mi aveva ficcato in gola ma la mia cara balietta me le cavò di bocca con un piccolo ago e allora potei dar di stomaco con il mio gran sollievo ma mi sentivo così debole e con i fianchi così pesti dalle strizzate di quella brutta bestia che dovetti restare a letto per un paio di settimane il re la regina e tutta la corte mandarono ogni giorno a chiedere notizie della mia salute e più volte la sovrana venne a visitarmi durante la malattia la scimmia fu ammazzata e un ordine vietò di tenere simili bestie nei dintorni della reggia appena ristabilito quando mi presentai al re per ringraziarlo della sua bontà egli si divertì a canzonarmi un bel po' a proposito di questa avventura mi domandò quali fossero i miei pensieri e le mie meditazioni mentre me ne stavo tra le zampe della scimmia se mi erano piaciuti i cibi che mi aveva dato e il suo modo di darmeli e se l'aria fresca del tetto mi aveva guzzato l'appetito e mi domandò che cosa avrei fatto in un caso simile nel mio paese risposi a sua maestà che in Europa non abbiamo scimmie eccetto quelle che vi sono importate come curiosità da altri paesi così piccole che avrei potuto sbrigarmela con una dozzina di loro se avessero osato attaccarmi e aggiunsi che quanto a quel mostruoso animale con cui avevo avuto ultimamente a che fare in verità era grosso come un elefante se appena la paura mi avesse permesso di pensare a far uso della mia daga e così dicendo feci la faccia feroce e battei con la mano sull'elsa quando avevo allungato la mano nella mia stanza gli avrei probabilmente inferto una tal ferita che sarebbe stato felice di potersela svignare in tutta fretta dissi tutto ciò con la voce risoluta di chi non ammette che si metta in dubbio il suo coraggio ma la mia loquela non ebbe altro effetto che una risata tonante che tutto il rispetto dovuto a sua maestà dai cortigiani presenti non valse a trattenere in loro questo mi fece riflettere a quanto sia vano tentare di farci onore tra coloro che ci sono superiori fuori di paragone e tuttavia molto spesso ho dovuto ripensare alla morale dell'avventura dopo il mio ritorno in Inghilterra dove vedevo tanti miserabili bricconi senza un granello di nobiltà di personalità di spirito e di buonsenso darsi sfacciatamente grandi arie e mettersi sullo stesso piano dei più illustri personaggi del regno ogni giorno dava alla corte qualche motivo per rider di me e la gloom dal click sebbene mi volesse un gran bene era tuttavia tanto birba da informare la regina ogni volta che combinavo qualche follia tale a suo parere da poter divertire sua maestà la fanciulla che era stata poco bella fu portata dalla sua istitutrice a prendere un po' d'aria ad un'ora di distanza ossia trenta miglia dalla città scesero dal cocchio vicino ad un sentieruolo campestre la gloom dal click posò a terra la mia scatola da viaggio ed uscì per passeggiare un po' vera in mezzo al sentiero un mucchietto di bovina ed io dovetti mostrare la mia agilità tentando di saltarvi al di sopra presi la rincorsa ma disgraziatamente feci il balzo troppo corto e mi ci trovai proprio nel mezzo ficcato nell'etame fino ai ginocchi lo passai faticosamente a guado e un lachè mi ripulì meglio che poté col suo fazzoletto ma ero tremendamente insudiciato e la mia governante mi rinchiuse nella scatola finché non tornammo a casa la regina fu subito informata dell'accaduto i lachè divulgarono la storia per tutta la corte così che per qualche giorno feci le spese dell'allegria generale capitolo sesto varie invenzioni dell'autore per ringraziarsi il re e la regina da prova della sua aperizia musicale il re chiede notizie sullo stato dell'Europa e l'autore gliele fornisce osservazioni del re in proposito solevo assistere una o due volte la settimana al ricevimento mattutino del re e spesso l'ho visto sotto le mani del barbiere spettacolo sulle prime assai terribile perché il rasoio era lungo quasi due volte una falce comune sua maestà secondo l'uso del paese si radeva solo due volte la settimana una volta riuscii a persuadere il barbiere a darmi un po' di quella spuma o saponata e ne cavai fuori 40 o 50 fra i peli più grossi poi presi un pezzo di legno fine e lo tagliai a forma di dorso di pettine praticandovi vari buchi a ugual distanza con l'ago più sottile che potei farmi dare dalla gloom dal click fissai così abilmente questi peli raschiandoli e assottigliandoli in punta col mio coltello da farmene un discreto pettine e mi capitò proprio a buon punto perché il mio aveva i denti così rotti da essere quasi inservibile né conoscevi in quel paese un artigiano così raffinato e preciso da potermene fare questo mi fa ricordare un divertimento a cui dedicai parecchie delle mie ore d'ozio pregai la cameriera della regina di mettermi da parte i capelli di sua maestà caduti dal pettine e quando ne ebbi un discreto numero consultatomi con l'ebanista mio amico il quale era stato autorizzato ad eseguire per me piccoli lavori gli diedi le indicazioni per fabbricarmi due fusti di sedia non più grandi di quelli che avevo nella mia scatola praticando poi con un punteruolo sottile tanti forellini intorno alle parti che dovevano servire da sedile e da schienale attraverso questi forellini intrecciai i più forti capelli che potei scegliere alla maniera delle sedie di giunco inglesi finite che furono ne feci dono a sua maestà che le pose nel suo gabinetto e le faceva vedere come curiosità di fatti costituivano la meraviglia di chiunque le vedeva la regina avrebbe voluto che mi sedessi su una di queste sedie ma rifiutai decisamente di obbedirle affermando che avrei preferito morire mille volte piuttosto che porre una parte vergognosa del mio corpo su quei preziosi capelli che avevano adornato la testa di sua maestà di quei capelli poiché ho sempre avuto una certa ingegnosità feci pure una bella borsetta lunga circa a cinque piedi con il nome di sua maestà a lettere d'oro e la regalai alla gloom dal click col consenso della regina a dire il vero serviva più per figura che per uso non essendo abbastanza forte per sostenere il peso delle monete più grosse ed ella vi riponeva quindi solo quelle cosucce che fanno la delizia delle bambine il re che si dilettava di musica aveva spesso concerti a corte e non di rado vi assistevo nella mia scatola che veniva collocata su di un tavolo ma il fracassi era tale che non riusciva a distinguere i motivi credo che tutti i tamburi e le trombe di un'armata reale che virullassero e squillassero ad un tempo nelle orecchie non eguaglierebbero quello strepito solevo far portare la mia scatola il più lontano possibile dall'orchestra poi chiudevo porte e finestre tiravo le tendine e allora riuscivo a trovare non sgradevole quella musica in gioventù avevo imparato a suonare un po' la spinetta la gloom dal click ne aveva una in camera sua e un maestro veniva a darle lezioni due volte la settimana la chiamo spinetta perché somigliava un po' a questo strumento e veniva suonata nella stessa maniera mi venne l'estro di far sentire al re e alla regina un motivo inglese su codesta a spinetta ma la cosa appariva straordinariamente difficile perché lo strumento era lungo circa 60 piedi e quasi un piede era largo ogni tasto cosicché a braccia spalancate non ne raggiungevo nemmeno 5 senza contare che per abbassarli avrei dovuto calar giù tali pugni da fare una spacchinata senza alcun costrutto teni allora questo metodo mi procurai due bastoni rotondi della grossezza di un comune batacchio una delle estremità era più grossa e io la ricoprì con un pezzo di pelle di topo per non sciupare la superficie dei tasti battendovi sopra e non interrompere il suono lungo la spinetta fu messo un banco circa 4 piedi sotto i tasti e su quel banco fui messo io correvo lungo quello più in fretta che potevo picchiando sui tasti coi miei due batacchi e mi ingegnai così di suonare una giga con gran soddisfazione delle loro maestà ma fu la più rude ginnastica a cui mi sia mai sottoposto eppure non riuscì a colpire più di 16 tasti né di conseguenza a suonare contemporaneamente il basso e l'acuto come sogliono i musici e ciò a grande svantaggio della mia esecuzione il re che come ho già osservato era un sovrano di un'intelligenza superiore ordinava spesso di portarmi da lui nella mia scatola e di mettermi sul tavolo del suo studio mi comandava allora di portare una sedia fuori della scatola e di sedermi a tre yard di distanza sul sommo di uno stipo che giungeva circa al livello del suo volto ebbi così varie conversazioni con lui mi presi un giorno la licenza di dire a sua maestà che il disprezzo da lui non dissimulato per l'Europa e il resto del mondo non mi sembrava corrispondere a quelle eminenti doti di intelletto di cui era dotato che la ragione non è in proporzione della mole del corpo e che al contrario nel nostro paese abbiamo notato come le persone più corpulente ne siano meno provviste che tra le bestie le api e le formiche sono considerate più industri abili e sagaci di tanti altri animali più grossi e che infine per quanto mi considerasse insignificante speravo di vivere tanto da poter rendere a sua maestà qualche segnalato servigio il re mi ascoltò attentamente e cominciò ad aver di me un'opinione migliore che non avesse prima e mi pregò di dargli un ragguaglio esatto per quanto potessi intorno al governo inglese dicendo che sebbene i sovrani siano generalmente prevenuti in favore delle proprie usanze si era fatto tale idea degli altri monarchi da quanto gli avevo detto prima sarebbe stato felice di udir qualche cosa degna di essere imitata immagina cortese lettore quanto abbia desiderato allora la facogna di un demostene o di un cicerone per poter celebrare degnamente le lodi della mia cara patria in uno stile che fosse all'altezza dei suoi meriti e delle sue fortune cominciai informando sua maestà che il nostro territorio consisteva in due isole le quali componevano tre possenti reami sotto un solo sovrano oltre alle nostre colonie di America indugiai a lungo sulla fertilità del nostro suolo e l'amitezza del suo clima parlai poi ampiamente della costituzione del parlamento inglese formato in parte da quei rillustre con sesso che si chiama camera dei pari uomini di sangue nobilissimo e di antica e vasta ricchezza descrissi con quale attenta cura essi fossero sempre stati educati nelle arti e nelle armi per far di loro consiglieri nati del re e del reame destinati ad aver parte nella legislatura ad essere membri della suprema corte di giustizia da cui non vi è possibilità di appello a divenir campioni sempre pronti a difendere il sovrano e il paese con il valore la condotta e la fedeltà dissi che erano l'ornamento e il baluardo del regno degni eredi dei loro illustri antenati cui l'onore era stato compenso di una virtù dalla quale la loro discendenza non aveva a memoria d'uomo degenerato una sola volta a questi si univano come parte del medesimo consesso vari santi uomini che col titolo di vescovi avevano il particolare compito di prendersi cura della religione e di coloro che al popolo la insegnano i vescovi erano cercati e scelti dal principe e dai suoi più saggi consiglieri fra gli appartenenti alla classe sacerdotale dell'intera nazione che più degnamente si fossero distinti per santità di vita e profondità di dottrina veri padri spirituali del clero e del popolo dissi poi che l'altra parte del parlamento consisteva in un'assemblea chiamata camera dei comuni composta tutta di egregi uomini liberamente scelti ed eletti dal popolo stesso in grazia dei loro insigni meriti e del loro amor patrio per rappresentare la saggezza dell'intera nazione e che queste due camere formavano la più augusta assemblea che ci fosse in Europa alla quale in accordo col principe era affidata l'intera legislatura passai allora alle corti di giustizia presiedute da giudici saggi e venerandi interpreti della legge per dirimere le controversie sul diritto e la proprietà per punire il vizio e proteggere l'innocenza accennai alla prudente amministrazione del nostro tesoro al valore e alle gesta delle nostre armate di terra e di mare calcolai il numero dei miei concittadini facendo il conto di quanti milioni potevano esservi di appartenenti alle varie sette religiose e ai vari partiti politici non dimenticai nemmeno i nostri esercizi sportivi e i nostri passatempi né alcun altro particolare che a mio parere potesse ridondare ad onore e gloria del mio paese e conclusi con un breve cenno storico sugli avvenimenti degli ultimi cento anni in Inghilterra non bastarono a questa conversazione cinque udienze e di parecchie ore ognuna e il re ascoltò tutto con la massima attenzione prendendo spesso note di quel che dicevo e delle varie domande che intendeva rivolgermi quando ebbi terminato queste lunghe conferenze sua maestà in una sesta udienza consultando i suoi appunti mi prospettò parecchi dubbi domande e obiezioni su ogni punto mi domandò quali metodi si seguissero per educare la mente e il corpo dei giovani della nobiltà e in quali occupazioni usassero trascorrere la prima e più malleabile parte della loro vita in qual modo si provvedesse a colmar la lacuna nella camera dei pari quando qualche famiglia nobile veniva a distinguersi quali requisiti si ripotassero necessari in coloro che dovevano essere nominati nuovi pari se il capriccio del sovrano o una somma di denaro data ad una dama di corte o ad un primo ministro o l'intenzione di rafforzare un partito contrario al pubblico interesse avessero mai deciso di queste promozioni quale conoscenza avessero questi pari delle leggi del loro paese e in qual modo vi pervenissero tanto da poter decidere in ultima istanza sulle controversie patrimoniali degli altri sudditi se essi fossero sempre così liberi da ogni avarizia parzialità o bisogno da poter restare immuni da ogni corruzione da qualsiasi illecito fine se quei santi pari di cui parlavo fossero sempre promossi alla loro dignità in grazia della profondità della dottrina religiosa e della santità della vita nemmai avessero seguito l'andazzo dei tempi quando erano semplici preti o fossero stati cappellani servili e prostituiti a qualche nobile di cui continuassero a seguire bassamente le opinioni anche dopo esser stati ammessi in quel consesso volle poi sapere come ci si comportava nell'eleggere coloro che io chiamavo rappresentanti della camera dei comuni se mai qualcuno venuto di fuori e provvisto di una borsa capace non potesse indurre il volgo degli elettori a preferirlo al proprietario da cui dipendono o alla più ragguardevole persona del luogo e come avveniva che la gente senza percepire alcuno stipendio né pensione fosse tanto cupida da entrare in quell'assemblea che richiedeva l'avevo riconosciuto io stesso sacrifici e spese tali da mandar spesso le loro famiglie in rovina ciò sembrava un atto di virtù e amor patrio così esaltati che sua maestà aveva l'aria di dubitare della loro sincerità e volle sapere se questi zelanti signori non mirino piuttosto a rifarsi delle spese e della fatica sacrificando il bene pubblico agli interessi di qualche principe debole e vizioso d'accordo con qualche ministro corrotto continuo a moltiplicare le sue domande e a vagliarmi su ogni punto della questione chiedendomi chiarimenti e facendomi obiezioni a non finire sui quali credo più prudente e opportuno sorvolare quanto a quel che avevo detto sulle nostre corti di giustizia sua maestà volle andare a fondo in vari punti e in questo potei tanto più facilmente soddisfarlo in quanto un tempo ero stato quasi rovinato da un lungo processo in cancelleria che era stato deciso a mio favore ma con le spese a mio carico mi domandò quanto tempo correva di solito per decidere del torto e della ragione e a quale spesa si andava incontro se gli avvocati e gli oratori avevano libertà di perorare in cause evidentemente ingiuste vessatorie e tiranniche se lo spirito di parte religioso politico aveva qualche peso sulla bilancia della giustizia se gli oratori forensi erano iniziati a nozioni generale di giustizia o esperti solo del diritto delle province e della nazione e di altre consuetudini locali se essi e i giudici collaboravano in qualche modo nel redigere quelle leggi che poi si prendevano la libertà di interpretare e commentare al loro modo se avevano mai in tempi diversi parlato pro o contro la stessa causa e citato precedenti per provare opinioni contrastanti se costituivano una corporazione ricca o povera e ricevevano un compenso pecuniario per difendere cause o esprimere un parere e soprattutto se erano no accettati come membri della Camera Bassa passo poi ad esaminare l'amministrazione del nostro tesoro e disse che a suo parere la memoria doveva avermi tradito perché io avevo calcolato le nostre tasse a circa 5 o 6 milioni l'anno mentre quando avevo fatto menzione delle nostre spese si era accorto che ammontavano a più del doppio i suoi appunti erano molto esatti a questo proposito perché come mi aveva detto sperava che la conoscenza dei nostri sistemi potesse essergli utile e non poteva essersi sbagliato nei suoi calcoli ma se quel che gli avevo detto era vero non riusciva a capire come un regno potesse spendere più delle sue entrate al pari di un qualunque privato imprevidente mi domandò quali erano i nostri creditori e dove trovavamo il denaro per pagarli si meravigliò nel sentirmi parlare di guerre così onerose e dispendiose dovevamo essere un popolo ben litigioso vivere in mezzo a pessimi vicini e i nostri generali dovevano essere più ricchi dei nostri re mi domandò quali interessi avevamo fuori della nostra isola oltre quelli dei commerci e dei trattati relativi o quelli di difendere le nostre coste con la flotta soprattutto rimase trasecolato nel sentirmi parlare di un esercito mercenario permanente in tempo di pace e in un popolo libero disse che se eravamo governati per nostro consenso nelle persone dei nostri rappresentanti non riusciva ad immaginare che cosa temessimo contro chi volessimo combattere e mi domandò se a mio parere la casa di un privato non sarebbe stata meglio difesa da lui stesso dai suoi figli e dalla sua famiglia che da una dozzina di mascalzoni racimolati a caso per le strade con un salario di fame che avrebbero guadagnato cento volte di più tagliando la gola a tutti loro rise della mia buffa aritmetica così si compiacque di chiamarla nel computare il totale della nostra popolazione desumendolo dal numero delle nostre varie sette politiche e religiose disse di non vedere perché coloro che professavano opinioni nocive al pubblico bene fossero obbligati a cambiarle e non fossero invece costretti a nasconderle mentre sarebbe stato tirannia sotto ogni governo pretender la prima cosa era debolezza a non esigere la seconda perché si può ammettere che un uomo si tenga dei veleni nel suo studio privato ma non che vada a venderli in giro come cordiali ricordo poi che tra i divertimenti della nostra alta e bassa nobiltà avevo menzionato il gioco volle sapere a qualità ci si dedicava di solito a questo passatempo e quando si smetteva quanto tempo vi veniva consacrato se mai prendesse proporzioni tali da intaccare i patrimoni se uomini abbietti e corrotti potessero arrivare grazie alla loro abilità in tale arte a grandi ricchezze e a tenersi magari alle proprie dipendenze la nostra vera nobiltà ad abituarla a compagnie infami a distoglierla totalmente dal coltivare lo spirito e a costringerla in seguito alle perdite sostenute ad imparare quella stessa vergognosa abilità e a servirsene del tutto sbalordito rimase poi al racconto che gli feci della nostra storia negli ultimi cento anni affermando che era solo un cumulo di cospirazioni ribellioni assassini massacri rivoluzioni proscrizioni il peggiore effetto insomma che l'avarizia la faziosità l'ipocrisia la perfidia la crudeltà la rabbia la follia l'odio l'invidia la lussuria la malizia e l'ambizione potessero produrre in un'altra seduta sua maestà durò fatica a ricapitolare tutto ciò che gli avevo detto confrontò le domande fatte e le risposte date poi presomi fra le mani e battendomi delicatamente sulla spalla pronunziò queste parole che non dimenticherò mai come mai dimenticherò il tono con cui le disse mio piccolo amico Grildrig voi mi avete fatto un meraviglioso panegirico del vostro paese avete chiaramente dimostrato che l'ignoranza la pigrizia e il vizio sono gli elementi più adatti che si richiedono in un vostro legislatore che le leggi sono spiegate interpretate e applicate soprattutto da coloro il cui interesse e la cui abilità consistono nello snaturarle imbrogliarle e deluderle vedo nel vostro popolo certe linee fondamentali di una costituzione che alle sue origini poteva anche essere passabile ma sono quasi cancellate e quel che ne rimane è interamente macchiato e infamato dalla corruzione da tutto ciò che voi mi avete detto non risulta minimamente che tra voi per giungere ad una qualsiasi carica sia richiesta una qualsiasi virtù e tantomeno che la virtù nobiliti tra voi l'uomo che i sacerdoti siano promossi per la pietà e la dottrina i soldati per la condotta e il valore i giudici per l'integrità i pari per l'amor patrio e i consiglieri per la saggezza quanto a voi continuò il re che avete dedicato ai viaggi la maggior parte della vostra vita sono disposto a sperare che abbiate evitato parecchi vizi del vostro paese ma da quel che ho potuto raccogliere dalla vostra stessa relazione e dalle risposte che vi ho strappato di bocca con tanta fatica sono costretto a concludere che la massa dei vostri compatrioti è la più perniciosa e abominevole razza di insettaglia cui la natura abbia permesso di strisciare sulla faccia della terra capitolo settimo amor di patria dell'autore fa al re una proposta molto vantaggiosa che però viene rispinta grande ignoranza del re in fatto di politica imperfetta e limitata cultura del paese leggi affari militari e partiti di quello stato solo il mio grande amore per la verità mi ha impedito di tenercelata questa parte della mia storia sarebbe stato inutile da parte mia mostrare i sentimenti che erano sempre volti in ridicolo e mi toccò starmene pazientemente zitto mentre il mio nobile diletto paese era tartassato a questo modo deploro cordialmente al pari di qualunque mio lettore che si sia dato un caso simile ma quel sovrano era così curioso e indagatore su ogni particolare che non sarebbe convenuto né all'educazione né alla gratitudine il rifiutar di appagarlo come potevo posso dire però a mia discolpa che ilusi ad arte molte delle sue domande è che mise ogni cosa in una luce molto più favorevole di quel che la stretta verità mi avrebbe concesso perché ho sempre nutrito per il mio paese quella lodevole parzialità che Dionigi di Alicarnasso raccomanda così giustamente agli storici nulla ho misi per nascondere le debolezze e le brotture della terra che mi fu madre e porre nella miglior luce le sue virtù e le sue bellezze fu sinceramente questo il mio scopo in tutte quelle conferenze che ebbi col possente monarca sebbene disgraziatamente con un esito deplorevole ma bisogna concedere molti attenuanti ad un re che vive totalmente separato dal resto del mondo e che ignora per conseguenza gli usi e i costumi più in voga nelle altre nazioni questa ignoranza è sempre causa di molti pregiudizi e di una certa ristrettezza di vedute da cui noi e le più civili nazioni europee siamo del tutto esenti e sarebbe davvero un guaio se le idee di virtù e di vizio di un principe così lontano da noi fossero date come modello a tutto il genere umano a conferma di quanto ho detto e anche per mostrare i miserandi effetti di un'educazione limitata citerò un episodio che difficilmente sarà creduto nella speranza di guadagnarmi sempre più le buone grazie di sua maestà gli parlai della scoperta fatta tre o quattrocento anni fa e una certa polvere cadendo in un mucchio della quale una piccola scintilla lo incendierebbe tutto in un attimo fosse anche grosso come una montagna e lo farebbe saltare in aria tutto in una volta con un fracasso e un subbuglio maggiori del tuono gli dissi che una data quantità di questa polvere cacciata dentro un tubo di bronzo o di ferro secondo la sua grossezza è capace di spingere una palla di ferro o di piombo con tale violenza e velocità che nulla può resistervi che le palle più grosse così scaricate non possono solo distruggere in un attimo intere file di un esercito ma fanno rovinare al suolo le più solide mura mandano a piccole navi cariche di migliaia di uomini e se sono legate fra loro con una catena spezzano alberi e sartiame tagliano a mezzo centinaia di corpi e seminano la desolazione dinanzi a sé aggiunsi che spesso mettiamo questa polvere in certe grandi palle cave di acciaio e le scagliamo con una macchina in qualche città assediata allora i selciati saltano le case vanno in frantumi le schegge scoppiano e schizzano da ogni parte e le cervella di tutti coloro che sono nelle vicinanze vanno in pappa conclusi infine dicendo che conoscevo molto bene gli ingredienti di questa polvere tutti di poco prezzo e facili a trovarsi sapevo il modo di mescolarli insieme e potevo dare ai suoi operai le indicazioni per costruire quei tubi di grandezza proporzionata a tutto ciò che faceva parte del regno di sua maestà i più grossi non avrebbero dovuto essere più lunghi di cento piedi 20 o 30 di questi tubi caricati con un'adeguata quantità di polvere e palle avrebbero abbattuto in poche ore le mura della più solida piazzaforte dei suoi domini o avrebbero raso al suolo la capitale semmai avesse osato ribellarsi ai suoi assoluti voleri tutto questo io offrivo umilmente a sua maestà come piccolo segno di riconoscimento in cambio di tante prove da me ricevute del suo favore e della sua protezione il re fremette di orrore alla descrizione che gli feci di questi terribili meccanismi e alla proposta con cui la accompagnai e sbigottì che un impotente abietto verniciatolo quale io ero furono queste le sue parole potesse concepire idee così inumane e venirle a dire con tanta naturalezza ad apparire interamente insensibile alle scene di sangue e desolazione che aveva presentato come normali effetti di quelle macchine infernali inventate certo disse da qualche genio malvagio nemico del genere umano quanto a lui affermava che sebbene nulla lo interessasse quanto le nuove scoperte nelle arti e nella natura avrebbe tuttavia preferito perdere metà del suo regno che aver parte in un tal segreto che se avevo cara la vita non dovevo mai più menzionare strano effetto di principi angusti e di corte vedute ecco che un principe dotato di tutte le qualità meritevoli di venerazione amore e stima ricco di doti virili di grande saggezza di profondo sapere di ammirevoli attitudini a governare e quasi adorato dai suoi sudditi per un inutile scrupoletto assolutamente inconcepibile in Europa si lasciava sfuggire dalle mani un'occasione che l'avrebbe reso padrone assoluto della vita della libertà e delle sostanze del suo popolo ne dico questo con la minima intenzione di sminuire le numerose virtù di quell'eccellente sovrano la cui figura me ne rendo conto ha già perso in gran parte la stima del mio lettore inglese ma considero tal difetto fra quelli propri dell'ignoranza di quel popolo che non ha saputo elevare la politica a dignità di scienza come hanno fatto i più acuti spiriti europei ricordo infatti benissimo che un giorno discorrendo col re mi capitò di dire che tra noi erano state scritte parecchie migliaia di volumi sull'arte di governare e gli ispirai così contro ogni mia intenzione una mediocrissima idea del nostro ingegno egli mi dichiarò di detestare e disprezzare ogni forma di mistero di scaltrezza e di intrigo in un principe o in un ministro non riusciva a capire che cosa intendessi per segreto di stato qualora non ci si riferisse ad un nemico o ad una nazione rivale limitava la sua scienza di governo negli strettissimi limiti del buonsenso e della ragione della giustizia e dell'indulgenza della rapida conclusione delle cause civili e criminali e di altri pochi luoghi comuni che non va la pena di considerare diceva di essere convinto che chiunque riuscisse a far crescere due spighe di grano o due fili d'erba su una zolla dove prima ne cresceva uno solo era più benemerito dell'umanità e rendeva maggior servigio al suo paese che tutta in blocco la razza dei politicanti assai difettosa è la cultura in questo popolo consistendo solo nella morale nella storia nella poesia e nelle matematiche discipline in cui bisogna riconoscere la loro eccellenza ma l'ultima di queste è totalmente applicata a ciò che può essere utile alla vita al miglioramento dell'agricoltura e della meccanica cosa che fra noi avrebbe assai poco credito ma riusci a far entrare loro in testa il minimo concetto di idee entità astrazioni e trascendenze nessuna legge del paese può essere enunciata in un numero di parole superiore a quello delle lettere del loro alfabeto che sono solo 22 ma a dire il vero assai poche raggiungono questo massimo sono espresse nella forma più semplice e piana e quel popolo non ha abbastanza spirito per scoprirvi più di un'unica interpretazione quanto a scrivere un commento su di una legge sarebbe delitto capitale nel decidere una causa civile o nella procedura di una causa criminale hanno così pochi precedenti da non poter davvero vantarsi di una straordinaria perizia nelle une o nelle altre al pari dei cinesi possiedono la stampa da tempi immemorabili ma le loro biblioteche non sono molto estese perché quella del re che è considerata la più vasta non arriva nemmeno ad un migliaio di volumi disposti in una galleria lunga 1200 piedi dai quali avevo l'autorizzazione di prendere in prestito quelli che volevo l'ebanista della regina aveva costruito in una delle stanze della Glumdalklik una specie di macchina di legno alta 25 piedi a forma di scalea con pioli lunghi 50 piedi era insomma una doppia scala mobile la cui estremità più bassa era posta a 10 piedi dalla parete della stanza il libro che volevo leggere veniva appoggiato alla parete stessa io salivo sull'ultimo gradino della scala e volgendomi verso il libro cominciavo a leggere in cima alla pagina e così spostandomi di 8 o 10 passi da destra a sinistra secondo la lunghezza delle righe andava avanti finché giungevo un po' sotto il livello dei miei occhi poi scendevo gradatamente finché giungevo in fondo risalivo allora e cominciavo l'altra pagina nello stesso modo potevo voltare i fogli abbastanza facilmente con tutte e due le mani perché erano duri e spessi non più di un cartone e anche nei più grandi in folio non superavano mai la lunghezza di 18 o 20 piedi il loro stile è chiaro virile piano ma non fiorito perché nulla evitano quanto l'inutile moltiplicarsi delle parole e il variare delle espressioni ho consultato molti dei loro libri specialmente di storia e di morale tra gli altri molto mi interessò un vecchio trattatello che stava sempre nella stanza da letto della Gloom Dal Click e apparteneva alla sua istitutrice una gentildonna severa e attempata sempre immersa in letture morali o devote il libro tratta della fragilità del genere umano ed è poco stimato se non dalle donne e dal popolo tuttavia mi interessò conoscere che cosa poteva dire su tale soggetto uno scrittore di quel paese l'autore seguiva tutti i temi consueti dei moralisti europei mostrando qual piccolo spregevole e miserello animale sia l'uomo per propria natura come sia incapace di difendersi dalle inclemenze del tempo o dalla furia delle belve di quanto sia superato da certe bestie nella forza e da certe altre nella velocità da altre nella previdenza da altre ancora nell'industria aggiungeva che la natura aveva degenerato in queste ultime epoche di declino e poteva produrre solo piccoli aborti in paragone ai suoi parti dei tempi trascorsi era molto ragionevole pensare diceva non solo che le umane razze fossero in origine molto più grandi ma che nei primitivi tempi dovesse esservi una generazione di giganti cosa affermata dalla storia e dalla tradizione e confermata dalle enormi ossa e dai teschi riportati casualmente alla luce in varie parti del reame enormemente più grandi di quelli appartenenti all'intisichita razza dei nostri giorni dimostrava che le stesse leggi della natura esigono che nei primordi noi avessimo una costituzione assai più grande e robusta e non soggetta come la nostra a perire per il minimo incidente quale una tegola che cada da un tetto o una pietra scagliata dalla mano di un fanciullo o l'onda di un torrentello che ti ingoia da questi ragionamenti l'autore traeva varie applicazioni morali utili alla pratica del vivere ma che non è il caso di ripetere per parte mia non potei far a meno di riflettere quanto sia diffusa questa tendenza a moraleggiare o meglio a trar motivo di scontento e di querela dalle accuse che rivolgiamo alla natura e a guardare le cose più da presso credo che queste accuse siano prive di fondamento tanto fra noi quanto fra quella gente quanto alla milizia si vantano che l'armata del re consista in 176.000 fanti e 32.000 cavalieri seppur si può chiamare armata a un'accolta di mercanti tolti dalle varie città e di coloni prese dalle campagne comandati dall'alta e dalla piccola nobiltà senza soldo né altra mercede a dire il vero sono abbastanza esatti nelle esercitazioni e ottima è la loro disciplina ma in questo non ci vedo un gran merito perché come potrebbe essere altrimenti in un esercito in cui ogni contadino è comandato dal suo stesso padrone e ogni cittadino dal personaggio più notevole della sua città scelto per votazione come avviene nella Repubblica di Venezia ho visto spesso la milizia di Lord Brulgrude schierata per le esercitazioni in un gran campo di 20 miglia quadrate nei pressi della città in tutti non erano più di 25.000 fanti e 6.000 cavalieri ma era impossibile per me farne il computo preciso dato l'enorme spazio che occupavano un cavaliere montato sul suo grande striero sarà alto più di 90 piedi ho visto l'intero corpo dei cavalieri snudare insieme le sciabole ad un comando dato e brandirle nell'aria nulla si può immaginare di così grandioso inatteso stupefacente sembrava che 10.000 baleni lampeggiassero ad un tempo in ogni angolo del cielo ero curioso di sapere come mai questo principe ai cui domini non si può accedere da nessun altro paese avesse pensato ad un esercito e ad insegnare ai suoi sudditi la pratica della disciplina militare ma presto ne fu informato sia conversando su questo soggetto sia leggendo le loro storie perché nel corso di vari secoli quel regno è stato turbato dallo stesso male che affligge tutta l'umana razza la nobiltà lottava spesso per il potere il popolo per la libertà e il sovrano per il dominio assoluto queste tre forze sebbene felicemente temperate dalle leggi del regno erano talvolta uscite di equilibrio per il prevalere di uno dei partiti e uno più volte avevano dato origine a guerre civili l'ultima delle quali era stata felicemente conclusa dal nonno del re in una generale conciliazione e la milizia stabilita allora per comune accordo fu da sempre mantenuta nella più rigorosa disciplina capitolo ottavo il re e la regina fanno un viaggio alle frontiere l'autore l'autore li segue minuziosa descrizione del modo con cui egli abbandona il paese suo ritorno in Inghilterra sempre era in me il presentimento che un giorno o l'altro avrei recuperato la mia libertà sebbene mi fosse impossibile immaginare in che modo né far progetti con la minima speranza di successo la nave con cui ero venuto era la prima che a memoria d'uomo si fosse spinta in vista delle coste e il re aveva dato rigorosi ordini perché semmai ne apparisse un'altra fosse tirata a riva e con tutta la ciurma e i passeggeri portata all'orbrulgrud in una cesta avrebbe molto desiderato darmi una moglie e delle mie dimensioni con cui potessi propagare la razza ma credo che avrei preferito morire piuttosto che patirlo brobrio di lasciare una posterità da tenersi in gabbia come i canarini addomesticati e magari in seguito da vendersi per il reame come curiosità alle persone di alta condizione per dire il vero ero trattato con molta amorevolezza ero il favorito di un gran re e di una regina formavo il diletto di un'intera corte ma tutto ciò su di un piano di rapporti che mal conveniva alla dignità umana ne potevo dimenticare i cari pegni domestici lasciati in patria sentivo il bisogno di trovarmi tra gente con cui potersi parlare da pari a pari e di camminare per strade e per campi senza il timore di essere schiacciato come un ranocchio o un cucciolino la mia liberazione venne più presto di quel che non mi aspettassi e in un modo non precisamente normale voglio ora narrarne fedelmente i particolari mi trovavo ormai da due anni in quel paese e verso il principio del terzo la glum dal click ed io seguimmo il re e la regina in un viaggio verso le coste meridionali del regno come al solito io ero portato nella mia scatola da viaggio che già l'ho detto era una comoda stanzetta larga a 12 piedi mi ero fatto fissare una maca con corde di seta ai quattro angoli del soffitto per attutire le scosse quando un domestico mi portava davanti a sé sulla sella come spesso desideravo e in quella maca spesso mi addormentavo durante il viaggio sul soffitto della stanzetta proprio sopra il centro della maca mi ero fatto aprire dall'ebanista un foro largo un piede per far entrare l'aria nelle giornate calde mentre dormivo potevo chiuderlo a mio talento con una tavoletta che scorreva avanti e indietro lungo una scanalatura giunti al termine del nostro viaggio il re pensò bene di passare alcuni giorni in un suo palazzo nei dintorni di Flanflasnik una città che dista dal mare circa 18 miglia inglesi la glumdal click ed io eravamo stanchissimi io mi ero preso un piccolo raffreddore ma la povera bambina stava così male che non poteva uscire dalla sua camera io mi struggevo dal desiderio di veder l'oceano unico teatro della mia fuga se mai avessi potuto tentarla fin si di star peggio di quanto non stessi in realtà e chiesi il permesso di andare a prendere una boccata d'aria in riva al mare con un paggio a cui volevo molto bene e al quale già altre volte mi avevano affidato non dimenticherò mai quanto a malincuore la glumdal click consentisse né le calde raccomandazioni che diede al paggio perché non mi perdesse d'occhio mentre improvvisamente scoppiava in lacrime quasi presentisse quel che stava per avvenire il ragazzo mi portò fuori dalla reggia nella mia scatola e dopo circa mezz'ora di cammino giungemmo alla costa irta di scogli lo pregai di posarmi a terra e alzato il telaio di una finestra gettai più di uno sguardo bramoso e malinconico sulla distesa del mare non mi sentivo bene e dissi al paggio che desideravo fare un sonnellino nella maca nella speranza di rinfrancarmi mi adagiai e il ragazzo abbassò la finestra per proteggermi dal freddo subito dopo mi addormentai e tutto quel che posso congetturare è che mentre dormivo il paggio sicuro che nessun pericolo mi sovrastasse se ne sia andato fra gli scogli in cerca di uova d'uccelli l'avevo infatti già visto dalla finestra intento ad esplorare e a cavarne uno o due dai crepaggi ma comunque si è andata mi senti svegliato di soprassalto da un violento strappo all'anello fissato al sommo della scatola per poterla comodamente portare mi sentivo levato sempre più in alto nell'aria e poi lanciato avanti a velocità vertiginosa per poco la prima scossa non mi sbalzò fuori dalla maca ma poi il movimento divenne abbastanza regolare chiamai più volte con tutta la forza della mia voce ma in vano guardai dalle finestre e non vidi altro che nuvole e cielo sopra la mia testa udivo uno strepito come un batter d'ali e allora cominciai a capire la sciagurata condizione in cui mi trovavo qualche aquila aveva preso col becco l'anello della scatola e si preparava a farla piombare su di una roccia come una tartaruga per spezzare il guscio cavarne fuori il mio corpo e divorarselo la sagacità e il fiuto di quest'uccello gli permettono infatti di scoprire la sua preda a gran distanza anche se nascosta meglio che io non fossi da una tavola di due pollici dopo un poco mi accorsi che le ali battevano assai più in fretta e la mia scatola venne sbattuta su e giù come un'insegna in una giornata di vento udì colpi e percosse che mi parvero dati all'aquila perché son sicuro che l'animale che teneva nel becco l'anello della scatola era un'aquila poi ad un tratto mi sentì cadere a piombo per circa un minuto ma con tale incredibile rapidità che quasi mi mancò il fiato la caduta fu interrotta da un terribile schianto che mi rimbombò negli orecchi più assordante della cascata del mia cara e subito per un altro minuto mi trovai in profonde tenebre poi la scatola cominciò a risalire tanto che potei veder la luce dal sommo delle finestre capì allora di essere caduto in mare il peso del mio corpo il mobilio e le piastre di ferro fissate come rinforzi ai quattro angoli della cima e del fondo facevano galleggiare la scatola immersa nell'acqua a circa cinque piedi supposi allora e anche adesso suppongo che l'aquila mentre se ne volava via con la mia casa fosse inseguita da altre due o tre e costretta a lasciarmi cadere per difendersi da quelle che volevano partecipare alla preda le piastre di ferro fissate sul fondo della scatola che erano le più forti la mantennero in equilibrio durante la caduta e le impedirono di sfasciarsi contro la superficie delle acque le giunture erano bene incastrate e la porta non girava sui cardini ma si alzava e abbassava come una saracinesca la mia stanza era dunque così ben chiusa da ogni parte che pochissima acqua vi entrò scesi con difficoltà dalla maca dopo essermi arrischiato a tirare indietro la tavoletta scorrevole sul soffitto di cui ho già parlato fatta per dare aria alla stanza in realtà la mancanza d'aria quasi mi soffocava quante volte rimpiansi allora che non fosse più con me la mia cara gloom dal click dalla quale una sola ora mi aveva portato tanto lontano e posso dire sinceramente che in mezzo alle mie sciagure non potei fare a meno di compiangere la mia povera balietta per il dolore che la mia perdita le avrebbe causato per lo sdegno che la regina avrebbe fatto ricadere su di lei e per la rovina della sua fortuna pochi viaggiatori forse si sono trovati in difficoltà e angosce maggiori di quelle in cui ero io allora aspettandomi di vedere andare in pezzi da un momento all'altro la mia scatola o rovesciata dalla prima raffica violenta o dalla prima ondata la rottura di un solo vetro avrebbe significato morte immediata e certo quel che protesse le finestre fu la solida graticciata di fil di ferro messa dal lato esterno per evitare disgrazie viaggiando vedevo l'acqua filtrare da varie fessure per quanto fossero sottili e cercai di otturarle alla meglio non ero capace di alzare il tetto della stanzetta altrimenti l'avrei fatto e mi sarei messo a sedere sul sommo dove avrei potuto se non altro vivere qualche ora di più che non chiuso diciamo nella stiva ma se anche riusciva a scampare questi pericoli per un giorno o due che cos'altro poteva aspettarmi se non di morire miserevolmente di freddo e di fame trascorsi così quattro ore aspettando anzi desiderando che da un momento all'altro giungesse la fine ho già detto al lettore che due solide staffe erano fissate sul lato della scatola privo di finestre nelle quali il domestico che mi soleva portare davanti a sé sul cavallo infilava una cinghia di cuoio che poi si affibbiava alla vita mentre me ne stavo in tanta desolazione udì o almeno mi parve di udire come il rumore di qualche cosa che strusciasse contro quel lato della scatola dove erano fissate le staffe e subito dopo cominciai ad avere l'impressione che la scatola fosse tirata o rimorchiata nel mare perché ogni tanto sentivo quasi una strappata che faceva saltare le onde fino in cima alle finestre lasciandomi quasi al buio questo mi diede un filo di speranza sebbene non riuscissi ad immaginare come avrebbe potuto aggiungermi la salvezza svitai una delle mie sedie sempre assicurate al pavimento e dopo aver penato alquanto per riavvitarla sotto lo sportello scorrevole che avevo aperto poco prima mi salì sopra e avvicinandomi più che potevo con la bocca all'apertura invocai aiuto a gran voce e in tutte le lingue che conoscevo poi legai il fazzoletto ad un bastone che solevo portare sempre con me e fattolo passare per il foro lo sventolai parecchie volte nell'aria in modo che se qualche nave o battello era nelle vicinanze i marinai potessero capire che uno sventurato mortale era chiuso nella scatola tutto fu vano ma io sentivo ormai chiaramente che la mia stanza veniva tirata e dopo un'ora o poco più quel lato della scatola dove erano infisse le staffe e che non aveva finestre andò a battere contro qualcosa di duro temetti che fosse uno scoglio e mi sentì sbattuto qua e là più che mai poi udì distintamente sul tetto della scatola un rumore come dello scorrere di un cavo che passasse attraverso l'anello e mi sentì tirato su a poco a poco almeno di tre piedi allora inalberai ancora bastone e fazzoletto invocando aiuto fino a sgolarmi come risposta udì un gran grido di allegrezza ripetuto tre volte il quale mi impiddi una tal gioia che solo chi l'ha provata può capirla udivo allora dei passi sulla mia testa e qualcuno che urlava in inglese attraverso il foro se qui sotto c'è qualcuno parli risposi di essere inglese cacciato dalla fortuna avversa nel più grosso guaio che mai creatura umana avesse patito e scongiurai in nome di tutto quel che vedi più caro di liberarmi da quella prigione la voce rispose che ero salvo perché la mia scatola era legata alla loro nave e il carpentiere sarebbe venuto subito a segar nel coperchio un buco largo abbastanza per cavarmi fuori risposi che era inutile e che avrebbe richiesto troppo tempo bastava che un marinaio infilasse il dito nell'anello e tirasse sulla scatola dal mare nella nave per portarla poi nella cabina del capitano a sentirmi dire tali follie alcuni mi credettero matto altri scoppiarono a ridere ma in realtà non mi era ancora entrato in testa che mi trovavo ora fra gente della mia stessa statura e della mia forza il carpentiere venne e in pochi minuti segò un passaggio largo circa a quattro piedi poi calò giù una scaletta su cui mi arrampicai e di lì assai malconcio fui portato sulla nave i marinai erano pieni di stupore e mi rivolgevano migliaia di domande a cui non mi sentivo le forze di rispondere quanto a me non ero meno stordito di loro alla vista di tanti pigmei perché tali mi sembravano dopo aver abituato per tanto tempo gli occhi a esseri mostruosi come quelli che avevo lasciato ma il capitano il signor Thomas Wilcox un'onesta e degna persona dello Shropshire notando che stavo per venir meno mi portò nella sua cabina mi tenne su con un cordiale e mi fece coricare nel suo stesso letto esortandomi a prendere un po' di riposo di cui avevo un gran bisogno prima di addormentarmi lo avvertì che nella mia scatola avevo un mobilio di valore che sarebbe stato un peccato perdere una buona amaca un bel letto da campo due sedie un tavolo e uno stipo aggionsi che la stanzetta era tutta tappezzata o piuttosto imbottita di seta e cotone e che se avesse mandato un uomo dell'equipaggio a prenderla e a portargliele in cabina l'avrei aperta davanti a lui per mostrargli i miei beni il capitano sentendomi dire tali assurdità pensò che andassi vaneggiando tuttavia forse per calmarmi promise di dare ordini secondo il mio desiderio e salito sul ponte mandò alcuni dei suoi uomini nella stanzetta da cui come mi fu detto in seguito essi tolsero tutte le mie soppellettili e strapparon via l'imbottitura ma sedie stipo e letto da campo essendo abitati al pavimento furono assai rovinati dall'ignoranza dei marinai che li strapparono a forza poi spaccaron le pareti e portaron via alcune tavole per gli usi della nave e quando si furono presi tutto ciò che poteva servire lasciaron cadere in mare la carcassa che sfasciata da tutte le parti andò subito a picco e in vero fui contento di non aver assistito a quello sconquasso che certo mi avrebbe addolorato risvegliando in me ricordi che preferivo dimenticare dormi alcune ore ma continuamente agitato da visioni del luogo che avevo lasciato e dei pericoli cui ero scampato tuttavia al mio risveglio mi sentì molto rinfrancato erano circa le otto di sera e il capitano ordinò che fosse subito servita la cena pensando che avevo digiunato anche troppo mi trattò con gran cortesia esortandomi a calmarmi e a non fare discorsi sconnessi e quando fumo soli mi pregò di raccontargli i miei viaggi e per qual ragione fossi stato abbandonato alla deriva in quella mostruosa cassa di legno disse che verso mezzogiorno mentre guardava col suo cannocchiale l'aveva scorta in distanza e l'aveva presa per un veliero volle accostarlo essendo quasi sulla stessa rotta sperando di poter comprare un po' di biscotto che cominciava a scarseggiare a bordo ma avvicinatosi e accortosi dell'errore mise in mare la lancia più grossa per vedere di che cosa si trattasse i suoi uomini erano tornati indietro sbigottiti giurando di aver visto una casa galleggiante aveva riso di quella sciocchezza ed era sceso egli stesso nella lancia ordinando agli uomini di prendersi con un lungo cavo il mare era calmo ed egli mi aveva girato intorno parecchie volte notando le finestre e le inferriate che le proteggevano scoprì poi le due staffe nel lato dove il tavolato era unito e senza alcuno spiraglio per la luce e comandò i suoi uomini di remare da quella parte e di legare il cavo ad una delle staffe per rimorchiare la mia cassa la chiamava così verso la nave lì giunta fece annodare un altro cavo all'anello fissato sul coperchio e ordinò di tirar sulla cassa per mezzo di pulegge ma tutti i marinai riuniti non erano riusciti a sollevarla più di due o tre piedi vide allora il mio bastone col fazzoletto che sporgeva dal buco e ne concluse che qualche disgraziato doveva essere chiuso nell'interno domandai se lui o il suo equipaggio avessero visto nell'aria qualche mostruoso uccello circa il momento in cui mi aveva scorto rispose che parlando con i marinai mentre dormivo uno di loro gli aveva detto di aver visto tre aquile che volavano verso il nord ma non aveva notato che fossero più grandi del normale cosa questa che io credo debba attribuirsi alla grande altezza a cui volavano il capitano non poté dunque capire la ragione della mia domanda chiesi poi al capitano a qual distanza egli calcolasse che fossimo dalla terraferma rispose che secondo il compoto più esatto che poteva fare eravamo almeno ad un centinaio di leghe lo assicurai che si sbagliava a dir poco della metà perché io avevo lasciato la terra da cui provvedimo nemmeno due ore prima di cadere in mare e allora egli tornò a pensare che mi avesse dato di volta il cervello e me lo lasciò capire consigliandomi di andare a letto in una cabina che mi aveva fatto preparare lo assicurai che il suo buon trattamento e la sua compagnia mi avevano pienamente rimesso e che non ero mai stato in me come in quel momento allora si fece serio e mi domandò francamente se non avevo la mente turbata dalla coscienza di qualche grave delitto in punizione del quale qualche principe mi avesse fatto abbandonare alle acque in quella cassa così come in altri paesi i grandi criminali sono affidati al mare in un vascello che fa acqua e privo di provvigioni in tal caso per quanto deplorasse di essersi preso sulla nave un tal malfattore mi dava la sua parola di sbarcarmi sano e salvo nel primo porto in cui avesse gettato l'ancora aggiunse che i suoi sospetti erano molto aumentati da certi assurdi discorsi che io avevo fatto da prima ai marinai e poi a lui stesso a proposito della mia stanza o cassa come pure del mio strano aspetto e del mio comportamento durante la cena lo pregai di voler ascoltare pazientemente la mia storia cosa che feci fedelmente dal momento in cui avevo lasciato l'Inghilterra a quello in cui mi aveva scorto e poiché la verità si fa sempre strada nei cervelli ragionevoli quell'onesta e degna persona che aveva qualche infarinatura di sapere e un gran buon senso fu subito persuasa dalla mia buona fede e veracità ma per dare ulteriore conferma a tutto ciò che avevo detto lo pregai di far portare il mio stipo di cui avevo la chiave in tasca lui mi aveva già informato di quel che i marinai avevano fatto della mia stanzetta lo aprì in sua presenza e gli mostrai la piccola collezione di rarità che avevo fatto nel paese cui ero stato liberato in modo così eccezionale il pettine fabbricato con i peli della barba del re un altro fatto con gli stessi peli ma fissati in un pezzo d'unghia tagliato dal pollice della regina che faceva da dorso vi era poi una collezione di aghi e spilli lunghi da un piede a mezza iarda quattro pungiglioni di vespa simili a chiodi da falegname alcuni capelli della regina un anello d'oro che un giorno ella mi aveva regalato in modo molto cortese togliendoselo dal mignolo e infilandomelo per la testa come un collare volevo far accettare quest'anello al capitano in cambio della sua bontà ma egli rifiutò in modo risoluto gli mostrai un callo che avevo estirpato con le mie proprie mani da un dito del piede di una damigella di corte era grosso quasi quanto una mela appia del Kent e così duro che tornato in Inghilterra lo feci scavare a forma di coppa e montare in argento infine lo pregai di osservare i calzoni che portavo fatti di pelle di topo non riusci a fargli accettare che il dente di un lacchè che l'avevo visto osservare con gran curiosità e che mi era accorto che gli piaceva lo prese profondendosi in ringraziamenti più assai che quella cosuccia non meritasse era stato estratto per errore da un chirurgo poco pratico ad uno dei galoppini della gloom dal click afflitto dal mal di denti ma era sano al par degli altri l'avevo fatto pulire e poi messo nel mio stipo era lungo circa un piede e largo 4 pollici il capitano più che soddisfatto della mia chiara narrazione disse di sperare che tornato in Inghilterra mi sarei reso debitore il mondo affidandola alla carta e rendendola di pubblico dominio risposi che a mio parere di libri di viaggio ne avevamo fin sopra la testa tutti volevano cose straordinarie e alcuni autori sospettavo attingevano meno alla verità che alla loro propria vanità al loro interesse e al desiderio di divertire lettori ignoranti la mia storia conteneva poco più che eventi comuni e mancava di tutte quelle descrizioni ornamentali di strane piante alberi uccelli e altri animali di tutte quelle barbare usanze e idolatrie dei popoli selvaggi che abbondano in tanti altri libri di viaggi lo ringraziai comunque della stima che mi dimostrava e gli promisi che avrei preso in considerazione il suo consiglio mi disse che una cosa soprattutto lo meravigliava che io parlassi a voce tanto alta e mi domandò se il re o la regina di quel paese erano duri d'orecchio gli risposi che da più di due anni mi ero abituato a parlare così e che a mia volta non ero meno meravigliato della voce sua e dei suoi uomini che mi sembrava solo un bisbiglio e tuttavia mi giungeva perfettamente distinta ma quando parlavo in quel paese ero come un uomo che da una strada debba farsi intendere da un altro affacciato in cima ad un campanile eccetto quando mi mettevano su di un tavolo o mi prendevano per mano gli dissi anche un'altra mia curiosa impressione che cioè appena salito sulla nave quando i marinai mi si erano affollati intorno mi erano apparsi le più minute e spregevoli creature che avessi mai osservato e davvero per tutto il tempo che rimasi nei domini di quel sovrano mai potei sopportare di guardarmi nello specchio dopo aver abituato agli occhi a vedere solo figure gigantesche tanto il confronto mi faceva apparire miserando il capitano mi disse che quando eravo macina mi aveva visto guardare ogni cosa con una specie di meraviglia e che spesso sembravo trattenere a stento le risa lui non aveva saputo che cosa pensare e aveva attribuito tutto al mio cervello un po' fuori di sesto risposi che era verissimo e che non sapevo come avessi fatto a non ridere nel vedere piatti grandi come un pezzo da tre soldi d'argento una coscia di maiale di cui si sarebbe potuto fare appena un boccone una tazza più piccola di un guscio di noce e così continuai descrivendogli il resto delle sue stoviglie e delle sue provviste nello stesso modo è vero che la regina mi aveva fatto fabbricare mentre ero al suo servizio un piccolo corredo di tutto ciò che mi era necessario ma le mie idee erano ormai legate a ciò che da ogni parte avevo sott'occhio ed ero cieco per la mia piccolezza come lo sono gli uomini per i loro difetti il capitano capì benissimo la mia allusione e rispose allegramente con il vecchio proverbio inglese dicendo che i miei occhi dovevano essere più grandi del mio ventre perché non vedeva che il mio stomaco desse di sé buona prova sebbene avessi digiunato per tutto il giorno e continuando a scherzare affermò che avrebbe dato volentieri i cento sterline per poter vedere la mia stanzetta nel becco dell'aquila e poi piombare in mare da tanta altezza spettacolo certo stupefacente e degno di essere descritto e tramandato alla posterità il paragone confetonte era così ovvio che non pote fare a meno di applicarmelo sebbene non lo ammirassi molto il capitano era stato al tonchino e tornando in inghilterra era stato spinto verso il nord-est a 44 gradi di latitudine e 143 di longitudine ma due giorni dopo la mia salita a bordo cominciarono a soffiare gli alisei e noi veleggiammo a lungo verso sud poi costeggiando la nuova Olanda facemmo rotta verso ovest-sud-ovest e quindi sud-sud-ovest finché doppiamo il capo di buona speranza facemmo un ottimo viaggio ma risparmierò al lettore il giornale di bordo il capitano si fermò in uno o due porti e vi mandò la sua maggior scialuppa per rifornirsi di viveri e di acqua fresca ma io non cesi mai a terra affinché non giungemmo ai Downs ciò avvenne il 3 giugno del 1706 circa nove mesi dopo la mia liberazione proposi di lasciare le mie suppelletti l'impegno del pagamento del viaggio ma il capitano protestò che non avrebbe accettato un centesimo ci separammo cordialmente e gli feci promettere che sarebbe venuto a trovarmi nella mia casa di Red Reef noleggiai un cavallo e una guida per cinque scellini che chiesi in prestito al capitano cammin facendo osservavo la piccolezza delle case degli alberi del bestiame e degli uomini e mi sembrava di essere a Lilliput avevo paura di mettermi sotto i piedi tutti quelli che incontravo e spesso gridai loro a gran voce di togliersi di mezzo cosicché per poco non mi feci rompere la testa un paio di volte con la mia insolenza arrivato alla mia casa che fui costretto a farmi indicare quando un domestico mi aprì l'uscio mi chinai per entrare come fanno le oche quando passano sotto una porta per paura di batter la testa mia moglie corse ad abbracciarmi ma io mi curvai fin sotto le sue ginocchia pensando che altrimenti non sarebbe riuscita ad arrivarmi alla bocca mia figlia si inginocchiò per chiedere la mia benedizione ma io non riuscì a vederla finché non si fu alzata da tanto che era abituato a star con la testa e gli occhi in su verso un'altezza di 60 piedi poi tentai di alzarla prendendola per la vita con una mano guardavo dall'alto in basso i domestici e uno o due amici che si trovavano in casa mia come se fossero stati pigmei e io un gigante dissi a mia moglie che era stata troppo economa perché mi sembrava che lei e sua figlia si fossero ridotte a niente insomma mi comportai in modo così inconcepibile che tutti furono della stessa opinione del capitano quando mi vide per la prima volta e conclusero che era uscito di senno ricordo tutto ciò per mostrare la grande forza dell'abitudine e del pregiudizio in poco tempo io la mia famiglia e i miei amici trovammo il modo di intenderci ma mia moglie affermò che non mi sarei più messo in mare tuttavia il mio destino avverso dispose altrimenti ed ella non ebbe la forza di trattenermi come il lettore saprà più avanti frattanto faccio qui punto alla seconda parte dei miei disgraziati viaggi parte terza viaggio alla puta balni barbi lugnag glub dub drib e nel giappone capitolo primo l'autore salpa per il suo terzo viaggio è catturato dai pirati perfidia di un olandese suo arrivo in un'isola suo ricevimento alla puta non ero rimasto a casa più di dieci giorni quando venne a casa mia il capitano william robinson un corno vagliese comandante dell'aspera bene una grossa nave di 300 tonnellate un tempo ero stato chirurgo su un'altra nave di cui egli era comandante e per un quarto proprietario in viaggio nel levante mi aveva sempre trattato piuttosto come un fratello che come un inferiore e sentendo del mio ritorno venne a farmi visita da quel che credetti solo per amicizia perché nulla passò fra noi più di quel che non voglia avvenire tra amici che si rivedono dopo lunga assenza ma egli ripete spesso che le sue visite esprimendo la sua gioia di ritrovarmi in buona salute domandandomi se avevo proprio deciso di non muovermi più da casa mia aggiungendo che aveva intenzione di partire fra due mesi per le indie orientali e infine mi invitò esplicitamente pur scusandosi per la sua insistenza ad essere chirurgo nella sua nave avrei avuto alle mie dipendenze un altro chirurgo oltre ai nostri due assistenti il mio stipendio sarebbe stato doppio del consueto e visto che la mia esperienza di cose marinare era quasi uguale alla sua si sarebbe impegnato in qualunque modo a seguire il mio consiglio come se condividessi con lui il comando disse tante altre cose gentili e io lo sapevo così onestuomo che non potei rifiutare la sua proposta d'altra parte la mia sete di vedere il mondo nonostante le mie passate disgrazie era più violenta che mai l'unica difficoltà era di persuadermi a moglie ma riuscì infine ad ottenere il suo consenso in grazia dei vantaggi che la vedeva per i suoi figli facemmo vela il 5 agosto del 1706 e arrivammo al forte San Giorgio l'11 aprile del 1707 ci fermamo là tre settimane per rinfrancare la ciurma di cui molti uomini erano malati di lì facemmo vela per il tonchino dove il capitano decise di fermarsi qualche tempo perché molte delle merci che intendeva comprare non erano ancora pronte ed egli non prevedeva di potersi sbrigare prima di parecchi mesi allora per sopperire in parte alle spese che doveva affrontare comprò un piccolo veliero lo caricò di varie merci di cui di solito i tonchinesi fanno commercio con gli abitanti delle isole vicine e messi via a bordo 14 marinai tre dei quali erano del luogo ne diede a me il comando lasciandomi la facoltà di trafficare per due mesi mentre egli badava i suoi affari nel tonchino dopo appena tre giorni di navigazione si levò una violenta tempesta che per cinque giorni ci sospinse verso nord-nord-est e poi verso est poi il tempo si rasserenò ma continuò tuttavia a spirare da ovest un vento piuttosto gagliardo il decimo giorno due navi corsare ci diedero la caccia e presto ci raggiunsero perché la mia nave era così carica che procedeva assai lentamente e noi non eravamo in condizioni di difenderci fummo abordati quasi in egualtempo dai due pirati che entrarono in furia alla testa dei loro uomini ma trovandoci tutti prostrati a faccia a terra come avevo ordinato di fare ci legarono con solide corde e dopo averci messo sotto buona guardia andarono a frugare il veliero notai fra loro un olandese che sembrava avere qualche autorità sebbene non comandasse nessuna delle due navi costui capì dai nostri modi che eravamo inglesi e barbugliando nella sua lingua ci giurò che ci avrebbero legati a schiena a schiena e gettati in mare io parlavo discretamente l'olandese gli dissi che eravamo e lo scongiurai in nome del nostro essere cristiani e riformati di paesi vicini e cordialmente amici a voler indurre i comandanti ad aver pietà di noi le mie parole non fecero che accendere il suo furore egli ribadì i suoi giuramenti e volgendosi ai compagni parlò loro con gran calore in giapponese così credo ripetendo spesso la parola cristianos la più grossa delle due navi corsare era comandata da un giapponese che masticava un po' di olandese egli mi si avvicinò e dopo avermi fatto varie domande a cui risposi con grande umiltà disse che non saremmo stati uccisi fece al capitano un grande inchino e poi voltomi all'olandese dissi che mi dispiaceva di trovare più umanità in un pagano che in un fratello cristiano ma subito mi pentì di queste folli parole perché quel malvagio rinnegato dopo aver tentato in ogni modo e in vano di persuadere i due capitani a gettarmi in mare cosa che essi non vollero concedergli avendomi promesso di non uccidermi riuscì cion nonostante a farmi infliggere una punizione peggiore secondo ogni apparenza della morte stessa i miei uomini furono in egual misura divisi fra le due navi corsare e sul mio veliero salì una nuova ciurma quanta me si decise di lasciarmi andare alla deriva in una piccola canoa con pagaie vela e viveri per quattro giorni che il comandante giapponese volle benevolmente raddoppiare del proprio senza permettere che alcuno mi perquisisse io scesi dunque nella canoa mentre l'olandese di su il ponte mi caricava di tutte le ingiurie e le maledizioni che la sua lingua poteva mettere a sua disposizione circa un'ora prima che scorgessimo i pirati avevo fatto una misurazione e trovato che eravamo a 48 gradi di latitudine nord e a 183 di longitudine quando mi fui un po' allontanato da loro scorsi col mio cannocchiale tascabile parecchie isole verso sud est alzai la vela col vento favorevole pensando di raggiungerla più vicina e mettendomi di lena ci riuscì in circa tre ore era tutta rocciosa ma mi trovai tuttavia parecchie uova di uccelli e battuto l'acciarino accesi un po' di scope di alghe secche con cui arrosti le mie uova non mangiai altro deciso a risparmiare le provviste più che potevo passai la notte al riparo di uno scoglio sopra un mucchio di scope e dormì abbastanza bene il giorno dopo feci vela verso un'altra isola e di qui verso una terza e una quarta un po' a vela e un po' con le pagaie ma per non annoiare il lettore con tutti i particolari dei miei affanni basterà dire che il quinto giorno raggiunsi l'ultima isola che fosse in vista a sud sud est delle altre con questa isola era assai più distante di quanto non mi aspettassi e non riuscì a raggiungerla in meno di cinque ore ne feci completamente il giro prima di trovare un punto dove poter approdare cioè una piccola insenatura larga a tre volte la mia canoa mi accorsi che l'isola era tutta rocciosa pezzata qua e là di ciuffi d'erba e di pianticelle aromatiche sbarcai le mie poche provviste e dopo essermi un po' ristorato misi il resto al sicuro in una delle tante grotte che verano raccolsi una gran quantità di uova su per le rocce e ammucchiai in abbondanza alghe ed erbe secche a cui mi proponevo di dar fuoco il giorno dopo per arrostirvi alla meglio le uova avevo infatti con me pietra focaia acciarino esca e uno specchio ustorio riposai tutta la notte nella grotta in cui avevo messo le mie provviste le stesse alghe ed erbe secche che dovevano servirmi da combustibile mi fornirono il letto ciò nonostante dormì pochissimo perché la mia mente inquieta aveva il sopravvento sulla mia stanchezza e mi teneva sveglio pensavo all'impossibilità di mantenermi in vita in un posto così desolato e alla miseranda fine che avrei dovuto fare e tuttavia ero così svogliato e abbattuto che non mi reggeva il cuore di alzarmi e prima che riuscissi a farmi il coraggio e a uscire carponi dalla grotta il giorno era già molto avanzato camminai un po' fra le rocce il cielo era limpidissimo e il sole così caldo che fui costretto a volger la faccia improvvisamente si oscurò mi parve in modo ben diverso da quando si interpone una nube mi volsi di nuovo e scorsi tra me e il sole un gran corpo opaco che avanzava verso l'isola sembrava essere a circa due miglia di altezza e oscurò il sole per sei o sette minuti ma non mi accorsi che l'aria fosse divenuta più fredda o il cielo più cupo era come se fossi all'ombra di una montagna via via che si avvicinava al luogo in cui ero si rivelava come una sostanza solida dal fondo piatto liscio e lucidissimo per il riflesso del mare sottostante stavo su di un'altura a circa duecento yard e dalla spiaggia e vidi quella vasta mole scendere fin quasi al mio livello distante meno di un miglio inglese presi il mio cannocchiale tascabile e potei facilmente scorgere parecchia gente che saliva e scendeva lungo i fianchi un po' in pendio di quella massa ma non riusciva a distinguere che cosa facessero il naturale istinto di conservazione mi ispirò a un moto di intima gioia e subito sentì in me la speranza che questa avventura potesse in un modo o in un altro liberarmi dal desolato luogo e dalla posizione disperata in cui mi trovavo ma in egual tempo il lettore non può immaginare quanto fossi sbigottito nel vedere un'isola aerea abitata da uomini che a quanto sembrava potevano alzarla abbassarla e farla avanzare a loro piacimento comunque non essendo allora disposto a far della filosofia su quel fenomeno preferì stare a vedere in che direzione l'isola si sarebbe mossa perché per un momento parve rimanere immobile tuttavia subito dopo si avvicinò e potei vederne i fianchi cinti da vari ordini di logge con scale a dati intervalli per poter passare dall'una all'altra sulla loggia più bassa scorsi alcuni che pescavano con lunghe canne e altri che stavano a vedere agitai il berretto perché il cappello mi si era consumato da un pezzo e il fazzoletto verso l'isola ed essendosi essa avvicinata ancora chiamai e gridai con tutta la voce che avevo in corpo allora guardando meglio scorsi una gran folla radunata sul lato che mi era di fronte e vedendo che mi additavano l'uno all'altro capì che mi avevano scoperto sebbene non rispondessero alle mie grida vidi però quattro o cinque uomini che correvano in gran fretta su per le scale fino in cima all'isola e lì scomparire e a ragione immaginai che fossero stati mandati a prendere ordine da qualche persona autorevole per sapere quel che si dovesse fare la folla aumentava e in meno di mezz'ora l'isola fu messa in moto e sollevata in modo che la loggia più bassa venne a trovarsi a meno di cento yard dall'altura su cui ero io e allo stesso livello allora mi posi nell'atteggiamento più supplice che potei e parlai con i più umili accenti ma senza ricever risposta quelli che mi stavano più vicini proprio di faccia dal modo di vestire sembravano persone ragguardevoli parlavano calorosamente fra di loro e spesso mi guardavano infine uno mi rivolse la parola in una lingua chiara dolce e gentile non dissimile nel suono dall'italiano e in italiano risposi sperando che almeno la cadenza suonasse piacevole al loro orecchio sebbene non ci capissimo affatto i miei gesti furono facilmente intesi perché tutti vedevano in qual di stretta mi trovassi mi fecero cenno di scendere dalla roccia e di andare sulla spiaggia cosa che feci e quando l'isola volante si fu sollevata ad un'altezza conveniente con l'orlo a perpendicolo su di me dalla galleria più bassa fu calata una catena con un seggiolino assicurato all'estremo io mi ci setetti e fui tirato su a forza di carrucole capitolo secondo descrizione del carattere e delle abitudini dei laputiani ragguagli sulla loro cultura il re e la sua corte l'autore vi ha ricevuto timori e inquietudini degli abitanti alcune notizie sulle donne appena arrivato mi vidi circondato da una gran folla ma quelli che mi stavano più vicini sembravano di più alta condizione mi osservavano con tutti i segni di una profonda meraviglia e io a dire il vero non ero da meno perché mai fino allora avevo visto una razza di mortali così strana nell'aspetto negli abiti e nei modi portavano tutti la testa inclinata a destra o a sinistra avevano un occhio rivolto in dentro e l'altro fisso verso lo zenith le loro vesti erano decorate con figure di soli lune e stelle intrecciate con quelle di violini flauti arpe trombe chitarre clavicembali e molti altri strumenti musicali sconosciuti in Europa ne osservai qua e là alcuni in abito da servitori con in mano una bacchettina all'estremità della quale era legata a modi correggiato una vescica gonfia in ogni vescica come seppi più tardi vero una piccola quantità di piselli secchi o di sassolini con queste vesciche essi colpivano di quando in quando la bocca o gli orecchi di quelli che stavano loro vicino e per il momento non potei capire il significato di quel gesto a quanto pare l'intelletto di quella gente è così assorto in profonde speculazioni che essi non possono né parlare né dare ascolto ai discorsi degli altri se qualche stimolo esterno non risveglia in loro gli organi della parola e dell'udito per questo tutti coloro che possono permetterselo prendono al proprio servizio uno scaccia pensieri nella loro lingua climenolè come domestico né mai vanno a passeggio o in visita senza di lui il compito di quest'attendente quando due o tre persone sono insieme consiste nel battere delicatamente con la vescica la bocca di quello che parla e l'orecchio destro di quello o di quelli a cui egli si rivolge questo scaccia pensieri deve anche badare diligentemente al suo padrone quando va a passeggio e dargli delicati colpettini sugli occhi perché egli è sempre così immerso in elucubrazioni che corre evidente pericolo di capitombolare in qualche precipizio o di batter la testa contro ogni palo e quando è per via di scaraventare gli altri o di essere scaraventato nel rigagnolo era necessario dare al lettore queste informazioni senza di che egli sarebbe stato impossibile come lo fu a me capire il procedere di quella gente mentre mi conduceva su per le scale fino in cima all'isola e di lì al palazzo reale durante l'ascesa infatti essi dimenticavano ad ogni momento quel che facevano e mi piantavano in asso finché gli scacciapensieri non rinfrescavano loro la memoria sembravano del tutto indifferenti alla vista dei miei abiti e dei miei modi stranieri e alle grida del popolino le cui menti erano più libere finalmente entrammo nel palazzo e tirammo avanti fino al salone delle udienze dove vidi il re seduto in trono e fiancheggiato dai più alti dignitari dinanzi al trono vero una larga tavola piena di globi di sfere e di strumenti matematici di ogni genere sua maestà non si avvide minimamente di noi sebbene il nostro ingresso facesse un baccano notevole tutti coloro che facevano parte della reggia erano accorsi ma egli era allora tutto sprofondato in un problema e dovemmo attendere almeno un'ora prima che riuscisse a risolverlo stavano ai suoi fianchi i due giovani paggi con in mano le vesciche e quando si accorsero che non aveva più nulla da fare uno di loro gli batte leggermente sulla bocca e l'altro sull'orecchio destro egli sobbalzò come uno destato all'improvviso e dopo aver guardato me e quelli che mi stavano intorno si ricordò del perché della nostra venuta di cui era già stato informato disse qualche parola e subito un giovinetto con una vescica mi venne vicino e mi batte leggermente sull'orecchio destro ma io feci cenno come meglio potei che non avevo bisogno di quello strumento cosa che come seppi più tardi diede a sua maestà e all'intera corte una mediocrissima idea del mio intelletto il re per quanto potei capire mi rivolse varie domande e io gli risposi in tutte le lingue che conoscevo quando fu chiaro che non potevo né capire né essere capito fui condotto per suo ordine in un appartamento del palazzo quel principe si segnala su tutti i suoi predecessori per l'ospitalità e l'argita agli stranieri dove due domestici erano stati messi al mio servizio mi fu servito il pranzo e quattro dignitari che ricordavo di aver visto assai vicino alla persona del re mi fecero l'onore di pranzare con me avemmo due portate di tre piatti ognuna nella prima vi era una spalla di montone tagliata a forma di triangolo equilatero un pezzo di manzo a forma di rombo e uno sformato a forma di cicloide la seconda portata consistette in due anetre accomodate in modo da somigliare ad un violino salsicce sformati che parevano flauti e oboi e un petto di vitello a forma di arpa i camerieri ci tagliarono il pane in coni cilindri parallelepipedi e altre figure geometriche durante il pranzo mi permisi di chiedere i nomi di varie cose nella loro lingua e quei gentiluomini con l'aiuto dei loro scacciapensieri si compiacquero di rispondermi sperando di suscitare la mia ammirazione per il loro profondo intelletto se mai riuscivo a parlare con loro in breve fui capace di chiedere il pane la bevanda e tutto ciò che mi occorreva dopo il pranzo i miei commensali si ritirarono e per ordine del re mi si presentò un tale accompagnato da uno scacciapensieri portava con sé penna inchiostro carta e tre o quattro libri e mi fece capire accenni di essere stato mandato per insegnarmi la lingua del paese restammo insieme per quattro ore durante le quali scrissi in colonna un gran numero di parole con affronte la loro traduzione del pari mi ingegnai di imparare varie frasi brevi il mio maestro ordinava ad uno dei servitori di andare a prendere qualche cosa di girare intorno di fare un inchino di sedersi di star dritto di camminare e via di seguito e io annotavo le varie frasi mi mostrò anche in uno dei suoi libri le figure del sole della luna delle stelle dello zodiaco i tropici polari insieme con le denominazioni di molte figure piane e solide mi descrisse e nominò tutti gli strumenti musicali e la varia nomenclatura relativa al loro uso quando mi ebbe lasciato io misi in ordine alfabetico tutte quelle parole con la relativa traduzione e così in pochi giorni con l'aiuto della mia fedelissima memoria cominciai ad avere un'idea chiara del loro idioma la parola che io traduco isola volante o fluttuante suona la puta nell'originale ma non ne ho mai potuto sapere la vera etimologia lap nella loro antica lingua significa alto e untu vale governatore così a loro dire la puta deriverebbe per corruzione da la punto ma io non credo a quella derivazione che mi pare un po' stiracchiata mi arrischiai a proporre ai loro saggi una mia congettura che cioè la puta significasse quasi lap outed lap significa propriamente la danza dei raggi solari nel mare e outed ala comunque non voglio imporre questa interpretazione ma solo sottometterla all'assenato lettore coloro a cui il re mi aveva affidato notando quanto fossi mal vestito mandarono il mattino dopo un sarto a prendermi le misure per un abito completo questo artigiano se la sbrigò in modo assai diverso dai suoi colleghi europei prese la mia altezza con un quadrante e poi con regolo e compassi segnò sulla carta le dimensioni e i lineamenti del mio corpo sei giorni dopo mi portò un abito fatto malissimo e che non mi si adattava per nulla perché nei suoi calcoli aveva sbagliato una cifra mi consolai accorgendomi che incidenti simili erano tutt'altro che rari e che nessuno vi faceva caso durante il tempo in cui dovetti starmene ritirato per mancanza d'abiti e per un'indisposizione che mi durò qualche giorno arricchi molto il mio dizionario e quando tornai nuovamente a corte potei capire molte cose che il re mi disse e rispondergli alla meglio sua maestà aveva dato ordine che l'isola si muovesse a nord-est e poi a est sulla verticale di Lagado capitale dell'intero reame in terraferma listava circa 90 leghe e il nostro viaggio durò quattro giorni e mezzo non mi accorsi minimamente che l'isola si muovesse nell'aria il secondo giorno di viaggio verso le 11 del mattino il re in persona con i nobili i cortigiani e gli ufficiali preparati tutti i loro strumenti musicali ci suonarono sopra per tre ore di seguito così che rimasi quasi assordato dal fracasso e riuscì a capire il significato di questa cerimonia finché il mio istitutore non me lo spiegò mi disse che la popolazione di quell'isola ha l'orecchio così sensibile da poter udire la musica delle sfere celesti che suonavano a periodi fissi e la corte si preparava in quel momento a sostenere la sua parte su tutti gli strumenti in cui ognuno eccelleva durante il nostro viaggio verso la capitale Lagado sua maestà ordinò che l'isola si fermasse sopra certe città e villaggi da cui ricevere le suppliche dei suoi sudditi per questo furono calati alcuni spaghi con un piccolo peso all'estremità a questi spaghi il popolo attaccava le proprie suppliche che venivano subito tirate su come i pezzi di carta che gli scolari legano alla coda dei loro aquiloni a volte tirammo su con pulegge vino e bettovaglie le mie nozioni di matematica mi aiutarono molto ad imparare la loro fraseologia che si base in gran parte su questa scienza e sulla musica né di quest'ultima ero del tutto digiuno le loro idee si traducono sempre in linee e figure se ad esempio vogliono elogiare la bellezza di una donna o di qualsiasi altro animale la descrivono con rombi cerchi parallelepipedi ellissi e altri termini tolti alla geometria o con parole destinate al linguaggio musicale che è inutile riferire nella cucina del re osservai strumenti matematici e musicali di ogni sorta secondo la cui figura viene tagliata la carne che si imbandisce alla tavola di sua mesta le loro case sono costruite assai male le mura sono fuori squadra senza nemmeno un angolo retto in alcuna stanza questo difetto nasce dal disprezzo che essi hanno per la geometria applicata da loro considerata scienza volgare e meccanica la loro istruzione è infatti troppo raffinata per l'intelletto dei loro operai e di qui i continui errori sebbene essi mostrino una certa abilità nel maneggiare il regolo la matita e il compasso su un foglio di carta non ho mai visto gente più inetta goffa e disadatta nelle azioni della vita quotidiana né più tardi resti a capire tutto ciò che non sia matematica e musica sono ragionatori assai inesperti e sempre inclini alla contraddizione violenta salvo in caso in cui la ragione sia dalla loro parte il che avviene è assai di rado immaginazione fantasia e inventiva sono loro totalmente negate il loro linguaggio non ha nemmeno le parole per indicare questi concetti la cerchia dei loro pensieri e del loro intelletto è limitata alle due scienze suddette molti di loro e specialmente quelli che si dedicano all'astronomia hanno molta fede nei canoni dell'astrologia sebbene si vergognino di confessarlo pubblicamente ma quel che soprattutto mi meravigliò e mi parve assolutamente inconcepibile fu la loro straordinaria passione per tutte le novità politiche non fanno che occuparsi della cosa pubblica trinciano giudizi sugli affari di stato e discutono con ardore le opinioni dei vari partiti punto per punto in verità ho osservato le stesse disposizioni tra la maggior parte dei matematici che ho conosciuto in Europa sebbene non sia mai riuscito a scoprire la minima analogia tra le due scienze a meno che questa gente non pensi che come il cerchio più piccolo a tanti gradi quanti ne ha il più grande così la direzione e il governo del mondo non richiedano maggiore abilità di quella necessaria per maneggiare e far rotolare una pallina ma credo piuttosto che questo derivi dalla solita debolezza umana la quale ci induce sempre ad occuparci presuntuosamente di tutto ciò che non ci riguarda e a cui siamo meno adatti per indole e per studio questo popolo è continuamente inquieto e non ha mai un minuto di tranquillità di spirito il bello è che le loro preoccupazioni derivano da cause che non toccano minimamente il resto dell'umanità hanno una gran paura che vari mutamenti possano avvenire nei corpi celesti per esempio che la terra a forza di avvicinarsi al sole ne sia col tempo assorbita o ingoiata che la faccia del sole si ricopra poco a poco della crosta dei propri effluvi e non illumini più il mondo che per poco la terra non è stata sfiorata dalla coda dell'ultima cometa la quale l'avrebbe ridotta senz'altro in cenere e che la prossima prevista dai loro calcoli fra 31 anni probabilmente ci distruggerà perché se nel suo perielio dovesse avvicinarsi al sole entro una data distanza e i loro calcoli lo fanno temere assai riceverebbe un grado di calore 10.000 volte più intenso di quello del ferro arroventato e allontanandosi dal sole si porterebbe dietro una coda incandescente lunga un milione e quattordici miglia dalla quale la terra se dovesse passare alla distanza di un centomila miglia dal nucleo o parte principale della cometa sarebbe incendiata e ridotta in cenere o magari temono che il sole a forza di prodigare i suoi raggi senza che nulla lo alimenti per supplirli finisca col consumarsi e andare in nulla cosa che sarà seguita infallibilmente dalla distruzione del nostro pianeta e di tutti quelli che dal sole ricevono luce e sono in così continua apprensione per questi e simili imminenti pericoli che non riescono a dormire tranquilli nei loro letti né a godere i comuni piaceri e divertimenti il mattino quando incontrano una conoscenza si domanda innanzitutto come sia il sole che aspetto avesse al tramonto e all'alba che speranze ci siano di evitare l'urto della futura cometa si gettano in queste conversazioni con la stessa mentalità dei ragazzi che stanno a sentire avidamente storie terrificanti di spiriti e di folletti poi non osano più andare a letto per la paura le donne di quest'isola sono vivacissime disprezzano i loro mariti e vanno matte per i forestieri dei quali va sempre abbondanza venendo essi dal continente sottostante per servizi di corte o per affari delle varie città o corporazioni o per proprie esigenze ma privi delle doti intellettuali proprie degli isolani costoro sono molto disprezzati lassù le dame scelgono tra loro i propri cicisbei lo scandalo è che essi agiscono con troppa libertà e sicurezza perché il marito è sempre così sprofondato nelle sue speculazioni che la signora e l'amante possono concedersi le massime licenze sotto il suo naso solo che egli abbia davanti carta, penna e calamaio e non sia assistito dallo scacciapensieri moglie e figlie si lamentano di essere confinate nell'isola sebbene io la consideri il luogo più delizioso che si possa immaginare esse vivono lì nella massima abbondanza e in grande sfarzo possono fare quel che loro piace ma tuttavia smaniano di vedere il mondo e di estraniarsi dalla vita della capitale cosa che non è loro concessa senza una particolare licenza del re che non si ottiene facilmente perché la nobiltà ha dovuto accorgersi per esperienza quanto sia difficile persuader le proprie donne a tornare su dal mondo inferiore mi dissero che una gran dama di corte madre di parecchi figli e moglie del primo ministro il quale è il suddito più ricco del reame è un uomo assai avvenente innamoratissimo di lei e abita nel più sontuoso palazzo dell'isola scese a lagado col pretesto di rimettersi in salute e lì rimase nascosta per parecchi mesi finché il re non diede ordine di andarla a cercare fu trovata in un'infima bettola coperta di stracci perché aveva impegnato gli abiti per mantenere un vecchio e deforme lacchè che la bastonava una volta al giorno e dal quale si dovette strapparla a forza il marito la colse con ogni possibile amorevolezza e senza il minimo rimprovero ma non servì a nulla e la se la svignò di nuovo con tutti i suoi gioielli per raggiungerla in basso il suo ganso e non se ne seppe più nulla il lettore crederà forse che gli racconti una storia avvenuta in Europa o in Inghilterra e non in un paese così remoto ma si degni di riflettere che i capricci delle donne non si lasciano limitare da un clima né da una nazione e che sono molto più uniformi di quanto non si possa immaginare dopo circa un mese io avevo fatto discreti progressi nella loro lingua ed ero in condizione di rispondere alla maggior parte delle domande che il re mi rivolgeva quando avevo l'onore di essere alla sua presenza sua maestà non mostrava la minima curiosità di conoscere le leggi il governo la storia la religione e i costumi dei paesi in cui ero stato ma limitava le sue domande ai progressi fatti laggiù dalle matematiche e ascoltava i miei resoconti con gran disprezzo e indifferenza benché a dritta e a manca gli scacciapensieri badassero a svegliarlo capitolo terzo una scoperta della filosofia e dell'astronomia moderne grandi progressi dei laputiani in quest'ultima scienza sistema seguito dal re per soffocare le insurrezioni chiesi al sovrano il permesso di vedere le curiosità dell'isola ed egli graziosamente si degnò di concedermelo e ordinò al mio istitutore di farmi la guida desideravo soprattutto sapere per qual causa naturale o meccanica l'isola potesse muoversi in tutte le direzioni e voglio ora darne un raguaglio scientifico al lettore l'isola volante o fluttuante è perfettamente circolare e il suo diametro è di 7.837 yard ossia circa 4 miglia e mezzo e contiene perciò 10.000 yugeri il suo spessore è di 300 yard il fondo o superficie inferiore visibile a quelli che la guardano dal basso è un disco liscio e regolare di diamante dell'altezza di circa 200 yard su di esso vi sono stratificazioni di minerali nel loro ordine consueto e sul tutto un rivestimento di fecondo terriccio profondo 10 o 12 piedi il declivio della superficie superiore dalla circonferenza al centro è la causa naturale per cui tutte le piogge e le rugiade che cadono sull'isola sono convogliate in tanti rivoletti verso il centro dove sfociano in quattro larghi bacini ognuno di circa mezzo miglio di circuito e distanti 200 yard dal centro l'acqua di questi bacini evapora continuamente durante il giorno al calore del sole e questo impedisce che straripino inoltre potendo il sovrano far sollevare l'isola di sopra della regione dei vapori e delle nubi egli ha la facoltà di impedire a suo piacimento il cadere delle rugiade e delle piogge i naturalisti convengono infatti che le più alte nubi non possono elevarsi oltre due miglia in quel paese almeno che si sappia non è mai avvenuto il contrario al centro dell'isola ve una cavità del diametro di circa 50 yard e di qui gli astronomi discendono in una vasta cupola chiamata appunto Flandona Gagnole o Cava dell'Astronomo situata alla profondità di un centinaio di yard sotto la superficie superiore del diamante in questa cava 20 lampade sono di continuo accese e per il riflesso del diamante irradiano da ogni parte un'intensa luce il luogo è provvisto di una gran quantità di sestanti quadranti telescopi astrolabi e altri strumenti di astronomia ma la maggior curiosità e dalla quale dipende il destino dell'isola stessa è una calamita di enormi dimensioni e della forma di una spola è lunga 6 yard e larga almeno 3 nella sua parte più spessa questo magnete è sostenuto da un robustissimo asse di diamante che passa per la sua parte mediana e su esso gira così ben librato che la mano di un fanciullo potrebbe farlo ruotare è cerchiato da un cilindro cavo di diamante profondo quattro piedi e grosso altrettanti del diametro di 12 yard posto orizzontalmente e sostenuto da otto piedi di diamante alti ognuno 6 yard nel mezzo della parte concava ve una scanalatura profonda 12 pollici nella quale sono adattate le estremità dell'asse e fatte girare a seconda del bisogno nessuna forza potrebbe rimuovere la calamita dal suo posto perché il cilindro e i piedi che lo sostengono fanno un solo blocco con la massa di diamante che costituisce il fondo dell'isola per mezzo di questa calamita l'isola è fatta salire e scendere ed è mossa da un luogo all'altro perché rispetto a quella parte della terra su cui impera il sovrano la calamita possiede ad una delle sue estremità una forza di attrazione e dall'altra di repulsione mettendola a perpendicolo con l'estremità che attrae rivolta verso terra l'isola discende se invece si abbassa all'estremità che respinge l'isola risale quando la calamita è messa in posizione obliqua obliquo è anche il movimento dell'isola perché la forza di quel magnete agisce in linea parallela alla sua direzione per mezzo di tale movimento obliquo l'isola è guidata nelle diverse parti dei domini di quel monarca per spiegarla cosa supponiamo che AB D rappresenti una linea tirata attraverso il territorio di Balni Barbie e che la linea CD rappresenti la calamita di cui D sia all'estremità respingente e C quella attraente e ammettiamo che l'isola sia sopra C se la pietra è posta in posizione CD con l'estremità respingente rivolta in giù allora l'isola sarà rispinta obliquamente verso D giunta a D se la calamita è fatta girare sul suo asse finché la sua estremità attraente sia rivolta verso E l'isola sarà condotta obliquamente verso E e lì se la calamita è nuovamente girata sul suo asse e posta nella posizione E F con l'estremità respingente volta in giù l'isola risalirà obliquamente verso F di dove volgendo l'estremità attraente verso G l'isola potrà essere diretta in G e da G in H sempre in volta alzare e abbassare obliquamente e con questo alternarsi di ascese e discese la pendenza è appena sensibile è diretta da una parte all'altra del reame ma bisogna notare che l'isola non può muoversi oltre i confini del territorio sottostante né sollevarsi oltre l'altezza di 4 miglia di questo fatto gli astronomi che hanno scritto vasti trattati sulla calamita danno la seguente spiegazione la forza magnetica non si estende oltre 4 miglia e i minerali che agiscono sulla calamita nelle viscere della terra o nella profondità del mare fino a 6 leghe dalla costa non sono diffusi in tutto il globo ma limitati entro i confini dei domini del re dato l'enorme vantaggio di una tal superiore situazione fu assai facile ad un principe ridurre all'obbedienza tutte le regioni che si trovavano nella sfera d'attrazione di quel magnete quando la calamita è posta parallelamente al piano dell'orizzonte l'isola rimane ferma perché in tal caso le sue estremità essendo ad egual distanza dalla terra agiscono con egual forza l'una nel tirar giù l'altra nello spingere in su e di conseguenza non ne segue alcun moto la calamita è affidata ad alcuni astronomi che di volta in volta le fanno assumere le posizioni indicate dal monarca costoro dedicano la maggior parte della vita allo studio dei corpi celesti con il sussidio di lenti assai migliori delle nostre infatti sebbene i loro maggiori telescopi non siano più lunghi di tre piedi il loro potere di ingrandimento è molto superiore a quello dei nostri lunghi un centinaio di yard e nello stesso tempo mostrano le stelle con maggiore evidenza questo ha permesso loro di estendere le loro scoperte assai più in là che i nostri astronomi europei non abbiano potuto hanno infatti compilato un catalogo di 10.000 stelle fisse mentre il più esteso dei nostri non ne contiene nemmeno un terzo hanno pure scoperto due stelle minori o satelliti che girano intorno a Marte dei quali il più vicino dista dal centro del pianeta principale esattamente tre volte il suo diametro e il più lontano 5 il primo compie il suo giro in 10 ore il secondo in 21 e mezzo così che i quadrati dei loro tempi periodici sono quasi nella stessa proporzione con i cubi delle loro distanze dal centro di Marte cosa che mostra chiaramente come siamo governati da quella stessa legge di gravitazione che agisce sugli altri corpi celesti essi hanno osservato 93 differenti comete e ne hanno determinati periodi con molta esattezza se questo è vero ed essi lo affermano pienamente fiduciosi sarebbe desiderabile che le loro osservazioni fossero rese pubbliche così la teoria delle comete oggi alquanto zoppa e difettosa potrebbe essere condotta alla stessa perfezione delle altre parti dell'astronomia il re diventerebbe il più assoluto sovrano dell'universo sol che riuscisse a persuadere i suoi ministri a far causa comune con lui ma costoro che hanno i propri possedimenti nel continente sottostante e considerano assai precaria la condizione di un favorito mai consentirebbero a lasciar ridurre il paese in schiavitù se una città si ribella o si divide in fazioni violente o si rifiuta di pagare i tributi consueti il re dispone di due modi per ridurla all'obbedienza il primo e più mite consiste nel far fluttuare l'isola sulla città e sulle campagne circostanti privandole così del beneficio del sole e della pioggia e affliggendone gli abitanti con carestie ed epidemie se poi la colpa merita più grave pena i ribelli vengono bersagliati dall'alto con grosse pietre dalle quali non hanno altra difesa che rintanarsi nelle cantine o nelle grotte mentre i tetti delle loro case vanno in frantumi se si intestardiscono e minacciano di sollevarsi il re ricorre al secondo sistema facendo piombare l'isola dritta sulle loro teste distruggendo così ad un tempo uomini e case raramente tuttavia il principe ricorre a questo estremo e assai malvolentieri lo mette in opera né i suoi ministri osano consigliargli un tal gesto che mentre li renderebbe odiosi al popolo danneggerebbe assai i loro beni che sono tutti nel continente perché l'isola è tutta patrimonio del re ma a dire il vero v'è anche un'altra e più potente ragione che ha sempre indotto i sovrani di quel paese ad evitare una così terribile decisione se non in caso di estrema necessità se infatti la città condannata alla distruzione è difesa da alte rocce come avviene generalmente per i centri maggiori che probabilmente hanno scelto appunto una tale ubicazione per prevenire catastrofi del genere o se vi sono in gran numero campanili elevati o pilastri di pietra un'improvvisa caduta potrebbe danneggiare il fondo o superficie inferiore dell'isola il quale sebbene consista come ho detto in un solo blocco di diamante dello spessore di 200 yard potrebbe spaccarsi al cozzo formidabile o scoppiare avvicinandosi troppo agli incendi delle case sottostanti come fanno spesso i fondi di ferro o di pietra dei nostri camini il popolo sa benissimo tutto questo e capisce fino a quel punto può spingere la propria ostinazione quando siano in gioco la libertà o i beni e il re quando si sente provocato al massimo e ha deciso di ridurre in rovina una città comanda che l'isola scenda con gran cautela in apparenza per mostrare al popolo la sua generosità ma in realtà per paura di spezzare il fondo adamantino nel qual caso tutti i dotti affermano che la calamità non potrebbe più trattenerlo nell'alto e l'intera massa piomberebbe al suolo circa tre anni prima del mio arrivo laggiù mentre il re era in viaggio per i suoi domini avvenne un fatto assai grave che per poco non mise termine a quella monarchia almeno quale adesso è costituita l'indalino la seconda città del regno fu la prima visitata da sua maestà tre giorni dopo la sua partenza agli abitanti che spesso si erano lamentati di odiose oppressioni chiusero le porte della città si impadronirono del governatore e con incredibile alacrità e sforzo eressero quattro grosse torri ad ogni angolo della città che è un quadrato esatto della stessa altezza di una grossa e guzza rupe che ne sta esattamente al centro sull'alto di ogni torre come pure sulla rupe fissarono una grossa calamita e nell'eventualità che il loro piano dovesse fallire raccolsero una gran quantità del materiale più infiammabile per far scoppiare così il fondo adamantino dell'isola qualora le calamite non servissero solo otto mesi dopo il re seppe che i lindalignani si erano ribellati e comandò allora che l'isola fosse spinta a volo sopra la città il popolo era concorde aveva raccolto vettovagli in abbondanza e un gran fiume che attraversava la città assicurava l'acqua il re si librò per vari giorni sui ribelli per privarli di sole e di pioggia e fece calar giù molti spaghi ma nessuno mandò su una petizione al contrario a odaci intimazioni di riparare a tutte le angherie di concedere grandi immunità di lasciar libera l'elezione del governatore ed altre esorbitanti pretese sua maestà comandò allora tutti gli abitanti dell'isola di gettar grosse pietre sulla città dalla più bassa loggia che circonda l'isola ma gli abitanti avevano prevenuto il pericolo mettendo al sicuro persone e averi nelle quattro torri e in altri solidi edifici a volte sotterranee deciso a ridurre all'obbedienza quei tracotanti il re ordinò che l'isola scadesse piano fino a 40 yard dal cino delle torri e della rupe così fu fatto ma i manovratori si accorsero che la discesa veniva molto più in fretta del solito e voltata la calamita solo con gran difficoltà riuscirono a tenerla ferma mentre l'isola minacciava di cadere avvertirono subito il re di questo stupefacente fenomeno e chiesero a sua maestà il permesso di far risalire nuovamente l'isola il re consentì fu convocato un consiglio generale e i manovratori della calamita ebbero l'ordine di parteciparvi uno dei più vecchi ed esperti di loro ottenne licenza di fare un esperimento prese una robusta cordicella di un centinaio di yard e dopo che l'isola fu fatta salire sopra la città fuori portata della forza di attrazione che avevano avvertito legò all'estremità della cordicella un pezzo di diamante misto a minerale di ferro della stessa natura di quello di cui è composto il fondo superficie inferiore dell'isola e dalla loggia più bassa lo calò lentamente sulla cima di una delle torri il diamante non era sceso nemmeno di 4 yard e che quel funzionario se lo sentì strappar giù con tanta forza che a fatica riuscì a ritirarlo allora gettò giù vari pezzetti di diamante e si accorse che tutti erano violentamente attratti dalla cima della torre lo stesso esperimento fu ripetuto con uguale risultato sulle altre tre torri e sulla rupe questo fatto resevani tutti i provvedimenti del re e per non indugiare oltre sugli altri particolari egli fu costretto ad accettare le condizioni della città un gran ministro mi assicurò che se l'isola fosse discesa così vicino alla città da non poter più risalire i cittadini avevano deciso di tenervela per sempre a vinta di uccidere il re e tutti i suoi e di cambiare radicalmente il governo per legge fondamentale dello stato né il re né i suoi due figli maggiori né la regina finché è in età di aver figli possono lasciare l'isola capitolo quarto l'autore lascia la puta è condotto a Balnibarbi e arriva alla capitale descrizione della capitale e delle sue vicinanze l'autore è ospitato da un grande pari sua conversazione con questo pari sebbene non possa dire di essere stato trattato male in quell'isola tuttavia devo confessarlo avvertivo verso di me una trascuratezza non priva di disprezzo né il sovrano né il popolo sembravano infatti avere interesse per altre scienze che non fossero la matematica e la musica e in questo ero così inferiore a loro che mi prendevano ben poco in considerazione d'altro lato dopo aver osservato tutte le curiosità dell'isola non vedevo l'ora di lasciarla ed ero cordialmente stufo di quella gente essi eccellevano per dire il vero in due scienze da me molto rispettate delle quali non sono del tutto digiuno ma in egual tempo erano così astratti e assorti nelle loro speculazioni che posso dire di non aver mai incontrato compagni più noiosi durante i due mesi che mi tratte Nicolà potei conversare solo con donne mercanti scacciapensieri e paggi di corte cosa che finì con la rendermi oggetto del più profondo disprezzo e tuttavia erano quelle le sole persone da cui potessi ricevere una risposta sensata a forza di studio aveva acquistato una buona conoscenza della loro lingua e stanco di restarmene confinato in un'isola dove ci si curava così poco di me decisi di andarmene alla prima occasione vera a corte un gran pari stretto parente del re e per questa sola ragione molto rispettato già che era universalmente noto come il più ignorante e sciocco di tutti gli isolani aveva reso molti eminenti servigi alla corona possedeva molte doti naturali e acquisite era pieno di onestà e di senso di onore ma aveva un così infelice orecchio musicale che i suoi detrattori raccontavano di averlo spesso sorpreso a battere il tempo fuori misura e d'altra parte i suoi maestri avevano dovuto maledettamente faticare per mettergli in testa la dimostrazione dei più elementari teoremi e gli si era compiaciuto di mostrarmi più volte il suo favore mi aveva spesso onorato con le sue visite ed era curioso di conoscere le cose di Europa le leggi e i costumi gli usi e il livello di cultura dei vari paesi in cui avevo viaggiato mi ascoltava con grande attenzione e fece osservazioni piene di buonsenso su tutto ciò che gli dissi due scacciapensieri lo accompagnavano per la forma ma egli non se ne serviva mai se non a corte e nelle visite di cerimonia e li mandava sempre via quando eravamo soli io pregai questa illustre persona di intercedere in mio favore presso sua maestà affinché mi fosse concesso di andarmene ed egli lo fece come si compiacque di dirmi con rincrescimento in realtà mi aveva fatto varie offerte molto vantaggiose che tuttavia rifiutai pur esprimendogli la mia più profonda gratitudine il 16 febbraio presi congedo da sua maestà e dalla corte il re mi fece un dono del valore di circa 200 sterline inglesi e il mio protettore suo parente mi donò altrettanto oltre ad una lettera di raccomandazione per un suo amico di Lagado la capitale l'isola sorvolava in quel momento una montagna a circa due miglia da quella città e io fui calato giù dalla loggia più bassa nello stesso modo col quale mi avevan tirato su il continente per tutta la parte soggetta al sovrano dell'isola volante è designato col nome generico di Balni Barbie e la capitale come ho detto si chiama Lagado provai una certa soddisfazione nel trovarmi sulla terra ferma mi incamminai verso la città senza alcuna esitazione vestito come gli abitanti del paese e abbastanza in grado di conversare con loro trovai subito la casa della persona a cui ero stato raccomandato le presentai la lettera del suo amico gran dignitario dell'isola e fui accolto con molta cortesia quell'eminente pari che si chiamava Munodi mi fece preparare un appartamento nella sua casa e lì abitai durante la mia permanenza a Lagado trattato nel modo più ospitale il giorno dopo il mio arrivo mi condusse nella sua carrozza a vedere la città che è circa alla metà di Londra le case però sono costruite in modo assai strano e per la maggior parte così in rovina da non potersi riparare nelle vie e la gente camminava in fretta con aspetto stralonato gli occhi fissi e per lo più coperta di stracci attraversamo una delle porte della città e ci inoltrammo per circa tre miglia nella campagna dove vidi vari i contadini lavorare la terra con ogni sorta di strumenti ma non riuscì a capire che cosa diavolo facessero né potei scorgere alcuna promessa di grano o di erba sebbene il terreno sembrasse eccellente non potei far a meno di stupirmi di questo aspetto della città e della campagna e mi permisi di pregarle a mia guida che si compiacesse di spiegarmi che cosa mai potessero significare tante teste mani e volti affaccendati nelle strade e nei campi poiché non riuscivo a scorgerne alcun frutto ma al contrario non avevo mai visto un terreno peggio coltivato case così malamente costruite in rovina gente che nell'aspetto e negli abiti rivelasse tanta indigenza e squallore lord munodi era uno dei più eminenti personaggi ed era stato per alcuni anni governatore di lagado ma in seguito ad un intrigo di ministri era stato destituito per inettitudine il re lo trattava tuttavia molto cordialmente come uomo onesto anche se di intelligenza più che limitata quando gli abbia espresso questa franca censura del paese e dei suoi abitanti si limitò a rispondermi che non ero stato abbastanza fra loro per formulare un giudizio e che varie sono le usanze nei vari paesi con altri luoghi comuni dello stesso genere ma appena tornati nel suo palazzo mi domandò se quell'edificio mi piaceva se vi trovassi qualche assordità e se avessi nulla da criticare nel vestire e nell'aspetto dei suoi domestici e poteva chiedermelo con sicurezza perché tutto ciò che lo circondava era magnifico ordinato elegante risposi che la saggezza le doti e i mezzi di sua eccellenza gli avevano permesso di evitare quei difetti che la follia e la miseria avevano generato negli altri egli mi disse allora che se volevo andare con lui nella sua casa di campagna a circa 20 miglia dove dimorava durante l'estate avremmo potuto continuare con più agio una conversazione di quel genere risposi risposi a sua eccellenza di essere interamente a sua disposizione e il mattino dopo partimmo durante il viaggio egli mi fece osservare i vari metodi usati dai coloni nel coltivare le loro terre tutti per me assolutamente inesplicabili perché salvo pochissimi luoghi qua e là non riuscivo a scoprire una spiga di grano né un filo d'erba ma dopo tre ore di viaggio il panorama cambiò totalmente ed entrammo in una bellissima zona case coloniche ben costruite a breve distanza l'una dall'altra campi cintati con vigne biade e prati non ricordo una vista più dilettosa sua eccellenza si accorse che il viso si rischiarava e con un sospiro mi disse che cominciavano lì i suoi possedimenti e che sarebbero continuati sempre uguali fino alla villa ma i suoi conterranei lo deridevano e lo disprezzavano perché non curava meglio i suoi affari e dava inoltre all'intero reame un così cattivo esempio seguito per fortuna solo da pochissimi vecchi testardi e rimbecilliti come lui giungemmo infine alla villa davvero un nobile edificio costruito secondo le migliori regole dell'antica architettura fontane giardini passeggiate viali e boschetti erano tutti disposti con senno e buon gusto lo dai debitamente tutto ciò che vedevo ma sua eccellenza non parve accorgersene finché dopo cena rimasti a quattro occhi mi disse con aria molto triste che temeva di dover abbattere le sue case di città e di campagna per ricostruirle secondo la moda attuale di dover distruggere tutte le sue piantagioni per farne altre inconformità dei metodi in voga e di essere costretto ad obbligare tutti i suoi fittavoli a fare altrettanto se non voleva incorrere nell'accusa di orgoglioso stravagante affettato ignorante capriccioso e magari cadere ancor più nella disgrazia di sua maestà e aggiunse che l'ammirazione che sembrava avermi invaso sarebbe scomparsa o almeno diminuita quando mi avesse informato di alcuni particolari che probabilmente a corte non avevo saputo dato che lassù tutti erano troppo assorti nelle loro speculazioni per dare un'occhiata a quel che avveniva sotto di loro ecco in breve quel che mi disse circa 40 anni prima alcune persone erano andate alla puta per affari o per divertimento e dopo esservi rimaste cinque mesi erano tornate con una leggera infarinatura di matematica ma pieni di volati gli spiriti raccolti in quell'aerea regione costoro appena tornati cominciarono a disprezzare l'andamento di ogni cosa di laggiù e si proposero di mettere su nuove basi arti scienze lingua e industria a tal fine si procurarono una patente reale per costituire un'accademia degli inventori in lagado e la nuova moda ebbe tanta fortuna tra la popolazione che non vera nel regno alcuna città di qualche importanza la quale non avesse tale accademia i dotti di questi collegi scoprono nuove leggi e metodi di agricoltura e di architettura e nuovi strumenti e arnesi per tutte le industrie e manifatture mediante i quali essi garantiscono un uomo potrà fare il lavoro di dieci e un palazzo verrà su in una settimana e di materiali così solidi da poter durare eternamente senza bisogno di riparazioni inoltre i frutti della terra matureranno in qualunque stagione si voglia scegliere moltiplicandosi cento volte più che non facciano attualmente e infine altre bellissime cose l'unico inconveniente è che nessuno di questi progetti ha raggiunto finora alla perfezione e frattanto l'intera regione è stata miserevolmente devastata le case cadono in rovina e il popolo rimane senza cibo né vesti ma tutto ciò invece di scoraggiarli li ha spinti più che mai a continuare le loro immagini trascinati insieme dalla speranza e dalla disperazione quanto a lui poco dotato di spirito di iniziativa aveva preferito seguire i vecchi modi abitare nelle case costruite dai suoi avi e vivere senza innovazioni come essi avevano vissuto alcuni pochi dell'alta e bassa nobiltà avevano fatto lo stesso ma erano guardati con occhio sprezzante e malevolo come nemici delle arti della scienza e del pubblico bene preferendo i propri agi e i propri ozzi al generale progresso del paese sua eccellenza aggiunse di non volermi dare altri particolari per non privarmi del piacere che avrei certo provato nel visitare la grande accademia cosa che dovevo fare assolutamente mi pregò solo di osservare un edificio in rovina sul fianco di una montagna distante circa tre miglia e mi raccontò che un tempo avevo un ottimo mulino a mezzo miglio da casa sua messi in moto dalle acque di un vasto fiume e sufficiente per la sua famiglia e per un gran numero dei suoi fittavoli ma circa sette anni prima un gruppo di tali inventori era venuto da lui proponendogli di abbattere quel mulino e di costruirne un altro sul fianco del monte sulla cui cresta si sarebbe dovuto scavare un lungo canale come deposito d'acqua che vi sarebbe stata trasportata per mezzo di tubi e di congegni per fornire l'energia al mulino là in alto infatti il vento e l'aria avrebbero agitato le acque rendendole più adatte al movimento e inoltre l'acqua scendendo per la china avrebbe fatto muovere il mulino con una corrente minore della metà di quella di un fiume che scorre quasi tutto in pianura in quel tempo egli non era molto ben visto a corte e stretto dalle insistenze degli amici aveva accettato la proposta aveva impiegato per due anni un centinaio di uomini il lavoro era fallito e gli inventori se n'erano andati facendo ricadere tutta la colpa su di lui beffandolo senza tregua e spingendo altri a tentare l'esperimento con uguali promesse di buon successo e con uguali delusioni dopo pochi giorni tornammo in città e sua eccellenza considerando la cattiva fama che aveva nell'accademia non mi ci volle accompagnare ma pregò un amico di condurmi colà si compiacque di presentarmi come un grande ammiratore delle invenzioni pieno di curiosità scientifica e di fede nel progresso e in questo a dire il vero non si sbagliava di molto perché anch'io in gioventù ero stato un po' inventore capitolo quinto l'autore ha messo a visitare la grande accademia di Lagado ampia descrizione di codesta accademia discipline che gli accademici vi coltivano l'accademia non è costituita da un solo edificio ma da una serie di case sui due lati di una strada le quali andando in rovina furono acquistate e adibite a questo scopo fui ricevuto con grande cortesia dal custode e le mie visite si ripeterono per più giorni ogni stanza accoglie una o più inventori e credo che non siano state meno di 500 quelle in cui entrai la prima persona che incontrai aveva l'aspetto allampanato faccia e mani fuliginose capelli e barba lunghi cencioso e bruciacchiato in diverse parti del corpo abiti camicia e pelle erano tutti dello stesso colore da otto anni si scervellava sul progetto di estrarre raggi solari dai cetrioli ficcarli in fiale ermeticamente chiuse e farli uscire poi per riscaldare l'aria nelle stagioni rigide e inclementi mi disse ad esser sicuro che fra altri otto anni avrebbe potuto rifornire di raggi solari ad un prezzo ragionevole i giardini del governatore ma si lamentava di essere un po' in cattive acque e mi pregò di dargli qualche cosa a titolo di incoraggiamento al genio inventivo considerando soprattutto che quell'anno i cetrioli costavano maledettamente cari gli diedi un piccolo obolo perché sua eccellenza mi aveva appunto dato un po' di denaro a tal fine conoscendo la loro abitudine di stender la mano a tutti quelli che andavano a visitarli entrai in un'altra stanza ma dovetti subito trarmi indietro mezzo soffocato da un puzzo orribile la mia guida mi spinse avanti pregandomi sotto voce di non far atti offensivi che avrebbero provocato un profondissimo risentimento sicché non osai nemmeno tapparmi il naso l'inventore che stava in questa cella era l'accademico più anziano aveva il volto e la barba di pallido avorio le mani e gli abiti tutti impiastrati di sudiciume quando gli fui presentato mi abbracciò stretto stretto complimento di cui avrei fatto volentieri a meno fin dal suo primo entrare nell'accademia stava studiando il modo di far tornare cibo gli escrementi umani separandone i vari elementi togliendone il colore dato loro dalla bile facendone esalare l'odore e schiumandone via la saliva aveva dalla società la dotazione settimanale di un recipiente pieno di rifiuti umani grande circa quanto un barile di bristol vedi un altro intento a ridurre il ghiaccio in polvere da sparo egli mi mostrò anche un trattato da lui scritto sulla malleabilità del fuoco e che intendeva pubblicare un ingegnosissimo architetto aveva scoperto un nuovo sistema per fabbricare le case cominciando dal tetto e scendendo giù giù fino alle fondamente e mi spiegò a sua giustificazione che altrettanto fanno quei due saggi insetti che sono l'ape e il ragno c'era un cieco nato circondato da vari discepoli ciechi come lui la loro occupazione consisteva nel preparare colori per i pittori e il maestro insegnava a distinguerli al tatto e all'odore fu solo una mia particolare disgrazia se quel giorno non mostrarono di aver molto approfittato delle lezioni e se il professore stesso non l'azzeccò quasi mai questo dotto è molto incoraggiato e stimato dall'intero sodalizio in un'altra stanza mi compiacqui altamente di conoscere un inventore che aveva trovato il sistema di arar la terra per mezzo dei maiali risparmiando la spesa degli aratri i buoi e la fatica si tratta di questo in uno iugero di terreno si sotterrano alla distanza di 6 pollici e alla profondità di 8 ghirlande datteri castagne in quantità e altre bacche o frutti di cui quegli animali sono ghiotti poi se ne fanno entrare nel campo 600 e più e in pochi giorni i maiali avranno grufolato per tutto il terreno cercando il cibo e l'avranno reso pronto per la semina concimandoli in ugual tempo con i loro escrementi è vero che fatto l'esperimento la spesa e la fatica risultarono enormi e il raccolto fu poco o nullo ma non c'è dubbio che questa invenzione può essere molto perfezionata entrai in un'altra stanza dalle cui pareti e dal soffitto pendevano tutti intorno ragnatele eccetto uno stretto passaggio per permettere all'accademico di entrare e uscire non avevo ancora varcato la soglia che quegli mi ingridò forte di lungo a stare le sue ragnatele egli deplorava il fatale errore che aveva irretito per tanto tempo gli uomini di usare i bacchi da seta mentre abbiamo tanta abbondanza di insetti domestici assai superiori a quelli perché non solo sanno filare ma anche tessere sosteneva inoltre che servendoci dei ragni avremmo risparmiato la spesa di tinger le sete ed io ne fui pienamente persuaso quando mi mostrò un gran numero di mosche dai bellissimi colori con cui nutriva i suoi ragni assicurandoci che le ragnatele ne avrebbero assunto la tinta e poiché egli disponeva di mosche di tutti i colori sperava di poter soddisfare tutti i gusti non appena fosse riuscito a trovare un cibo adatto alle mosche fatto di gomme oli e altre materie glutinose capaci di dar forza e consistenza ai fili c'era poi un astronomo che si era messo in testa di fissare una meridiana sulla gran banderuola del palazzo e di regolare i moti annuali e diurni della terra e del sole così da coincidere perfettamente con tutte le accidentali giravolte del vento poiché lamentavo una leggera colica la mia guida mi portò in una stanza in cui stava un gran medico famoso per curare questa indisposizione con due operazioni opposte fatte con lo stesso strumento aveva un gran soffietto terminante in una cannula d'avorio lunga e sottile questa canna la introduceva per otto buoni pollici nell'orifizio posteriore e estraendone l'aria affermava di poter rendere gli intestini mosci come una vescica disseccata se poi il male era più ostinato e violento egli introduceva la cannula quando il soffietto era pieno d'aria e lo scaricava nel corpo del paziente poi estraeva lo strumento per riempirlo turando bene col pollice l'orifizio e ripetendo tre o quattro volte questa operazione l'aria introdotta sarebbe precipitata fuori portando con sé la ventosità nociva come l'acqua in una pompa e il paziente sarebbe guarito gli vidi fare entrambi gli esperimenti su di un cane ma il primo non parve fare alcun effetto dopo il secondo l'animale fu lì lì per scoppiare e fece una così violenta scarica che per poco non ci soffocò tutti il cane morì immediatamente noi lasciammo il dottore che si impegnava a farlo tornare in sé con la stessa operazione visitai molte altre stanze ma desiderando soprattutto essere conciso non starò a tediare il lettore con tutte le curiosità che vi osservai fin qui avevo visto solo un lato dell'accademia che l'altro è riservato ai promotori delle scienze speculative di questi dirò qualche cosa dopo aver fatto menzione di un altro illustre personaggio che fra gli accademici è chiamato l'artista universale questi ci disse che da trent'anni dedicava ogni suo pensiero al miglioramento della vita umana disponeva di due vaste stanze piene di meravigliose curiosità e cinquanta uomini collaboravano con lui alcuni di loro condensavano l'aria in sostanza solida estraendone il nitro e filtrandone le particelle fluide o acquose altri ammorbidivano il marmo per farne guanciali e puntaspilli altri ancora pietrificavano gli zoccoli ai cavalli ancora vivi per impedir loro di storpiarsi quanto all'artista era in quel momento tutto affaccendato in due grandi imprese la prima consisteva nel seminar nei campi la crusca affermando che nella crusca è contenuta vera virtù seminale come dimostrava con varie esperienze che io però non riuscì a capire l'altra era intesa ad impedire la crescita della lana su due agnellini spalmandoli di certe gomme e di certi minerali e vegetali sperava così in non molto tempo di propagare per tutto il reame delle pecore senza vello per un passaggio trasversale ci portammo nell'altra parte dell'accademia dove come ho già detto risiedono innovatori del sapere speculativo il primo professore che vidi stava in una vastissima stanza con 40 discepoli intorno a sé dopo i convenevoli egli vedendo che osservava attentamente una macchina che occupava la maggior parte della lunghezza e della larghezza della stanza disse che forse mi meravigliavo di vederlo lavorare al progresso delle scienze speculative con l'ausilio di operazioni pratiche e meccaniche ma il mondo si sarebbe ben presto accorto dell'utilità di quel meccanismo ed egli si lusingava che mai pensiero più nobile ed elevato fosse zampillato da mente umana ognuno sa infatti quanto laboriosi siano i comuni metodi per iniziarsi alle arti e alle scienze con quell'invenzione invece l'uomo più ignorante con una spesa modesta e un po' di fatica fisica poteva scrivere libri di filosofia poesia politica diritto matematica e teologia senza bisogno di essere minimamente aiutato dall'ingegno o dallo studio mi condusse poi alla macchina lungo i quei lati erano schierati tutti i suoi discepoli misurava venti piedi quadrati ed era posta nel mezzo della stanza la superficie risultava di vari pezzetti di legno della grossezza di un dado da gioco alcuni più grandi degli altri sottili fili di ferro li legavano insieme su ogni lato di questi cubetti verrà incollato un quadratino di carta e su questi quadratini erano scritte tutte le parole del loro linguaggio nei vari modi tempi e declinazioni ma senza alcun ordine l'accademico mi pregò allora di star bene attento perché avrebbe fatto funzionare il suo meccanismo ad un suo cenno gli allievi afferrarono ciascuno una manovella di ferro essendovene appunto 40 fissate tutti intorno ai lati della macchina e la fecero rapidamente girare tutta la disposizione delle parole cambiò ad un tratto egli comandò allora a 36 dei suoi ragazzi di legger piano le varie righe così come apparivano sulla macchina e quando essi trovavano tre o quattro parole in fila che potevano far parte di una frase le dettavano ai quattro rimanenti discepoli che fungevano da scrivani quest'operazione fu ripetuta tre o quattro volte la macchina era fatta in modo che ad ogni girata di manovella le parole cambiavano di posto col rovesciarsi dei cubetti per sei ore al giorno quegli studentelli erano occupati in tal lavoro e l'accademico mi mostrò vari grossi volumi in folio già riempiti di frammenti di frasi egli intendeva riunirle insieme e per mezzo di questo ricco materiale dare al mondo un corpo completo delle arti e delle scienze certo il lavoro avrebbe potuto procedere assai più speditamente se il pubblico avesse costituito un fondo per fabbricare e mettere in opera la gado 500 di queste macchine obbligandone i vari direttori a valersi in comune delle loro collezioni mi assicurò che fin dalla prima gioventù aveva rivolto tutti i suoi pensieri a quell'invenzione che aveva travasato nella sua macchina l'intero vocabolario e fatto il più rigoroso calcolo della proporzione media che c'è nei libri tra il numero delle particelle dei nomi dei verbi e delle altre parti del discorso espressi umilmente all'illustre personaggio tutta la mia riconoscenza per le sue esaurienti spiegazioni e gli promisi se mai avessi la fortuna di tornare nel mio paese che gli avrei reso giustizia come all'unico inventore di quella meravigliosa macchina di cui lo pregai di lasciarmi tracciare su un foglio la forma e la scrittura come nella figura qui unita gli dissi che sebbene fosse abitudine dei nostri dotti europei il rubarsi in un altro le invenzioni cosa che se non altro ha il vantaggio di far nascere controversie intorno a chi sia il vero inventore avrei preso tuttavia tali precauzioni che a lui sarebbe toccato interamente l'onore senza tema di rivali passiamo poi nella scuola di lingue dove tre accademici stavano a consulto sul mezzo di migliorare la lingua del paese da prima venne proposto di abbreviare il discorso riducendo i polisillabi a monosillabi ed eliminando i verbi e i participi perché a vedere le cose come stanno tutte le cose immaginabili non sono che nomi venne seconda la proposta di abolir del tutto ogni parola e fu caldamente appoggiata come infinitamente vantaggiosa alla salute non meno che alla coincisione è chiaro infatti che ogni parola pronunziata ci logora in qualche modo i polmoni e di conseguenza contribuisce ad abbreviarci la vita fu dunque suggerito che dato che ogni parola è semplicemente il nome di una cosa sarebbe più conveniente a chiunque portarsi addosso tutte le cose necessarie ad esprimere i particolari affari di cui vuoi parlare tale ritrovato sarebbe stato accolto senz'altro con gran vantaggio dalla comodità e dalla pubblica salute se le donne d'accordo con il volgo e gli illitterati non avessero minacciato una rivolta rivendicando la libertà di parlare con la lingua al modo dei loro padri il volgo è sempre stato nemico irriducibile della scienza tuttavia parecchi fra i più dotti e i più saggi hanno aderito a questo nuovo modo di esprimersi attraverso le cose unico suo inconveniente è che se dobbiamo trattare affari complessi e di vario genere siamo costretti a portarci sulla schiena una montagna di oggetti a meno che non si possa disporre di due gagliardi servitori che ci aiutino ho spesso visto un paio di questi saggi quasi sommersi nel cumulo dei loro fagotti come i nostri mercanti ambulanti quando si incontrano per via mettono giù il loro carico aprono i sacchi e chiacchierano per un'ora poi ripongono ogni cosa si aiutano a vicenda a rimettersi in spalla il fardello e si salutano ma per conversazioni brevi si possono portare i vari oggetti in tasca o sotto braccio e in casa propria poi nulla può mancare per questo le sale in cui si radunano coloro che praticano questo sistema sono piene di cose messe lì sotto mano e pronte a fornire materia a questa sorta di conversazione artificiale altro gran vantaggio è che l'invenzione può servire come linguaggio universale che può essere capito in tutte le nazioni civili le quali usano in genere su pellettili e utensili dello stesso genere o molto simili così che facilmente si può capire il loro significato in tal modo gli ambasciatori potrebbero trattare con principi o ministri stranieri senza conoscerne minimamente la lingua andai infine alla scuola di matematica dove il maestro seguiva un metodo di insegnamento che in Europa si stenterebbe ad immaginare problemi e dimostrazione erano bellamente scritti su di un'ostia con inchiostro composto di un'essenza cefalica e lo studente doveva ingoiarla a stomaco digiuno restando poi tre giorni senza mangiare altro che pane e acqua a mano a mano che l'ostia veniva digerita la tintura saliva al cervello e si portava la dimostrazione con sé l'esito però non aveva fino allora corrisposto all'attesa sia a causa di qualche errore nel quantum della composizione sia per la malizia dei ragazzi i quali trovano così disgustoso quel bolo che di solito sgattagliano via e vanno a sputarlo prima che possa fare effetto né d'altra parte si è potuto persuaderli ad osservare la lunga astinenza che la prescrizione richiede capitolo sesto altre notizie intorno all'accademia l'autore propone certi perfezionamenti che sono notevolmente accolti nella scuola dei progettisti politici mi divertì ben poco gli accademici a mio giudizio erano tutti fuori di senno e la vista di pazzi di solito mi deprime lo spirito questi sciagurati facevano progetti per indurre i monarchi a scegliere i loro favoriti in considerazione della loro saggezza competenza e virtù per insegnare i ministri a consultare il pubblico bene per compensare il merito le grandi abilità gli eminenti servigi per far capire ai principi che il loro vero interesse coincide con quello del loro popolo per affidare gli uffici a persone capaci di assumerli e per tante altre assurde chimere mai saltate prima in testa ad alcuno e confermarono in me il vecchio detto che non v'è nulla di così stravagante e irrazionale che certi filosofi non abbiano sostenuto come verità devo però rendere giustizia a questa sezione dell'accademia riconoscendo che non tutti erano così visionari vera ad esempio un genialissimo dottore che sembrava perfettamente conoscere l'intima natura dell'arte del governo e dei suoi sistemi questo illustre personaggio aveva rivolto molto proficuamente i suoi studi alla ricerca di rimedi sicuri per tutte quelle malattie e corruzioni a cui sono soggetti i vari rami della pubblica amministrazione per colpa dei vizi o delle debolezze di chi governa e della licenza di chi deve obbedire poiché ad esempio tutti gli scrittori e pensatori sono d'accordo che vi è una stretta somiglianza tra il corpo umano e il corpo politico non è forse di conseguenza evidentissimo che la salute di entrambi deve essere difesa e le malattie curate con le stesse prescrizioni tutti sanno che senati e gran consigli soffrono spesso di umori ridondanti ribollenti o comunque non sani di mali di testa e ancor più di cuore di violente convulsioni di dolorose contrazioni dei nervi e dei tendini di entrambe le mani ma in particolare della destra di ipocondria flatulenze vertigini e deliri di tumori scrofolosi pieni di fetida materia polulenta di erottazioni acide e spumose di fami canine e digestioni difficili e di tanti altri mali che è inutile ricordare questo dottore proponeva dunque che al convocarsi di un'assemblea alcuni medici si dovessero assistere alle prime tre sedute e ogni volta alla fine del dibattito tastare il polso ad ogni membro dopo aver naturalmente considerato e aver tenuto consulto sulla natura delle varie malattie e sui metodi di cura il quarto giorno essi sarebbero tornati all'assemblea con i loro farmacisti provvisti di medicine adatte e prima che iniziasse la seduta avrebbero somministrato ad ogni membro i lenitivi aperitivi astersivi corrosivi restringenti palliativi lassativi cefalgici itterici aproflammatici acustici che i vari casi richiedevano e a seconda del loro effetto queste medicine sarebbero state ripetute cambiate o soppresse nella successiva adunanza questo progetto non avrebbe richiesto gravi spese pubbliche e secondo il mio modesto parere sarebbe stato efficacissimo per il disbrigo degli affari in quei paesi in cui le assemblee partecipano in qualche modo al potere legislativo avrebbe generato l'unanimità abbreviato le discussioni aperto le poche bocche ora chiuse chiuso le molte ora aperte rintuzzato la petulanza dei giovani mitigato il rigore dei vecchi stimolato i tardi e frenato i petulanti e ancora poiché è universale la lamentela che i favoriti dei principi soffrono di scarsità e debolezza di memoria lo stesso dottore proponeva che chiunque si presentasse ad un primo ministro dopo avergli esposto il suo affare con la massima concisione e nei termini più semplici prima di andarsene desse al sullo dato ministro una buona tirata di naso o un calcio nella pancia o gli pestasse i calli o gli tirasse ben bene le orecchie per tre volte di seguito o gli ficcasse uno spillo nei calzoni o gli desse un pizzicotto in un braccio da farglielo diventare tra nero e turchino per impedir così una dimenticanza e ripetesse l'operazione ad ogni udienza finché l'affare fosse sbrigato o definitivamente rifiutato sosteneva del pari che ogni membro del gran consiglio di una nazione dopo aver espresso la propria opinione e averla debitamente sostenuta fosse obbligato a votare contrariamente perché così facendo la cosa sarebbe tornata a gran vantaggio del grande pubblico quando in uno stato i partiti erano in violenta discordia egli proponeva una meravigliosa invenzione per conciliarli e precisamente si prendono un centinaio di caporioni per ogni partito si dividono in coppie le cui teste abbiano pressa poco la stessa dimensione si incaricano due bravi chirurghi di segare contemporaneamente l'occipite di ogni coppia in modo che il cervello venga diviso in due parti uguali poi gli occipiti così tagliati vengono scambiati applicando ciascuno di essi sulla testa dell'avversario l'operazione per dire il vero sembra richiedere una certa esattezza ma l'accademico assicura che se destramente condotta la cura sarà infallibile egli è convinto infatti che i due mezzi cervelli messi a discutere la cosa fra di loro entro uno stesso cranio verranno subito ad un accordo generando quella moderazione e quell'esattezza di pensiero tanto desiderabili nelle teste di coloro che si immaginano di essere venuti al mondo solo per solverliarne e dirigerne i moti quanto poi alla diversità dei cervelli in qualità e quantità tra i capi fazione il dottore ci assicura per sua propria esperienza che si tratta di bazzecole fui testimone di una discussione animatissima tra due accademici sulla maniera più comoda e sicura per cavare denaro dai contribuenti senza troppo gravarli il primo affermava che il metodo più eco era quello di tassare il vizio e la follia facendo determinare l'entità della somma per ogni soggetto da una giuria composta dai suoi vicini il secondo era di opinione esattamente contraria e proponeva di tassare quelle doti di corpo e di mente per le quali gli uomini più presumono di se stessi la quota doveva essere maggiore o minore in rapporto al grado di eccellenza di quelle doti e la determinazione di tale grado doveva essere lasciata alla coscienza stessa dei contribuenti la tassa più alta doveva aggravare coloro che godono il maggior favore dell'altro sesso e corrispondere al numero e alla natura dei favori ricevuti sarebbe bastata per questo la loro sola garanzia anche lo spirito il valore e la cortesia dovevano essere tassati in alta misura e determinati con lo stesso sistema ognuno avrebbe dato la sua parola riguardo alla quantità che ne possedeva quanto all'onore alla giustizia alla saggezza e alla cultura non dovevano andare soggetti ad alcuna tassa perché erano doti di un genere così singolare che nessuno le ammette nel proprio vicino o ne fa gran conto se le possiede proponeva che le donne fossero tassate in rapporto alla bellezza ed eleganza e in questo era loro concesso come agli uomini il privilegio di determinarle loro stesse la costanza la castità il buon senso e il buon carattere non erano tassati perché non avrebbero ripagato le spese dell'esattore per mantenere l'igi alla corona i membri dell'assemblea si proponeva di far loro giocare gli alti uffici a pari e caffo ognuno avrebbe dovuto prima impegnarsi con giuramento a votare per la corona vincesse o no dopodiché il perdente avrebbe potuto giocare nuovamente a suo turno non appena un posto si rendesse vacante così sarebbero rimaste vive in lui la speranza e l'aspettazione e nessuno si sarebbe lamentato di promesse non mantenute imputando la sua delusione solo alla fortuna le cui spalle sono più larghe e più forti di quelle dei ministri un altro accademico mi mostrò un gran foglio pieno di istruzioni per scoprire complotti e cospirazioni contro il governo e gli consigliava ai grandi statisti di esaminar bene il tenore di vita di tutte le persone sospette a che ora vanno a pranzo su qual fianco si coricano con qual mano si nettano il posteriore e di osservare minuziosamente i loro escrementi formandosi così un'idea precisa di quel che pensano e disegnano dal colore odore gusto e consistenza di quei residui e dalla buona o cattiva digestione perché gli uomini non sono mai tanto seri pensierosi e attenti come quando stanno sulla seggetta questo gli avevano confermato ripetute esperienze quando ad esempio in quei momenti egli si metteva a pensare solo per prova quale fosse il miglior modo per assassinare il re le sue feci si coloravano di verde ma di una sfumatura assai diversa da quando si limitava solo a pensare come far scoppiare un'insurrezione o mettere in fiamme la capitale tutto ciò era scritto con grande acume e profusione di osservazioni curiose e utili per gli uomini di stato ma a mio parere mancava qualche cosa mi permisi di dirlo all'autore e gli proposi se voleva di suggerirgli qualche aggiunta egli accolse la mia profferta con maggior gradimento che non sogliano gli scrittori specialmente quelli che si danno alle innovazioni e si dichiarò felice di ascoltare le mie informazioni gli dissi che nel regno di tribnia fra gli abitanti chiamati Langden dove avevo dimorato qualche tempo durante i miei viaggi la massa della popolazione consiste quasi esclusivamente di velatori testimoni informatori accusatori querelanti venditori di prove spergiuri in branco con un numero vario di subalterni loro strumenti tutti sotto la bandiera la guida e gli stipendi dei ministri di stato e dei loro rappresentanti in quel regno le congiure sono di solito un'invenzione di tal genia avida di farsi la fama di profonda abilità politica di ridare nuovo vigore ad un'amministrazione rovinosa di soffocare o sviare il malcontento generale di empirsi le tasche a furia di confische e di alzare o abbassare i titoli di stato a seconda del proprio vantaggio anzitutto si accordano e stabiliscono fra loro quali persone sospette debbano essere accusate del complotto poi fanno accuratamente sequestrare tutte le loro lettere e le loro carte e mettere in prigione gli accusati le carte vengono consegnate ad un'accolta di periti abilissimi nel cavar fuori misteriosi significati da ogni parola sillaba e lettera possono ad esempio scoprire che la parola seggetta significhi consiglio dei ministri branco d'ocche senato canezzoppo invasore peste esercito permanente uccello rapace primo ministro goto sommo sacerdote forca segretario di stato vaso da notte commissione di pari staccio dama di corte scopa rivoluzione trappola da topi impiego abisso senza fondo tesoro pubblico cloaca corte cappello a sonagli favorito canna spezzata corte di giustizia barile vuoto generale d'armata piaga colante pubblica amministrazione quando questo sistema non serve hanno a loro disposizione altri due mezzi più sicuri chiamati dai loro dotti acrostici e anagrammi nel primo caso danno un significato politico a tutte le iniziali delle parole così n significa congiura b un reggimento di cavalleggeri l una flotta in mare nel secondo caso facendo mutare di posto le lettere dell'alfabeto in una carta sospetta mettono in luce le più recondite intenzioni di un partito avverso ad esempio se scrivessi ad un amico our brother tom has just got tapeless un abile perito scoprirebbe che le stesse lettere che compongono questa frase possono essere spostate e formare le seguenti parole resisi applaud is brought home the tour e questo è il metodo anagrammatico l'accademico mi si dimostrò gratissimo per queste osservazioni e mi promise di menzionare onorevolmente il mio nome nel suo trattato non verrà più ormai nulla che mi inducesse a restare in quel paese e io cominciai a pensare a tornarmene in inghilterra capitolo settimo l'autore lascia a lagado e arriva a maldonada nessuna nave è pronta a salpare breve viaggio a glubdubdrib è ricevuto dal governatore il continente di cui fa parte questo regno si estende a quanto ho ragione di credere a est verso la parte inesplorata dell'america dal lato occidentale della california e a nord verso l'oceano pacifico che si trova a non più di 150 miglia da lagado l'ave è un buon porto e un commercio attivo con la grande isola di Lugnag situata a nord-ovest a circa 29 gradi di latitudine nord e a 140 di longitudine l'isola di Lugnag è a sud-est del Giappone da cui dista circa a 100 leghe tra l'imperatore del Giappone e il re di Lugnag vi è stretta alleanza e questa offre spesso l'opportunità di viaggiare da un'isola all'altra decisi dunque di dirigermi da quella parte per tornare in Europa noleggiai due muli e una guida che mi indicasse la strada e trasportasse il mio bagaglio leggero mi congedai dal mio nobile protettore che mi aveva dato tanti segni del suo favore e che al momento della partenza mi fece un dono generoso viaggiai senza alcun incidente né avvenimento degni di nota quando arrivai al porto di Maldonada così si chiama nessuna nave era in partenza per Lugnag né sarebbe partita per qualche tempo la città è grande all'incirca come Portsmouth feci subito qualche conoscenza e fui accolto molto ospitalmente un personaggio ragguardevole mi disse che poiché nessuna nave sarebbe salpata per Lugnag prima di un mese avrei potuto concedermi lo svago di fare una corsa all'isoletta di Glubdubdrib a circa cinque leghe verso sud est si offrì di accompagnarmi un suo amico e mi assicurò che avrebbe procurato una piccola e comoda imbarcazione per il viaggio Glubdubdrib significa all'incirca isola degli stregoni o maghi è grande circa un terzo dell'isola di White ed è straordinariamente feconda ne è governatore il capo di una certa tribù composta tutta di maghi gli appartenenti a questa tribù si sposano solo fra di loro e il più anziano ne è di successione in successione principe o governatore questi abita un sontuoso palazzo circondato da un parco di circa tremila yugeri intorno a cui gira un muro di pietra alto 20 piedi in questo parco vi sono vari recinti per il bestiame le granaglie e il giardinaggio il governatore e la sua famiglia sono serviti da domestici di un genere alquanto inconsueto per mezzo della sua virtù negromantica egli può chiamare chi voglia dal regno dei morti e costringerlo a prestargli servizio per 24 ore non più ne può chiamare la stessa persona a meno di un intervallo di tre mesi salvo casi eccezionalissimi quando arrivamo all'isola circa alle 11 del mattino uno dei due gentiluomini che mi accompagnavano andò dal governatore e chiese un'udienza per uno straniero venuto apposta per aver l'onore di rendere omaggio a sua altezza l'udienza fu immediatamente concessa e tutti e tre varcammo la porta del palazzo tra due file di guardie vestite armate in modo assai strano e con qualche cosa nel volto che mi fece rabbrividire di indescrivibile orrore traversammo varie sale tra domestici dello stesso genere allineati ai due lati come le guardie di prima finché giungemmo alla sala d'udienza dove dopo tre profondi inchini e poche domande generiche ci fu permesso sedere su tre sgabelli vicini al più basso gradino del trono di sua altezza egli capiva la lingua di Balni Barbie sebbene alquanto diversa da quella dell'isola mi pregò di raccontargli qualcosa dei miei viaggi e per mostrarmi che mi voleva trattare senza cerimonie con un cenno del dito fece allontanare tutti i domestici con mio sommo stupore essi svanirono in un attimo come le visioni di un sogno quando ci destiamo all'improvviso per un po' di tempo non potei riavermi finché il governatore non mi assicurò che nessun pericolo mi sovrastava e notando che i miei due compagni già abituati a tali ricevimenti non davano alcun segno di inquietudine ripresi un po' di coraggio e riferì a sua altezza una breve storia delle mie avventure non senza qualche esitazione tuttavia e guardandomi ogni tanto alle spalle là dove avevo visto gli spettrali domestici ebbi l'onore di pranzare col governatore e un nuovo stuolo di fantasmi ci portò i cibi e ci servì a tavola mi accorsi di essere assai meno atterrito che non la mattina mi trattenni fino al tramonto ma pregai umilmente sua altezza di scusarmi se non accoglievo il suo invito di passare la notte nel palazzo i miei due amici ed io andammo a coricarci in una casa privata nella città vicina capitale di quella piccola isola e il mattino dopo tornammo a presentare i nostri omaggi al governatore come egli si era degnato di comandarci trascorremmo così nell'isola una decina di giorni trattenendoci con il governatore quasi tutta la giornata e pernottando nel nostro alloggio presto divenni così avvezzo alla vista degli spiriti che dopo la terza o quarta volta non mi fecero più alcuna impressione o se ancora rimanevo un po' di paura più forte era in me la curiosità perché su altezza il governatore mi invitò a chiamare tutti quelli che desiderassi per quanti fossero fra coloro che erano morti dalle origini del mondo ai tempi nostri e di comandar loro di rispondere a tutte le domande che mi piacesse fare sulla condizione era che tali domande rimanessero entro i limiti del tempo in cui essi erano vissuti di una cosa potevo star sicuro che mi avrebbero detto la verità poiché la menzogna è un'abilità inutile nell'oltretumba espressi umilmente a sua altezza la mia gratitudine per tanto favore dalla sala in cui eravamo si vedeva una bella vista del parco e poiché il mio primo desiderio fu di assistere ad una scena di grandiosa magnificenza chiesi di poter vedere Alessandro Magno a capo della sua armata subito dopo la battaglia di Arbela a un cenno del dito del governatore subito tutto ciò apparve nella vasta pianura sotto le nostre finestre Alessandro fu fatto salire nella stanza e solo con gran difficoltà riuscì a capire il suo greco e a far uso di un poco del mio mi assicurò sul suo onore che non era stato avvelenato ma che era morto di febbre dopo una sbornia colossale vidi poi Annibale che passava le Alpi mi disse che nel suo campo non c'era una sola goccia di aceto vi di Cesare e Pompeo alla testa dei loro eserciti prima di ingaggiar battaglia e il primo nel suo ultimo gran trionfo chiesi che mi apparissero in una grande sala il senato romano e in un'altra contrapposto uno dei nostri parlamenti il primo sembrava un'assemblea di eroi e semidei l'altro una ciurma di mercanti ambulanti di tagliaborse di ladri da strada e di bravacci a mia richiesta il governatore fece cenno a Cesare e Bruto di venire verso di noi fu colpito da una profonda venerazione alla vista di Bruto e potei facilmente scoprire in ogni linea del suo volto la virtù più consumata la maggiore intrepidità e fermezza di mente il più schietto amor patrio la più profonda solidarietà umana notai con gran piacere che quei due illustri personaggi andavano perfettamente d'accordo e Cesare mi confessò francamente che le più insignazioni della sua vita rimanevano molto al di sotto della gloria di chi gliel'aveva tolta ebbi l'onore di parlare a lungo con Bruto mi disse che il suo antenato giunio Socrate Epaminonda Catone il giovane Sir Thomas More degli stesso erano continuamente insieme sestunvirato a cui tutte le età del mondo non potranno aggiungere un settimo componente annoierei il lettore se gli elencassi tutti gli illustri personaggi chiamati per compiacere il mio insaziabile desiderio di veder dinanzi a me il mondo in ogni periodo dell'antichità soprattutto mi ci bai gli occhi con la vista degli uccisori di tiranni e di usurpatori e dei restauratori della libertà dei popoli oppressi e offesi ma mi è impossibile esprimere la mia intima soddisfazione in modo tale da farne per il lettore argomento di vivo interesse Capitolo ottavo Ulteriori raguagli su Gloob Doob Drip correzioni alla storia antica e moderna desideroso di vedere i più famosi personaggi dell'antichità per ingegno e dottrina dedicai a questo un'intera giornata chiesi di far apparire Omero e Aristotele alla testa dei loro commentatori ma questi furono così numerosi che qualche centinaio dovette aspettarne il cortile nelle stanze esterne del palazzo riconobbi a prima vista quei due eroi e potei distinguerli non solo dalla folla ma l'uno dall'altro Omero era fra i due il più alto e il più bello incedeva assai eretto per un uomo della sua età e aveva gli occhi più vivaci e penetranti che mai vedessi Aristotele aveva il viso magro i capelli radi e pendenti la voce cavernosa mi accorsi subito che tutti e due non avevo nulla a che fare con il resto della compagnia e che non aveva mai sentito parlare di loro fino a quel momento un fantasma di cui rispetterò l'incognito mi sussurrò che quei commentatori si tenevano sempre nelle regioni dell'oltretomba più lontane dai loro principali consci e vergognosi della colpa di aver tramandato alla posterità così orribilmente stravolto il significato delle loro opere presentai a Omero Didimo e Ostazio e lo indossi a trattarli con maggiore indulgenza che forse non meritassero perché egli si accorse subito che mancava loro l'ingegno necessario a penetrarne lo spirito di un poeta ma Aristotele andò fuor dei gangeri quando gli parlai di Scotus e di Rammus e glieli presentai giunse a domandar loro se il resto della combriccola fosse composto di grulli loro pari pregai allora il governatore di evocare Descartes e Gassendi con l'aiuto dei quali riuscì a spiegare ad Aristotele i loro sistemi questo gran filosofo riconobbe francamente i propri errori in fatto di filosofia naturale avendo dovuto spesso procedere per via di congetture come tutti fanno ma trovò che tanto Gassendi che aveva fatto di tutto per rendere appetitosa la dottrina di Epicuro quanto i vortici di Cartesio erano ormai ugualmente superati e la stessa sorte predisse all'attrazione così zelantemente sostenuta dai nostri scienziati disse che i nuovi sistemi della natura sono semplicemente nuove mode mutevoli di età in età e che anche coloro che pretendono dimostrarli con i principi matematici godono poco favore e cadono di moda a tempo debito trascorsi cinque giorni a conversare con molti altri antichi saggi e vidi parecchi dei primi imperatori romani indussi il governatore ad evocare i cuochi di Elio Gabalo perché ci preparassero un desinare ma essi non poterono mostrarci granché della loro perizia per mancanza di materie prime unilota di Agesilao ci ammannì con una scodella di brodetto spartano ma non riuscì a mandarne giù più di una cocchiaiata i due gentiluomini che mi avevano condotto all'isola erano costritti dai loro affari privati a tornare a casa entro tre giorni ed io impiegai quel tempo a vedere qualcuno dei morti più recenti che erano state figure di primo piano negli ultimi due o trecento anni nella nostra Europa grande ammiratore come sempre sono stato delle vecchie e illustri famiglie pregai il governatore di evocare una o due dozzine di re con i loro antenati in ordine a cominciare dall'ottava o nona generazione ma la mia delusione fu dolorosa e inaspettata perché invece di una lunga processione di diademi reali trovai in una famiglia due suonatori di violino tre bellimbusti di corte e un prelato italiano in un'altra un barbiere un abate e due cardinali troppo venero le teste coronate per indugiare su di un argomento così delicato ma quanto a conti marchesi duchi e via di seguito non ebbi tanti scrupoli e con un certo compiacimento lo confesso potei rintracciare fino alla loro origine certi tratti caratteristici che contraddistinguono alcune famiglie mi riuscì di scoprire facilmente da chi una data famiglia derivi la lunga bazza perché un'altra abbia fornito larga messe di bricconi per due generazioni e di imbecilli per altre due per quale ragione una terza si trovò ad avere tanti scervellati e un'altra tanti imbroglioni da che cosa dipese ciò che Polidoro Virgilio afferma di una certa illustre casa nec virfortis nec femina casta come mai crudeltà falsità e codardia divennero caratteristiche che distinguono certe famiglie al pari al pari del loro blasone chi portò per primo in qualche nobile casa la lue che si manifestò nei discendenti in tumori scrufolosi ne potei meravigliarmi di tutto ciò dopo aver visto interrotte tante linee di discendenza da paggi lacchè balletti cocchieri giocatori di professione strimpellatori istrioni soldatacci e tagliaborse soprattutto mi disgustai con gli scrittori di storia moderna perché dopo aver rigorosamente esaminato tutti coloro che lasciarono gran fama di sé nelle corti dei principi durante gli ultimi cento anni scoprì quanto il mondo fosse stato ingannato da storici prostituiti i quali lo hanno indotto ad attribuire le maggiori imprese guerresche a codardi i consigli più saggi a pazzi sincerità ad adulatori virtù romana a traditori del proprio paese pietà religiosa a miscredenti castità a sodomiti veracità a delatori quante innocenti e degne persone sono state condannate a morte o all'esilio per le pressioni di primi ministri su giudici corrotti o per malvagità di fazioni quanti forfanti sono stati innalzati alle più alte cariche di fiducia di comando di onore e di lucro quanta parte nelle deliberazioni e negli eventi delle corti dei concili e dei parlamenti può essere rivendicata da ruffiane cortigiane mezzani parassiti e buffoni e qual bassa e qual bassa opinione mi feci dell'integrità e della saggezza umane quando mi fu data sicura notizia delle origini e cause delle grandi imprese e dei rivolgimenti del mondo e dei volgari casi che ne determinarono il buon successo scoprì allora la forfanteria e l'ignoranza di coloro che pretendono scrivere aneddoti o storie segrete e fanno calar nella tomba tanti re con pozioni avvelenate e riferiscono colloqui tra un principe e un primo ministro di cui nessuno è stato testimone e svelano i pensieri e i segreti di gabinetto di ambasciatori e segreti di stato e hanno sempre la disgrazia di prender granchi allora scoprì le vere cause di tanti eventi che hanno sbalordito il mondo come una cortina di tigiana possa governare un'alcova un'alcova un consiglio di stato e un consiglio di stato un parlamento un generale confessò in mia presenza di aver vinto una battaglia unicamente per viltà e poltroneria un ammiraglio di aver battuto il nemico a cui voleva consegnare la flotta solo perché non era riuscito a farsi capire tre re mi assicurarono che in tutto il periodo del loro regno non avevano mai dato la preferenza ad un uomo di merito se non per sbaglio o per tradimento di qualche ministro in cui avevano fiducia e che se fossero tornati in vita non si sarebbero comportati diversamente mostrandomi con grande efficacia dialettica che il trono non può sostenersi senza corruzione perché il carattere positivo sicuro di sé e ombroso che la virtù suole infonder nell'uomo è un continuo ingombro per i pubblici affari ebbi la curiosità di indagare particolarmente per quali vie tanta gente è riuscita a procurarsi alte cariche onorifiche e favolose fortune e limitai le mie ricerche a periodi molto recenti senza andare a grattare i tempi moderni volendo essere sicuro di non recare offesa nemmeno agli stranieri spero che non sia necessario dire al lettore che non ho la minima intenzione di coinvolgere il mio paese in quel che sto dicendo feci dunque evocare un gran numero di persone e dopo un esame molto superficiale venne alla luce una tal scena di infamia che non posso pensarvi senza preoccupazione spergiuro prepotenza subordinazione frode ruffianeria e simili brutture erano tra i mezzi più scusabili a cui essi accennarono e a questi concessi come era ragionevole la debita indulgenza ma quando alcuni mi confessarono di essere debitori dei loro onori e delle loro ricchezze alla sodomia o all'incesto altri all'aver prostituito le loro moglie e le loro figlie altri all'aver tradito il proprio paese o il proprio sovrano alcuni al veleno altri i più numerosi all'aver corrotto i giudici per rovinare un innocente sarò scusato se tali scoperte mi indussero a scemare un tantino la profonda venerazione che per natura son portato a tributare alle persone di alta condizione le quali dovrebbero essere trattate col massimo rispetto dovuto alle loro eccelse dignità da noi inferiori avevo spesso letto di grandi servigi resi a sovrani e a nazioni e chiesi di vederne gli autori dietro mia domanda mi fu risposto che i loro nomi non apparivano in alcun documento eccetto pochi che la storia ci ha presentato come forfanti e traditori vilissimi quanto agli altri non ne avevo mai sentito parlare avevano tutti un aspetto abbattuto e abiti quanto mai dimissi molti mi dissero di essere morti in miseria e in disgrazia i rimanenti sul palco o sulla forca era fra gli altri uno il cui caso era piuttosto singolare al suo fianco stava un giovinetto di circa 18 anni mi disse che per molti anni era stato comandante di una nave e nella battaglia navale di azio aveva avuto la fortuna di sfondare la principale linea di battaglia nemica affondando tre delle maggiori navi e catturandone una quarta determinando così la fuga di Antonio e la conseguente vittoria il giovanetto che aveva a fianco era il suo unico figlio ucciso in quella giornata conscio di aver acquistato qualche merito finita la guerra era andato a Roma e aveva chiesto alla corte di Augusto di essere messo al comando di una nave più importante il cui capitano era stato ucciso ma senza alcun riguardo per le sue aspirazioni quel comando fu dato ad un giovanotto che non aveva mai visto il mare figlio di Libertina cameriera di una delle amanti dell'imperatore tornato alla sua nave fu accusato di negligenza e la nave fu affidata ad un paggio favorito del viceammiraglio Publicola allora si era ritirato in una modesta fattoria molto distante da Roma e lì aveva finito i suoi giorni ero così curioso di sapere se questo racconto era vero che pregai fosse evocato a Grippa l'ammiraglio di quella flotta ed egli apparso mi confermò tutto e in modo che metteva ancora meglio in luce i meriti del capitano da lui per modestia in gran parte attenuati o taciuti mi stupì di veder la corruzione giunta a tal punto e così presto in quell'impero a causa di un lusso così da poco introdotto e questo mi fece meno meravigliare di tanti casi simili in altri paesi dove vizi di ogni genere hanno regnato molto più a lungo e dove tutto il merito di un'impresa felice e tutto il bottino venivano accaparrati dal comandante in capo il quale magari era quello che meno se li meritava poiché ogni persona evocata conservava esattamente le stesse fattezze che aveva avuto in vita dovetti fare malinconiche riflessioni nell'osservar quanto la umana razza sia degenerata fra noi negli ultimi cento anni e quanto la lue con tutte le sue conseguenze e denominazioni abbia alterato ogni lineamento di un volto inglese accorciato alle stature infiacchito i nervi allentato tendini e muscoli ingiallito la carnagione e reso le carni rancide e cascanti giunsi fino a chiedere che si evocassero alcuni campagnoli inglesi di vecchio stampo un tempo così famosi per la semplicità dei modi della vita e del vestire per la loro rettitudine nei contratti per lo schietto spirito di libertà per il valore e l'amor patrio ne potei del tutto dominar la commozione quando dopo aver paragonato i vivi ai morti riflettei come tutte quelle pure virtù native fossero state prostituite per un po' di denaro dai pronipoti rotti ormai a tutti i vizi e le corruzioni che si possono imparare in una corte a forza di vendere voti e brigare elezioni capitolo nono autore ritorna a Maldonada salpa per il regno di Lugnag è messo a confino è mandato a chiamare dalla corte in qual modo vi fu ammesso grande indulgenza del sovrano verso i suoi soggetti venuto il giorno della nostra partenza io mi congedai da sua altezza il governatore di Glubdubdrib e tornai con i miei due compagni a Maldonada dove dopo un paio di settimane di attesa una nave fu pronta a salpare per Lugnag i miei due compagni e qualche altro furono così gentili e generosi da provvedermi del necessario e accompagnarmi a bordo il viaggio durò un mese dovemmo sostenere una violenta tempesta e fummo costretti a poggiare a ovest per entrare nella zona del vento favorevole che soffia per circa 60 leghe il 21 aprile del 1708 entrammo nel fiume di Klumegnag un porto all'estremità sudorientale di Lugnag gettammo l'ancora ad una lega dalla città e facciamo segnali per chiedere un pilota meno di mezz'ora dopo ne salirono a bordo due dai quali fummo guidati tra secche e scogli assai pericolosi fino ad un vasto bacino dove una flotta avrebbe potuto veleggiare con sicurezza a circa una gomena dalle mura della città alcuni marinai per tradirmi o per sbadataggine avevano informati i piloti che ero uno straniero e un gran navigatore ed essi ne avvertirono un ufficiale della dogana il quale appena fui sbarcato mi sottopose ad un interrogatorio minuzioso l'ufficiale mi parlò in lingua di Balni Barbie che a causa dei frequenti traffici è generalmente conosciuta in quella città specialmente dai marinai e dai doganieri gli feci un breve racconto di alcune mie vicende cercando di rendere più che potessi coerente e plausibile la mia storia ma credetti opportuno celare la mia nazionalità e mi feci passare per olandese perché avevo intenzione di passare nel Giappone e sapevo che gli olandesi sono gli unici europei a cui si è permesso di entrare in quel regno dissi dunque all'ufficiale che avendo fatto naufragio sulle coste di Balni Barbie e gettato su una roccia ero stato raccolto in la puta o isola volante di cui egli aveva spesso udito parlare e cercavo adesso di raggiungere il Giappone dove avrei potuto trovare modo di tornare al mio paese l'ufficiale mi disse che dovevo essere confinato fino a che non gli giungessero ordini della corte avrebbe scritto subito e sperava di ricevere la risposta entro una quindicina di giorni fui condotto ad un alloggio decente con una sentinella alla porta avevo però la libertà di passeggiare in un vasto giardino e fui trattato abbastanza umanamente mantenuto a spese del sovrano parecchie persone vennero a visitarmi soprattutto per curiosità poiché si diceva che venivo da paesi remotissimi di cui non avevano mai sentito parlare stipendiai un giovanotto venuto con la mia stessa nave perché mi facesse da interprete era nato a Lugnag ma aveva vissuto alcuni anni a Maldonada ed era perfettamente padrone delle due lingue col suo aiuto riuscì a conversare con le persone che vennero a visitarmi ma tutto si limitò alle loro domande e alle mie risposte la risposta da corte giunse circa all'epoca per cui la si aspettava conteneva un salvacondotto per condurre con una scorta di dieci cavalieri me e il mio seguito a Traldra-Gubd o Tril-Drogdrib perché per quanto possa ricordare il nome si pronunzia in due modi il mio seguito consisteva tutto in quel povero diavolo del mio interprete che avevo persuaso a restare al mio servizio e dietro mia umile richiesta venne accordato ad ognuno di noi un mulo come cavalcatura un messaggero ci precedette di una mezza giornata per dar notizia al re del mio arrivo e per pregare sua maestà di compiacersi di stabilire il giorno e l'ora nei quali mi avrebbe graziosamente concesso l'onore di leccar la polvere davanti al suo sgabello è questo lo stile di corte e mi accorsi che si trattava di qualche cosa di più di un'espressione formale perché essendomi stata concessa udienza due giorni dopo il mio arrivo mi si comandò di strisciar carponi leccando il pavimento via via che avanzavo ma considerando che ero straniero ci si prese cura di farlo pulire in modo che la polvere non desse noia tuttavia fu questa una grazia particolare concessa solo alle persone di altissimo grado quando esse desiderano udienza che anzi talora il pavimento viene cosparso di polvere apposta quando la persona messa potenti nemici accorte ricordo di aver visto un pari con la bocca così piena che quando fu giunto strisciando alla dovuta distanza dal trono non poté pronunziar parola e non c'è rimedio perché è delitto capitale per coloro che hanno avuto udienza sputare o pulirsi la bocca in presenza di sua maestà a vero dire c'è un'altra usanza che io non posso approvare interamente quando il re ha intenzione di mettere a morte qualcuno dei suoi nobili in modo gentile e indulgente da ordine che il pavimento sia cosparso con una certa polvere scura veleno mortale che leccato uccide infallibilmente in 24 ore ma per render giustizia all'enorme clemenza di questo principe e alla cura che egli ha per la vita dei suoi sudditi e sarebbe desiderabile che i monarchi europei lo imitassero bisogna dire a suo onore che severi ordini impongono di lavar bene la parte infetta del pavimento dopo ognuna di queste esecuzioni e se i domestici si dimenticano di farlo corrono il pericolo di cadere nella disgrazia del sovrano lo udì con le mie orecchie dar ordine di frustare uno dei suoi paggi il quale avrebbe dovuto far lavare il pavimento dopo un'esecuzione ma non l'aveva fatto per malizia così che un giovane pari di grandi speranze ricevuto in udienza era rimasto disgraziatamente avvelenato sebbene il re in quel momento non avesse alcuna intenzione di togliergli la vita il buon principe fu poi tanto clemente da condonare la frustatura al povero paggio dopo essersi fatto promettere che non l'avrebbe più fatto senza ordini speciali ma lasciamo questa digressione quando io fui giunto strisciando fino a quattro yard dal trono mi alzai piano sulle ginocchia e battuta sette volte la fronte al suolo pronunziai le seguenti parole come mi erano state insegnate la sera prima Ickling Gloftrop Scut Scrum Bliop Nasknat Zwin Tnod Balkuf Silio Fad Gurdlu Baskt è questo l'augurio stabilito dalle leggi del paese per tutti coloro che sono ammissi alla presenza del re si potrebbe tradurre così possa la vostra celestiale maestà sopravvivere al sole di undici lune e mezzo il re mi rispose qualche cosa che non capì affatto ma a cui tuttavia risposi come mi era stato insegnato Fluft Drinialerich Dul Domprastad Mirpus che letteralmente significa la mia lingua è nella bocca del mio amico con la quale espressione si voleva dire che io chiedevo licenza di servirmi di un interprete allora il giovanotto già menzionato fu fatto entrare e col suo intervento risposi a tutte le domande che sua maestà poter rivolgermi in un'ora io parlavi in lingua balni-barbiana e il mio interprete traduceva nell'idioma di Lugnag il re gradì molto la mia compagnia e ordinò al suo Bliffy Mar Club o Gran Ciambellano di destinare un appartamento a corte a me e al mio interprete con un'assegnazione giornaliera per la mia mensa e una grossa borsa piena d'oro per le mie spese quotidiane mi trattenni tre mesi in quel paese in perfetto seguio al desiderio di sua maestà che si compiacque di concedermi il suo alto favore e mi fece offerte molto onorevoli ma io giudicai assai più prudente e giusto trascorrere il resto dei miei giorni con mia moglie e la mia famiglia capitolo decimo l'ode dei Lugnagiani minuziosa descrizione degli Strudbrug con varie conversazioni tra l'autore e alcuni eminenti personaggi tenute su questo soggetto i Lugnagiani sono un popolo cortese e generoso e sebbene non siano esenti da una sfumatura di orgoglio proprio degli orientali si mostrano tuttavia pieni di urbanità con gli stranieri specialmente se questi sono ben visti a corte feci molte conoscenze tra le persone più ragguardevoli e avendo sempre con me il mio interprete le nostre conversazioni furon tutt'altro che sgradevoli un giorno trovandomi in ottima compagnia un altro personaggio mi domandò se non avevo mai visto qualcuno dei loro Strudbrug o immortali risposi di no e lo pregai di spiegarmi a che cosa si riferisse con quell'appellativo dato ad una creatura mortale mi rispose che ogni tanto sebbene molto dirado nasce in una famiglia un bambino con una macchia rossa e rotonda in fronte proprio sopra il sopracciglio sinistro segno infallibile che il fanciullo non morirà mai la macchia mi disse è circa della grandezza di tre soldi d'argento ma col tempo diviene più larga e cambia di colore a 12 anni infatti diventa verde e tale rimane fino a 25 per divenire allora turchino scuro a 45 si fa nera come il carbone e della grandezza di uno scellino inglese poi non cambia più mi disse che queste nascite sono così rare che non vi erano forse più di 1100 Strudbrug nei due sessi nell'intero regno dei quali circa una cinquantina nella capitale e fra gli altri una bambina nata da soli tre anni tali nascite non erano peculiari di alcuna famiglia ma dovute al puro caso gli stessi figli degli Strudbrug erano mortali come il resto della popolazione confesso francamente che mi senti colpito da un'ineffabile gioia a tale racconto e poiché la persona che mi parlava capiva il balni barbiano che io parlavo perfettamente non potei far a meno di prorompere in espressioni forse un tantino esagerate felice nazione esclamai quasi estatico in cui ogni fanciullo che nasce ha almeno la possibilità di essere immortale popolo felice che ti rallegri di tanti viventi esempi delle antiche virtù e hai maestri sempre pronti a istruirti nella saggezza delle antiche età ma felici fuor di paragone questi eccelsi Strudbrug i quali esenti dall'universale calamità che incombe all'umana natura hanno lo spirito libero e non oppresso dal peso del continuo timore della morte non nascosi il mio stupore per non aver visto a corte alcuno di questi illustri personaggi poiché una macchia nera sulla fronte è caratteristica così palese che non mi sarebbe sfuggita facilmente ed era impossibile che sua maestà sovrano tanto giudizioso non si fosse circondato da un buon numero di così saggi e abili consiglieri a meno che la virtù di quei venerabili sapienti fosse troppo rigorosa per i corrotti e libertini modi di corte e l'esperienza spesso ci insegna che i giovani sono troppo ostinati e volubili per lasciarsi guidare dai sobri dettami della vecchiaia tuttavia poiché il re si era degnato di concedermi l'accesso alla sua reale persona alla prima occasione gli avrei espresso francamente e diffusamente per mezzo di un interprete il mio parere in proposito e si compiacesse egli di accogliere o no il mio consiglio di una cosa ero certo che cioè avendomi sua maestà offerto spesso di stabilirmi nel suo regno avrei accolto con somma gratitudine il favore per trascorrere tutta la vita a conversare con quegli esseri superiori gli strulbrug se essi si fossero degnati di ammettermi alla loro presenza il gentiluomo a cui rivolsi questo discorso perché come ho già detto parlavo la lingua di balni barbi mi rispose con quel mezzo sorriso che ci ispira la commiserazione per l'ignoranza che era felice di ogni occasione tale da trattenermi fra loro e mi chiese il permesso di spiegare agli altri quel che avevo detto così fece ed essi parlarono insieme per un po' nella loro lingua di cui non capivo una sillaba né potevo osservare dai loro volti quale impressione facesse su di loro il mio discorso dopo un breve silenzio lo stesso signore mi disse che i suoi e i miei amici così volle esprimersi avevano molto apprezzato le giudiziose osservazioni che avevo fatto sulla felicità e i vantaggi di una vita immortale e desideravano sapere in particolare qual programma di vita mi sarei proposto se mi fosse toccata la sorte di nascere strulbrug risposi che era facile essere eloquenti su un argomento così vasto e piacevole specialmente per me che spesso mi ero divertito a fantasticare di quel che avrei fatto se fossi stato un re un generale o un pari e che proprio su questo tema mi ero spesso tracciato un programma completo di quello a cui mi sarei applicato e come avrei passato il tempo se fossi stato sicuro di vivere eternamente se dunque avessi avuto la fortuna di nascere strulbrug non appena fossi stato in grado di rendermi conto della mia felicità comprendendo la differenza tra vita e morte mi sarei dedicato dapprima a procurarmi la ricchezza con qualsiasi arte e mezzo potevo ragionevolmente così in circa 200 anni aspettarmi di diventare col risparmio e la buona amministrazione l'uomo più ricco del regno in secondo luogo fin dalla mia prima gioventù mi sarei applicato allo studio delle arti e delle scienze e sarei arrivato col tempo a superare ogni altro in dottrina infine avrei annotato con sommacura ogni azione ed evento di pubblica importanza tracciando imparzialmente i profili dei sovrani e dei primi ministri nel loro succedersi con le mie osservazioni su ogni punto avrei anche preso nota con esattezza dei vari cambiamenti di costume di linguaggio di moda di tenor di vita e di divertimento e ricco di queste nozioni sarei divenuto un tesoro vivente di scienza e saggezza e senza dubbio l'oracolo della nazione dopo i 60 anni non avrei più preso moglie e avrei vissuto in modo ospitale senza tuttavia ascialare mi sarei dedicato a formare e dirigere le menti dei giovani che dessero buone promesse di sé convincendoli con i miei ricordi le mie esperienze le mie osservazioni corroborate da numerosi esempi dell'utilità della virtù nella vita pubblica e privata ma miei costanti e diletti compagni sarebbero stati uno stuolo di miei confratelli di immortalità circa una dozzina scelti dai più antichi giù giù fino ai miei contemporanei se uno di costoro si fosse trovato in strettezza gli avrei procurato una comoda abitazione nei miei possedimenti e sempre avrei avuto qualcuno di loro alla mia tavola unendovi solo pochi tra i più valenti di voi mortali agguerrito ormai dalla lunga età a vedervi con poco punto rimpianto passare e scomparire e a trattare ugualmente i vostri posteri così come l'uomo si rallegra dell'annuale succedersi dei garofani e dei tulipani nel suo giardino senza rimpianger la perdita di quelli appassiti l'anno prima noi Strudbrug ci saremmo reciprocamente comunicati le nostre osservazioni e i nostri ricordi nel trascorrere dei secoli avremmo osservato il graduale insinuarsi della corruzione nel mondo e ad essa ci saremmo posti ad ogni passo dando continui avvertimenti e istruzioni all'uman genere il quale fortificato dalla possente influenza del nostro esempio avrebbe probabilmente evitato quel continuo degenerare della natura umana così a ragione deplorato in tutte le età senza contare il piacere di vedere i vari rivolgimenti degli stati e degli imperi i cambiamenti nelle sfere sociali dalle più basse alle più alte antiche città cadute in rovina e oscuri villaggi divenuti sede di re fiumi famosi a sottigliarsi in piccoli rivoletti l'oceano che lascia una costa a secco e un'altra ne sommerge scoperte di regioni ancora sconosciute la barbarie che invade nazioni civili e la civiltà che si impone ai popoli più selvaggi avrei allora potuto vedere scoprire la longitudine il moto perpetuo la medicina universale e vedere progredire tante invenzioni sino alla massima perfezione e quali meravigliose scoperte avremmo potuto fare in astronomia sopravvivendo alle nostre predizioni e avendo la possibilità di controllarle mediante lo studio dei moti alterni delle comete e dei mutamenti nel moto del sole della luna e delle stelle mi diffusi su molti altri argomenti che facilmente mi venivano suggeriti dal naturale desiderio di una vita immortale e di una felicità terrena quando ebbi finito e il sunto del mio discorso fu tradotto come prima gli altri della compagnia ci fu un gran discorrere fra loro nella lingua del paese ne mancò qualche risata a mie spese infine quel gentiluomo che era stato mio interprete mi disse di essere stato incaricato dagli altri di rettificare in me alcuni errori in cui ero caduto per la comune debolezza della natura umana e di cui in conseguenza ero meno responsabile mi spiegò dunque che quella razza di Strudbrug era peculiare del loro paese perché non verano uomini simili né in Balni Barbie né nel Giappone dove egli aveva l'onore di essere ambasciatore di sua maestà e si era accorto che gli abitanti di questi due regni duravano molta fatica a credere possibile un tal fenomeno dal mio stupore poi al mio primo sentir parlare della cosa risultava chiaramente che si aggiungeva anche a me del tutto nuova e appena credibile nei due regni suddetti dove durante il periodo della sua resistenza aveva avuto modo di conversare con molti aveva notato che il lungo vivere è desiderio e brama comune a tutti gli uomini e chi ha un piede nella tomba cerca di tenerne fuori l'altro con tutte le sue forze per quanto decrepito sia un uomo spera sempre di vivere un giorno di più e considera la morte come il peggiore dei mali dal quale la natura sempre lo induce a sottrarsi solo nell'isola di Lugnag la cupidità di vivere non era così intensa e questo per aver continuamente sotto gli occhi l'esempio degli Stuldbrug il sistema di vita da me immaginato non era ragionevole né giusto perché supponeva una perpetua gioventù una salute e un vigore perpetui e nessun uomo poteva essere tanto pazzo da sperarli per quanto smodati fossero i suoi desideri il problema non era dunque di sapere se si sarebbe lieti di vivere sempre in gioventù prosperi e sani ma come si potrebbe trascorrere una vita immortale sottostando alle solite afflizioni che la vecchiaia porta sempre con sé sebbene pochi uomini confesserebbero il loro desiderio di essere immortali a così dure condizioni tuttavia nei due regni già nominati di Balni Barbie e del Giappone egli aveva osservato che ognuno desidera di differir di morire per quanto la morte tardi a venirgli addosso e assai di rado aveva sentito di qualcuno che morisse volentieri se almeno non era incalzato da ogni sorta di pene e di tormenti e a questo proposito mi chiese se nei paesi in cui avevo viaggiato come pure nel mio non avevo osservato quella stessa tendenza generale dopo questo preambolo mi diede minuti ragguagli sui loro strulbrug mi disse che di solito essi si comportano come i comuni mortali fin circa i trent'anni dopodiché a poco a poco diventano sempre più malinconici e depressi fino all'ottantina aveva saputo questo per loro stessa confessione perché altrimenti nascendone solo due o tre di essi in un secolo non avrebbe potuto fare osservazioni generali sui pochi mortali suoi contemporanei giunti agli ottanta considerati l'estremo limite della vita in quel paese non solo acquistano tutte le bizzarrie e le infermità degli altri vecchi ma molte altre ancora che derivano dalla paurosa previsione di non dover mai morire diventano non solo testardi bisbetici sordidi tetri frivoli ciarlieri ma anche incapaci di ogni senso di amicizia sordi ad ogni naturale affetto che non si estende mai oltre ai figli dei figli prevalgono tra le loro passioni l'invidia e il desiderio impotente ma quel che soprattutto sembra richiamare la loro invidia sono i vizi dei giovani e la morte dei vecchi perché pensando ai primi si sentono tagliati fuori da ogni possibilità di piacere e ogni volta che vedono un funerale rimpiangono e si angosciano che altri sia giunto ad un porto di riposo al quale essi non possono sperare di arrivare mai non hanno altri ricordi se non di quello che hanno imparato e osservato in gioventù e nell'età media e per di più assai vaghi se si vuol sapere la verità o qualche particolare su un dato evento è più sicuro attingere alla comune tradizione che ai loro ricordi più chiari i meno sciagurati fra loro sembrano quelli che rimbambiscono e perdono del tutto la memoria costoro trovano maggior pietà ed assistenza perché se non altro non hanno le cattive qualità che abbondano negli altri se uno Strudbrug sposa un immortale come lui le benigne leggi del regno considerano il matrimonio naturalmente sciolto non appena il più giovane dei due raggiunge gli 80 anni il legislatore considera infatti ragionevole indulgenza che chi è condannato senza sua colpa a vivere in eterno in questo mondo non senta raddoppiata la propria disgrazia dal peso di una moglie compiuta l'ottantina essi muoiono agli occhi della legge i loro eredi entrano immediatamente in possesso dei beni e solo una piccola quota è riservata per il loro mantenimento gli indigenti sono mantenuti a spese dello Stato dopo quell'età sono ritenuti incapaci di ogni ufficio di fiducia o di lucro non possono acquistare terreni né prenderne in affitto non è concesso loro testimoniare in cause civili o penali e nemmeno in contestazioni di limiti e confini a 90 anni perdono i denti e i capelli non distinguono più i sapori e mangiano e bevono tutto ciò che viene loro messo davanti senza gusto né appetito i malanni che avevano continuano senza aumentare né diminuire nel parlare dimenticano i nomi delle cose più comuni e delle persone perfino dei loro più intimi amici e stretti parenti per la stessa ragione non possono divacarsi con la lettura perché la loro memoria non regge dal principio alla fine di un periodo così rimangono privi dell'unico svago che altrimenti potrebbero avere poiché la lingua del paese è in continua evoluzione gli Strudbrug di un'epoca non capiscono quelli di un'altra e dopo un paio di secoli non sono capaci di sostenere una conversazione eccettuate poche parole generiche con i loro vicini mortali così hanno la sventura di vivere come stranieri in patria tutto questo egli mi disse per quanto posso ricordare intorno agli Strudbrug in seguito ne vidi cinque o sei di età diverse che mi furono presentati in varie riprese da alcuni amici il più giovane non aveva ancora duecento anni ma per quanto si dicesse loro che io ero un gran viaggiatore e avevo visto tutto il mondo non sentirono la minima curiosità di farmi una domanda mi pregarono solo di dar loro uno slumkudask ossia un ricordino è un modo discreto per chiedere le lemosine eludendo la legge che lo proibisce rigorosamente essendo essi mantenuti a spese pubbliche sebbene dire il vero in modo assai misero sono odiati e disprezzati da tutti quando ne nasce uno è segno in fausto e la loro nascita è accuratamente registrata si può dunque conoscere la loro età consultando gli archivi che però si sono cominciati a tenere solo da un millennio o sono stati distrutti dal tempo e dai rivolgimenti politici comunemente si computa però la loro età domandando loro il nome di un re o di un grande personaggio di cui si ricordino e consultando poi la storia perché infallibilmente l'ultimo principe che sopravvive nella loro memoria non cominciò a regnare dopo il loro tantesimo anno fu quello il più desolante spettacolo che abbia mai visto le donne erano ancora più orribili degli uomini oltre alle comuni deformità della decrepitezza essi assumono un aspetto tanto più spettrale quanto maggiore è il numero dei loro anni ogni descrizione sarebbe insufficiente tra una mezza dozzina di loro scorsi subito il più vecchio sebbene la differenza di età non fosse di più di un secolo o due il lettore non stenterà a credere che dopo quel che udì e vidi la mia sete di immortalità si placò alquanto mi vergognai profondamente delle piacevoli visioni che avevo fantasticato e pensai che nessun tiranno avrebbe potuto inventare una morte a cui non sarei corso con gioia pur di sfuggire ad una tal vita il re venne a sapere tutto ciò che era accaduto a questo proposito tra me e i miei amici e si divertì molto a canzonarmi dicendomi che sarebbe stato lieto se avessi potuto portare un paio di strulbrug nel mio paese per agguerrire i miei compatrioti contro il timore della morte ma questo a quanto pare è proibito dalle fondamentali leggi dello stato altrimenti sarei stato ben contento di affrontare le spese e la fatica di portarmeli dietro non potei far a meno di convenire che le leggi di quel regno relative agli strulbrug erano fondate sulle più valide ragioni tali che ogni altro stato avrebbe dovuto attuarle in eguali circostanze altrimenti poiché l'avarizia è la necessaria conseguenza della vecchiaia quegli immortali sarebbero divenuti col tempo i proprietari di tutta la nazione assumendo il monopolio del potere civile cosa che per mancanza di capacità amministrative avrebbe portato la fine e la rovina del bene pubblico capitolo undicesimo l'autore lascia lugnag e fa vela per il giappone di lì torna ad amsterdam con un vascello olandese e da amsterdam in inghilterra mi è apparso che queste notizie sugli strulbrug potessero interessare in qualche modo il lettore sembrandomi un po' fuori del comune non ricordo almeno di aver trovato qualcosa di simile in alcun libro di viaggi che mi sia capitato tra le mani se mi sono ingannato me ne sia data venia perché i viaggiatori che descrivono la stessa regione sono spesso costritti ad indugiare sugli stessi particolari senza per questo meritare l'accusa di aver preso in prestito copiato da quelli che hanno scritto prima di loro in realtà vi sono continui commerci tra questo regno e il grande impero del giappone ed è molto probabile che qualche autore giapponese abbia dato già notizia degli strulbrug ma il mio soggiorno nel giappone fu così breve e io ero così totalmente ignaro di quella lingua che non potei far ricerche in proposito spero tuttavia che gli olandesi messi sull'avviso siano tanto curiosi e abili da colmarle mie lacune sua maestà dopo aver più volte insistito per farmi accettare un impiego alla sua corte trovandomi sempre irremovibilmente deciso a tornare in patria si degnò di darmi licenza di partire e mi onorò con una lettera di raccomandazione scritta di proprio pugno all'imperatore del giappone mi regalò inoltre 444 grosse monete d'oro in quel paese si preferiscono i numeri pari e un diamante rosso che vendetti in inghilterra per 1100 sterline il 6 maggio del 1709 presi solennemente congedo da sua maestà e dai miei amici il sovrano volle graziosamente che una scorta mi conducesse fino a Glanguenstald il porto reale sulla costa sud-occidentale dell'isola dopo sei giorni trovai un vascello pronto a portarmi in Giappone e la traversata durò 15 giorni sbarcammi in una cittadina di mare chiamata Xamoshi sulla costa sud-orientale del Giappone la città è situata sulla punta occidentale di un piccolo stretto che sbocca a nord in un lungo braccio di mare sul cui lato nord-occidentale sta la capitale Iedo allo sbarco mostrai agli ufficiali della Dogana la mia lettera del re di Lugnag alla sua imperiale maestà ed essi riconobbero benissimo il sigillo che era grande quanto la palma della mia mano e rappresentava un re nell'atto di sollevar da terra un mendicante storpio le autorità cittadine saputo della mia lettera mi ricevettero come un ministro misero a mia disposizione vetture e domestici e pagarono le spese del mio viaggio a Iedo dove mi fu subito concesso un'udienza e io consegnai la mia lettera questa fu aperta con gran cerimonia e tradotta all'imperatore da un interprete il quale mi fece sapere per ordine di sua maestà che potevo esporre senz'altro i miei desideri e quali che fossero sarebbero stati esauditi per amor del regal fratello di Lugnag quest'interprete era impiegato di solito nei negoziati con gli olandesi immaginò subito dal mio aspetto che ero un europeo e mi ripetè quindi gli ordini di sua maestà in basso olandese da lui parlato perfettamente risposi come avevo già divisato di essere un mercante olandese naufragato in una remotissima regione dalla quale viaggiando per mare e per terra ero giunto a Lugnag imbarcandomi poi per il Giappone dove sapevo che i miei compatrioti avevano frequenti traffici con la speranza di poter tornare in Europa assieme a qualcuno di loro pregavo perciò umilissimamente sua maestà di voler ordinare che io fossi condotto sano e salvo a Nangasac a questa aggiunsi un'altra domanda e cioè che per amor del mio patrono il re di Lugnag sua maestà volesse esimersi dalla cerimonia imposta ai miei compatrioti di calpestare il crocifisso poiché ero stato spinto in quel reame dalle mie sventure e senza intenzione di far commerci quando fu tradotta all'imperatore questa mia ultima richiesta egli parve un po' sorpreso e disse che ero forse il primo della mia nazione che avesse mai avuto scrupoli su tal soggetto e cominciava a domandarsi se ero veramente un olandese o no perché sospettava piuttosto che fossi un cristiano comunque per le ragioni che aveva adotte e soprattutto per far cosa grata al re di Lugnag con un segno inconsueto del suo favore egli avrebbe accondisceso a quella mia bizzarria purché la cosa fosse condotta con destrezza e si desse ordine ai suoi ufficiali che mi si lasciasse passare come per dimenticanza mi assicurò infatti che i miei compatrioti olandesi se avessero scoperto il segreto mi avrebbero tagliato la gola durante il viaggio lo ringraziai per mezzo dell'interprete di così straordinario favore e poiché alcune truppe stavano allora per mettersi in cammino verso Nangasac il loro comandante ebbe ordine di condurmi sano e salvo colà con particolari istruzioni circa la faccenda del crocifisso il 9 giugno del 1709 arrivai a Nangasac dopo un viaggio lungo e faticoso non tardai ad imbattermi in alcuni marinai olandesi che appartenevano all'Amboina di Amsterdam una grossa nave di 450 tonnellate avevo vissuto a lungo in Olanda avendo fatti i miei studi all'Aida e parlavo bene l'olandese i marinai capiron subito quale fosse il mio ultimo luogo di provenienza e furon curiosi di sapere dei miei viaggi e della mia vita io raffazzonai un racconto più breve e verosimile che potei tacendo il più conoscevo parecchie persone in Olanda e riusci ad inventare nomi per i miei genitori che feci passare per gente comune della provincia di Gelderland avrei dato al capitano un certo Theodorus van Grult tutto ciò che avesse voluto chiedermi per portarmi in Olanda ma saputo che ero chirurgo si contentò di chiedermi la metà del prezzo solito perché durante il viaggio prestassi la mia opera di medico prima dell'imbarco più volte mi fu domandato da alcuni della ciurma se avessi compiuto la cerimonia di cui ho detto io evasi la domanda con risposte generiche dicendo che avevo soddisfatto in tutto l'imperatore e la corte tuttavia una maligna canaglia di mozzo andò da un ufficiale e additandomi gli disse che non avevo ancora calpestato il crocifisso ma l'altro che aveva ricevuto istruzioni di lasciarmi passare lasciò calare sulle spalle di quel mascalzone venti buoni colpi di canna di bambù dopodiché non fui mai più molestato con simili domande durante il viaggio nulla accadde che meriti ricordo navigammo con vento favorevole fino al capo di buona speranza dove ci fermammo solo per rifornirci di acqua il 10 aprile del 1710 arrivammo sani e salvi ad Amsterdam nel viaggio avevamo perso solo tre uomini per malattia e un quarto che era caduto in mare dall'albero maestro non lungi dalle coste della guinea da Amsterdam salpai subito per l'Inghilterra in un piccolo veliero di quella città il 16 aprile entrammo nei Downs il giorno dopo sbarcai e vidi ancora una volta la mia terra natale dopo un'assenza di cinque anni e sei mesi interi corsi subito a Red Reef dove arrivai lo stesso giorno alle due del pomeriggio e trovai mia moglie e tutta la famiglia in buona salute parte quarta viaggio al paese degli Oinam capitolo primo l'autore parte come capitano di un veliero i suoi uomini cospirano contro di lui e a lungo lo tengono chiuso nella sua cabina lo fanno sbarcare in una terra sconosciuta suo viaggio all'interno del paese descrizione delle strane bestie chiamate Yahoo l'autore incontra due Oinam rimasi a casa con mia moglie e i miei figli per circa cinque mesi e avrei potuto dirmi veramente felice se avessi imparato ad accorgermi di esserlo quanto lo ero lasciai la mia povera moglie incinta e accettai una vantaggiosa offerta di comandare l'avventura un grosso mercantile di 350 tonnellate perché conoscevo assai bene la navigazione e stanco come ero della mia professione di chirurgo di bordo che comunque avrei potuto esercitare all'occasione presi con me per quell'incarico un abile giovanotto un certo Robert Purefoy salpamo da Portsmouth il 7 settembre del 1710 il 14 incontrammo a Tenerifa il capitano Pocock di Bristol il quale faceva rotta per la baia di Campeci per raccogliervi legno di campeggio il 16 egli fu separato da noi da una tempesta e seppi al mio ritorno che la sua nave era andata a picco e tranne un mozzo nessuno era scampato era un onest uomo e un buon marinaio ma un po' troppo attaccato alle sue idee e questo fu la causa della sua rovina come lo è di quella di tanti altri se mi avesse dato retta adesso sarebbe sano e salvo a casa con la sua famiglia al pari di me parecchi uomini della mia nave morirono di febbre maligna così che fui costretto a reclutarne altri alle isole Barbado e Leeward dove approdai secondo le direzioni dei mercanti a cui prestavo servizio ma presto dovetti pentirmene perché non tardai a scoprire che la maggior parte di loro erano stati pirati avevo a bordo 50 uomini i miei incarichi erano di commerciare con gli indiani nei mari del sud e far tutte le scoperte che potessi quelle canaglie reclutate di fresco mi sobillarono gli altri uomini e tutti insieme fecero una congiura per impadronirsi della nave e ridurmi all'impotenza cosa che eseguirono un bel mattino si precipitarono nella mia cabina mi legaron mani e piedi e mi minacciarono di gettarmi in mare se facevo un gesto mi dichiarai il loro prigioniero e mi sottomisi essi mi fecero giurare e poi mi slegarono limitandosi ad incatenarmi per una gamba accanto al letto e a mettere una sentinella alla porta col fucile carico e l'ordine di spararmi se tentavo di fuggire mi mandavano giù da mangiare e da bere e badavano da soli a governare la nave la loro intenzione era di diventare corsari e saccheggiare le navi spagnole cosa che non potevano fare se non crescevano di numero ma per prima cosa decisero di vendere le mercanzie che erano nella nave e di andare poi a Madagascar a fare nuove reclute perché molti di loro erano morti dopo che ero stato imprigionato navigarono per parecchie settimane commerciando con gli indiani ma non so che rotta tenessero restando sempre chiuso in cabina e aspettandomi da un momento all'altro di essere assassinato come spesso mi minacciavano il 9 maggio del 1711 un certo James Wetch scese nella mia cabina e mi disse che il capitano gli aveva comandato di sbarcarmi in vano gli rivolsi domande non riusci nemmeno a sapere chi fosse il nuovo capitano mi ficcarono nella miglior scialuppa concedendomi di indossare gli abiti migliori che erano quasi nuovi e di portare con me un fagottello di biancheria ma nessun'arma eccetto il mio coltellaccio e furono tanto cortesi da non frugarmi nelle tasche dove avevo messo tutto il mio denaro e poche altre cosette necessarie remarono per circa una lega e poi mi sbarcarono su un lido li pregai di dirmi quale regione fosse quella ma mi giurarono in coro che ne sapevano quanto me e che il capitano come lo chiamavano dopo aver venduto il carico aveva deciso di sbarcarmi nella prima terra che avessero avvistato poi filaron via immediatamente avvertendomi di fare in fretta a svignarmela se non volevo essere raggiunto dalla marea e così mi salutarono in quella condizione desolata io mi spinsi verso l'interno e presto raggiunsi il terreno solido dove mi sedetti su di un rialzo per riposarmi e riflettere sul miglior partito da seguire rinfrancatomi un po' mi inoltrai nel paese deciso a consegnarmi ai primi selvaggi che incontrassi e a riscattare la mia vita con braccialetti anelli di vetro e altri gingilli di cui i marinai sogliono provvedersi viaggiando in quelle regioni e che io avevo con me in certo numero il terreno era diviso da lunghe file d'alberi non piantate ad arte ma cresciute naturalmente c'era grande abbondanza di erba e molti campi di avena camminavo molto circospetto per paura di essere colto di sorpresa o colpito improvvisamente alle spalle o ai fianchi da qualche freccia trovai una strada battuta dove scorsi molte tracce di piedi umani e alcune di buoi ma soprattutto di cavalli finalmente scorsi alcuni animali in un campo e uno o due dello stesso genere seduti su di un albero il loro aspetto bizzarro e deforme mi sconcertò alquanto cosicché mi nascosi dietro un cespuglio per osservarli meglio alcuni di loro avvicinandosi al punto in cui ero mi permisero di osservarne distintamente le forme avevano la testa e il petto coperti di una folta chioma ricciuta in alcuni e liscia in altri portavano la barba come capre e lunghi ciuffi di peli scendevano loro dal dorso e dalla parte anteriore delle gambe e dei piedi il resto del corpo era nudo e io potevo vedere la pelle di color bruno non avevano coda né peli sul sedere eccetto fra le natiche naturale difesa di quella parte a quanto pensai per quando si siedono a terra come sogliono altrimenti stanno sdraiati e spesso si alzano sui piedi posteriori si arrampicavano sugli alti alberi svelti come scoiattoli perché avevano lunghi e robusti artigli anteriori e posteriori terminanti in punte a guzze e ricurve e spesso facevano gran salti e balzi con meravigliosa agilità le femmine erano un po' più piccole dei maschi avevano sulla testa lunghe chiome lisce ma nessun pelo in faccia e solo una leggera lanugine per tutto il corpo più folta fra le natiche e sulle vergogne le mammelle pendevano loro fra le due zampe anteriori e spesso strisciavano al suolo mentre camminavano le chiome dei due sessi erano di vario colore castane rossicce nere e gialle nell'insieme non avevo mai visto in tutti i miei viaggi un animale così ributtante né che mi ispirasse una così istintiva e profonda antipatia pensando dunque di aver visto abbastanza pieno di disprezzo e di schifo tirai avanti lungo la strada sperando di incontrare la capanna di qualche indiano ma non ero andato molto lontano quando uno di quegli esseri mi si parò davanti e venne dritto verso di me quel brutto mostro appena mi ebbe scorto contraste in ogni modo i lineamenti del volto e sbarro gli occhi come davanti ad una cosa mai vista poi venutomi più vicino alzò una delle sue zampe anteriori non potei dire se per curiosità o per provocarmi ma io cavai la daga e gli diedi una buona piantonata non volevo colpirlo di taglio temendo che gli abitanti del luogo se la rifecessero con me se venivano a sapere che avevo loro ucciso o storpiato una delle loro bestie appena quello sentì il bruciore si trasse indietro e urlò così forte che una mandria di almeno una quarantina di bestie venne dal campo vicino affarressa intorno a me ululando e facendo orribili smorfie ma io corsi al tronco di un albero e addossatomi a quello li tenne a distanza brandendo la daga allora alcuni di quella maledetta genia afferrati i rami dietro di me si arrampicarono sull'albero e di lì cominciarono a scaricarmi in testa i loro escrementi io li evitai abbastanza bene tenendomi stretto all'albero ma ero quasi soffocato dal puzzo di quella porcheria che mi cadeva intorno ad ogni lato in mezzo a tal distretta li vidi ad un tratto scappar via tutti a gambe levate e allora mi arrischiai a lasciare l'albero e a proseguire il mio cammino domandandomi che cosa diavolo mai li avesse spaventati a quel modo ma dando un'occhiata verso sinistra vidi un cavallo che camminava piano nel campo e che scortò prima di me dai miei persecutori era stato causa della loro fuga il cavallo quando mi fu più vicino fece un leggero scarto ma subito si riprese e mi guardò bene in faccia con evidenti segni di meraviglia mi guardò le mani e i piedi e mi girò intorno parecchie volte avrei voluto proseguire ma quello mi si piantò in mezzo alla strada sempre guardandomi con aria molto mansueta e senza farmi la minima violenza restammo lì per un po' a guardarci l'un l'altro e infine mi azzardai a porgli la mano sul collo per carezzarlo zufolando come fanno i fantini quando hanno a che fare con un cavallo un po' bizzarro ma quell'animale parve sdegnare la mia cortesia scosse la testa inarcò le ciglia e alzò piano la zampa anteriore per allontanare la mia mano poi nitri tre o quattro volte ma con toni così diversi che quasi cominciai a credere che parlasse fra di sé in un suo proprio linguaggio mentre lui ed io eravamo così occupati sopraggiunse un altro cavallo che si rivolse al primo in modo molto cerimonioso poi si scambiarono un leggero colpetto sullo zoccolo destro anteriore nitrendo a turno varie volte e variando il suono in modo che quasi sembrava articolato si allontanarono di qualche passo come se parlassero fra di loro e camminarono a fianco in su e in giù come persone che deliberino su qualche affare importante ma avvolgendo spesso gli occhi verso di me come per badar che non scappassi io ero sbalordito nel veder due bestie irragionevoli agire e comportarsi in tal modo e conclusi tra me che gli abitanti del paese se erano dotati di senno in proporzione dovevano essere il popolo più saggio della terra quest'idea mi consolò tanto che risolvetti di andare avanti finché non scorgessi qualche casa o qualche villaggio o non incontrassi qualche indigeno e di lasciare i due cavalli discorrere fra loro a proprio agio ma il primo un leardo pomellato vedendo che me la svingnavo mi nitri dietro in modo così espressivo che quasi mi parve di capire quel che intendeva così che tornai sui miei passi e mi avvicinai a lui per sentire quali altri ordini aveva cercando di nascondere più che potessi la mia paura perché cominciava a stare un po' in apprensione sull'esito di quell'avventura e come il lettore può facilmente capire non ero molto soddisfatto della mia situazione i due cavalli i due cavalli mi si avvicinarono ancora di più esaminandomi con grande attenzione la faccia e le mani il leardo passò il suo zoccolo destro anteriore tutto intorno al mio cappello e lo sbertucciò tanto che poi dovetti aggiustarmelo allora tanto lui quanto il suo compagno un baio scuro apparvero molto meravigliati il secondo palpò la falda della mia giacca e vedendo che mi pendeva inerte tutto intorno mostrarono entrambi nuovi segni di stupore mi accarezzò la destra e parve ammirarne la morbidezza e il colore ma la strizzò tanto fra lo zoccolo e il garretto che io gridai di dolore allora tutti e due mi toccarono con la massima delicatezza erano profondamente perplessi dinanzi alle mie scarpe e calze non facevano che palparle nitrendosi l'un l'altro e facendo vari gesti non dissimili da quelli di un filosofo che si ingegni di spiegare qualche nuovo e complesso fenomeno nell'insieme il comportamento di quegli animali era così coerente e ragionevole così assennato e giudizioso che finì col crederli due maghi i quali si fossero così trasformati per qualche loro disegno e imbattendosi in uno straniero volessero un po' divertirsi alle sue spalle o magari erano realmente stupiti alla vista di un uomo così diverso nell'abito nelle fattezze e nella costituzione da quelli che vivevano probabilmente in quella remota contrada in base a tale ragionamento mi azzardai a rivolgermi a loro in tali termini signori se voi siete stregoni come ho buone ragioni di credere potete capire ogni linguaggio perciò mi prendo la libertà di far sapere alle signorie vostre che io sono un povero disgraziato inglese gettato dalla sfortuna sulla vostra costa e prego uno di voi di lasciarmi inforcare la sua groppa come se fosse un vero cavallo e di portarmi a qualche casa o villaggio dove possa ristorarmi un poco in cambio di questo favore vi regalerò questo coltello e questo braccialetto e li cavai di tasca quei due esseri rimasero silenziosi per tutto il tempo che parlai con l'aria di ascoltarmi molto attentamente e quando abbi finito si nitrirono più volte l'un l'altro come se fossero impegnati in gravi conversari notai facilmente che il loro linguaggio esprimeva assai bene i moti dell'animo e che le parole potevano senza fatica risolversi in lettere alfabetiche assai meglio di quelle cinesi potei distinguere più volte la parola yahoo spesso ripetuta da entrambi e sebbene mi fosse impossibile congetturarne il significato cercai di abituare la lingua a pronunziarla mentre i due cavalli erano infervorati nella conversazione poi appena fecero silenzio pronunciai audacemente yahoo a voce alta imitando in egual tempo meglio che potevo il nitrito di un cavallo essi rimasero visibilmente sorpresi e il leardo ripetè due volte la stessa parola come se intendesse insegnarmi l'accento giusto io la sillabai dietro di lui come meglio potei e mi accorsi che ogni volta ci riuscivo sensibilmente meglio pur rimanendo molto lontano dalla perfezione allora il baio mi mise alla prova con una seconda parola assai più difficile a pronunziare che ridotta in ortografia inglese si potrebbe trascrivere così hoinum in questa non riusci bene come nella prima ma dopo altri due o tre tentativi ebbi miglior fortuna e tutti e due sembrarono sbigottiti della mia capacità dopo qualche altro discorso che pensai si riferisse a me i due amici si congedarono col solito complimento di battersi in un l'altro lo zoccolo il leardo mi fece segno di camminare davanti a lui e io stimai prudente obbedire finché non trovassi una miglior guida non appena rallentavo il passo quello gridava hun hun indovinai quel che voleva dire e gli feci capire alla meglio che ero stanco e non potevo camminare in fretta allora si fermò un poco per lasciarmi riposare capitolo secondo un oinum conduce l'autore in casa descrizione della casa come l'autore vi è accolto che cosa mangiano gli oinum l'autore angustiato per la mancanza di cibo trova infine ristoro suo modo di nutrirsi in quel paese dopo aver camminato per circa tre miglia giungemmo ad una specie di un lungo fabbricato fatto di assi infisse al suolo e legate con vimini il soffitto era basso e coperto di paglia cominciai allora a sentirmi un po' riconfortato e cavai fuori alcuni ninnoli che i viaggiatori portavano solitamente con sé per regalarli agli indiani selvaggi d'america e di altre parti speravo così di indurre gli abitanti della casa ad accogliermi cordialmente il cavallo mi fece cenno di entrare per primo mi trovai in una vasta sala dal pavimento di argilla levigata con una rastrelliera e una mangiatoia lungo tutta una parete veran tre cavallini e due giumente che però non mangiavano alcuni anzi stavano seduti sulle cosce cosa che mi meravigliò molto ma ancor più mi meravigliai nel vedere che gli altri si occupavano delle faccende di casa e tuttavia sembravano cavalli come tutti gli altri questo mi confermò nella prima idea che un popolo capace di renderci vili fino a tal punto gli animali irragionevoli doveva superare in saggezza tutti gli altri popoli del globo il leardo entrò subito dopo di me prevenendo così ogni offesa che gli altri potessero farmi mi tri parecchie volte in tono autoritario e subito gli fu risposto oltre a questa stanza avevano altre tre che si stendevano per tutta la lunghezza della casa si passava dall'una all'altra per tre porte che si susseguivano in fila a mo' di prospettiva traversammo la seconda stanza e giunti alla terza il leardo entrò per primo facendomi segno di aspettare io mi fermai lì e preparai i miei regali per il padrone e la padrona di casa due coltelli tre braccialetti di perle false uno specchietto e una collana di vetro il cavallo nitri tre o quattro volte e io mi aspettavo di udir rispondere qualche voce umana ma percepì solo risposte in quella stessa lingua tra cui uno o due in tono un poco più acuto cominciai a pensare che la casa appartenesse a qualche persona molto di riguardo visto che sembrava necessarie tante cerimonie prima della mia presentazione ma che una persona di alta condizione si facesse servire da cavalli era cosa di cui non riuscivo a capacitarmi ebbi paura che a forza di disgrazie e di patimenti mi avesse dato di volta il cervello mi scrollai e mi guardai intorno nella stanza in cui ero rimasto solo era immobiliata come la prima ma con più eleganza ed ebbi un bello strofinarmi gli occhi vedevo sempre le stesse cose mi diedi gran pizzicotti nelle braccia e nei fianchi per svegliarmi sperando che fosse solo un sogno e infine risolutamente conclusi che tutte quelle apparenze non potevano essere altro che effetti di negromanzia e di arte magica ma non ebbe il tempo di continuare su queste riflessioni il leardo venne sulla soglia e mi fece cenno di seguirlo nella terza stanza dove vidi una graziosissima giumenta con un puledro e una puledra tutti e tre seduti sulle cosce su stuoie di paglia abilmente intessute perfettamente linde e pulite appena fui entrato la giumenta si alzò e venutami vicino dopo avermi attentamente osservato le mani e la faccia mi diede uno sguardo di profondo disprezzo poi si rivolse al cavallo e io udì più volte ripetuta da loro la parola yahoo di cui non potevo ancora capire il significato sebbene fosse la prima che avessi imparato a pronunciare ma a mia eterna mortificazione non tardai ad essere meglio informato infatti il cavallo mi fece un cenno con la testa e ripetendo la parola hun hun come aveva fatto per via e con la quale evidentemente intendeva dirmi di seguirlo mi condusse in una specie di corte dove a qualche distanza dalla casa vera un altro edificio vi entrammo e vidi tre di quegli esseri odiosi che avevo incontrato per primi subito dopo il mio sbarco intenti a mangiare radici e pezzi di carne che più tardi seppi essere di asino e di cane e talora di qualche vacca morta per disgrazia o per malattia erano tenuti tutti per il collo da robusti giunchi e legati ad una sbarra afferravano il cibo tra gli artigli delle zampe anteriori e lo laceravano coi denti il cavallo padron di casa ordinò ad un ronzino sauro che era uno dei suoi servi di slegare il più grosso di quegli animali e di portarlo in un campo io e la bestia fumo avvicinati e le nostre fattezze diligentemente esaminate dal padrone e dal domestico i quali dopo di ciò ripeteron più volte la parola Yahoo sarebbe impossibile descrivere il mio orrore e il mio sbigottimento quando raffigurai in quel mostro immondo una perfetta sembianza umana la sua faccia è vero era piatta e larga il naso schiacciato grosse le labbra ed enorme la bocca ma queste sono caratteristiche comune a tutti i selvaggi i quali hanno i lineamenti deturpati dal fatto di essere stati lasciati liberi di strisciar carponi da piccoli o portati sulle spalle con la faccia schiacciata contro il dorso della madre la zampa anteriore dello Yahoo differiva dalle mie mani solo per la lunghezza degli artigli per la rovidità e il bruno colorito del palmo per il dorso villoso e tra i nostri piedi verano le stesse somiglianze e differenze che io potevo riconoscere benissimo ma non certo i cavalli a causa delle mie scarpe e calze e così per ogni parte del corpo diverse solo nella villosità e nel colore come ho già descritto quel che più di tutto a quanto sembrava rendeva perplessi i due cavalli era il vedere il resto del mio corpo così diverso da quello di uno Yahoo a causa dei miei abiti di cui essi non avevano alcuna idea il loronzino sauro mi offerse una radice tenuta secondo il loro uso che descriverò a suo luogo tra lo zoccolo e il garretto io la presi in mano e dopo averla odorata gliela restituì quanto più educatamente potei allora cavò fuori dal covo degli Yahoo un pezzo di carne di asino così puzzolente che io volsi disgustato la faccia dall'altra parte e gli la gettò allo Yahoo che avidamente la divorò mi mostrò poi una manciata di fieno e dell'avena che teneva col garretto ma io scossi la testa per far intendere che nell'uno nell'altra era un cibo per me in realtà cominciavo a temere che sarei morto di fame se non riuscivo a trovare qualcuno della mia specie perché quanto a quei ripugnanti Yahoo sebbene in quel momento nessuno fosse più di me innamorato del genere umano confesso di non aver mai visto un essere vivente più ripugnante sotto ogni aspetto e più li avvicinai più odiosi mi divennero per tutto il tempo che rimasi in quel paese il cavallo padrone accorgendosi di questo dal mio contegno rimandò lo Yahoo nella sua tana poi si portò la zampa anteriore alla bocca cosa che mi sorprese parecchio sebbene egli lo facesse con molta facilità e perfetta naturalezza e fece altri segni come per chiedere che cosa volessi mangiare ma io non potevo dargli una risposta intelligibile per lui e se anche mi avesse capito non vedevo come fosse possibile trovare un nutrimento a me conveniente mentre eravamo così occupati vidi passare una mucca e subito la ditai ed espressi il desiderio di andare a mungerla questa mimica raggiunse lo scopo il cavallo infatti mi ricondusse a casa e ordinò ad una giumenta fantesca di aprire una stanza dove una buona quantità di latte era contenuta in vasi di argilla e di legno in perfetto ordine e pulitissimi la giumenta me ne diede una gran tazza piena che io bevvi con gran gusto e profondo ristoro a mezzogiorno vidi venire verso la casa una specie di veicolo tirato come una slitta da quattro yahoo vera dentro un vecchio destriero che sembrava di alta condizione scese camminando sulle zampe posteriori perché si era fatto male per accidente ad una zampa anteriore veniva a pranzare col nostro leardo che lo accolse con grande cortesia desinarono nella stanza migliore e come secondo piatto fu loro servita avena bollita nel latte che il vecchio destriero mangiò calda e gli altri fredda le greppie erano disposte in giro nel mezzo della stanza divise in vari compartimenti i cavalli sedevano intorno sulle cosce su mucchietti di paglia nel mezzo vera una grande rastrelliera con divisioni corrispondenti ai vari scomparti della greppia cosicché cavalli e giumente potevano mangiare ognuno il proprio fieno e il proprio beverone di avena e latte con molta decenza e regolarità il contegno del puledro e della puledrina fu pieno di modestia quello del padrone e della padrona di casa cordiale e pieno di attenzioni per l'ospite il leardo mi ordinò di stargli vicino e a lungo parlò di me con il suo amico come potei capire dalle occhiate che spesso questi mi rivolgeva e dal continuo ricorrere della parola yahoo per caso mi ero infilato i guanti e il mio padrone leardo essendosene accorto parve perplesso e mi fece capire che era curioso di sapere che cosa avessi fatto coi miei piedi davanti mi avvicinò infatti tre o quattro volte lo zoccolo alle mani come per farmi intendere che dovevo dar loro il primitivo aspetto io mi affrettai a farlo togliendomi tutti e due i guanti e ficcandomeli in tasca quest'atto suscitò altri discorsi e mi accorsi che la compagnia era soddisfatta della mia condotta non tardai a provarne i buoni effetti mi fecero dire le poche parole che sapevo e durante il pranzo il padrone mi disse i nomi dell'avena del latte del fuoco dell'acqua e qualche altro io fui pronto a pronunziarli dietro di lui grazie alla facilità che ho avuto fin da ragazzo per imparare le lingue finito il desinare il cavallo padrone mi prese a parte e un po' a segni un po' a parole mi fece capire che gli dispiaceva che non avessi nulla da mangiare l'avena nella loro lingua si chiama clun pronunziai due o tre volte questa parola perché sebbene alla prima avessi rifiutato l'avena tuttavia ripensandoci mi era venuto in mente che avrei potuto fare con essa una specie di pane il quale unito al latte mi avrebbe tenuto in vita affinché non avessi avuto la possibilità di andare in un altro paese tra esseri della mia specie subito il cavallo ordinò ad una domestica una giumenta bianca di portarmi una buona quantità di avena in una specie di truogolo di legno io la riscaldai al fuoco come meglio potei la stropicciai per distaccarne la lolla che soffiai via alla meglio dai chicchi pestai questi fra due pietre poi li impastai con acqua facendone una specie di focaccia che arrosti sul fuoco e mangiai calda con latte le prime volte fu quello un desinare molto insipido sebbene comunissimo in molti paesi d'europa ma in seguito lo potei tollerare abbastanza bene e poiché in vita mia mi ero trovato spesso in grandi stretta non fu quella la prima volta che sperimentai quanto poco basti a soddisfare la natura e devo aggiungere che per tutto il tempo che rimasi in quell'isola non mi senti male nemmeno un'ora è vero che di tanto in tanto mi riuscì di acchiappare un coniglio o un uccelletto con lacci fatti di capelli di yahoo e che spesso raccolsi un po' d'erba che feci bollire e mangiai in insalata col mio pane ogni tanto poi mi facevo come una rarità un po' di burro e bevevo il siero dapprima senti molto la mancanza del sale ma presto mi abituai e son convinto che il grande uso di sale che si fa tra noi proviene dall'ingordigia e fu introdotto solo come incentivo al bere tolti i casi in cui è necessario per conservare la carne nei lunghi viaggi o nei luoghi lontani dai grandi mercati possiamo infatti notare che a nessun animale eccetto l'uomo piace il sale e quanto a me quando lasciai quel paese non potei per un bel pezzo tollerarne il sapore in tutto quel che mangiavo e questo basti per quel che riguarda la mia dieta argomento di cui gli altri viaggiatori riempiono i loro libri come se al lettore premesse molto di sapere se abbiano mangiato bene o male devo però accennarvi altrimenti tutti avrebbero considerato impossibile che io riuscissi a mantenermi per tre anni in un tal paese fra tali abitanti verso sera il cavallo padrone diede ordine perché mi si preparasse un alloggio era a sole sei arde dalla casa e separato dalla stalla degli yahoo ammucchiai lì un po' di paglia e ricopertomi coi miei vestiti dormi saporitamente presto però fui sistemato meglio come il lettore saprà in seguito quando parlerò più diffusamente del mio tenor di vita capitolo terzo l'autore è desideroso di imparare la lingua lo hoinum del suo padrone gli fa da maestro descrizione di quell'idioma alcuni hoinum di alta condizione vengono per curiosità a vedere l'autore egli fa al suo padrone una breve relazione dei suoi viaggi il mio principale sforzo fu di imparare la lingua che il mio padrone lo chiamerò così d'ora in poi i suoi figli e tutta la servitù facevano a gara per insegnarmi perché sembrava loro un miracolo che un brutto rivelasse tali capacità proprie degli esseri ragionevoli io additavo ogni cosa e ne domandavo il nome annotandolo poi quando ero solo nel mio diario e correggevo la mia cattiva pronuncia pregando la gente di casa di ripeterlo più volte in questo era sempre pronta ad assistermi un poledrosauro uno dei più umili domestici nel parlare hanno una pronuncia nasale e gutturale e la loro lingua si avvicina all'alto olandese o tedesco più di qualunque altra lingua europea che io conosca ma è molto più elegante ed espressiva l'imperatore carlo quinto fece quasi la stessa osservazione quando disse che se avesse dovuto parlare al suo cavallo l'avrebbe fatto in alto olandese la curiosità la curiosità la curiosità del mio padrone era così viva e impaziente che egli dedicava molte delle sue ore libere a distruirmi era persuaso come mi disse in seguito che io fossi uno yahoo ma lo stupivano la mia capacità di imparare la mia urbanità e la mia pulizia doti così opposte all'indole di quelle bestie quanto ai miei vestiti non riusciva a raccapezzarci e spesso almanaccava fra sé domandandosi se facevano parte del mio corpo perché io non me li toglievo mai prima che tutti in casa dormissero e la mattina li indossavo prima che fossero in piedi inoltre il mio padrone era ansioso di sapere di dove venissi come mi fossi procurato quella parvenza di ragione che rivelavo in tutte le mie azioni voleva sapere dalle mie stesse labbra la mia storia e sperava che sarebbe avvenuto presto tati i grandi progressi che facevo nell'imparare nel pronunciare le loro parole e le loro frasi per aiutarla memoria io trascrivevo secondo l'alfabeto inglese tutto quel che imparavo e annotavo ogni parola con la sua traduzione dopo un po' di tempo mi arrischiai a farlo in presenza del mio padrone e durai molta fatica a spiegargli il significato di tale operazione perché quelle creature non hanno la minima idea di libri né di letteratura dopo circa dieci settimane fui in grado di capire la maggior parte delle sue domande e dopo tre mesi riuscivo a rispondergli passabilmente egli ardeva dal desiderio di sapere da quale regione venissi e come avesse imparato ad imitare un essere ragionivole perché gli yahoo ai quali vedeva bene che somigliavo nella testa nelle mani e nel volto uniche parti visibili del mio corpo pur con qualche traccia di furberia e con una fortissima inclinazione alla malvagità erano notoriamente i meno suscettibili di ammaestramento fra tutti i bruti risposi che ero venuto per mare da un lontano paese abitato da molti altri della mia specie in un gran vaso cavo fatto di tronchi d'albero che i miei compagni mi avevano costretto a sbarcare su quella costa lasciandomi poi a sbrigarmela da solo e solo a gran fatica e con l'aiuto di molti cenni riusci a farmi capire rispose che dovevo ingannarmi o che dicevo la cosa che non era perché non hanno nella loro lingua alcuna parola per indicare menzogna falsità egli sapeva che non era ammissibile l'esistenza di un'altra regione al di là del mare e tantomeno che un manipolo di bruti potesse far muovere a suo talento nell'acqua un vaso di legno era sicuro che nessuno hoinom vivente avrebbe potuto costruire un simile vaso né certo ne avrebbe affidato il governo a degli yahoo la parola hoinom nella loro lingua significa cavallo e secondo l'etimologia perfezione di natura dissi al mio padrone che non riuscivo ancora ad esprimermi ma che avrei cercato di farlo più presto che potessi e speravo di potergli presto raccontare meraviglie egli si compiacque di raccomandare alla sua giumenta al puledro alla puledrina e a tutti i domestici di cogliere ogni occasione per istruirmi e ogni giorno per due o tre ore si dava egli stesso tale briga parecchi distinti cavalli e giumente del vicinato vennero spesso nella nostra casa essendosi diffusa la notizia di un meraviglioso yahoo che poteva parlare come uno hoinom e sembrava mostrare nelle parole e nei gesti qualche barlume di ragione provarono di letto a conversare con me mi fecero varie domande ed ebbero le risposte che potei dar loro profittando di tutto ciò feci tali progressi che cinque mesi dopo il mio arrivo capivo tutto quello che mi dicevano e riuscivo ad esprimermi abbastanza bene gli hoinom che venivano a visitare il mio padrone per vedermi e parlare con me stentavano a credere che io fossi un vero yahoo perché il mio corpo aveva un rivestimento diverso da quello degli esseri della mia specie si stupivano di vedermi senza il solito vello e la solita pelle eccettuate la testa la faccia e le mani ma io rivelai il segreto al mio padrone per un caso che avvenne circa due settimane prima ho già detto al lettore che ogni notte quando la famiglia era andata a letto solevo spogliarmi e coprirmi con i miei abiti avvenne che un mattino per tempo il mio padrone mi mandò a chiamare dal cavallino sauro che era il suo valletto quando egli giunse io dormivo profondamente i vestiti mi erano scivolati da un lato e la camicia mi si era rialzata fin sopra la vita mi svegliai al rumore che fece e notai che mi riferiva l'ambasciata con un certo imbarazzo dopodiché egli corse subito dal mio padrone tutto atterrito e gli raccontò confusamente quel che aveva visto tutto questo lo seppi subito perché andato a presentare i miei omaggi a sua grazia non appena mi fui vestito egli mi domandò che cosa significasse quel che il suo valletto gli aveva riferito che cioè quando dormivo non ero la stessa cosa che apparivo da sveglio che una parte del mio corpo a voler credere al suo servitorello era bianca una parte gialla o perlomeno non così bianca e una parte bruna fino allora avevo celato il segreto del mio vestito per distinguermi più che potessi da quella maledetta razza di Yahoo ma ora compresi che era inutile resistere d'altra parte pensavo che gli abiti e le scarpe si sarebbero presto consumati dato che erano già in cattive condizioni e avrei dovuto sostituirli in qualche modo con quelli di Yahoo o di altri animali così che il segreto sarebbe stato palese dissi dunque al mio padrone che nel paese da cui venivo quelli della mia specie si coprivan sempre il corpo con i peli di certi animali lavorati con arte sia per la decenza sia per difendersi dalle inclemenze del caldo e del freddo e per quel che riguardava la mia persona gliene avrei date immediata prova se si compiaceva di comandarmelo solo lo pregavo di scusarmi se gli avrei celato quelle parti che la natura ci esorta a non mostrare rispose che il mio discorso era assai strano specialmente nell'ultima parte perché non riusciva a capire come la natura potesse esortarci a non mostrare quel che ci aveva dato né lui né la sua famiglia si vergognavano di alcuna parte del loro corpo ma comunque facessi pure come credevo allora per prima cosa mi sbottonai la giacca e me la tolsi altrettanto feci col panciotto mi tolsi le scarpe le calze e i calzoni feci cadere giù la camicia fino alla cintola e ne rialzai le falde inferiori legandole a mo' di cintura intorno alla vita per nascondere la mia nudità il mio padrone osservò tutto questo con gran segno di curiosità e meraviglia prese sul garretto i miei vestiti uno per uno e li esaminò attentamente poi mi carezzò delicatamente il corpo e mi girò varie volte attorno dopodiché disse che senza possibilità di dubbio ero un perfetto yahoo ma che differivo moltissimo dagli altri della mia specie per la pelle più delicata più bianca e più liscia per la mancanza di peli in varie parti del corpo per gli artigli anteriori e posteriori più corti e di forma diversa e per la mia tendenza a camminare continuamente sulle gambe posteriori non volle vedere altro e mi diede licenza di indossare nuovamente i miei abiti poiché tremavo di freddo gli espressi tutto il mio disagio nel sentirmi dar così spesso da lui l'appellativo di yahoo di un odioso animale che mi ispirava tanto profondo aborrimento e disprezzo lo pregai di rinunziare a chiamarmi così e di indurre a fare altrettanto la sua famiglia e i suoi amici a cui permetteva di venire a vedermi lo pregai ugualmente di voler tenere solo per sé il segreto del falso rivestimento del mio corpo almeno finché duravano i miei attuali vestiti quanto a ciò che aveva potuto vedere il cavallino sauro suo valletto sua grazia poteva comandargli di non andarlo a rivire il mio padrone acconsentì molto benignamente a tutto ciò e così il segreto fu mantenuto finché i miei abiti non cominciarono a allogorarsi e io fui costretto a sostituirli con vari espedienti che riferirò a suo tempo frattanto mi esortò a fare ulteriori progressi nella conoscenza della loro lingua perché si meravigliava assai più delle mie capacità di parlare e di ragionare che dell'aspetto del mio corpo rivestito o no che fosse e aggiunse che aspettava con somma impazienza di udire le meraviglie che gli avevo promesso da quel giorno raddoppiò i suoi sforzi per istruirmi mi condusse in società e fece in modo che tutti mi trattassero con cortesia avvertendoli in privato che questo mi avrebbe reso di buon umore e più divertente ogni giorno quando ero al suo fianco oltre alla briga di insegnarmi la lingua si prendeva quella di rivolgermi varie domande a mio riguardo a cui rispondevo come potevo in tal modo si era già fatto di me un'idea generica per quanto molto imperfetta sarebbe noioso riferire minutamente come giunsi a passo a passo a sostenere una conversazione più regolare la prima relazione che gli feci sulla mia persona con un certo ordine e una certa ampiezza fu all'incirca questa ero venuto da una regione molto lontana come già avevo tentato di spiegargli con poco più di una cinquantina di miei simili avevamo viaggiato sul mare in un grande recipiente cavo fatto di legno più ampio della casa di sua grazia gli descrissi la nave come meglio mi riuscì e spiegando il mio fazzoletto gli diedi un'idea di come il vento la sospingesse in seguito ad una contesa assorta fra di noi mi avevano fatto sbarcare su quella costa nella quale mi ero inoltrato senza meta finché egli mi aveva liberato dalla persecuzione di quei detestabili yahoo mi domandò chi avesse fatto la nave e come fosse possibile che gli hoinom del mio paese ne avesse raffidato il governo ad un branco di bruti gli risposi che non osavo procedere oltre nella narrazione se non mi avesse dato la sua parola d'onore di non offendersi solo allora gli avrei riferito le meraviglie che gli avevo promesso egli ha consentì e io continuai dicendo che la nave era stata costruita da creature simili a me le quali in tutti i paesi in cui avevo viaggiato come nel mio stesso erano le sole dotate della facoltà di ragionare e di guidare gli altri arrivato a Colà mi ero infatti molto stupito di vedere gli hoinom agire come esseri ragionivoli così come lui e i suoi amici lo erano stati nel notare alcuni indizi di ragione in un essere che egli si degnava di chiamare uno yahoo confessavo di somigliare a tale bestia in ogni parte del mio corpo ma non potevo dare alcuna spiegazione della sua degenerata e brutale natura dissi inoltre che se la mia buona fortuna mi avesse mai fatto tornare nella mia terra natale per raccontarvi come avevo deciso di fare il mio viaggio a Colà tutti avrebbero pensato che io dicessi la cosa che non era che ogni cosa fosse un parto della mia fantasia e con ogni possibile rispetto per lui per la sua famiglia e i suoi amici e ricordando la sua promessa di non offendersi i miei compatrioti avrebbero assai difficilmente ammesso che uno hoinom potesse essere in una nazione la creatura superiore e lo yahoo il bruto capitolo quarto come gli hoinom concepiscono la verità e la menzogna il discorso dell'autore è disapprovato dal suo padrone l'autore dà ulteriori particolari su di sé e sulle vicende del suo viaggio il mio padrone mi ascoltò con evidenti segni di disagio perché il dubitare o il non credere sono così poco conosciuti in quel paese che gli abitanti non sanno come comportarsi quando devono assumere appunto tali atteggiamenti e ricordo che in frequenti discussioni che ebbi col mio padrone intorno alla natura del genere umano nelle altre parti del mondo se mi capitava di parlare di menzogna o di falsa rappresentazione egli durava una gran fatica a capire quel che intendessi sebbene avesse peraltro un ingegno assai acuto perché ragionava così l'uso della parola ci è stato dato per intenderci l'un l'altro e per essere informati dei fatti avvenuti ma se uno mi dice la cosa che non è questi scopi non sono raggiunti perché a rigore non posso dire di aver capito e tantomeno di essere stato informato visto che rimango in uno stato peggiore dell'ignoranza credendo nero quel che è bianco e corto quel che è lungo erano queste tutte le nozioni che egli aveva intorno alla facoltà di mentire così perfettamente compresa e universalmente messa in pratica dalle umane creature per tornare al nostro racconto quando abbia affermato che gli yahoo erano i soli animali dominanti nel mio paese cosa che il mio padrone come mi disse non riusciva a concepire egli volle sapere se vi erano oinon fra di noi e a che cosa erano addetti gli dissi che ne avevamo in gran numero d'estate pascolavano nei prati e d'inverno erano tenuti in certe case provvisti di fieno e di avena dove alcuni servitori yahoo avevano il compito di strigliarli di pettinar loro la criniera di pulirne gli zoccoli di provvederli di cibo e di preparare il loro letto vi capisco benissimo disse il mio padrone adesso è chiaro da tutto quel che avete detto che quale che possa essere la porzione di ragione che gli yahoo pretendono di avere gli oinon sono i vostri padroni davvero sarei lieto se i nostri yahoo fossero così docili pregai sua grazia di volermi scusare se non andavo oltre perché ero certissimo che le notizie che egli aspettava da me gli sarebbero spiaciute assai ma egli insistette ingiungendomi di fargli sapere il meglio e il peggio e io mi dichiarai pronto ad obbedire riconobbi che gli oinon da noi chiamati cavalli erano gli animali più generosi e più belli che noi abbiamo eccellenti per forza e per velocità e se appartenenti a persone d'alta condizione impiegati per viaggiare per le corse per tirar le vetture e trattati con molta amorevolezza e attenzione finché non cadevano malati e si azzoppavano in tal caso però erano venduti e usati per lavori pesanti di ogni genere fino alla loro morte allora si spogliavano se ne vendevano le pelli per quel che valevano e si abbandonavano le loro carcasse ai cani e agli uccelli di rapina i cavalli comuni però avevano peggior fortuna appartenendo a fattori a carrettieri e ad altro popolo minuto che impongono loro lavori assai più faticosi e li nutrono molto peggio descrissi alla meglio il nostro modo di cavalcare la forma e l'uso della briglia della sella dello sperone della frusta dei finimenti e delle ruote aggiunsi che attaccavamo sotto i loro piedi piastre di una sostanza dura chiamata ferro per impedir che i loro zoccoli si spezzassero sulle strade selciate su cui spesso viaggiavamo il mio padrone dopo varie espressioni di vivo sdegno si meravigliò che noi osassimo avventurarci sulla groppa di un oino già che era sicuro che il più debole domestico della sua casa sarebbe stato capace di scrollar via il più forte degli o di schiacciarlo o di schiacciarlo e ammazzarlo gettandosi a terra e rotolandosi sul dorso risposi che i nostri cavalli erano educati fin dai tre o quattro anni ai vari lavori a cui erano destinati se qualcuno si palesava incorreggibilmente vizioso veniva impiegato a tirar carri finché erano giovani venivano severamente frustati ad ogni brutto tiro che facessero i maschi destinati al tiro o alla sella erano di solito castrati circa all'età di due anni per calmar loro i bollenti spiriti e renderli più docili e mansueti infine avevano certo coscienza del premio e del castigo ma col beneplacito di sua grazia non avevano il minimo barlume di ragionevolezza al pari degli yahoo di quel paese dovetti andare avanti a fura di circonlocuzioni per dare al mio padrone l'idea esatta di quel che dicevo perché la loro lingua è assai scarsa di parole rispondendo a necessità e a passioni molto meno numerose delle nostre ma è impossibile descrivere il suo nobile risentimento all'udire in qual modo barbaro noi trattassimo la razza degli hoinom in particolare quando gli abbi spiegato la nostra usanza di castrare i cavalli allo scopo di impedir loro di propagare la specie e renderli più proni al servaggio mi disse che ammessa l'esistenza di un paese in cui i soli yahoo fossero dotati di ragione essi dovevano necessariamente costituire la razza dominante perché la ragione riesce sempre col tempo a prevalere sulla forza bruta ma considerando la struttura del nostro corpo e in particolare del mio pensava che nessuna creatura di egual grossezza fosse stata peggio immaginata per impiegar la ragione nei comuni affari della vita e appunto per questo mi chiese se coloro coi quali vivevo rassomigliavano a me o ai loro yahoo lo assicurai che io ero fatto come la maggior parte degli uomini della mia età ma che i più giovani e le donne erano assai più morbidi e teneri e che la pelle di queste ultime era in genere bianca come latte mi disse che in vero differivo dagli altri yahoo perché ero molto più pulito e assai meno mal fatto ma dal punto di vista di un vantaggio reale questa differenza era tutta a mio danno le unghie infatti non mi servivano a nulla sia alle zampe anteriori sia a quelle posteriori in quanto poi alle zampe anteriori a rigore non si potevano chiamare così perché non si era mai accorto che me ne servissi per camminare erano troppo delicate per sopportare l'attrito col suolo e d'altra parte io le portavo quasi sempre scoperte o le riparavo a volte con coperture di foggia diversa e non così solide come quelle delle zampe posteriori così che camminavo con pochissima stabilità perché se una delle mie zampe posteriori scivolava sarei inevitabilmente caduto a terra prese poi a trovare altre mende nelle altre parti del mio corpo la mia faccia schiacciata il naso prominente gli occhi piantati in fronte così che non potevo veder di lato senza volger la testa l'incapacità di nutrirmi senza portare alla bocca una delle mie zampe anteriori che la natura aveva appunto per questo fornito di articolazioni non capiva quale potesse essere l'uso di tante spaccature e divisioni nelle mie zampe anteriori visto che erano troppo delicate per sopportare la durezza e la scabrosità delle pietre senza un riparo fatto con la pelle di un altro animale inoltre l'intero mio corpo aveva bisogno di una difesa contro il caldo e il freddo che io ero costretto a mettermi e togliermi ogni giorno con gran noia e per di tempo egli aveva osservato infine che ogni animale in quel paese rifugiva istintivamente dagli yahoo evitati dai più deboli e respinti dai più forti supponendo dunque che noi avessimo il dono della ragione non riusciva a vedere in quale modo ci fosse possibile superare la naturale antipatia che ogni creatura ci dimostrava né di conseguenza come potessimo domare gli altri animali e farne dei servi comunque mi disse non avrebbe discusso oltre su quell'argomento perché era soprattutto curioso di conoscere la mia storia in quale paese fossi nato e i vari atti e vicende della mia vita prima di capitarla giù lo assicurai lo assicurai che desideravo ardentemente di soddisfarlo su ogni punto solo che dubitavo molto di riuscire a spiegarmi su alcuni soggetti di cui sua grazia non poteva avere alcuna idea poiché non vedevo nulla in quel paese che loro somigliasse avrei fatto comunque del mio meglio e mi sarei ingegnato di spiegarmi per similitudini pregandolo umilmente di aiutarmi semmai venivano a mancarmi le parole egli si compiacque di promettermelo dissi di essere nato da onesti genitori in un'isola chiamata Inghilterra lontana dal suo paese tanti giorni di viaggio quanti il più forte dei servitori di sua grazia avrebbe potuto percorrere nell'annuale giro del sole avevo imparato l'arte chirurgica il cui fine è di curare le ferite e le lesioni riportate per disgrazia o per violenza il mio paese era governato da un uomo femmina da noi chiamato regina io l'avevo lasciato per guadagnare ricchezze con le quali mantenere al mio ritorno me stesso e la mia famiglia in questo mio ultimo viaggio ero comandante della nave e avevo sotto di me circa una cinquantina di yahoo molti dei quali essendo morti in mare ero stato costretto a sostituirli con altri reclutati da varie nazioni due volte la nostra nave aveva corso il pericolo di affondare la prima a causa di una forte tempesta la seconda per aver urtato contro uno scoglio qui il mio padrone mi interruppe per domandarmi come avevo potuto indurre stranieri di diverse nazioni ad avventurarsi con me dopo le perdite che avevo subito e i rischi che avevo corso risposi che si trattava di poveri diavoli disperati costretti a fuggire la terra natia a motivo della povertà o dei delitti commessi alcuni erano stati rovinati dai processi perduti altri avevano speso tutto il loro tra il bere il gioco e le donnacce altri ancora scappavano per aver tradito molti perché assassini ladri avvelenatori grassatori spergiuri adulteratori falsi monetari stupratori o sodomiti per aver abbandonato le bandiere o essere passati al nemico per la maggior parte erano scappati di prigione nessuno di loro osava tornare in patria per paura di essere impiccato o morire di fame in prigione ed erano costretti dunque a cercarsi un sostentamento in altri siti durante questo discorso il mio padrone si compiacque di interrompermi più volte mi ero servito di varie circonlocuzioni per descrivergli la natura dei vari delitti per cui la maggior parte della mia ciurma era stata costretta a scappar dal suo paese e mi ci vollero più giorni di conversazione prima che riuscisse a comprendermi non riusciva assolutamente a capire a qual profitto quale necessità potessero spingerci a praticare tali vizi per chiarirgli le idee cercai di dargli qualche nozione dell'avidità di potere e di ricchezza e dei terribili effetti della lussuria dell'intemperanza della malizia e dell'invidia dovetti descrivere e definire tutto ciò ricorrere ad esempi e far supposizioni dopodiché come perplesso da qualche cosa non mai vista né udita prima alzava gli occhi pieno di stupore e di sdegno potere governo guerra legge punizione e mille altre cose non avevano parole corrispondenti in quella lingua e ciò rendeva per me quasi insuperabile la difficoltà di dare al mio padrone qualche idea di ciò che intendevo ma dotato com'era di un'intelligenza superiore molto esercitata alla meditazione e alla conversazione egli giunse infine ad acquistare una precisa conoscenza di ciò che è capace di fare la natura umana nelle parti del mondo da noi abitate e mi pregò di dargli particolari notizie della terra da noi chiamata Europa ma specialmente del mio paese capitolo quinto l'autore dietro richiesta del padrone lo informa delle condizioni dell'Inghilterra le cause di guerra tra i sovrani d'Europa l'autore comincia a spiegare la costituzione inglese il lettore si compiaccia di notare che il seguente estratto di molte conversazioni da me avute col mio padrone contiene una trattazione sommaria dei principali argomenti messi a più riprese in discussione nel corso di più di due anni sua grazia infatti desiderava notizie sempre più esaurienti a mano a mano che progredivo nella lingua degli hoinum gli esposi meglio che seppi lo stato di tutta l'Europa gli parlai di commerci e di industrie di arti e di scienze e le risposte che davo di volta in volta a tutte le sue domande sui vari soggetti erano fonte inesauribile di nuove conversazioni ma qui metterò sulla carta solo il succo di quanto fu detto fra noi intorno al mio paese e cercherò di ordinarlo nel miglior modo senza alcun riguardo al tempo né ad altre circostanze aderendo tuttavia strettamente alla verità l'unico mio dubbio è che difficilmente potrò render giustizia alle argomentazioni e alle espressioni del mio padrone le quali certo risentiranno della mia scarsa capacità non meno che dell'essere state tradotte nel nostro barbaro inglese per obbedire dunque agli ordini di sua grazia io gli narrai la rivoluzione sotto il principe di Orange e la lunga guerra che il detto principe aveva dichiarato alla Francia continuata poi dal suo successore l'attuale regina coinvolgendovi le maggiori potenze della cristianità e allora ancora viva calcolai a sua richiesta che durante l'intero corso di quella campagna circa un milione di yahoo era stato ucciso prese forse un centinaio di città o più incendiato mandato a picco un numero di navi cinque volte tanto mi domandò quali siano di solito le cause e i motivi che inducono uno stato a muover guerra ad un altro risposi che erano infiniti ma che mi sarei limitato ad elencargli solo alcuni pochi dei principali a volte l'ambizione di un principe che non crede di aver mai terre e popoli a sufficienza da governare a volte la corruzione dei ministri che trascinano i loro padroni in una guerra per soffocare o sviare le proteste dei sudditi contro la loro cattiva amministrazione milioni di vite sono state sacrificate dalle divergenze di opinioni ad esempio se la carne sia il pane o il pane sia carne se il frutto di una certa bacca sia sangue o vino se il fischiare sia un vizio o una virtù se sia meglio baciare un palo o gettarlo nel fuoco se il miglior colore per un abito sia il nero il bianco il rosso il grigio se debba essere lungo o corto stretto o largo suddicio o pulito e così via né vi son guerre tanto accese e sanguinose né di così lunga durata come quelle sorte per divergenze di opinioni specialmente quando si tratta di cose indifferenti a volte la contesa tra due principi nasce dal dover decidere chi di loro debba spossessare un terzo dei suoi domini ai quali nessun dei due può accampare alcun diritto spesso un principe muove contro un altro per paura che l'altro muova contro di lui altra volta si inizia una guerra perché il nemico è troppo forte e a volte perché è troppo debole talora i nostri vicini hanno bisogno delle cose che abbiamo noi o hanno le cose di cui noi abbiamo bisogno e combattiamo finché essi ci prendono il nostro o ci danno il loro motivo poi pienamente giustificato per invadere un paese è il fatto che quel popolo sia stato stremato dalla carestia decimato da una pestilenza o dilaniato da lotte di partito è ugualmente giustificato muover guerra al nostro più stretto alleato quando una delle sue città si è situata in una posizione molto vantaggiosa per noi o una parte del suo territorio si presti ad arrotondare ed integrare i nostri confini se un principe invade con le sue armate un paese il cui popolo sia povero e ignorante può con ogni legalità mandarne a morte metà e ridurne il resto in schiavitù per civilizzarlo e distoglierlo dal suo barbaro tenor di vita un'usanza altamente onorevole e regale è assai spesso messa in pratica quando un principe invoca l'aiuto di un altro perché lo difenda contro l'invasione di un terzo è quella che il soccorritore appena scacciato l'invasore si impadronisca egli stesso del dominio e uccida in prigioni o mandi in bando il sovrano di cui era corso in aiuto le alleanze di sangue o di matrimonio sono spesso causa di guerre tra sovrani e quanto più stretto è il vincolo di parentela tanto maggiore la loro disposizione al litigio le nazioni povere hanno fame quelle ricche sono orgogliose e la fame e l'orgoglio sono sempre in contesa per queste ragioni il mestiere di soldato è il più onorevole fra tutti perché il soldato è uno yahu prezzolato per uccidere a sangue freddo quanti più può dei propri simili senza aver ricevuto da loro alcuna offesa c'è pure in Europa una sorta di principi in ciabatte incapaci di guerreggiare essi stessi i quali danno le proprie armate alle nazioni più ricche ad un tanto al giorno per ogni uomo di tal mercede i tre quarti se li tengono per sé come principale fonte dei loro mezzi di sussistenza così ad esempio i principi di Germania e di altri stati dell'Europa settentrionale quel che mi avete detto osservò il mio padrone intorno ai motivi della guerra offre la più mirabile prova degli effetti di quella ragione che pretendete di avere comunque è un felice caso che sia maggiore la vergogna dell'effettivo pericolo e che la natura vi abbia fatto totalmente incapaci di danneggiarvi seriamente l'un l'altro considerando infatti che avete la bocca sul piano stesso della faccia è impossibile che riusciate a mordervi a meno che non vi mettiate prima d'accordo quanto agli artigli delle vostre zampe anteriori e posteriori sono così corti e molli che uno solo dei nostri yahoo metterebbe in fuga una dozzina dei vostri cosicché nel calcolare il numero di coloro che sono stati uccisi in battaglia devo credere che abbiate detto la cosa che non è non potei fare a meno di squatter la testa sorridendo leggermente del suo candore e poiché non ero digiuno dell'arte della guerra presi a descrivergli cannoni colobrine moschetti carabine pistole palle polvere sciabole baionette battaglie assedi ritirate attacchi mine contro mine bombardamenti e battaglie navali navi affondate con migliaia di uomini ventine di migliaia trucidate da ciascun lato gemiti dimorenti membra assaltate in aria fumo frastuono confusione combattenti maciullati dagli zoccoli dei cavalli fughe inseguimenti vittorie campi cosparsi di cadaveri lasciati alla voracità dei cani dei lupi e degli uccelli di rapina saccheggi spoliazioni stupri incendi distruzioni e per mettere in bella mostra il valore dei miei cari compatrioti lo assicurai di averli visti in un assedio farne saltare in aria un centinaio per volta e altrettanti in una battaglia navale e avevo ammirato i cadaveri venire giù a pezzi dalle nuvi con gran divertimento degli spettatori stavo per dare ai più ampi particolari quando il mio padrone mi impose silenzio mi disse che chiunque conoscesse la natura degli yahu era in grado di capire facilmente come un animale così vile potesse benissimo essere capace di tutte le azioni che avevo menzionato se la forza e l'accortezza eguagliavano la sua malizia ma poiché il mio discorso aveva aumentato il suo aborrimento per l'intera specie egli si accorgeva di provare un disagio interiore del tutto nuovo per lui forse le sue orecchie abituandosi a tali abominevoli parole avrebbero potuto a poco a poco accoglierle con minore ripugnanza sebbene egli odiasse gli yahu di quel paese non li biasimava tuttavia per le loro detestabili qualità più di un unnai un uccello di rapina per la sua crudeltà o di una pietra gozza per avergli leso lo zoccolo ma quando una creatura che si vantava ragionevole poteva essere capace di tali enormità egli cominciava a temere che la corruzione di tale facoltà potesse essere peggiore della bestialità stessa egli sembrava dunque disposto a credere che non una ragione noi possedessimo ma solo una qualche capacità di aumentare i nostri vizi naturali così come il riflesso di un ruscello turbato restituisce l'immagine di un corpo deforme non solo più grande ma anche più mostruosa aggiunse che di guerra aveva sentito parlare anche troppo sia in questo sia in precedenti discorsi e che vero un altro punto che attualmente lo lasciava un po' perplesso io gli avevo detto che alcuni della mia ciurma avevano lasciato il loro paese perché rovinati dalla legge già gli avevo spiegato il significato di questa parola ma non riusciva a capire come potesse avvenire che la legge sorta per la difesa di ogni singolo potesse essere la rovina di alcuno mi pregò dunque di esporgli più chiaramente che cosa intendessi per legge e quali fossero coloro che la dispensavano secondo le attuali norme nel mio paese quanto a lui era del parere che la natura e la ragione fossero guide sufficienti a mostrare il lecito e l'illecito per animali ragionevoli quali pretendevamo di essere io assicurai sua grazia che la legge era una scienza a me assai poco familiare essendomi limitato e in vano a rivolgermi ad avvocati in seguito a certe ingiustizie che mi erano state fatte comunque avrei cercato di soddisfarlo meglio che potessi dissi dunque che vera fra noi una classe di uomini educati fin dalla giovinezza a dimostrare con parole moltiplicate a bella posta che il bianco è nero e il nero bianco a seconda di come erano pagati tutti gli altri uomini sono schiavi di questa classe se ad esempio salta in testa il mio vicino di prendersi la mia vacca egli assolda un legale per dimostrare che la mia vacca gli è dovuta a giusto diritto allora io devo assoldarne un altro che mi difenda già che è contrario ad ogni norma legale che qualcuno possa perorare per se stesso orbene nel mio caso io che sono il legittimo proprietario ho contro di me due grandi svantaggi anzitutto il mio legale abituato fin quasi dalla culla a difendere il falso si trova del tutto fuori del suo elemento quando deve sostenere una causa giusta e affronta sempre questo compito innaturale con grango fagine se non addirittura con cattiva volontà il secondo svantaggio è questo che il mio legale deve procedere con gran cautela se non vuole che i giudici gli diano una solenne ammunizione e i suoi confratelli lo respingano scandalizzati come uomo che cerca di sminuire l'efficienza della legge di conseguenza mi restano due sole vie per conservare la mia vacca la prima è di guadagnarmi con un doppio onorario illegale del mio avversario il quale tradirà allora il suo cliente insinuando che il diritto sia dalla sua parte la seconda è che il mio legale faccia apparire la mia causa il più possibile ingiusta ammettendo che in realtà la vacca appartiene alla parte avversa cosa che fatta abilmente si assicurerà senza dubbio il favore del tribunale vostra grazia deve ora sapere che i giudici sono persone designate a dirimere ogni controversia relativa alla proprietà e a distruire i processi penali scelti fra i più abili uomini di legge divenuti vecchi o indolenti e abituati per tutta la vita andare contro la verità e la giustizia si trovano in si fatale necessità di favorire la frode lo spergiuro e l'oppressione che ne ho conosciuti parecchi capaci di rifiutare una grossa somma dalla parte che era nel giusto diritto pur di non fare ingiuria alla classe commettendo cosa contraria alla natura e ai compiti che sono propri è assioma di questi uomini di legge che quel che è stato fatto una volta possa legalmente essere fatto in seguito di conseguenza essi prendono speciale cura per registrare tutte le sentenze date in precedenza contro la giustizia e il senso comune dell'uman genere tali sentenze col nome di precedenti vengono esibite come altrettante autorità per giustificare le pretese più inique e i giudici non mancano mai di decidere in conformità nel perorare gli avvocati evitano accuratamente di entrare nel merito della causa ma indugiano tonanti violenti e noiosi su tutte le circostanze che non vi hanno nulla a che fare nel caso suddetto ad esempio non cercheranno affatto di sapere qual pretesa o diritto il mio avversario possa accampare sulla mia vacca ma se la detta vacca era rossa o nera se le sue corne erano lunghe o corte se il prato in cui la conducevo a pascolare era rototondo o quadro se veniva munta a casa o fuori di casa a quali malanni fosse soggetta e via di questo passo dopodiché consultano i precedenti rinviano di quando in quando la causa e dopo dieci venti o magari trent'anni arrivano ad una conclusione bisogna anche osservare che questa classe ha un suo particolare modo di parlare un gergo suo proprio che nessun altro può capire e nel quale sono scritte tutte le loro leggi da loro moltiplicate con speciale cura cosicché hanno confuso da capo a fondo la vera essenza del vero e del falso del diritto e del torto e ci vogliono trent'anni per decidere se il campo lasciatomi dai miei antenati per sei generazioni appartiene a me o ad un estraneo che abita a trecento miglia più in là nei processi di persone accusate di delitti contro lo stato la procedura è assai più rapida e commendevole il giudice manda anzitutto a sondare gli umori di chi è al potere dopodiché può facilmente impiccare o assolvere l'accusato sempre attenendosi strettamente alle dovute forme legali qui il mio padrone interrompendomi dichiarò che era un vero peccato che esseri dotati di tali meravigliose doti mentali quali dovevano essere per forza questi uomini di legge a quanto gli avevo riferito non fossero piuttosto indotti ad essere maestri agli altri di saggezza e di scienza in risposta assicurai sua grazia che in tutto ciò che non riguardasse il loro mestiere essi erano generalmente la più ignorante stupida genia fra tutti noi la più spregievole nella normale conversazione nemica giurata di ogni sapere e di ogni cultura ed ugualmente risposta a pervertire il senso comune dell'uman genere su ogni altro soggetto di discussione come lo era nelle questioni di diritto capitolo sesto continua la descrizione dello stato inglese caratteristiche di un primo ministro di stato in una corte europea il mio padrone non riusciva assolutamente a capire quali motivi potessero indurre la genia dei legolei ad arrovellarsi inquietarsi affaticarsi e stringersi in una confederazione di ingiustizia solo per il gusto di nuocere al prossimo né poteva comprendere che cosa intendessi dicendo che lo facevano in vista di una mercede dovetti così faticare molto a descrivergli l'uso della moneta i materiali di cui era fatta e il valore dei vari metalli come uno yahoo quando era riuscito ad accumulare un bel po' di queste preziose sostanze potesse procurarsi tutto ciò di cui gli saltasse il ticchio gli abiti più fini le case più sontuose vasti terreni vivande e bevande di gran costo e sceglier liberamente le donne più belle ragion per cui visto che solo il denaro poteva arrivare a tanto i nostri yahoo pensavano di non averne mai abbastanza da spendere o da mettere da parte a seconda che fossero naturalmente inclini alla prodigalità o all'avarizia gli dissi che i ricchi si godono i frutti del lavoro del povero e che la proporzione dei poveri con i ricchi è di mille a uno che la massa del nostro popolo era costretta a vivere miserabilmente lavorando tutto il giorno per un meschino salario al solo scopo di far vivere nell'abbondanza alcuni pochi indugiai a lungo su questi e altri particolari ma sua grazia continuava a far domande perché si immaginava che tutti gli animali avessero diritto alla loro parte dei prodotti del suolo specialmente quelli che presiedevano agli altri mi prego dunque di dirgli quali fossero i costosi cibi di cui avevo parlato e come potesse avvenire che alcuni di noi ne fossero privi gli enumerai allora tutte le vivande che mi venivano in mente e i vari modi di cucinarle aggiungendo che per questo eravamo costretti a spedire bascelli in tutte le parti del globo in cerca di liquori di salse e di altre innumerevoli ghiottonerie lo assicurai che bisognava fare almeno tre volte il giro del nostro orbe terraqueo prima che una delle nostre aristocratiche donne yahoo avesse una colazione di suo gusto e il vasellame per accoglierla egli osservò allora che la nostra doveva essere una ben squallida regione se non poteva fornire cibo ai suoi abitanti ma che soprattutto si meravigliava che baste regioni come quelle che gli avevo descritto fossero assolutamente prive di fresche acque così da costringere la popolazione a mandar navi oltre il mare per cercare da bere gli risposi che l'Inghilterra la mia cara terra natia produceva a calcoli fatti una quantità di cibo tre volte superiore al bisogno dei suoi abitanti e così pure di liquori estratti dai semi e spremuti dai frutti di certi alberi che forniscono eccellenti bevande e in ugual proporzione produceva tutto ciò che è necessario alle comodità della vita ma per alimentare le volutà e l'intemperanza dei maschi e la vanità delle femmine mandiamo in altre regioni la maggior parte delle cose a noi necessarie e da quelle in cambio importiamo prodotti buoni solo a fomentar malattie pazia e vizio di cui facciamo commercio tra noi di qui segue necessariamente che una gran parte del nostro popolo è costretta a campare la vita mendicando rapinando rubando truffando ruffianeggiando spergiurando adulando subornando falsificando giocando mentendo lusingando sbavazzando vendendo i voti scribacchiando astrologando avvelenando puttaneggiando bacchettoneggiando diffamando rinnegando dio e altre simili occupazioni parole tutte che durai gran pena a fargli capire una per una gli dissi che il vino non era importato fra noi da lontane contrade per sopprire alla mancanza di acqua o di altre bevande ma perché è una sorta di bevanda che ci rende allegri mandandoci fuor di senno disvia ogni pensiero malinconico fa sorgere nel cervello stravaganti fantasie risveglia le speranze e bandisce i timori sospende momentaneamente l'uso della ragione ci toglie il vigor delle membra finché ci abbatte in un profondo sonno bisogna tuttavia riconoscere che ci risvegliamo sempre sconvolti e depressi e che l'uso di questa bevanda ci colma di infermità che turbano e abbreviano la nostra esistenza gli dissi inoltre che la massa del nostro popolo si sosteneva scambiandosi a vicenda o fornendoli ai ricchi le cose richieste dalle esigenze o dalle comodità della vita ad esempio quando sono a casa mia vestito come si deve porto sulla mia persona il lavoro di un centinaio di artigiani altrettanti ne ha richiesti la costruzione e l'arredamento della mia casa e cinque volte tanti sono stati necessari per mettere in ghingeri mia moglie avendo avuto più volte occasione di informare sua grazia che molti della mia ciurma erano morti di malattia mi accingeva a parlargli di un'altra classe di persone che si guadagnavano da vivere curando i malati ma qui trovai la massima difficoltà per fargli capire di che cosa intendessi parlare e gli riusciva a concepire facilmente che un hoinum divenisse debole e fiacco pochi giorni prima di morire o che si ferisse per accidente in qualche parte del corpo ma che la natura la quale fa tutto a perfezione lasciasse sorgere malattie nel nostro corpo lo considerava cosa impossibile e volle conoscere le cause di una così straordinaria iattura gli dissi che noi ci nutriamo di mille cose i cui effetti si contrastano l'un l'altro mangiamo quando non abbiamo fame beviamo senza sentirne il bisogno ingurgitiamo per notti intere forti bevande senza mangiare un boccone e questo ci dispone alla pigrizia infiamma il nostro organismo fa precipitare un ritardo alla digestione aggiunsi che le femmine yahoo che si danno alla prostituzione contraggono una certa malattia la quale corrompe le ossa di coloro che cadono nei loro amplessi che questa e molte altre infermità si trasmettono di padre in figlio così che molti sono quelli che aprono gli occhi alla luce già tarati da complessi morbi infinito sarebbe stato l'elenco di tutti i mali che si abbattono sul corpo umano non meno di 5 o 600 sparsi per ogni membro e giuntura poiché a dirla in breve ogni parte della nostra persona interna o esterna ha mali suoi propri per rimediare a questo verrà tra noi una classe di persone educate nella professione o nella pretesa di curare gli infermi e poiché io avevo una certa perizia in quest'arte avrei fatto conoscere a sua grazia come segno di gratitudine tutti i misteri e i metodi che le sono propri principio fondamentale è che tutte le malattie procedono da ripienezza dal che si conclude che è necessaria un'abbondante evacuazione sia per le vie naturali sia per la bocca e prima cura dei medici è di mettere insieme con erbe minerali gomme oli conchiglie sali succhi alghe escrementi scorze d'albero serpenti rospirane ragni carni e ossa di morto uccelli animali e pesci un composto di odore sapore abominevole nauseante detestabile quanto più possibile che lo stomaco è costretto a rigettare rovesciandosi di schifo i medici chiamano ciò un emetico altrimenti attingendo agli stessi materiali con l'aggiunta di qualche altra sostanza velenosa essi fanno prendere al paziente dall'orifizio superiore o da quello inferiore a seconda dell'umore in cui si trovano una medicina ugualmente pertorbante e disgustosa per gli intestini la quale rilassando le viscere spinge in giù tutto quel che si trova davanti e questo i medici chiamano purga o clistere la natura infatti essi affermano ha destinato l'orifizio superiore anteriore solo all'introduzione di solidi e di liquidi e quell'inferiore posteriore alla loro eiezione cosicché quei geniali artisti considerando che in tutte le materie la natura è violentemente gettata fuori della sua sede pensano che per rimetterla a posto il corpo debba essere trattato in modo diametralmente opposto scambiando l'uso dei due orifizi ficcando a forza nel posteriore sostanze liquide e solide provocando l'evacuazione dalla bocca ma oltre alle malattie reali noi siamo soggetti a molte altre puramente immaginarie per le quali i medici hanno escogitato immaginarie cure codeste malattie hanno vari nomi e altrettanti ne hanno le droghe atte a curarle le femmine Yahoo ne sono particolarmente afflitte eccelle soprattutto questa classe medica nell'abilità dei suoi pronostici nei quali raramente si inganna nelle malattie gravi che raggiungono un grado particolare di malignità essi predicono generalmente la morte la quale contrariamente alla guarigione è sempre in loro potere cosicché al minimo indizio di inatteso miglioramento dopo che essi hanno pronunciato la loro sentenza piuttosto che essere accusati come falsi profeti sanno benissimo in qual modo confermare la loro sagacia di fronte al mondo con una somministrazione opportuna particolarmente utili essi sono poi ai mariti e alle mogli stanchi del loro consorte ai figli primogeniti ai primi ministri di stato e spesso ai principi mi si era già presentata l'occasione di discorrere col mio padrone sulla natura del governo in generale e in particolare della nostra eccellente costituzione meritatamente meraviglia e invidia del mondo intero ma avendo qui menzionato per caso un ministro di stato egli mi comandò poco dopo di spiegargli qual sorta di yahoo venga designata precisamente con tale appellativo gli dissi che un primo ministro o capo del governo la persona cioè che intendevo descrivergli era un essere totalmente privo di gioia e di dolore di amore di odio di pietà e di ferocia o perlomeno non dà sfogo ad altra passione che non sia una violenta cupidigia di ricchezza di potere e di onori egli si serve delle parole per tutto fuori che per esprimere il suo pensiero non dice mai una verità se non con l'intenzione che venga presa per una menzogna né una menzogna se non col preciso intento che sia presa per una verità coloro di cui più dice corna alle spalle possono essere sicurissimi del suo favore ma se comincia a lodarvi in faccia o con gli altri da quel momento stesso siete un uomo morto il peggior segno che si possa avere da lui è una promessa specialmente quando è rafforzata da un giuramento in tal caso chi ha una certa saggezza si ritira e abbandona ogni speranza vi sono tre modi con i quali un uomo può elevarsi a primo ministro il primo consiste nel saper fare prudente uso di una moglie di una figlia o di una sorella il secondo nel tradire e minare il proprio predecessore il terzo nel dimostrare un furioso zelo contro le corruzioni di corte nei pubblici consessi ma un principe prudente preferisce servirsi di coloro che seguono quest'ultimo metodo perché tali zelanti si dimostrano sempre i più ossequiosi e servili alla volontà e alle passioni del loro padrone questi ministri avendo a propria disposizione tutte le cariche si mantengono al potere corrompendo la maggioranza di un parlamento o di un gran consiglio e infine mediante un espediente chiamato legge dell'immunità e gli descrissi di che si trattava si sottraggono alla resa dei conti e si ritirano a vita privata carichi delle spoglie della nazione il palazzo di un primo ministro è un seminario per tirar su altri nello stesso mestiere paggi lacche portieri imitando il loro padrone diventano ministri di stato ciascuno nella propria giurisdizione e imparano ad eccellere nelle tre doti fondamentali l'insolenza la menzogna e la corruzione di conseguenza persone del più alto ceto fanno loro la corte come tanti subalterni e non è raro il caso in cui a forza di destrezza e di impudenza essi arrivino a poco a poco ad essere successori del loro padrone questi è solitamente diretto da una bagascia frusta o da un galoppino favorito canali attraverso cui passano tutti i favoriti e che in ultima analisi possono chiamarsi i veri dirigenti del regno un giorno avendo ricordato discorrendo la nobiltà del mio paese il mio padrone si compiacque di farmi un complimento che non potevo pretender di meritare disse che certo dovevo essere rampollo di qualche nobile famiglia perché ero di gran lunga superiore nelle forme nel colore e nella pulizia a tutti gli yahoo di quella regione sebbene sembrassi da meno quanta forza e agilità cosa che poteva essere imputata al mio tenor di vita assai diverso da quello di quei bruti inoltre ero dotato non solo della favella ma anche di qualche barlume di ragione in un grado tale che agli occhi di tutte le sue conoscenze passavo per un prodigio mi feci osservare che tra gli oinom il bianco il sauro e il grigio non avevano esattamente le stesse forme del baio delle ardo e del moro né erano nati con le stesse facoltà mentali e con la stessa disposizione a svilupparle di modo che restavano perennemente nella condizione di servi né mai aspiravano a contrarmatrimonio fuori della loro razza cosa che in quel paese sarebbe stata considerata mostruosa e innaturale espressi a sua grazia i miei più umili ringraziamenti per la buona opinione che si era degnato di avere di me ma l'assicurai in ugual tempo che la mia nascita era delle più oscure essendo figlio di brava gente che era giusto riuscita a darmi una discreta educazione aggiunsi che fra noi la nobiltà era cosa assai diversa dall'idea che egli se n'era fatto che i nostri giovani nobili sono educati fin dall'infanzia nell'ozio e nel lusso e appena l'età lo consente loro si smidollano o contraggono vergognose malattie tra le male femmine quando poi hanno quasi rovinato il patrimonio sposano solo per amor di denaro qualche donna di condizione inferiore brutta e poco sana che essi sono i primi ad odiare e a disprezzare la progenie di tali matrimoni è di solito scrofolosa arachitica e deforme così che raramente una famiglia dura più di tre generazioni a meno che la moglie non si prenda la briga di procurarsi un maschio sano tra i suoi vicini o i suoi domestici per migliorare e continuare la razza un corpo debole infermo un aspetto sparuto un colorito giallastro sono le vere caratteristiche di un nobil sangue e un'apparenza sana e robusta è così sgraziata in un uomo di alta condizione da far senz'altro concludere alla società che il suo vero padre deve essere stato un lacchè o un cocchiere le imperfezioni le imperfezioni del suo intelletto vanno di pari passo con quelle del suo corpo risultando da un insieme di ipocondria torpore ignoranza estrosità sensualità e orgoglio senza il consenso di questa illustre classe nessuna legge può essere attuata respinta o modificata e a costoro spetta la decisione inappellabile su tutto ciò che possediamo capitolo settimo profondo amore dell'autore per la sua terra natia osservazioni del suo padrone sulla costituzione e amministrazione dell'Inghilterra accuratamente descritte dall'autore con casi analoghi e paragoni osservazioni del suo padrone sull'umana natura il lettore si domanderà forse con qualche meraviglia come io abbia potuto tanto prevalere su me stesso da rappresentare così liberamente la mia propria specie ad una razza di mortali già fin troppo inclini a formarsi la più bile opinione dell'uman genere grazie alla completa corrispondenza fra me e gli Iao ma devo confessare con sincerità che le numerose virtù di quegli eccellenti quadrupedi contrapposti all'umana corruzione mi avevano aperto gli occhi e allargato la mente in tal modo che cominciai a considerare le azioni e le passioni degli uomini sotto una ben diversa luce e a pensare che non era il caso di tentare di salvare l'onore della mia razza cosa del resto che mi sarebbe stato impossibile fare di fronte ad una persona di giudizio così acuto qual era il mio padrone che ogni giorno mi faceva scorgere in me stesso mille difetti di cui non aveva avuto prima il minimo sospetto e che fra noi non sarebbero stati nemmeno messi nel novero delle umane debolezze inoltre il suo esempio mi aveva fatto concepire una profonda avversione contro ogni falsità e dissimulazione e così amabilcosa mi appariva la verità che avevo deciso di tutto sacrificarle e sarò ancor più schietto col lettore confessandogli che un altro e più forte motivo mi spingeva a quella cruda rappresentazione non avevo ancora dimorato un anno in quel paese e già sentivo in me tanto amore e venerazione per i suoi abitatori da risolvere fermamente di non tornare più tra i miei simili e di trascorrere il resto della mia vita tra quegli ammirevoli hoinum nella contemplazione e nella pratica delle più elette virtù lungi dall'esempio e dall'incitamento al vizio ma il fato mio eterno nemico aveva deciso che tanta felicità non mi dovesse toccare mi è tuttavia adesso di conforto il pensare che in ciò che dissi sui miei compatrioti attenuai le loro colpe per quanto mi fosse possibile di fronte ad un esaminatore così rigoroso e su ogni punto feci di tutto per dare alla cosa una piega quanto più favorevole perché in vero qual vivente non è dominato da una parziale tendenza verso il suo paese natio ho riferito l'essenziale di varie conversazioni tenute col mio padrone durante la maggior parte del tempo in cui ebbi l'onore di essere al suo servizio ma certo per amor di brevità ho tralasciato assai più di quanto si trova qui scritto quando ebbi risposto a tutte le sue domande e la sua curiosità parve pienamente soddisfatta un mattino per tempo egli mi mandò a chiamare e comandatomi di sedermi a qualche distanza da lui un'ore che non mi aveva mai concesso prima disse che aveva meditato molto seriamente su tutto ciò che gli avevo narrato di me e del mio paese e che ci considerava una sorta di animali a cui era toccato per un caso cui non riusciva a rendersi conto qualche briciolo di ragione ma che non sapeva valersene se non per aggravare le proprie corruzioni naturali e acquistarne altre che la natura non ci aveva dato aggiunse che noi medesimi ci privavamo delle poche doti che ci erano state concesse che eravamo meravigliosamente riusciti a moltiplicare i nostri bisogni originali e sembravamo consumarli intera vita nei vani tentativi di soddisfarli con le nostre intenzioni quanto a me era chiaro che non avevo nella forza nell'agilità di un normale Yahoo camminavo insicuro sulle zampe posteriori avevo trovato il modo di rendere inutili e inoffensivi i miei artigli e di spogliar la pelle del suo pelo che doveva ripararla dal sole e dalle intemperie infine non potevo né correre rapidamente né arrampicarmi sugli alberi al pari dei miei confratelli come li chiamava gli Yahoo del paese le nostre istituzioni politiche e legislative erano in diretta conseguenza dei nostri rozzi difetti di ragione e quindi di virtù perché la sola ragione è sufficiente a dirigere un essere razionale non avevamo dunque il diritto di vantarci di possederla come risultava dalle stesse notizie che gli avevo dato sul mio popolo sebbene vedesse chiaramente che per favorirlo avevo celato parecchi particolari e avevo spesso detto la cosa che non era sempre più si confermava in quell'opinione osservando che somigliava agli altri Yahoo in ogni linea della persona tolti a tutto mio svantaggio la forza la velocità la rapidità l'insufficienza degli artigli e qualche altro particolare in cui la natura non aveva a che fare e così pure a quanto gli avevo raccontato del nostro modo di vivere dei nostri costumi delle nostre azioni trovava una stretta rassomiglianza tra le nostre mentalità mi disse che notorialmente gli Yahoo si odiavano l'un l'altro più che non odiassero qualsiasi altra specie di animali e ciò secondo la spiegazione comunemente data a causa della loro ripugnanza per le loro stesse forme che possono vedere negli altri ma non mai in se stessi aveva dunque cominciato a pensare che non senza qualche saggezza avevamo ricoperto i nostri corpi celandoci l'un l'altro con tale espediente gran parte delle nostre deformità altrimenti intollerabile ma si accorgeva ora di aver avuto torto e che le discordie di quei bruti del suo paese dovevano attribuirsi alle stesse cause da cui sorgono le nostre che gli avevo descritto se infatti disse gettate fra 5 Yahoo tanto cibo quanto sarebbe bastante per 50 invece di mangiare tranquillamente si scaglieranno l'un contro l'altro ognuno avido di aver tutto per sé per questo un servo stava sempre vicino a loro quando venivano nutriti all'aperto e quelli tenuti in casa erano legati a qualche distanza gli uni dagli altri se inoltre una vacca moriva per vecchiaia o per accidente prima che un oino potesse impossessarsene per i suoi Yahoo quelli delle vicinanze venivano a torme per ghermirla e ne seguivano battaglie simili a quelle che avevo descritto con terribili ferite di artiglio da ambo le parti sebbene di rado riuscissero ad uccidersi reciprocamente per mancanza di quegli opportuni strumenti di morte che noi avevamo inventato altre volte simili zuffe si erano accese tra Yahoo di varie zone vicine senza causa apparente quelli di un quartiere spiano tutte le occasioni per sorprendere i vicini impreparati ma se il loro progetto fallisce tornano a casa e in mancanza di nemici ingaggiano fra loro quello che io chiamavo una guerra civile mi raccontò che in alcuni campi del suo paese vi sono certe pietre lucenti e variamente colorate di cui gli Yahoo sono furiosamente avidi e quando coteste pietre sono in parte conficcate in terra come spesso capita essi sono capaci di scavar con gli artigli per giornate intere per prenderle portarsele via e nasconderle a mucchi nelle loro tane poi si guardano intorno pieni di sospetto per tema che i loro compagni scoprano e rapiscano il loro tesoro il mio padrone diceva di non aver mai capito la ragione di una tale cupidigia così naturale né l'utilità che tali pietre potevano avere per uno Yahoo ma adesso credeva che tutto ciò provenisse da quello stesso principio di avarizia che io avevo attribuito al genere umano una volta per fare un esperimento egli aveva portato via di nascosto un mucchio di queste pietre dal luogo in cui uno dei suoi Yahoo l'aveva sepolto allora la sordida bestia perduto il tesoro con le sue lamentevoli grida aveva fatto radunare sul posto l'intera mandria e dopo aver miseramente ululato si era gettata sugli altri graffiando e mordendo ed era cominciata a deperire a non voler più mangiare né dormire né lavorare finché egli aveva ordinato ad un servo di riportare le pietre nella stessa fossa e di nasconderle come prima quando il suo Yahoo le ebbe ritrovate tornò subito vispo e allegro ma provvide a portarle da lì in un miglior nascondiglio e da allora si dimostrò animale docilissimo il mio padrone mi assicurò inoltre come io stesso avevo osservato che nei campi in cui abbondavano le pietre lucenti si accendevano le più frequenti e fiere battaglie causate dalle continue incursioni degli Yahoo confinanti era cosa normale mi disse che quando due Yahoo avevano scoperto in un campo una di tali pietre e se ne contendevano il possesso un terzo coglieva l'occasione e se la portava via il mio padrone sosteneva che ciò somigliava in qualche modo alle nostre cause legali pensai bene di non disingannarlo per non screditarci del tutto già che la soluzione di cui parlava era molto più equa di tante nostre sentenze laggiù il querelante e il convenuto non perdevano altro che la pietra contesa mentre le nostre corti di giustizia non abbandonano mai una causa senza prima averli totalmente rovinati tutti e due il mio padrone continuando il suo dire mi raccontò che nulla rendeva gli Yahoo tanto odiosi quanto la loro cieca ingordigia di divorare tutto ciò che si trovassero davanti erbe radici bacche carni corrotte di animali o tutto ciò mischiato insieme ed era peculiare della loro natura il preferire ciò che avevano carpito con la rapina o col furto nei luoghi più lontani ad un cibo molto migliore preparato per loro a casa e se la loro preda era abbondante essi continuavano a mangiare fino a scoppiare dopodiché la natura stessa aveva indicato loro una determinata radice che provocava un'evacuazione generale vi era anche un'altra sorta di radice molto succosa ma alquanto rara e difficile a trovarsi che gli Yahoo cercavano avidamente e succhiavano con grande volutà essa produceva in loro gli stessi effetti che il vino produce su di noi a volte li spingeva ad abbracciarsi a volte a dilaniarsi l'un l'altro urlavano digrignavano i denti chiacchieravano barcollavano capitombolavano e infine cadevano addormentati nel fango notai che gli Yahoo erano i soli animali del paese soggetti a malattie le quali sono tuttavia assai meno numerose di quelle dei nostri cavalli e sono contratte non per cattivi trattamenti ma per la sporcizia e per l'ingordigia di quelle sordi le bestie la lingua del paese ha una sola parola generica per indicare tali malattie tolta dal nome stesso di quegli animali Knea Yahoo ossia male dello Yahoo la cura prescritta consiste in una miscela delle loro stesse feci e urina cacciata a forza in gola agli Yahoo ho avuto spesso occasione di riconoscerla assai efficace e la raccomando senz'altro ai miei compatrioti per il pubblico bene come meraviglioso specifico contro le malattie causate da ripienezza quanto alla cultura il governo le arti le industrie e via dicendo il mio padrone riconosceva di trovare poca o nessuna somiglianza tra gli Yahoo di quel paese e quelli del nostro ma egli intendeva solo notare il perfetto corrispondersi delle nostre nature per dire il vero aveva udito raccontare da qualche hoinum diligente osservatore che nella maggior parte delle mandrie c'era una specie di Yahoo capo così come fra noi nei parchi c'è in genere un cervo che guida o comanda gli altri il quale è sempre il più deforme nel corpo e il più facinoroso nel carattere fra tutti gli altri questo capo ha di solito un favorito che gli somiglia il più possibile e il cui compito consiste nel leccare i piedi e le parti posteriori del suo padrone e nel condurre le femmine Yahoo nella sua tana in cambio riceveva ogni tanto un pezzo di carne di Somaro il favorito è odiato da tutta la mandria e quindi costritto per sua sicurezza a restare sempre vicino al padrone di solito il favorito dura in carica finché non ne viene scovato uno peggiore di lui nel momento stesso in cui è licenziato tutti gli Yahoo del distritto giovani e vecchi maschi e femmine con alla testa e il suo successore arrivano in massa e lo ricoprono dei loro escrementi dal capo ai piedi in qual misura tutto ciò potesse aver riferimento con le nostre corti e i nostri favoriti e ministri di stato e il mio padrone lasciò a me la cura di stabilire non osai rispondere a questa maligna insinuazione che abbassava l'umano intelletto al di sotto della sagacia di un comune segugio il quale ha sufficiente giudizio per distinguere e seguire il latrato del miglior cane della muta senza paura di sbagliarsi il mio padrone mi disse che gli Yahoo avevano alcune particolarità notevoli che io non avevo menzionato o che avevo almeno sorvolato nel parlargli del genere umano mi disse che questi animali come gli altri bruti hanno le femmine in comune ma differiscono in questo che le femmine Yahoo ricevono il maschio anche quando sono pregne e che i maschi litigano e si azzuffano con le femmine con non minor ferocia che tra loro stessi pratiche queste di così infame brutalità quale nessun altro essere vivente ha mai raggiunto un'altra cosa che lo stupiva negli Yahoo era una singolare disposizione alla più lurida sporcizia mentre in tutti gli altri animali si rivela un naturale amore per la pulizia riguardo alle due prime accuse fui felice di lasciarle passare senza risposta perché non avevo una sola parola da pronunziare in difesa della mia specie cosa che altrimenti avrei fatto proprio di cuore avrei invece potuto facilmente riscattare l'uman genere dall'accusa di essere l'unico per quel che riguardava la terza imputazione se appena ci fosse stato un maiale in quel paese ma per mia disgrazia non ce n'erano il quale maiale sebbene animale più grazioso e benigno di uno Yahoo non può vantarsi a mio umile parere di esser lui più pulito sua grazia stessa lo avrebbe riconosciuto se avesse visto il suo disgustoso modo di nutrirsi e la sua abitudine di avvoltolarsi e dormire nel fango il mio padrone ricordò anche un'altra particolarità che i suoi servi avevano osservato in parecchi Yahoo e di cui non sapeva darsi ragione mi disse infatti che ogni tanto ad uno Yahoo gli prendeva la fantasia di ritirarsi in un angolo sdraiarsi a terra e mugolare e gemere e respinger tutto ciò che gli era vicino sebbene fosse giovane bello grasso e ben provvisto di acqua e di cibo i servi non riuscivano a capire che cosa lo cruciasse a quel modo e il solo rimedio che avevano trovato era quello di costringerlo ad un lavoro pesante dopo il quale egli tornava sempre in sé io non feci commenti sempre parziale verso la mia razza tuttavia potei facilmente ravvisare lì i veri germi dell'ipocondria che afferra lo zioso il gaudente e il ricco se tutti costoro fossero sottoposti allo stesso trattamento mi renderei garante della cura sua grazia aveva spesso osservato che non dirà da una femmina yahoo si metteva dietro un riparo o un cespuglio ad aspettar che passassero i giovani maschi allora si mostrava e poi si nascondeva e faceva un mucchio di gesti ridicoli e di smorfie era stato notato che in quello stesso momento essa emanava un odore assai ingrato se poi qualche maschio si faceva avanti essa si ritirava lentamente volgendosi spesso indietro e fingendo di aver paura correva in qualche luogo adatto dove sapeva che il maschio l'avrebbe seguita altre volte se capitava una femmina straniera tre o quattro dello stesso sesso le si facevano intorno e la fissavano e cianciavano e facevano smorfie e la fiutavano tutta e poi le voltavano le spalle con gesti che sembravano esprimere sdegno e disprezzo forse il mio padrone ha ricamato un po' sopra queste considerazioni fatte su quel che aveva direttamente osservato o gli era stato riferito da altri tuttavia non potei far a meno di riflettere con un po' di stupore e molta tristezza che gli elementi della lussuria della civetteria del pettegolezzo e dello scandalo sono istintivi della donna mi aspettavo di momento in momento che il mio padrone accusasse gli yahoo di quegli appetiti contro natura così comuni fra noi nei due sessi ma la natura a quanto sembra non è stata così esperta maestra e tali più raffinati piaceri sono interamente il frutto dell'arte della ragione nella parte del mondo che ci ha toccata capitolo ottavo l'autore riferisce varie particolarità degli yahoo grandi virtù degli oinom educazione ed esercitazioni dei loro giovani e loro assemblea generale poiché dovevo capire la natura umana assai meglio di quanto supponessi possibile al mio padrone mi fu facile applicare a me stesso e ai miei compatrioti i caratteri propri degli yahoo che egli mi esponeva e pensai che avrei potuto fare altre scoperte con osservazioni personali perciò gli chiesi più volte il permesso di andare tra i branchi di yahoo nelle vicinanze ed egli molto graziosamente consentì perfettamente persuaso che l'odio che provavo per quei bruti non mi avrebbe lasciato corromper da loro sua grazia ordinò che uno dei suoi servi un robusto cavallino sauro onestissimo e di ottimo carattere mi facesse la guardia senza la qual protezione non avrei osato espormi a tali avventure ho già raccontato infatti al lettore in qual modo fui maltrattato da quegli odiosi animali al mio arrivo in seguito poco mancò che non cadessi nei loro artigli tre o quattro volte trovandomi a gironzolare in zone un po' remote e senza la mia daga ho ragione di credere che avessero qualche sospetto che fossi della loro razza e io stesso li aiutai a persuadersene rimboccandomi le maniche e mostrando loro le braccia e il petto nudi quando il mio protettore mi era a fianco allora essi si arrischiavano ad avvicinarsi quanto più potevano ed imitavano come scimmie i miei gesti ma sempre con segni evidenti di odio non altrimenti una cornacchia domestica con cappuccio e calze è perseguitata da quelle selvatiche semmai capita in mezzo a loro fin dall'infanzia sono prodigiosamente agili una volta tuttavia riusci ad acchiappare un maschiotto di tre anni e cercai con ogni sorta di moine di farlo star buono ma quel piccolo indemoniato cominciò ad urlare a graffiare a mordere con tal furia che dovetti lasciarlo andare ed era tempo perché un intero branco di adulti veniva verso di noi richiamato dallo strepito ma vedendo il cucciolo in salvo perché era scappato via e il cavallino sauro al mio fianco non si arrischiarono ad avvicinarsi mi accorsi che le carni di quella bestiola avevano un odore assai acre qualche cosa tra quello della donnola e quello della volpe ma molto più sgradevole dimenticavo un altro particolare e forse il lettore me ne darebbe per scusato se lo tralasciassi mentre lo tenevo fra le mani quell'odioso vermiciattolo mi rovesciò sul vestito i suoi schifosi escrementi un liquido giallastro ma per fortuna scorreva lì vicino un ruscelletto dove mi lavai meglio che potei non osai però presentarmi al mio padrone finché non mi fui bene asciugato all'aria da quanto potei capire gli yahoo sembrani meno addomesticabili fra tutti gli animali le loro capacità non vanno mai oltre il tirare o il trasportare carichi penso tuttavia che questo difetto dipenda soprattutto da un'indole perversa e restia perché sono astuti maligni traditori e vendicativi forti e robusti sono naturalmente codardi e di conseguenza insolenti vili e crudeli è da notare che maschi e femmine di pelo rosso sono più libidinosi e perversi degli altri cui tuttavia sono di molto superiori per vigore e attività gli hoinum custodiscono gli yahoo di cui si servono in capanne non lungi dalle loro case gli altri sono lasciati all'aperto in certi campi dove scavano radici mangiano erbe di varie specie vanno in cerca di carogne e ogni tanto acchiappano donnole e l'uimu una specie di topo selvatico che divorano ingordamente la natura ha insegnato loro a scavare con gli artigli buche profonde nel fianco di un'altura nelle quali vivono ad uno ad uno solo le tane delle femmine sono più vaste e sufficienti a contenere anche due o tre cuccioli fin dall'infanzia nuotano come ranocchi e possono restare a lungo sott'acqua a cercare pesci che le femmine portano poi a casa e i loro piccoli e a questo proposito spero che il lettore vorrà scusarmi se gli racconto una strana avventura un giorno ero uscito col mio precettore il cavallino sauro e poiché faceva molto caldo lo pregai di lasciarmi bagnare in un fiume vicino e gli acconsentì e subito io mi spogliai nudo nato e mi immersi bel bello nella corrente per caso una giovane yahoo gelata dietro un riparo osservò tutta la scena e infiammata di desiderio a quanto il cavallino ed io immaginammo si precipitò a tutta velocità e balzò in acqua cinque yard dal luogo in cui mi bagnavo in vita mia non ebbi mai un simile spavento il cavallino stava pascolando un po' discosto senza sospettare pericoli e quella mi abbracciò nella maniera più stomachevole io urlai a tutta possa finché il cavallino venne galoppando verso di me allora essa lasciò assai di malavoglia la stretta e saltò sulla riva opposta dove rimase a guardarmi ululando per tutto il tempo che impiegai a rivestirmi questo episodio divertì il mio padrone e la sua famiglia quanto mortificò me perché adesso non potevo più negare di essere un vero e proprio yahoo in ogni membro e fattezza visto che le femmine avevano una naturale tendenza a mio riguardo come se fossi uno della loro specie e quella bestia non era nemmeno di pelo rosso cosa che avrebbe potuto giustificare in qualche modo una voglia un po' fuori del normale ma di un nero prugna e il suo aspetto non era affatto ribottante come quello degli altri della sua razza perché credo non avesse più di undici anni immagino che il lettore si aspetterà che avendo vissuto tre anni in quel paese io gli dia al pari degli altri viaggiatori qualche raguaglio sugli usi e i costumi dei suoi abitanti che di fatti costituirono il mio principale oggetto di studio i nobili hoinom dotati per natura di una generale inclinazione ad ogni virtù e privi di ogni concetto o idea di un male che possa allignare in un essere razionale hanno come massima fondamentale di coltivare la ragione e di farsi da questa interamente governare nella ragione fra loro come fra noi qualcosa di problematico con cui l'uomo può dimostrare in modo ugualmente plausibile opposti argomenti essa penetra e immediatamente convince come deve avvenire quando non è turbata oscurata e scolorita da passioni o interessi ricordo che solo con gran difficoltà riuscì a far capire al mio padrone il significato della parola opinione e come un qualsiasi argomento potesse essere controverso perché la ragione ci insegna ad affermare o negare solo ciò di cui siamo certi e al di là delle nostre conoscenze non possiamo fare nell'una nell'altra cosa controversie polemiche dispute puntigli su argomenti falsi o dubbi sono dunque mali sconosciuti fra gli oinum in egual modo quando solevo esporre al mio padrone i nostri vari sistemi di filosofia naturale egli rideva che una creatura con pretese di ragionevolezza potesse stabilire il proprio valore in base alla conoscenza delle opinioni altrui e su argomenti in cui tale conoscenza anche se fosse sicura non servirebbe a nulla e in ciò andava interamente d'accordo con le idee di Socrate e quali ce le riferisce Platone e credo di far così il massimo elogio possibile a quel principe dei filosofi in seguito riflette più volte qual distribuzione una simile dottrina compirebbe nelle biblioteche europee e quanti sentieri che menano alla gloria resterebbero sbarrati nel mondo d'otto amicizia e benevolenza sono le due principali virtù degli oinom e non già limitate a questo o quell'individuo ma universalmente rivolte all'intera razza uno straniero che giunga dalle più remote regioni è trattato come il più intimo vicino e dovunque egli vada si sente come a casa sua rispettano col massimo rigore il decoro e la civiltà ma ignorano affatto le cerimonie non fanno smodate e tenerezze ai loro puledri e puledrine ma li educano attenendosi in tutto ai dettami della ragione e notai che il mio padrone mostrava ai rampolli del vicino lo stesso affetto che ai propri sostengono che la natura insegna loro ad amar l'intera specie e che la ragione soltanto li induce a distinguere le persone a seconda della loro eccellenza nella virtù quando le matrone oinom hanno partorito un maschio e una femmina non si accoppiano più col loro marito a meno che non perdano per qualche disgrazia uno dei loro rampolli cosa che avviene assai di rado ma in tal caso essi tornano ad accoppiarsi se la stessa sventura avviene a qualcuno la cui moglie non sia più in età di partorire un'altra coppia gli cede uno dei propri figli puledri e poi torna a congiungersi finché la madre non sia nuovamente pregna queste precauzioni sono necessarie affinché la regione non si popoli in modo soverchio ma le razze inferiori degli oinom destinate alla servitù non hanno su questo punto limiti così rigorosi si concede loro di generare tre maschi e tre femmine che diverranno domestici nelle famiglie nobili nei matrimoni grandemente si preoccupano di assortire i colori in modo che non ne risulti nella prole qualche combinazione sgradevole nel maschio è pregiata soprattutto la forza nella femmina la grazia e non per motivi erotici ma perché la razza non abbia a degenerare infatti se una femmina appare particolarmente robusta le si sceglie un consorte che eccelle nella leggiadria corteggiamenti amori regali sopraddoti assegni matrimoniali sono cose ignorate da loro e la loro lingua non ha nemmeno parole per esprimerle la giovane coppia si incontra e si unisce solo perché così hanno deciso i genitori e gli amici essi vedono avvenire ciò tutti i giorni e lo considerano come una delle azioni necessarie in un essere ragionevole ma mai si è sentito parlare di adulterio o di altra impudicizia e la coppia maritata trascorre la vita con la stessa amicizia e reciproca benevolenza che prova per tutto il resto della specie con cui viene a contatto senza gelosie passioni liti o malumori ammirevole è il loro modo nell'educare la gioventù dei due sessi e meriterebbe di essere imitato da noi quanto è possibile fino ai 18 anni i giovani non possono assaggiare un grano d'avena se non in determinati giorni solo raramente hanno il latte ed estate pascolano due ore il mattino e due nel pomeriggio al pari dei loro genitori ai servi è concessa solo la metà di questo tempo ma essi si portano a casa gran parte della loro erba e la mangiano nelle ore più opportune quando sono liberi dal servizio ai giovani dei due sessi vengono impartite in ugual modo le lezioni di temperanza operosità ginnastica e pulizia il mio padrone considerava mostruoso da parte nostra dare alle femmine un genere di educazione diverso che ai maschi tolti alcuni punti di attività domestica in tal modo infatti come egli giustamente osservò una metà dei nostri abitanti non è buona ad altro che a far figli e l'affidar la cura dei fanciulli ad esseri così inetti egli aggiunse era un'ancor maggior prova di brutalità gli hoinom allenano i loro giovani ad essere forti veloci e arditi facendoli correre su e giù per articolli e su terreni duri e pietrosi e quando li vedono tutti in sudore ingiungono loro di tuffarsi fin sopra le orecchie in uno stagno o in un fiume quattro volte l'anno i giovani di un dato distretto si riuniscono per mostrare i profitti che hanno fatto nella corsa nel salto e in alte prove di forze e agilità il vincitore o la vincitrice sono compensati con un inno in loro lode durante questa festività i servitori spingono nel campo un branco di yahoo carichi di fieno avena e latte per la refezione degli hoinom dopodiché quei bruti vengono immediatamente mandati via perché non dian fastidio alla donanza ogni quattro mesi nell'equinozio di primavera si riunisce un'assemblea rappresentativa di tutta la nazione la donata avviene in una piana circa 20 miglia dalla nostra casa e dura in genere cinque o sei giorni qui essi badano ad appurare lo stato e la condizione dei vari distretti se abbondano mancano di fieno e di avena di vacche e di yahoo e dovunque appaia una mancanza cosa che avviene assai di rado è subito colmata con un anime consenso e contributo qui è regolata anche la equa distribuzione dei figli se per esempio un oino ha due maschi ne scambia uno con un altro che ha due femmine e se un puledro è andato perso per disgrazia e la madre non è più in età di partorire si stabilisce quale famiglia del distretto debba generare un altro per supplir la perdita capitolo nono grande discussione nell'assemblea generale degli hoinum e come fu conclusa cultura degli hoinum loro architettura riti funebri deficienze del loro linguaggio una di queste assemblee fu tenuta al mio tempo tre mesi prima della mia partenza e il mio padrone vi partecipò in rappresentanza del nostro distretto in tale adunanza fu ripresa una loro vecchia questione l'unica anzi che sia mai sorta in quel paese e il mio padrone al suo ritorno me ne diede un minuzioso risoconto si trattava di stabilire se gli yahoo dovevano essere sterminati dalla faccia della terra uno dei membri favorevoli addusse parecchi argomenti assai solidi ed efficaci disse che gli yahoo erano non solo gli animali più sudici noiosi e deformi che la natura mai abbia prodotto ma anche i più indocili e resti i più facinorosi e maligni che andavano a succhiare alle mammelle delle vacche degli hoinom ne ammazzavano e divoravano i gatti ne calpestavano l'avena e l'erba se di continuo non si batava loro e commettevano mille altre birbonate fece rimarcare che per universale tradizione gli yahoo non erano sempre stati in quella regione ma che molti secoli prima due di quei bruti erano apparsi insieme su una montagna non si è mai saputo se prodotti dal calore del sole che avesse fecondato una potredine di melma e fango o dal limo e dalla spuma del mare che questi yahoo prolificarono e la loro prole divenne in breve così numerosa da invadere e infestare tutto il paese che gli hoinom per liberarsi del flagello diedero loro una caccia generale riuscirono infine a rinchiudere tutta la mandria e ammazzati gli anziani ogni hoinom si tenne per sé due piccoli in una stalla addomesticandoli quanto poteva essere addomesticato un animale così selvaggio e servendosene per portare o tirar pesi aggiunse che in questa tradizione doveva esserci molto di vero e che quelle bestie non potevano essere hoinom ossia aborigeni data la profonda ripugnanza che gli hoinom al pari di tutti gli altri animali provavano per loro la qual ripugnanza sebbene pienamente meritata dal loro perverso carattere non sarebbe mai giunta a tal violenza se essi fossero stati aborigeni altrimenti sarebbero stati da tempo sterminati fino all'ultimo e gli abitanti incapricciandosi di prendere a proprio servizio gli yahoo avevano tralasciato molto imprudentemente l'allevamento degli asini animali simpatici facili a mantenere docili ordinati senza cattivi odori forti al lavoro sebbene la cedessero agli altri in agilità e il cui raglio sebbene non piacevole era di gran lunga preferibile agli orrendi ululati degli yahoo parecchi altri espressero la stessa opinione quando il mio padrone propose all'assemblea un espediente di cui a dire il vero aveva preso lo spunto da me egli approvò quel che si riferiva alla tradizione ricordata dall'onorevole oratore che l'aveva preceduto e disse che i due yahoo i quali a quanto si diceva erano stati visti per la prima volta nel paese vi erano venuti dal mare scesi a terra e abbandonati dai compagni si erano ritirati sulle montagne dove degenerando a poco a poco erano divenuti col tempo assai più selvaggi degli esseri della loro specie nel paese da cui provenivano e poteva dire questo in quanto possedeva ora un meraviglioso yahoo alludeva a me di cui la maggior parte di loro aveva udito parlare che molti avevano visto raccontò allora come mi aveva trovato disse che il mio corpo era tutto ricoperto da un tessuto artificiale composto di pelli e peli di altri animali che parlavo un mio proprio linguaggio e avevo imparato appieno in loro che gli avevo narrato i casi che mi avevano portato colà che a vedermi senza copertura ero in parte uno yahoo tale e quale solo un po' più chiaro di colore meno peloso e con gli artigli più corti aggiunse come avessi tentato di persuaderlo che nel mio e in altri paesi gli yahoo si comportavano come gli animali ragionevoli predominanti e tenevano in servitù gli hoinom che aveva osservato in me tutte le caratteristiche di uno yahoo un po' più civilizzato tuttavia da qualche infarinatura di ragionevolezza che comunque rimanevo al di sotto di uno hoinom quanto gli yahoo del loro paese erano al di sotto di me disse poi che tra l'altro io gli avevo parlato della loro usanza di castrare gli hoinom da giovani per renderli più docili che l'operazione era facile e sicura e che non c'era da vergognarsi a imparare la saggezza dai bruti visto che la formica ci dà lezioni di operosità e la rondine ci insegna a costruire la casa traduco come rondine la parola li han sebbene si riferisca ad un uccello assai più grande e concluse dicendo che si poteva mettere in pratica questo ritrovato sui giovani yahoo del luogo cosa che oltre a renderli più docili e utili avrebbe messo fine in un secolo all'intera razza senza spargimento di sangue nel frattempo si sarebbe rindotto gli hoinom a curare l'allevamento degli asini i quali oltre ad essere sotto ogni aspetto animali molto migliori hanno il vantaggio di poter lavorare a cinque anni mentre gli altri non possono farlo prima dei dodici tutto ciò che il mio padrone giudicò opportuno riferirmi allora di ciò che era avvenuto nel gran consiglio ma credette bene di celarmi un particolare che si riferiva a me personalmente e di cui non tardai a provare i tristi effetti come il lettore saprà a suo luogo e dal quale ebbero inizio tutte le successive disgrazie della mia vita gli hoinom non conoscono la scrittura e di conseguenza tutto quel che sanno è affidato alla tradizione orale ma poiché pochissime cose di qualche importanza avvengono in un popolo così bene unito naturalmente disposto a tutte le virtù governato interamente dalla ragione tagliato fuori da ogni commercio con altre nazioni la loro storia si ricorda facilmente senza affaticare la memoria ho già detto che essi non conoscono malattie e non hanno quindi bisogno di medici hanno tuttavia eccellenti medicine composte di erbe per curare le accidentali ammaccature e ferite prodotte da pietre taglienti nei loro garretti o al collo del piede come pure le mutilazioni e le ferite ricevute in altre parti del corpo misurano l'anno dalla rivoluzione del sole e della luna ma non lo suddividono in settimane conoscono abbastanza bene i moti di quei due luminari e sanno qual è la causa di un'eclissi questo è il massimo delle loro nozioni astronomiche in poesia bisogna conceder loro il primato su tutti gli altri mortali l'esattezza delle loro similitudini la minuziosità e la precisione delle loro descrizioni sono veramente inimitabili similitudini e descrizioni abbondano e nei loro versi ispirati di solito ad elevate idee sull'amicizia e la benevolenza o alla lode dei vincitori nelle corse e in altri esercizi fisici le loro case sebbene molto semplici e rudimentali non sono scomode e offrono sicuro riparo dal caldo e dal freddo cresce laggiù una specie di albero che a 40 anni perde il vigore delle radici e cade alla prima raffica i tronchi sono perfettamente dritti e gli hoinum dopo averne aguzzato un'estremità a mo' di palo con una pietra tagliente poiché l'uso del ferro è loro ignoto li piantano a perpendicolo a terra distanti 10 pollici l'uno dall'altro e li legan fra loro con intrecci di fili di paglia o di vimini il tetto viene fatto con lo stesso sistema e così pure le porte gli hoinum si servono della parte concava tra il garretto e lo zoccolo delle zampe anteriori come noi delle mani e con molta maggiore abilità di quel che da prima non potessi immaginare vedi io stesso una bianca giumenta della nostra famiglia infilare un ago che le avevo appunto prestato con questa articolazione mungono le vacche mietono la vena e fanno così tutti i lavori manuali hanno certe selci dure che affilano su altre pietre formandone poi strumenti atti a servire come cunei asce e martelli con altri ordigni fatti parimenti di queste pietre tagliano il fieno e mietono la vena che nasce naturalmente in molti campi gli yahoo portano a casa i covoni su carri e i servi li calpestano in certe capanne coperte per farne uscire i chicchi che vengono conservati in magazzini fabbricano anche ruzzi recipienti di argilla e di legno e fanno seccare i primi al sole se riescono ad evitare disgrazie muoiono soltanto di vecchiaia e sono sepolti nei luoghi più remoti che possono trovare e amici non esprimono alla loro dipartita né gioia né dolore né il morente mostra il minimo rimpianto per il mondo che sta per lasciare come se tornasse a casa dopo una visita ad un vicino ricordo che una volta il mio padrone aveva fissato un appuntamento in casa sua ad un amico e alla sua famiglia per un affare importante il giorno stabilito la signora e i suoi due figli giunsero con grande ritardo e prima di tutto ella fece le sue scuse per il marito che proprio quella mattina era snun la parola è molto espressiva nella loro lingua ma non facilmente traducibile significa presto a poco tornare alla prima madre si scusò poi di essere venuta così tardi perché suo marito era morto nelle ultime ore del mattino ed essa aveva discusso a lungo con la servitù sul luogo più conveniente per seppellirvi il suo corpo notai che per tutto il tempo in cui fu a casa nostra mantenne un contegno gioviale al pari degli altri circa tre mesi dopo morì anche lei vivono in genere fino a 70 75 anni assai di rado fino agli 80 alcune settimane prima della morte sentono venirsi meno a poco a poco le forze ma senza dolore in questo periodo ricevono molte visite dai loro amici poiché non potrebbero uscire con la facilità e il piacere di un tempo però una decina di giorni prima di morire e raramente sbagliano il conto restituiscono ai vicini più intimi le visite ricevute facendosi portare in una comoda slitta tirata da Yao usano tale veicolo non solo in questa occasione ma anche quando invecchiano durante lunghi viaggi o se azzoppati per qualche incidente lo hoinum vicino a morte quando fa queste visite prende solennemente congedo dai suoi amici come se si accingesse ad andare in qualche regione lontana per trascorrervi il resto della vita non sarà forse inutile notare che gli hoinum non hanno nella loro lingua parole per esprimere qualche cosa di cattivo e sono costretti per questo ad ispirarsi alle deformità e alle cattive qualità degli Yahoo così indicano la stoltezza di un servo la dimenticanza di un fanciullo la pietra che li ferisca ad un piede il perdurare di un cattivo tempo fuori stagione aggiungendo ad ognuno di questi nomi l'epiteto Yahoo ad esempio Honum Yahoo Una Hon Yahoo Yonumi Duil May Yahoo è una casa mal costruita Yinimuld Rolu Yahoo potrei con gran piacere indugiare ancor più sui costumi e le virtù di quest'eccellente popolo ma poiché ho intenzione di pubblicare tra breve un volume a sé appunto su quest'argomento rimando adesso il lettore e passo frattanto a narrare la mia triste catastrofe capitolo decimo felice vita domestica dell'autore tra gli hoinum suoi grandi progressi nella virtù conversando con loro loro conversazioni l'autore è avvertito dal suo padrone di dover partire dal paese cade in deliquio per il dolore ma si rassegna inventa e costruisce un canotto con l'aiuto di un servo e si avventura nel mare mi ero sistemato con gran soddisfazione una mia casetta il mio padrone aveva dato ordine di costruire per me secondo la loro usanza una camera a circa 6 yard dalla sua casa io stesso ne intonacai con argilla le pareti e il pavimento ricoprendoli con stuoie intrecciate dalle mie mani mi feci con canapa battuta che lì cresce selvatica una specie di fodera da materasso e la riempì con le penne di vari uccelli acchiappati per mezzo di reti fatte con capelli di yahoo procurandomi così anche eccellenti bocconi mi ero fabbricato due sedie col mio coltello e con l'aiuto del cavallino sauro che esegui la parte più rozza e faticosa del lavoro quando i miei abiti si ridussero in brandelli me ne feci altri con peli di conigli e di un altro bel animale circa della stessa grandezza chiamato Nuno la cui pelle è coperta da una fine lanugine con lo stesso materiale mi feci anche calze più che passabili mi risolai le scarpe con assicelle di legno tagliate da un albero e adattate alla vecchia tomaia quando anche questa fu consunta la sostituì con pelli di yahoo seccate al sole spesso estraevo il miele dal cavo degli alberi e lo scioglievo nell'acqua e lo mangiavo col pane nessuno meglio di me sperimentò mai la verità delle due massime che poco basta a soddisfare la natura e che la necessità aguzza l'ingegno godevo un'ottima salute fisica e una perfetta tranquillità morale non ero esposto al tradimento all'incostanza degli amici né alle offese di nemici segreti o palesi non ero costretto a corrompere adulare o ruffianeggiare per procurarmi in favore di un potente o del suo beniamino non avevo bisogno di difesa contro la frode o la prepotenza non veran medici capaci di rovinarmi il corpo né avvocati per dilapidarmi nessun delatore spiava le mie parole e i miei atti né inventava cose contro di me per far denaro non veran là beffatori censori maldicenti tagliaborse ladri di strada scassinatori procuratori ruffiani buffoni giocatori politicanti belli spiriti ipocondriaci ciarlatori polemisti stopratori assassini ladri virtuosi di canto non capi né gregari di partiti o fazioni non chi incoraggiasse il vizio con la seduzione o con l'esempio non carceri scuri forche flagelli e berline non bottegai né operai imbroglioni non orgoglio né vanità né affettazione non bellimbusti bravacci ubriaconi baldracche impestati non mogli blateranti libidinose o spendaccione non pedanti stupidi e tronfi non compagni importuni invadenti litigiosi chiassosi urlanti vuoti presuntuosi e bestemmiatori non cialtroni levati dal fango in grazia dei loro vizi né nobili prostrati nella polvere per colpa delle loro virtù non pari suonatori di violino giudice maestri di ballo ebbi l'onore di essere ammesso alla presenza di vari hoinum che venivano a visitare il mio padrone o a pranzare con lui sua grazia si degnava infatti di permettermi allora di rimanere nella stanza e di ascoltare i loro discorsi spesso tanto lui quanto i suoi visitatori si abbassavano fino a farmi domande e ad ascoltare le mie risposte ebbi anche l'onore di accompagnare talvolta il mio padrone nelle visite che faceva non mi permettevo mai di parlare se non per rispondere ad una domanda e lo facevo con intimo rincrescimento perché era tanto tempo sottratto al mio miglioramento ma provavo un'infinita gioia nel restarmene come umile ascoltatore in tali conversazioni dove nulla si diceva che non fosse utile espresso nelle parole più sobri ed efficaci dove come ho già detto si osservava il massimo decoro senza la minima affettazione nessuno parlava senza soddisfazione propria e dei presenti né verano interruzioni lungaggini animosità né divergenza di opinioni hanno per massima che in una riunione un breve silenzio è di gran vantaggio alla conversazione e trovai che era vero perché durante quelle brevi pause del discorso nuove idee sorgevano nelle loro menti e davano nuova vita al dialogo i loro argomenti preferiti erano amicizia e la benevolenza o l'ordine e l'economia a volte parlavano dei fenomeni naturali o delle antiche tradizioni sui confini e i limiti della virtù sulle norme infallibili della ragione o su qualche decisione da prendersi nella prossima assemblea generale e spesso sui fastigi della poesia posso aggiungere senza vanità che la mia presenza più volte diede loro materia di discorso offrendo al mio padrone l'opportunità di far conoscere ai suoi amici la storia mia e del mio paese su cui tutti si compiacevano di far commenti in modo non troppo lusinghiero per l'uman genere e per questo mi asterrò dal riferire quel che dicevano mi si conceda solo di notare che sua grazia con mia grande ammirazione sembrava capire la natura degli Yahoo assai meglio di me egli passava in rassegna i nostri vizi e le nostre follie e molti ne scopriva di cui io non gli avevo parlato solo supponendo quali caratteristiche avrebbe mostrato un Yahoo del loro paese se dotato di un fioco barlume di ragione e concludeva che molto probabilmente tale creatura sarebbe stata non meno abietta che disgraziata confesso francamente che quel po' di sicuro sapere che posseggolo attinsi alle lezioni datemi dal mio padrone e ai discorsi suoi e dei suoi amici e che sarei più orgoglioso di poterli ancora ascoltare che non di dominare in uno dei più illustri e saggi congressi d'Europa ammiravo la forza la grazia e la velocità degli abitanti e una tale costellazione di virtù in esseri così amabili faceva nascere in me la più profonda venerazione da prima è vero non provai quel natural revenziale terrore che provarono per loro gli Yahoo e gli altri animali ma lo senti sorgere in me a poco a poco e molto prima che non immaginassi frammisto ad un rispettoso amore e alla gratitudine di vederli degnarsi di distinguermi dal resto della mia specie quando pensavo alla mia famiglia o ai miei amici ai miei compatrioti o in generale all'umana razza li consideravo per quello che erano nel fisico e nel morale veri e propri Yahoo forse un po' più civilizzati e qualificati dal dono della parola ma incapaci di far altro uso della ragione che di aumentare e moltiplicare quei vizi che i loro confratelli di laggiù avevano avuto in sorte solo dalla natura quando mi capitava di veder riflesse le mie forme in un lago o in una fonte distoglievo il volto pieno di orrore e di disgusto per me stesso e riuscivo meglio a tollerare la vista di un comune Yahoo che non quella della mia persona a forza di conversare con gli hoinom e di compiacermi nel guardarli mi capitò di imitarne l'andatura e i gesti cosa che è divenuta ormai istintiva in me e quando i miei amici mi dicono senza riguardi che trotto come un cavallo lo prendo come un gran complimento né voglio nascondere che parlando cado spesso nei toni di voce e nei modi degli hoinom né mi sento per nulla mortificato se mi danno la vaia in mezzo a tanta felicità e quando già mi credevo sistemato per tutta la vita il mio padrone un mattino mi mandò a chiamare un po' prima del solito dal suo aspetto mi accorsi che era alquanto perplesso e non sapeva da che parte cominciare il discorso dopo un breve silenzio mi disse che non sapeva come avrei preso quel che stava per dirmi il fatto era che nell'ultima assemblea generale quando era stata discussa la questione degli yahoo i rappresentanti si erano mostrati offesi e che egli si tenesse in famiglia uno yahoo intendevano me trattandolo piuttosto come un oinom che come un bruto era notorio che egli di frequente conversava con me quasi potesse avere qualche vantaggio o piacere stando in mia compagnia e tale consuetudine non si confaceva né alla ragione né alla natura né mai si era sentito parlare tra loro di alcunché di simile l'adunanza l'aveva dunque esortato a servirsi di me come degli altri della mia specie o a ingiungermi di tornarmene a nuoto al luogo dove ero venuto il primo di questi provvedimenti era stato assolutamente respinto da tutti gli oinom che mi avevano visto in casa sua o che mi avevano incontrato per via dicevano essi che con quel po' di ragione di cui ero dotato aggiunto alla naturale perfidia di quegli animali c'era da temere che io potessi indurli a seguirmi nelle zone boscose e montane della regione e condurli a branchi di notte a distruggere il bestiame degli oinom data alla nostra natura rapace e avversa alla fatica il mio padrone aggiunse che ogni giorno gli oinom del vicinato lo sollecitavano a seguire l'esortazione dell'assemblea ed egli non poteva ormai differire oltre di farlo pensava che mi sarebbe stato impossibile andarmene a nuoto in un'altra regione mi pregava dunque di costruirmi qualche cosa di simile al veicolo che gli avevo descritto capace di portarmi sul mare i suoi servi mi avrebbero assistito in tal lavoro e così pure quelli dei suoi vicini concluse dicendo che per parte sua sarebbe stato lieto di tenermi al suo servizio per tutta la vita essendosi accorto che ero riuscito a demandarmi di parecchie cattive abitudini e disposizioni cercando di imitare gli oinom per quanto me lo permettesse la mia intima natura devo far qui notare al lettore che in quel paese un decreto dell'assemblea generale si designa con la parola che si può tradurre molto approssimativamente in esortazione già che essi non concepivano che una creatura ragionevole possa essere costretta ma solo avvisata ed esortata visto che nessuno può disobbedire alla ragione se non vuole rinunziare al diritto di considerarsi ragionevole alle parole del mio padrone mi sentì invadere dal dolore più disperato e profondo e incapace di sopportare tanto strazio caddi in deliquio ai suoi piedi quando tornai in me egli mi disse di avermi creduto morto poiché quel popolo non è soggetto a tali debolezze di natura risposi con un fil di voce che la morte sarebbe stata per me troppo grande felicità e che sebbene non potessi biasimare l'esortazione dell'assemblea né le sollecitazioni dei suoi amici tuttavia a mio debole e meschino parere un po' meno di rigore a mio riguardo avrebbe potuto non essere incompatibile con la ragione io non avrei potuto nuotar nemmeno per una lega e probabilmente la terra più vicina alla loro distava più di cento mancavano del tutto in quel paese molti materiali necessari per costruirmi un bascello con cui andarmene ma tuttavia lo avrei tentato per obbedienza e gratitudine verso sua grazia sebbene considerassi la cosa impossibile e mi vedessi dunque già votato alla morte d'altra parte la sicurezza di una morte non naturale era il minore dei miei mali perché anche supponendo che per qualche caso straordinario riuscissi a mantenermi in vita come avrei potuto rassegnarmi a trascorrere i miei giorni tra Yahoo e a ricaderne la mia antica corruzione privo di esempi tali da guidarmi e tenermi nel sentiero della virtù conoscevo fin troppo bene su quali solide ragioni fossero fondate tutte le decisioni dei saggi Hoinon per pensare di farle vacillare con argomenti miei di un miserabile Yahoo lo ringraziavo dunque umilmente per avermi offerto l'aiuto dei suoi servi nella costruzione del bascello e lo pregavo di concedermi un tempo ragionevole per portare a termine un così difficile lavoro gli dissi infine che avrei cercato di tenere in vita a quell'essere disgraziato che ero e che semmai tornavo in Inghilterra speravo di essere utile ai miei simili celebrando le lodi dei famosi Hoinon e proponendo le loro virtù come modello al genere umano il mio padrone mi rispose amorevolmente e con poche parole mi concesse due mesi per portare a termine l'imbarcazione e ordinò al cavallino Sauro mio compagno di servitù posso osare chiamarlo così a tanta distanza di tempo e di spazio di seguire le mie istruzioni avendogli io detto che il suo aiuto mi sarebbe bastato sicuro come ero del suo affetto per me per prima cosa andai con lui in quella parte della costa dove la mia ciurma ribelle mi aveva sbarcato salì su di un'altura e scrutando il mare da ogni lato mi parve di vedere un'isoletta a nord est presi allora il mio cannocchiale tascabile e potei così distinguerla chiaramente a circa cinque leghe a quanto calcolai il cavallino Sauro la prese solo per una nuvola azzurra perché non poteva immaginare che vi fossero altre terre oltre la sua d'altra parte non poteva avere nello scorgere oggetti lontani nel mare quella prontezza che abbiamo noi così familiari con quell'elemento dopo aver scoperto l'isola non indagai oltre e decisi che se possibile sarebbe stata la prima tappa del mio esilio lasciando il resto alla fortuna tornai a casa e consultatomi col cavallino Sauro andammi in una macchia non molto lontana e lì col mio coltello e con una pietra affilata fissata molto ingegnosamente secondo il loro uso ad un manico di legno tagliammo parecchi rami di quella quercia grossi all'incirca come un bastone da passeggio e alcuni fusti più grossi ma non annoierò il lettore con una descrizione minuziosa della mia carpenteria basti dire che in sei settimane con l'aiuto del cavallino Sauro che eseguì lavori più faticosi portai a termine una specie di canoa indiana ma molto più grande che ricoprì con pelli di yahoo ben cucite insieme con fili di canapa di mia fabbricazione anche la vela fu fatta con le pelli di quegli stessi animali adoperai però le più giovani che potei trovare perché le vecchie erano troppo dure e spesse mi provvidi pure di quattro pagaie stivai nell'imbarcazione un bel po' di carne bollita di conigli e di uccelli e presi con me due recipienti l'uno piano di latte e l'altro piano d'acqua provai la mia canoa in un vasto stagno vicino alla casa del mio padrone e ne corressi ogni mancanza ottorandone le fessure con grasso di yahoo finché non fui sicuro che era ben solida e capace di portare me e il mio carico quando mi parve finita in tutto per quanto mi fosse possibile la feci trasportare con gran cautela da alcuni yahoo fino alla spiaggia sotto la sorveglianza del cavallino Sauro e di un altro servo quando tutto fu pronto e venne il giorno nella mia partenza mi congedai dal mio padrone dalla sua signora e da tutta la famiglia mentre a fiotti mi sgorgavano dal cuore le lacrime e il cuore era sopraffatto dall'angoscia ma sua grazia per curiosità e forse se posso dirlo senza vanità in parte anche per affetto decise di venirmi a vedere nella mia canoa e indusse parecchi i suoi amici del vicinato ad accompagnarlo dovetti aspettare per più di un'ora la marea poi vedendo che il vento aspirava favorevole verso l'isola a cui intendevo diriger la mia rotta presi nuovamente congedo dal mio padrone ma mentre stavo per prostrarmi e baciargli lo zoccolo egli mi fece l'onore di alzarlo graziosamente fino alle mie labbra non ignoro quanto sia stato criticato per aver riferito quest'ultimo particolare i miei detrattori si sono compiaciuti di giudicare inverosimile che un personaggio così illustre si abbassasse fino a concedere tale onore ad una creatura inferiore come me ne ho dimenticato quanto sia incorrivi certi viaggiatori a bantare straordinari favori ricevuti ma se quei detrattori conoscessero meglio l'indole nobile e generosa degli hoinum cambierebbero subito opinione salutai rispettosamente gli altri hoinum che accompagnavano sua grazia e poi entrato nella canoa mi spinsi a largo capitolo undicesimo pericoloso viaggio dell'autore arriva alla nuova Olanda sperando di fermarsi laggiù è ferito dalla freccia di un indigeno è preso e portato a forza in una nave portoghese grande cortesia del capitano l'autore arriva in Inghilterra iniziai il mio disperato viaggio il 15 febbraio del 1715 alle 9 del mattino il vento era molto favorevole tuttavia dapprima adoperai soltanto i remi ma poi considerando che presto mi sarei stancato e che il vento avrebbe potuto mutare mi arrischiai ad alzar la mia piccola vela e così con l'aiuto della marea navigai alla velocità di una lega e mezzo l'ora a quanto potei calcolare il mio padrone e i suoi amici rimasero sulla spiaggia finché non sparì dalla loro vista e io di spesso il cavallino sauro che sempre mi aveva amato gridare chnui illa nihamaya yahoo e cioè sta attento gentile yahoo era mia intenzione scoprire se possibile qualche isoletta disabitata ma tale da fornirmi col mio lavoro le cose necessarie alla vita avrei considerato questo una fortuna assai maggiore che non di essere primo ministro nella più civile corte europea tanto orribile era per me l'idea di tornare a vivere nella società e sotto il governo degli yahoo nella solitudine che desideravo avrei potuto almeno stare serenamente in compagnia dei miei pensieri e meditare con diletto sulle virtù di quegli inimitabili hoinum senza pericolo di degenerare nei vizi e nelle corruzioni propri della mia specie il lettore forse ricorda quel che gli riferì sulla congiura della mia ciurma contro di me e sul mio relegamento in cabina rimasi chiuso là dentro per parecchie settimane senza sapere quale rotta seguissimo e quando mi portarono a terra sulla scialuppa maggiore i marinai mi assicurarono con giuramenti veri o falsi che fossero di non sapere in qual parte del mondo ci trovassimo tuttavia pensai allora che dovevano essere a circa 10 gradi a sud del capo di buona speranza ossia circa 45 gradi di latitudine nord secondo quanto potei arguire da qualche loro parola generica che afferrai al volo già che volevano raggiungere il Madagascar e io supposi che fossero a sud est sebbene questa fosse poco più di una semplice congettura decisi di fare rotta verso l'est sperando di raggiungere le coste sud occidentali della nuova Olanda e forse a occidente di quella l'isola che desideravo il vento spirava deciso dall'ovest e alle 6 di sera calcolai di essermi spinto almeno 18 leghe verso est vidi allora un'isoletta a circa mezza lega e subito la raggiunsi era solo uno scoglio con un'insenatura naturalmente scavata ad arco dalla furia delle tempeste misi lì la mia canoa e arrampicatomi su per un fianco potei facilmente scorgere verso est una terra che si estendeva da sud a nord dormì tutta la notte nella canoa e ripreso il viaggio la mattina presto ragionsi in 7 ore la punta sud orientale della nuova Olanda questo mi confermò nell'opinione da me sempre avuta che le carte nautiche e geografiche collochino questa regione almeno 3 gradi più a oriente che non sia in realtà ma sebbene lo abbia comunicato molti anni fa al mio egregio amico signor Herman Molli esponendogli anche le mie ragioni egli ha preferito seguire gli altri autori non scorsi abitanti nel luogo dove sbarcai e disarmato com'ero non mi azzardai ad avventurarmi nell'interno trovai sulla spiaggia alcuni frutti di mare e li mangiai crudi non osando accendere il fuoco per paura di essere scoperto dagli indigeni continuai per 3 giorni a nutrirmi di ostriche e di altri molluschi per risparmiare le mie provvigioni per fortuna trovai un ruscello a cui attinsi un'acqua freschissima che mi fu di gran refrigerio il quarto giorno avventuratomi di buon mattino un po' troppo nell'interno vidi 20 o 30 indigeni su di un'altura a non più di 500 yard tutti nudi uomini donne e ragazzi stavano attorno ad un fuoco a quanto potei capire dal fumo uno di loro mi scorse e avvertì gli altri in 5 mi vennero incontro lasciando le donne e i ragazzi accanto al fuoco me la diedi a gambe verso la spiaggia e saltato nella canoa presi il largo ma i selvaggi vedendomi scappare mi corsero dietro e prima che potessi allontanarmi abbastanza nel mare scagliarono una freccia che mi ferì profondamente il ginocchio sinistro ne porterò la cicatrice fino alla tumba ebbi paura che la freccia fosse avvelenata e spintomi a forza di remi fuor della portata dei loro dardi il mare era calmo mi ingegnai di succhiarmi la ferita e di bendarla come meglio potei non sapevo che fare non osando tornare allo stesso luogo di approdo puntai dunque a nord e fui costretto a ricorrere ai remi perché il vento sebbene assai lieve mi era contrario spirando da nord ovest mentre mi guardavo intorno in cerca di un approdo sicuro scorsi un veliero a nord nord est che diveniva di minuto in minuto più visibile e rimasi dubbioso se aspettarlo o no ma infine prevalse la ripugnanza che nutrivo per la razza yahoo e fatta girare la canoa mi volsi a forza di remi e di vela verso sud rifugiandomi nella stessa insenatura da cui ero uscito il mattino deciso ad affidarmi a quei selvaggi piuttosto che vivere fra gli yahoo europei avvicinai quanto più potei la canoa alla spiaggia e mi nascosi dietro un masso vicino al ruscelletto di cui ho già ricordato le fresche acque il veliero avanzò fino a mezza lega da quell'insenatura e mandò la maggior scialuppa con botti per rifornirsi d'acqua a quanto sembra il luogo era molto noto ma non me ne accorsi finché l'imbarcazione non fu quasi giunta alla spiaggia e allora era troppo tardi per cercare un nascondiglio i marinai appena sbarcati notarono la mia canoa e rovistatela da capo a fondo non fecero fatica a concludere che il suo proprietario non doveva essere lontano quattro di loro bene armati frugarono ogni anfratto e ogni nascondiglio finché non mi trovarono sdraiato carponi dietro il masso rimasero un pezzo a contemplare pieni di stupore i miei strani e bizzarri vestiti la giacca fatta di pelli le scarpe estuolate di legno le calze di pelliccia da tutto ciò tuttavia capiron subito che non ero un nativo del luogo visto che non ero nudo come loro uno di loro mi ingiunse in portoghese di alzarmi e mi domandò chi fossi io capivo benissimo quella lingua e levatomi in piedi dissi di essere un povero yahoo bandito dagli oinom e li pregai di lasciarmi andare essi si stupirono di sentirmi parlare nella loro lingua e dal mio aspetto capirono che ero un europeo ma non riuscirono ad intendere che cosa volessi dire parlando di yahoo e di oinom e intanto facevano gran risate alla mia strana pronunzia simile al nitrir di un cavallo io non smettevo di tremar per la paura e la ripugnanza li pregai ancora di lasciarmi andare e mi mossi lentamente verso la canoa ma quelli mi afferrarono pretendendo sapere di qual paese fossi di dove venissi e tante altre cose risposi di essere nato in inghilterra di esserne partito circa cinque anni prima e che allora il loro paese ed il mio erano in buoni rapporti speravo dunque che non mi avrebbero trattato come un nemico poiché non avevo alcuna ostilità contro di loro ed ero solo un povero yahoo che cercava qualche luogo solitario per trascorrervi il resto della sua sciagurata esistenza appena essi avevano cominciato a parlare mi era sembrato di non aver mai udito né visto qualche cosa più contro natura mi era parsa cosa mostruosa come se un cane o una vacca parlassero in inglese o uno yahoo in un landiano quei bravi portoghesi da parte loro erano stupefatti del mio strano vestito e della mia buffa maniera di parlare che tuttavia intendevano benissimo mi parlarono molto umanamente e dissero che senza dubbio il capitano mi avrebbe portato gratuitamente a Lisbona di dove sarei potuto tornare in inghilterra che due di loro sarebbero tornati alla nave per informare il capitano di quel che avevano visto e prendere ordini e che frattanto se non giuravo solennemente di non fuggire mi avrebbero trattenuto a forza credetti opportuno aderire alle loro proposte ardevan dalla curiosità di conoscere la mia storia ma io diedi loro assai poca soddisfazione e tutti furono d'accordo nel pensare che le disgrazie mi avessero fatto dar di volta il cervello due ore dopo la scialuppa che era partita carica di botti piene d'acqua tornò con l'ordine del capitano di condurmi a bordo io mi gettai in ginocchio implorando la mia libertà ma tutto fu vano e i marinai dopo avermi legato con corde mi portaron di peso nella scialuppa di qui fui portato nella nave e infine nella cabina del capitano si chiamava Pedro de Mendes ed era persona quanto mai cortese e generosa mi invitò a dargli qualche notizia su di me chiedendomi frattanto che cosa desiderassi mangiare o bere disse che sarei stato trattato al pari di lui stesso e aggiunse tante altre cortesie che mi meravigliai di trovare tanta civiltà in uno yahu rimasi tuttavia cupo e silenzioso mi sentivo venire meno all'odore che emanava da lui e dai suoi uomini alla fine pregai che mi si portasse da mangiare qualche cosa di quel che avevo nella canoa ma egli ordinò per me un pollo e vino eccellente e dispose poi perché fossi messo a letto in una cabina ben pulita mi gettai sulle coperte senza spogliarmi e mezz'ora dopo quando pensavo che la ciurma fosse a pranzo sgattai orai fuori mi avvicinai ad un fianco della nave e già stavo per gettarmi in mare e salvarmi a nuoto piuttosto che vivere fra yahu quando un marinaio mi prevenne informò il capitano e io fu incatenato nella cabina dopo desinare don pedro venne da me e mi chiese le ragioni di un tentativo così disperato mi assicurò che egli aveva solo intenzione di giovarmi in tutto ciò che potesse e mi trattò in modo così commovente che alla fine condiscesi a considerarlo alla stregua di un animale e dotato di una qualche briciola di ragione gli raccontai molto brevemente il mio viaggio la cospirazione nei miei uomini contro di me in qual luogo essi mi avessero fatto sbarcare e i miei tre anni di residenza a Colà egli considerava tutto ciò come un sogno o una visione e io mi senti profondamente offeso perché avevo del tutto dimenticato quella facoltà di mentire che è propria degli yahu in tutti i paesi da loro dominati e di conseguenza anche la loro disposizione a diffidar delle affermazioni dei loro simili gli domandai se era un uso del suo paese dire la cosa che non è lo assicurai di aver quasi dimenticato che cosa egli volesse intendere con la parola falsità e aggiunsi che quando anche avessi vissuto mill'anni in Oinomlandia non sarei riuscito ad udir mentire il più umile dei servi non mi importava nulla che mi credesse o no ma tuttavia in riconoscenza delle sue cortesie avrei compatito fino a tal punto la sua natura corrotta da rispondere a tutte le domande che gli piacesse farmi così che gli avrebbe potuto scorgere facilmente la verità il capitano uomo assennato dopo aver tentato più volte di cogliermi in fallo nel mio racconto cominciò infine ad avere una migliore opinione nella mia veracità e concluse che dato il mio indissolubile attaccamento alla verità dovevo dargli la mia parola d'onore di tenergli compagnia per tutto il viaggio senza nulla tentare contro la mia vita altrimenti avrebbe continuato a tenermi prigioniero fino al nostro arrivo a Lisbona gli feci la promessa che mi chiedeva ma al tempo stesso affermai di essere pronto a soffrire le peggiori durezze piuttosto che tornare a vivere fra gli yahoo il viaggio giunse a termine senza che accadesse nulla di notevole per gratitudine verso il capitano stavo con lui non appena me lo richiedeva e cercavo di dissimulare la mia antipatia per il genere umano sebbene questa non di rado e rompesse egli fingeva di non accorgersene ma per la maggior parte del giorno me ne stavo relegato in cabina per evitare di vedere alcuno della ciurma più volte il capitano mi invitò a spogliarmi dei miei selvaggi vestiti offrendosi di prestarmi il miglior abito completo che avesse ma non mi lasciai indurre ad accettare ripugnando dal ricoprirmi con qualche cosa che fosse stata addosso ad uno yahoo lo pregai solo di prestarmi due camicie pulite che messe in bucato dopo essere state usate da lui pensavo non mi avrebbero eccessivamente contaminato le cambiavo ogni due giorni e le lavavo io stesso arrivamo a Lisbona il 5 novembre del 1715 al momento dello sbarco il capitano mi costrinse a coprirmi col suo mantello perché la plebaglia non mi si affollasse intorno mi condusse a casa sua e vivamente pregato da me mi diede la stanza più alta sul retro del palazzo lo scongiorai di non rivelare a nessuno tutto ciò che gli avevo detto sugli hoinum perché il minimo accenno a tale storia non solo avrebbe attirato innumerevole folla curiosa di vedermi ma con ogni probabilità mi avrebbe fatto correre il rischio di essere imprigionato messo sul rogo dall'inquisizione il capitano mi indusse ad accettare un abito fatto espressamente per me ma io non permisi che il sarto mi prendesse le misure tuttavia poiché don pedro era all'incirca della mia statura quell'abito mi andò abbastanza bene mi provvide anche di altre cose necessarie tutte nuove e io le esponevo all'aria per 24 ore prima di adoperarle il capitano non aveva moglie e solo tre domestici e nessuno dei quali fu permesso di occuparsi di cucina e si comportò in tutto in modo così premuroso e con tanta umana comprensione che in vero cominciai a tollerare la sua compagnia l'ascendente che egli aveva su di me giunse ad indurmi a dare un'occhiata dalla finestra sul di dietro a poco a poco accondiscesi a passare in un'altra stanza e di lì diedi una sbirciatina nella strada ma subito mi trassi indietro rabbrividendo in capa ad una settimana riuscì ad ad adescarmi fino a farmi scendere alla porta d'ingresso il mio terrore era andato via via diminuendo ma la ripugnanza e il disprezzo sembravano aumentare infine mi sentì abbastanza audace per passeggiare per le strade al suo fianco ma mi tappava accuratamente il naso con foglie di ruta o a volte di tabacco dopo dieci giorni Don Pedro a cui avevo fatto qualche accenno alle mie condizioni domestiche mi dichiarò che era per me obbligo d'onore e di coscienza di far ritorno al mio paese natale e vivere a casa mia con mia moglie e i miei figli mi disse che vera in porto una nave inglese pronta a far vela egli mi avrebbe provveduto di tutto il necessario sarebbe noioso riferire tutto quel che mi disse per convincermi e quel che io ribattei egli affermava che era assolutamente impossibile trovare un'isola solitaria come quella in cui avrei voluto vivere ma che a casa mia avrei potuto disporre di tutto al mio talento e trascorrere l'esistenza appartato quanto volevo acconsentì infine vedendo che non potevo far di meglio lasciai Lisbona il 24 novembre su di un mercantile inglese ma non mi curai di sapere chi fosse il comandante Don Pedro mi accompagnò sulla nave e mi prestò 20 sterline si congedò affettuosamente da me e al momento della partenza mi abbracciò cosa che sopportai come meglio potei durante quest'ultimo mio viaggio non ebbi contatti col comandante né con alcuno dei suoi uomini e con la scusa di essere malato me ne rimasi chiuso in cabina il 5 dicembre del 1715 gettammo l'ancora ai Downs verso le nove del mattino e alle tre del pomeriggio entravo sano e salvo nella mia casa a Rotterhide mia moglie e tutta la famiglia mi accolsero con gran sorpresa e gioia sicuri come erano che fossi morto ma devo francamente confessare che la loro vista mi riempì solo di ripugnanza disgusto e disprezzo tanto più quando riflettevo alla stretta parentela che mi legava a loro sebbene infatti dopo il mio sciagurato bando dal paese degli hoinum fossi stato costretto a sopportare la vista degli yahoo e a conversare con don pedro de mendes tuttavia avevo ancora la mente e la fantasia piene delle virtù e delle idee degli eccelsi hoinum e quando cominciai a riflettere che per essermi unito con una femmina di razza yahoo ne avevo generati altri mi senti colpito dalla vergogna dalla confusione e dall'orrore più profondi appena entrato in casa mia moglie mi strinse fra le braccia e mi baciò allora disabituato da tanti anni all'abbraccio di un così ripugnante animale caddi in un deliquio che durò quasi un'ora nel momento in cui scrivo sono passati cinque anni dal mio ultimo ritorno in inghilterra per tutto il primo anno non potei sopportare la presenza di mia moglie e dei miei figli tanto mi ripugnava il loro odore e tantomeno potei permetter loro di mangiare nella mia stessa stanza ancora oggi nessuno di loro osa toccare il mio pane o bere alla mia stessa coppa né mai ho potuto permetter loro di prendermi per mano il primo denaro che spesi fu per comprarmi i due giovani stalloni che tengo in una bella scuderia dopo di loro il mozzo di stalla è il mio preferito perché mi sento tutto rianimare dall'odore di stalla che gli rimane addosso i miei cavalli mi capiscono abbastanza bene chiacchiero con loro almeno quattro ore ogni giorno essi ignorano la briglia e la sella vivono in grande amicizia con me e si fanno l'un l'altro affettuosa compagnia capitolo dodicesimo veridicità dell'autore a qual fine egli ha pubblicato quest'opera suoi rimproveri a quei viaggiatori che si allontanano dal vero l'autore respinge ogni sinistra intenzione nello scrivere risposta ad un'obiezione sistema per fondar colonie lodi del suo paese natale sono legittimi diritti della corona sui paesi descritti dall'autore difficoltà di conquistarli l'autore si congeda definitivamente dal lettore espone il suo futuro tenor di vita suggerisce qualche buon consiglio e conclude così gentile lettore ti ho narrato una fedele storia dei miei viaggi durati sedici anni e poco più di sette mesi e in questo non ho badato tanto agli ornamenti quanto alla verità avrei forse potuto al pari di tanti altri sbalordirti con racconti strani e inverosimili ma ho preferito riferir fatti semplici nel più semplice stile mio principale intento era di informarti non di divertirti è facile cosa per noi che viaggiamo in remote contrade di rado visitate da inglesi o da altri europei descrivere meravigliosi animali di mare e di terra fine supremo di ogni viaggiatore dovrebbe essere invece rendergli uomini più saggi e migliori e giovare al loro spirito con la descrizione degli esempi buoni e cattivi tratti da terre lontane di cuore approverei una legge che obbligasse ogni viaggiatore prima di essere autorizzato a pubblicare i suoi viaggi a prestar giuramento dinanzi al lord primo cancelliere che tutto quel che si accinge a passare alle stampe è assolutamente vero per quanto gli consti allora il pubblico non sarebbe più ingannato come lo è di solito perché alcuni scrittori per dar maggior divulgazione alle loro opere spacciano all'incauto lettore le menzogne più grossolane nella mia gioventù ho scorso con grandi letto parecchi libri di viaggi ma oggi che sono andato in quasi tutte le parti del mondo e posso contraddire tanti favolosi racconti sulla base di quel che ho veduto coi miei occhi provo un grande disgusto per tutta questa produzione letteraria e mi sdegno nel vedere con quanta impudenza si abusi della credulità dell'uman genere perciò fin da quando le mie conoscenze ebbero la bontà di pensare che le mie povere fatiche non sarebbero state male accette al mio paese io mi imposi come massima da non perdere mai di vista di attenermi scrupolosamente alla verità né davvero potrei cadere nella minima tentazione di allontanarmi da essa finché avrò in mente le lezioni e gli esempi del mio nobile padrone e degli altri illustri oinom di cui per tanto tempo ho avuto l'onore di essere l'umile ascoltatore so benissimo quanto piccola reputazione si possa acquistare mediante scritti che non richiedono genio né dottrina né davvero alcun altro talento eccetto una buona memoria o un diario accurato e so anche che gli scrittori di viaggi come i compilatori di dizionari sono sepolti nell'oblio dal peso e dalla massa di coloro che vengono dopo e quindi sono in cima alla pila è quindi molto probabile che i viaggiatori i quali visiteranno nel futuro le regioni descritte in questa mia opera rilevando gli errori se ve ne sono e aggiungendo del proprio molte nuove osservazioni possono farmi cadere di moda e mettersi al mio posto facendo dimenticare al mondo che io abbia mai scritto qualche cosa questa sarebbe davvero una mortificazione troppo grande se io scrivessi per amor di fama ma poiché l'unica mia intenzione e il pubblico bene non posso averne il minimo rammarico chi infatti può leggere delle virtù dei gloriosi hoino da me ricordate senza vergognarsi dei propri vizi se appena considera di essere la creatura razionale dominante della terra in cui è nato non dirò nulla di quelle remote nazioni nelle quali gli yahoo hanno il comando la meno corrotta delle quali è quella dei brobding nagiani le cui sagge enorme di morale e di politica sarebbe per noi una fortuna poter imitare ma non voglio fare altri commenti e lascerò che il lettore assennato rifletta e metta in pratica per proprio conto non è per me piccola soddisfazione il pensare che probabilmente questa mia opera non avrà critici quali obiezioni infatti si potrebbero fare ad uno scrittore che si limita a riferire semplicemente quel che gli è accaduto in così remote contrade alle quali non ci lega alcun interesse commerciale o politico ho cercato accuratamente di evitare tutti quegli errori che spesso e così giustamente si rimproverano ai comuni scrittori di viaggi mi sono tenuto inoltre lontano da qualsiasi partito e ho scritto senza passioni prevenzioni o malvoleri contro qualsivoglia individuo o gruppo scrivo per il fine più nobile di informare cioè e ammaestrare il genere umano sul quale senza peccar di modestia posso vantare qualche superiorità in grazia dei vantaggi ricevuti da una così lunga conversazione con i più illustri hoinum scrivo insomma senza cercare alcun profitto né alcuna lode e mai mi sono lasciato sfuggire parola che possa apparir di biasimo o minimamente offendere anche i più suscettibili così spero di potermi giustamente considerare scrittore in tutto immune da censura e contro il quale la turba dei polemisti revisori osservatori commentatori denunziatori e annotatori non potrà mai trovare materia per esercitare i suoi talenti confesso di aver udito certi sussurri secondo i quali io avrei avuto il dovere come suddito inglese di consegnare un memoriale ad un segretario di stato non appena tornato in patria perché qualunque terra sia scoperta da un suddito inglese appartiene alla corona ma dubito assai che la conquista delle regioni di cui ho parlato sia facile come quelle di Ferdinando Cortez sugli inermi americani quanto ai Lillipuziani non mette conto a parer mio di affrontare le spese di una flotta e di un'armata per soggiogarli e mi domando se sarebbe prudente o sicuro aprirle ostilità con i Brobding Nagliani e se un esercito inglese si sentirebbe a suo agio con l'isola volante sulla testa gli Oinom a dire il vero non sembrano altrettanto ben preparati ad una guerra scienza loro assolutamente estranea specialmente per quel che riguarda le armi da getto tuttavia se fossi un ministro di stato non darei mai parere favorevole ad una loro invasione la loro prudenza la loro concordia la loro ignoranza di qualsiasi timore il loro amore per la terra natale supplirebbero ampiamente ad ogni difetto nell'arte militare immaginatevi ventimila di loro che facciano irruzione nel mezzo di un esercito europeo mettano in scompiglio le file rovescino i carriaggi mandino in poltiglia le facce dei guerrieri con i terribili calci sferrati dai loro zoccoli posteriori che ben meriterebbero quanto fu detto di Augusto recalcitrai un dinque tutus invece di proporre la conquista di quella magnanima nazione desidererei piuttosto che essa avesse la possibilità o il desiderio di mandare un numero sufficiente dei suoi abitanti a civilizzare l'Europa insegnandoci i principi elementari dell'onore della giustizia della verità della temperanza della solidarietà pubblica della fortezza della castità dell'amicizia della benevolenza della fedeltà virtù queste i cui nomi ancora si ricordano tra noi in quasi tutte le lingue e si possono incontrare negli scrittori moderni come in quegli antichi come posso asserire in base alle mie modeste letture ma un'altra ragione mi trattenne dal cercare di estendere i domini di sua maestà con le mie scoperte a dire il vero ho qualche dubbio relativamente alla giustizia distributiva dei principi in simili occasioni ad esempio una ciurma di pirati è spinta da una tempesta chissà dove alla fine un mozzo a vista terra dalla cima dell'albero maestro essi sbarcano per predare e mettere a sacco trovano un popolo inerme sono accolti con gentilezza danno al paese un nuovo nome ne prendono formale possesso in nome del loro re mettono in su una tavola tarlata o una pietra in memoria del fatto assassinano due o tre dozzine di indigeni ne portano via a forza un paio come campione tornano in patria e sono perdonati di qui ha inizio un nuovo dominio acquistato per diritto divino si mandano navi alla prima occasione gli abitanti sono scacciati o sterminati i loro capi messi alla tortura perché rivelino i propri tesori si autorizza ogni efferratezza e ogni lussuria la terra fuma del sangue degli abitanti e tale ignobile branco di beccai adoperato per così pia spedizione è quel che costituisce una colonia moderna mandata a convertire e civilizzare un popolo barbaro e idolatra ma devo dire che tale descrizione non può in alcun modo riferirsi alla nazione inglese che può essere di esempio al mondo intero per la saggezza la cura e la giustizia a cui si ispira nel fondar colonie per le sue generose dotazioni a favore della religione e del sapere per la sua scelta di pastori pii e atti a propagare la fede di Cristo per la prudenza nel rifornir dalla madre patria alle sue province di uomini onesti nella vita e nel linguaggio per la scrupolosa attenzione alla giustizia distributiva nel rifornire l'amministrazione civile in tutte le colonie con funzionari quanto mai esperti e incorruttibili e a coronare il tutto per la nomina dei più vigili e virtuosi governatori che a null'altro badano se non alla felicità del popolo che dirigono e all'onore del re e loro padrone ma poiché i paesi che ho descritto non sembrano avere alcun desiderio di essere conquistati e resi schiavi assassinati e messi in bando per lasciar posto ai coloni ne abbondano in oro argento zucchero e tabacco ho pensato umilmente che non potevano in alcun modo essere oggetto del nostro zelo del nostro valore o del nostro interesse tuttavia se coloro a cui la cosa maggiormente riguarda credono di dover pensare altrimenti sono pronta ad affermare quando si è chiamato a farlo per via legale che nessun europeo ha mai visitato quei paesi prima di me purché si possa dar fede agli abitanti a meno che non sorga una disputa intorno a quei due yahoo che a quanto si dice furono visti tanti secoli fa sulle montagne dell'Oinomlandia quanto poi alla formalità di prendere possesso di quei paesi in nome del mio sovrano non mi è venuta nemmeno in mente e se anche mi fosse venuta dato come stavano le cose molto probabilmente l'avrei differita a migliore occasione per prudenza e per istinto di autoconservazione dopo aver così risposto alla sola obiezione che mi si possa muovere come viaggiatore prendo qui il definitivo commiato da tutti i miei cortesi lettori e torno a goder delle mie meditazioni nel mio giardinetto di Red Reef a mettere in pratica le eccellenti lezioni di virtù apprese dagli Oinom ad ammaestrare gli yahoo della mia famiglia per quanto lo permetta la loro vocilità a guardarmi continuamente nello specchio e ad abituarmi così col tempo se sarà possibile a tollerare la vista di una creatura umana a dolermi dell'animalità degli Oinom del mio paese pur trattandoli sempre con rispetto per amor del mio nobile padrone della sua famiglia dei suoi amici e di tutta la razza Oinom a cui questi nostri hanno l'onore di somigliare in ogni linea del corpo sebbene il loro intelletto sia degenerato la settimana scorsa ho permesso per la prima volta a mia moglie di sedere a tavola con me all'estremità più lontana e di rispondere ma con la maggior brevità a poche domande che le rivolsi tuttavia l'odore di uno yahoo continua a darmi molta noia e mi tengo sempre il naso benturato con foglie di ruta di lavanda o di tabacco e sebbene sia difficile per un uomo ormai inoltrato negli anni mutare le antiche abitudini non ho perso ogni speranza di potere tra un po' di tempo sopportare che uno yahoo mio vicino mi tenga compagnia senza la paura che ancora provo dei suoi denti e dei suoi artigli la mia riconciliazione con la razza yahoo in generale potrebbe non essere tanto difficile se si contentassero di quei soli vizi e di quelle follie di cui li ha dotati la natura non mi sento per nulla irritato alla vista di un leguleio di un tagliaborse di un colonnello di un buffone di un pari di un giocatore di un politicante di un padrone di postribolo di un medico di un falso testimone di un subornatore di un procuratore di un traditore e via di seguito tutto ciò è nell'ordine naturale delle cose ma quando vedo un cumulo di deformità a editare fisiche e morali tutto confiarsi di orgoglio questo supera immediatamente ogni limite della mia sopportazione nemmai riuscirò a capire come possano combaciare una tal bestia e un tal vizio i saggi e virtuosi oinom che possiedono a dovizia tutto ciò che di più eccellente può adornare un essere razionale non hanno nella loro lingua una parola per designare questo vizio dell'orgoglio né altri termini per indicare tutto ciò che è male eccetto quelli con i quali esprimono le indegne caratteristiche dei loro yahoo e tra quelle essi sono riusciti a scorgere l'orgoglio non petendo penetrare a fondo la natura umana quale si rivela in altre regioni di questo animale impera ma io che avevo più esperienza potei facilmente osservare qualche rudimentale espressione di tale vizio fra gli yahoo selvaggi gli oinom che vivono che vivono sotto il dominio della ragione non vanno superbi delle loro buone qualità più di quanto potrei farlo io per non mancar di un braccio o di una gamba cosa di cui solo un dissennato potrebbe vantarsi sebbene il mancar di tali membra sia una vera infelicità insisto su questo punto perché desidero rendermi in qualche modo sopportabile la compagnia di uno yahoo inglese e qui prego dunque tutti coloro che sono un po' intinti in questo vizio assurdo di star lontani da me